In un famoso passo del 1916, Sigmund Freud sostenne che l'età contemporanea è figlia di tre grandi ferite narcisistiche, quella galileiana innanzitutto che ha spodestato l'uomo dal centro dell'universo, poi quella darwiniana che lo ha deposto dal centro della creazione della vita e infine immodestamente la sua, quella freudiana, per cui l'io non è più padrone nemmeno a casa propria, cioè dentro la testa. In realtà, come scrisse il grande saggista John McPhee, Freud si era dimenticato una quarta ferita narcisistica inferta contro l'antropocentrismo, e cioè la scoperta del tempo profondo. Stiamo parlando di quel processo di coraggiosa indagine naturalistica che portò i geologi tra il 700 e l'800, ovviamente con qualche predecessore inascoltato, a convincersi che la Terra era molto più antica di quanto prevedesse la cronologia biblica, ma davvero molto più antica di diversi ordini di grandezza rispetto ai 4-5 mila anni previsti dai testi sacri. Il primo a teorizzarlo esplicitamente era stato un geologo scozzese, James Hutton, nel 1788. Osservando i meccanismi di trasformazione della crosta terrestre, aveva detto, si assiste a un lentissimo processo che, scrisse Hutton, non ha vestigia di un principio né indizi di una fine, cioè una specie di vertigine temporale nella quale l'attimo presente è quasi un nulla. Secondo Hutton, dai cambiamenti in atto sulla Terra oggi, come i terremoti, le eruzioni vulcaniche, le erosioni, si poteva arguire che cosa era successo in passato. Questo perché il mondo è una macchina in movimento da sempre con cicli di erosione, deposizione, sollevamento e così via. Fu così che nel giro di pochi decenni, grazie al lavoro non soltanto di geologi, ma anche di naturalisti, teologi, archeologi, storici, si capì che la Terra doveva avere diversi milioni di anni alle sue spalle. E dunque la specie umana era solo un piccolo frammento temporale recente dentro una vastità sterminata di ere geologiche, come una sorta di sottile pellicola sopra l'oceano del tempo profondo. Qualche anno dopo, un altro geologo scriverà che, come Newton ci ha svelato l'immensità dello spazio, così i geologi tra 7 e 800 hanno scoperto l'immensità del tempo. E questo ci lascia attoniti e smarriti, perché non siamo capaci di concepire estensioni così sconfinate, di vedere mondi al di là di altri mondi, tanto nello spazio quanto nel tempo. L'autore di questo bellissimo parallelismo tra lo spazio profondo e il tempo profondo si chiamava Charles Lyell, che scrive di questo nel suo capolavoro, I principi di geologia, usciti tra il 1830 e il 1833. Charles Lyell era nato anche lui come Atton in Scozia nel 1797 da una ricca famiglia e aveva fatto studi di legge, studi classici, tanto che poi era diventato avvocato. Era un abilissimo oratore che decise però di mettere al servizio questa oratoria della geologia più che dell'avvocatura, che era la sua vera passione. Seguì le lezioni di William Buckland, fece un viaggio di osservazioni geologiche in Francia e in Italia, osservando per esempio i nostri vulcani, il Vesuvio, e l'Etna, insieme con Roderick Murchison, quindi un alto grande dell'epoca, lavorando sulla stratigrafia. Nei primi anni 30 dell'Ottocento scrisse appunto i tre volumi dei principi di geologia che in pratica divennero la fondazione della geologia moderna, che poi lui revisionò per 11 edizioni fino a tutto il resto della sua vita. Nel 1831 era già al King's College di Londra e da quel momento la sua carriera decollò. Nel 1834 ricevette la medaglia della Royal Society, nel 35 diventa il presidente della Geological Society e tre anni dopo scrive gli elementi di geologia che sono un manuale di stratigrafia, di paleontologia e di metodologia che poi è stato usato per tantissimo tempo da tutte le università nel mondo. Charles Lyle ha peraltro coniato i termini fondamentali che si usano ancora adesso per etichettare per esempio le ere geologiche. Ma in cosa consisteva la novità del suo metodo? Charles Lyle è il geologo che più di ogni altro ci ha fatto comprendere le vastità disorientanti del tempo profondo. Il suo metodo è un'applicazione di quanto già aveva detto Hutton nel Settecento e si chiama uniformitarismo. È una parola difficile ma in pratica consiste nello spiegare i precedenti e antichissimi cambiamenti della superficie terrestre facendo riferimento soltanto a cause e meccanismi che siano attualmente in corso e quindi che siano osservabili e quantificabili. Detto in altro modo, quello che è successo nel passato è una estensione, moltiplicata per tantissimo tempo, di ciò che vediamo in atto adesso sulla Terra. Quindi il vulcanismo, i movimenti dei ghiacciai, l'erosione, la formazione delle valli fluviali, ciò che lentissimamente sta succedendo adesso, spiega ciò che è avvenuto in modo altrettanto lento e graduale nel passato. Era un'idea in piena coerenza con la tradizione dell'empirismo scozzese, con quello che ci aveva insegnato David Hume sul metodo induttivo che da osservazioni singole ti permette di generalizzare delle leggi, naturalmente con molti rischi perché poi non sei mai sicuro fino in fondo che queste leggi si applichino a tutti. Però qua l'idea era abbastanza chiara, il presente osservabile oggi diventa una chiave di lettura per il passato, il che presuppone che l'evoluzione della Terra sia stata sempre continuativa, graduale, senza salti né catastrofi. Secondo Lyle, le stesse leggi, gli stessi processi in atto oggi hanno agito in passato. È una versione, molto ragionevole, a prima vista, del principio di parsimonia, cioè non ipotizzare cause nuove o speciali se puoi spiegare il processo con le cause osservabili nel presente. L'ambizione di Lyle era quella di portare la geologia nell'alveo delle scienze esatte, fornendo un elenco delle cause precise che portano alle trasformazioni della crosta terrestre. Un presupposto di base di questo uniformitarismo è quindi che non si debbano presupporre eventi speciali per spiegare il passato lontano della Terra, che deve essere stato un lento accumulo di piccoli cambiamenti. Questa metodologia poneva Lyle in diametrale contrapposizione quindi con la scuola francese, in particolare la scuola di Georges Cuvier, il grandissimo anatomista e paleontologo che al contrario a Parigi nel 1813 aveva formulato una teoria sul passato geologico basata sulle cosiddette rivoluzioni della superficie terrestre, cioè grandi catastrofi che secondo Cuvier erano dovute a inondazioni che di tanto in tanto avevano sconvolto la Terra, spazzando via piante e animali delle epoche precedenti e facendo ripartire da zero l'orologio della creazione. Cominciava così una sfida, una dialettica tra la scuola britannica e la scuola francese che poi durò per decenni. Per Charles Lyle la teoria catastrofista di Cuvier e dei francesi era assurda, con la sua retorica affilata da avvocato, la definiva addirittura un invito all'indolenza, perché anziché spiegare pazientemente i fatti con i dati disponibili oggi si limitava a presupporre cause eccezionali di cambiamento non necessarie, un po' come tagliare il nodo di Gordio anziché scioglierlo parte per parte. Da un certo punto di vista Lyle aveva ragione, perché la teoria di Cuvier era molto speculativa, speculativa sulle cause che avevano portato a questi grandi sconvolgimenti, a questi turnover di specie, ma c'era un problema. Il problema era che Cuvier nel bacino della Senna, facendo le sue osservazioni e le sue ricerche, aveva ricostruito delle stratigrafie molto precise sulle successioni delle flore e delle faune, quindi delle piante e degli animali, nei milioni di anni, facendo vedere che le cesure, le rotture tra un'epoca e l'altra erano molto nette, quindi qualcosa lì doveva essere successo. Per i gradualisti come Lyle, quelle transizioni brusche nella documentazione fossile erano da interpretarsi soltanto come un'illusione dovuta alla scarsità dei dati. Guardate meglio, diceva Lyle, e scoprirete che sotto sotto c'è un processo lento e graduale. Alla fine questa idea prevalse e la scuola anglosassone di Lyle dominò per più di un secolo la geologia, sbaragliando il catastrofismo di Cuvier, considerato poi da tutti come poco scientifico. Ma la storia della scienza riserva qualche volta delle sorprese e anche dei capovolgimenti, perché a partire dagli anni 70 del 900, quindi un sacco di tempo dopo, si è cominciato a dubitare della perfetta gradualità nella successione delle flore, delle faune, dell'antico passato. Prima la scoperta che l'estinzione dei dinosauri poteva essere stata causata dall'impatto di un asteroide, di cui si è parlato molto. Poi le evidenze delle perturbazioni ecologiche su larga scala, causate per esempio da grandi eruzioni vulcaniche, oppure dalla deriva dei continenti, da grandi cambiamenti climatici. Insomma, tutte queste scoperte hanno fatto capire agli scienziati che in effetti qualche volta, raramente però succede, l'evoluzione fa grandi sobbalzi, durante i quali molte specie si estinguono, a volte addirittura due terzi di tutte le specie, o addirittura l'80 al 90 per cento, e a partire dai pochi sopravvissuti alla catastrofe riparte il motore della biodiversità. Oggi questi fenomeni globali hanno un nome, si chiamano estinzioni di massa, cinque sono state le più gravi, le maggiori in passato, e guarda caso coincidono esattamente con le cesure drammatiche e le rotture di continuità che Georges Cuvier aveva visto nei sedimenti del bacino della Senna. Dunque aveva visto giusto il francese, anche se poi la sua spiegazione creazionista ovviamente non era scientifica. Le estinzioni di massa sono eventi eccezionali, relativamente rapidi e poco selettivi, perché gli ecosistemi in quei casi lì cambiano troppo rapidamente e non sopravvive tanto il più adatto alle condizioni precedenti, perché non c'è tempo, perché la selezione naturale faccia il suo mestiere. Sopravvive piuttosto il più fortunato, oppure il più opportunista, quello che riesce a cavarsela in circostanze che mutano molto rapidamente. Quindi l'uniformitarismo di Lyell vale sì per le leggi e i processi in atto sulla Terra, ma non per la velocità del cambiamento, perché talvolta il convergere di parametri geofisici particolari, per esempio alterazioni nella composizione dell'atmosfera, cambiamenti climatici accelerati, uniti a stress ecologici improvvisi, come appunto la caduta di un asteroide, produce sconvolgimenti rapidi e su larga scala. E a guardar bene, noi Homo Sapiens non saremmo qui se non ci fosse stata l'ultima grande estinzione di massa 65 milioni di anni fa. E questo Charles Lyell, a metà dell'Ottocento, proprio non l'aveva previsto. E' molto utile, io credo, citare le parole che figurano sul frontespizio della prima opera di Darwin, Il viaggio di un naturalista intorno al mondo. Dedico con grato animo, scrive l'autore, questo mio libro a Charles Lyell, ben riconoscendo che la maggior parte di quel valore scientifico che questo giornale di viaggi ed altre mie opere possono avere, deriva dall'attento studio della famosa e ammirevole opera Principi di Geologia. Darwin è uno studioso profondamente originale, come tutti i grandi uomini del resto, ma nell'impianto metodologico di tutti i suoi scritti sull'evoluzionismo l'insegnamento di Lyell rimane ben riconoscibile. Un legame profondo univa Charles Lyell a un altro Charles famoso, cioè Charles Darwin, che era di 12 anni più giovane. Il naturalista inglese voleva essere considerato un geologo come sua prima formazione e così si definisce nei suoi tacquini giovanili, quindi non un biologo né uno zoologo ma un geologo. E in effetti le prime pubblicazioni di Darwin, tornato dal suo famoso viaggio attorno al mondo con il Beagle, furono di geologia. Perché questo? Perché la geologia per Darwin fu cruciale almeno per tre ragioni. Innanzitutto perché la geologia spalancò al futuro evoluzionista appunto le possibilità del tempo profondo della Terra, un tempo lunghissimo durante il quale la lenta trasmutazione delle specie ipotizzata da Darwin poteva essersi dispiegata effettivamente. In secondo luogo la geologia dava a Darwin l'idea che la superficie terrestre è sempre stata un contesto instabile che modifica gli ambienti e così favorisce l'evoluzione. Per esempio i mari e gli oceani che si alzano e si abbassano, le eruzioni vulcaniche che cambiano per certi periodi addirittura il clima terrestre. Darwin sperimentò sulla sua pelle un terremoto mentre era in viaggio in Cile, assistette a un terremoto catastrofico a Valdivia, quindi capisce che il mondo è in movimento e questo favorisce il cambiamento evolutivo. Ma poi c'è una terza ragione per la quale la geologia è stata fondamentale per la teoria darwiniana e qui entra in scena appunto Charles Lyell perché per Darwin la geologia era un modello di scienza naturale da copiare, da emulare, perché Darwin voleva trasformare la biologia proprio come Lyell aveva trasformato la geologia, dandole cioè delle leggi universali, degli schemi di spiegazione che valessero in tutte le circostanze. Da qui l'adesione convinta di Darwin appunto all'uniformitarismo, al gradualismo di Lyell e all'idea che anche l'evoluzione biologica, come quella della Terra, fosse sempre stata un processo continuativo, molto lento, graduale, senza salti né scossoni improvvisi, dove si vedevano discontinuità e rotture per Darwin, il problema era della documentazione paleontologica che era imperfetta e non della teoria, proprio come aveva detto Lyell. Le bambini devono essere il prodotto di tanti e tanti e tanti di soli risi che succedono ancora e ancora durante la storia. Anche anche nella città dell'Ande, abbiamo trovato rimane marini. Le fossilizzato di creature che all'inizio scuole all'inizio all'inizio, dell'inizio all'inizio, elevato a quasi 14.000 metà sull'inizio. Il tempo, le tracce di tempo non immaginabili, sono la clave. Darwin, nelle sue opere, cita una metafora molto famosa di Lyell, che dice questo, dice i biologi, gli evoluzionisti, così come i geologi, sono degli scienziati che studiano un libro, mettiamo di 500 pagine, ma lo leggono in modo frammentario, lo leggono a pagina 1, poi a pagina 50, poi a pagina 150. E leggendo un libro così è chiaro che ti sembra che ci siano dei grandi salti, ma in realtà è soltanto perché non conosci tutte le pagine intermedie. Darwin si portò sul suo famoso brigantino in viaggio nei mari del sud proprio i principi di geologia di Lyell, che si mise a leggere avidamente e si fece spedire dalle sorelle i diversi volumi che uscivano mano a mano mentre lui era ancora in viaggio. E la geologia di Lyell divenne praticamente lo sfondo per la teoria evoluzionistica darwiniana, una teoria che poi in realtà Lyell fece una certa fatica ad accettare, perché quando Darwin poi tornò dal viaggio iniziò a pubblicare articoli non di biologia sull'evoluzione ma proprio di geologia, sulla Cordilliera delle Ande, sugli atolli corallini. Darwin entrò nella geological society e Lyell divenne praticamente il suo mentore, il suo maestro. Darwin si fidava molto di lui, divennero poi amici di famiglia e Lyell è uno dei primi ai quali Darwin confessò segretamente le sue idee evoluzionistiche. Sulle prime Lyell non capì bene la portata delle scoperte del collega, però con una certa correttezza lo spronò a proseguire e a pubblicare, cosa che però Darwin non fece fino a molto tempo dopo, cioè al 1858, quando ormai era tornato dal viaggio da più di vent'anni e quando gli era arrivata, come sappiamo, in questo famoso episodio, come un fulmine a ciel sereno, la missiva di un giovane naturalista di nome Alfred Wallace dall'Indonesia in cui si scopriva che questo Wallace era arrivato alle stesse conclusioni di Darwin. E a quel punto Charles Lyell ebbe un ruolo fondamentale perché con la sua saggezza e la sua capacità diplomatica convince Darwin a farsi mandare una sintesi della sua opera e a leggerla pubblicamente insieme allo scritto che Wallace aveva mandato dall'Indonesia. Questo succedeva il primo di luglio del 1858 nella seduta estiva della Lillian Society. Quindi la prima enunciazione della teoria dell'evoluzione per selezione naturale di Wallace e Darwin avvenne proprio sotto l'egida di Charles Lyell. Poi in realtà tra Darwin e il suo maestro Lyell non fu sempre concordia. Su un tema in particolare litigarono aspramente e cioè la schiavitù. Questo perché tra il 1841 e il 45 Lyle, che ormai era una star internazionale a quel tempo molto più di Darwin, compì diversi viaggi proprio in Nord America annotando in un paio di libri le sue impressioni e giudicando in modo abbastanza blando il comportamento degli schiavisti degli stati del sud che a suo avviso trattavano in modo umano i loro schiavi. Darwin, che era un fervente abolizionista, fu scandalizzato da queste parole e, caso abbastanza raro, rimbrottò per la prima e forse unica volta il suo maestro Charles Lyell. Charles Lyell aveva portato il suo gradualismo alle estreme conseguenze, sostenendo che non solo le leggi e i processi della storia della Terra dovevano essere sempre gli stessi, ma anche la velocità del cambiamento. Un'idea poi smentita dalla scoperta appunto delle grandi estinzioni di massa. E secondo Lyle doveva essere uniforme anche lo stato globale della Terra. Per lui la storia della Terra non aveva una direzione progressiva, ma solo fluttuazioni marginali e anche cicli di ritorno. Per cui in teoria antiche faune potrebbero anche ricomparire, scrisse Lyle, compresi i guanodonti nei boschi, ittiosauri nel mare e pterodattiri in volo. Questa bizzarra teoria gli valse una famosa vignetta satirica di Henri de la Besche che nel 1830, per prendere in giro Lyle, disegnò un professor ittiosauro che fa lezione a una classe di giovani ittiosauri, mostrando il cranio fossile di un uomo estinto, spiegando che una volta la Terra era abitata da queste strane creature bipedi a sangue caldo con una pessima dentatura che poi si sono estinte. Una specie di mondo alla rovescia con questo eterno ritorno. Ma come si spiega questa stranezza di questa idea del ritorno di alcuni animali estinti? Perché a Lyle creava qualche problema filosofico, l'idea della imprevedibilità e irreversibilità della freccia del tempo, in altre parole della contingenza della storia evolutiva, che ha portato sì fino a noi, ma poteva benissimo andare in altre direzioni, un'idea difficile da accettare a quel tempo. Lyle aveva avuto qualche difficoltà ad accettare anche un'altra idea, e cioè l'applicazione della teoria di Darwin, suo allievo per tanti aspetti, alla specie umana. Poi però, dopo molti travagli e ritrosie, tra il 1858 e il 1862 diventa anche lui un evoluzionista. E nel 1863 pubblica un libro importante sull'antichità dell'uomo, in cui introduce nella geologia appunto del quaternario dell'ultima epoca le radici evolutive dell'umanità, anche se poi cerca di renderle compatibili con le sue salde credenze religiose, sostenendo che il gap, la lacuna cognitiva tra l'uomo e gli altri animali, rimane un mistero, un profondo mistero. E Darwin quindi rimarrà molto deluso per la troppa cautela del maestro sul potere della selezione naturale, e pubblicherà poi lui nel 1871 il famoso libro sull'origine dell'uomo, che però venne dopo il libro di Lyle. Lyle nel frattempo era diventato baronetto nel 1864 e qualche anno dopo la sua parabola terrestre finisce. Lui muore il 22 febbraio del 1875 e viene sepolto nell'abbazia di Westminster, sette anni prima di Darwin. A testimonianza della sua influenza scientifica enorme. A lui sono dedicati una montagna in California, nel parco nazionale di Yosemite, il monte Lyle in Canada, un altro in Tasmania, la terra di Lyle in Groenlandia, il ghiacciaio Lyle in Georgia del Sud, ma anche il cratere Lyle nel mare della tranquillità sulla luna. C'è un cratere Lyle anche su Marte e sono state chiamate con il suo nome anche una specie di pesce e molte altre diciamo caratteristiche e montagne e fiumi in tutto il mondo. A lui dobbiamo una vertigine tutto sommato, la vertigine della scoperta del tempo profondo e il conseguente smarrimento di sentirsi un non nulla nell'oceano delle ere geologiche. Smarrimento che poi noi umani cerchiamo di esorcizzare in tutti i modi pensando per esempio che tutta questa storia dovesse portare necessariamente fino a noi. Qualche anno dopo la morte di Lyle, Mark Twain scriverà una satira pungente proprio sulle nostre tentazioni antropocentriche, citando proprio il dibattito sul tempo profondo. L'uomo esiste da 32 mila anni, scrive Mark Twain. Il fatto che siano occorse centinaia di milioni di anni per preparare il mondo per lui è una prova del fatto che esso fu creato per l'uomo. Suppongo che sia così, non lo so di sicuro, aggiunge con sarcasmo Mark Twain. E poi usa una metafora molto bella, dice se la torre Eiffel rappresentasse l'attuale età del mondo, lo strato di vernice sulla punta del suo pinnacolo rappresenterebbe la durata dell'uomo. E tutti percepirebbero che quel sottile strato fu ciò per cui fu costruita la torre Eiffel. Io credo che lo percepirebbero, ma non lo so di sicuro. Ecco, noi siamo come l'ultimo strato di vernice in cima alla torre Eiffel e dobbiamo questa consapevolezza proprio a Charles Lyle. Oggi il cattivo, il criminale, il pazzo e l'assassino ci vengono presentati in televisione tutti i giorni, quasi, all'ora di cena. Li guardiamo, li scrutiamo, a volte la loro faccia ci sembra proprio normale, come quella di tutti gli altri, e ci stupiamo. Come può uno che ha il mio stesso aspetto avere commesso quelle atrocità? E immancabilmente poi i giornalisti intervistano i condomini, subito i pronti a dire che quel signore era proprio un ottimo vicino di casa, di pianerottole, chissà che cosa gli è preso. E allora insoddisfatti torniamo a guardarlo, quel soggetto, e certe volte ci sembra proprio che nello sguardo, magari un po' torvo, nella fisionomia o persino nella forma del cranio, a guardar bene, in effetti, ci sia qualcosa di strano, qualche deformità che poteva farci prevedere la sua natura nascosta, potremmo dire, di criminale. Così facendo, subito nel dibattito veniamo accusati di essere lombrosiani, di volere cioè cercare i tratti lombrosiani, le stimmate, potremmo dire, della follia omicida. Ma perché citiamo sempre Lombroso? E chi era questo Lombroso? Di sicuro è stato uno degli scienziati italiani più famosi, anche all'estero, e uno dei più fraintesi. Per molti ancora oggi è il protagonista di una vera e propria leggenda nera. Cesare Lombroso nasce a Verona il 6 di novembre del 1835, quindi esattamente 180 anni fa, da una famiglia ricca, ambiente ebraica, di commercianti. Si laurea in medicina a Pavia nel 1958, studia poi anche a Padova e a Vienna. Si appassiona moltissimo alle scienze naturali e in particolare all'anatomia patologica. Fa il medico militare durante la seconda guerra di indipendenza e partecipa alla lotta, al brigantaggio. Poi inizia la sua carriera accademica a Pavia, inizialmente come medico esperto di pellagra, la malattia di chi abusava della polenta, una piaga dei contadini del nord, che noi oggi sappiamo che è dovuto al fatto che si assimilano troppe poche vitamine del gruppo B, ma che a quel tempo, nell'Ottocento, non si conoscevano le cause sostanzialmente. E poi, piano piano, come esperto di malattie mentali. Lombroso adotta una metodologia sperimentale il più possibile rigorosa, secondo i canoni di quella che allora era la razionalità positivista. Lombroso è stato un grande positivista. Voleva scoprire niente meno che la fisiologia del nostro pensiero. Insegna clinica delle malattie mentali e antropologia e per qualche anno fa anche il direttore del manicomio di Pesaro. Un anno importante nella sua vita è il 1876, perché è il momento in cui si trasferisce a Torino, perché lì vince la cattedra proprio di igiene e medicina legale. Insegna sia ai medici che ai giuristi. E nel 1891, quindi ormai stiamo andando verso la fine del secolo, è Lombroso a inaugurare il primo insegnamento in Italia di antropologia criminale. A tutti Lombroso è noto per la teoria, secondo cui essere criminali è un dato biologico, ereditario, determinato e addirittura osservabile in alcune caratteristiche anatomiche. Insomma, criminali si nasce. In realtà il suo pensiero è un po' più complesso di così e anche più contraddittorio. Lombroso scrisse testi divulgativi che avrebbero un grandissimo successo, da buon positivista interessato al progresso civile della società e tenne anche quelle che lui chiamava conferenze per signore, sui suoi temi prediletti che spesso suscitavano interessi anche un po' morbosi, diciamo. Alla fine dell'Ottocento aderì al socialismo, teniamolo presente questo perché è poco noto, cominciando peraltro a modificare anche un po' le sue teorie, concedendo un po' di più anche all'importanza dell'ambiente. Negli ultimi anni di vita il materialista e ateo Lombroso si appassionò addirittura allo spiritismo, non senza una certa incoerenza, va detto, però era in buona compagnia perché anche altri grandi naturalisti come per esempio Alfred Russell Wallace, che era stato quello che aveva scoperto l'evoluzione per selezione naturale insieme con Darwin, anche lui era un appassionato di spiritismo. La parabola biografica di Lombroso si chiude a Torino proprio il 19 di ottobre del 1909 e i suoi libri, famosissimo L'uomo delinquente che ebbe tante edizioni, ma anche L'uomo di genio, La donna delinquente, Gli anarchici, sono stati tradotti in tante lingue e lui divenne una sorta di star internazionale, uno degli scienziati italiani più noti all'estero. Il nostro corpo ha delle proporzioni che se non sono rispettate, indicano sempre dei disturbi, delle mancanze. Passanante ha 29 anni ed è vissuto a lungo a Napoli, è alto un metro e 63 e pesa 51,5 kg contro i 65 della media dei napoletani. Questo indica un'estrema gracilità, uno stato più vicino alla malattia che alla salute. La capacità generale cranica, altro dato importantissimo, è 1513, inferiore alla media che è circa 1600. Come dire, una gracilità anche di mente. Per dire la verità lo sguardo a una strana fissità sembra lontano, perduto. Gli occhi sono piccoli, infossati più distanti del normale, gli zigomi molto sviluppati e anch'essi distanti. Il viso è allargato agli zigomi, la barba scarsa, tutti i caratteri che io ho spesso ritrovato sia nel pazzo che nel delinquente. Lei ritiene l'esame del volto decisivo per determinare la salute mentale di una persona? Una realtà così complessa e soprattutto così mutevole da chiusa negli inamenti della faccia? La fisionomia, che io giudico una scienza, ha attribuito sempre enorme importanza al volto perché è lì che si manifestano le passioni, più che in ogni altra parte del corpo. È lì che si riconoscono le qualità e i difetti. Cesare Lombroso era un raccoglitore fanatico, collezionava di tutto, in particolare crani e cervelli umani, fin dal 1859, quando faceva il medico nell'esercito, prima piemontese e poi italiano. Centinaia e centinaia di crani, di pazzi e di criminali morti nei manicomi e in carcere. Questo lo scrive lui proprio in una lettera. Nel gabinetto antropologico-psichiatrico dell'ospedale maggiore di Pavia, già dagli anni 60 dell'Ottocento, faceva fare poi ritratti o anche calchi in gesso o cera dei volti dei cadaveri sottoposti ad autopsia. Spesso erano soltanto malati di pellagra oppure soldati, però con l'andare degli anni aumentarono sempre di più i ritratti di criminali. Lui ne studiava le fattezze, ricostruiva le loro storie delinquenziali fin da ragazzi, raccoglieva informazioni, cercava di associare poi le tipicità del comportamento criminale a tratti anatomici e fisiognomici. E poi scriveva le loro storie. Questo è molto importante. Storie criminali, che poi diventeranno popolari in tutto il mondo. Storie di criminali che poi a volte nei testi divulgativi venivano un po' ingigantite nel loro profilo clinico, perché poi spesso questi soggetti non erano altro che ladruncoli di provincia o piccoli brigantelli. Il cranio del brigante Gasparone, per esempio, che aveva furoreggiato nei territori dello Stato Pontificio, gli venne donato niente meno che da Camillo Golgi, che poi sarà premio Nobel per la medicina nel 1906. L'ombroso nel 1864 esamina, già cadavere, il corpo del cosiddetto brigante Giuseppe Villella. E qui inizia una storia interessante. Un brigante originario di Motta Santa Lucia, in Calabria. Sulle prime non notò nulla di particolare. Ne descrisse, come al solito, le fattezze e le imprese di ladro e di bugiardo, piuttosto isolato e taciturno, scrive l'ombroso. Però poi succede che sei anni più tardi, nel 1870, riprendendo in mano il cranio, l'ombroso ha un'illuminazione. Nota nella parte posteriore, in basso, dove c'è l'impronta del cervelletto, una fossetta anomala, un po' particolare, oltre alle due solite normali. L'impronta in Giuseppe Villella è trilobata. Per l'ombroso è la prova che nella testa dei criminali si nasconde una reminiescenza, una sorta di permanenza di tratti anatomici ancestrali, cioè di forme somatiche che si trovano anche nelle scimmie, e in particolare nei lemuri, secondo l'ombroso, che peraltro sono imparentati un po' più alla lontana con noi, e nei feti di cinque mesi. Si convince, in pratica, che il criminale umano è affetto da quello che si chiama atavismo, cioè presenta questi comportamenti violenti antisociali perché trattiene dentro di sé caratteri evolutivamente antichi, cioè mostra in pratica, come dice lui stesso in un testo, i feroci istinti dell'umanità primitiva e degli animali inferiori. Questi caratteri atavici sono osservabili, secondo l'ombroso, nelle scimmie e nei feti. Perché questa stranezza? Perché allora era in voga, era una teoria, oggi superata, secondo cui l'ontogenesi, cioè in pratica lo sviluppo del singolo individuo, ricapitola la filogenesi, cioè l'evoluzione della specie. In pratica, una frase famosa di l'ombroso, i criminali sono scimmie in mezzo a noi, lui scriveva nei suoi libri. Ora, il cranio con la fossetta di Villella divenne a questo punto la prova regina, una sorta di reliquia scientifica per l'ombroso. L'atavismo, o anche reversione si può dire, in natura noi oggi sappiamo esiste davvero e ogni tanto nell'evoluzione emergono nelle specie dei tratti antichi che erano in qualche modo sopiti o dormienti. E già Darwin ne parlava nei suoi libri, che l'ombroso peraltro aveva letto molto attentamente. Però la teoria di l'ombroso, va detto, su Villella non poteva reggere, non era corretta. Innanzitutto perché la fossetta fa parte della normale variabilità anatomica degli esseri umani in quella parte del cranio. Quindi l'ombroso prese proprio anche tecnicamente un abbaglio. Ma soprattutto non poteva reggere la sua idea perché era viziata da quella tipica visione ottocentesca progressionista, cioè vedere il mondo e l'evoluzione con una grande catena di avanzamento dagli animali all'uomo, dal selvaggio all'uomo civilizzato. In tal senso per l'ombroso il criminale doveva essere un individuo nato in uno stadio precedente dell'evoluzione in pratica, un selvaggio in mezzo alla civiltà, un anello mancante nella grande catena dell'essere. Era un'idea molto forte, quasi irresistibile nell'antropologia ottocentesca e durerà peraltro anche molto tempo dopo. A riprova di ciò l'ombroso nel 71 prese parte anche proprio al dibattito sulla teoria dell'evoluzione di Darwin che non solo lui accettò ma ritenne di avere rafforzato con la scoperta dell'atavismo dei briganti come ulteriore prova del fatto che era esistito un antenato comune tra le scimmie e l'uomo. L'ombroso è da sempre un personaggio discusso, ha fondato la criminologia come disciplina autonoma e che poi ha esteso facendola diventare una antropologia criminale. Il centro di attenzione per lui non è più il crimine in sé come peccato, come colpa, ma il soggetto delinquente e perché lo fa e questo è molto importante. In realtà il suo approccio era un po' disordinato perché lui assemblava dati e saperi in un modo non sempre coerente e quindi incappò in una contraddizione di fondo perché voleva istituire uno studio scientifico dell'uomo criminale ma a suo tempo non aveva dalla sua parte una scienza diciamo metodologicamente all'altezza e quindi i rischi di prendere cantonate, di fare degli errori erano molto alti. Spesso usa dati di seconda mano, aneddoti, più impressioni diciamo che evidenze scientifiche. Diciamo per farla semplice che oggi i saggi di Lombroso probabilmente non verrebbero accettati da una rivista scientifica accreditata e lui infatti fu anche criticato in vita, fu accusato di riduzionismo e si lamentò spesso di non essere capito e come capita talvolta lui pensava di essere troppo avanti insomma rispetto alla scienza dell'epoca. I francesi in particolare, i suoi colleghi francesi, gli rinfacciavano che stava sottovalutando troppo le influenze dell'ambiente, della società e delle storie di vita sulle carriere dei criminali. E se ci pensiamo bene questo è un dibattito ancora molto attuale oggi, più di un secolo dopo, perché salta fuori ogni volta che le cronache ci raccontano di un delitto efferato. Poi c'è anche una seconda contraddizione interessante in Lombroso, di tipo più politico, perché lui studiava le patologie sociali con lo spirito di un progressista, di un riformista, abbiamo visto che aderì al partito socialista, quindi senza giudizi morali o religiosi, perché in fondo per lui essere criminali era una questione innata, quindi senza colpa e anche difficile da punire. Però poi le applicazioni delle sue idee finirono comunque per generare strumenti di repressione, di segregazione del diverso, del deviante, del folle, non meno umilianti e inaccettabili per la nostra sensibilità attuale. Questo diciamo per quanto riguarda i limiti dell'opera di Lombroso, però non dobbiamo esagerare, nel senso che non dobbiamo travaricare l'esame della realtà storica. Non lo si può accusare per esempio di razzismo nel senso odierno del termine, perché Lombroso studiò sempre casi individuali, a lui interessava il soggetto singolo criminale, anche se ovviamente nei suoi lavori parlava delle razze umane come lo facevano tutti a quel tempo. E poi dobbiamo dargli atto che a modo suo lui diede voce per la prima volta ai folli e ai criminali, mostrandone per esempio anche le opere di genio, la creatività. E visto che gli interessavano come soggetti, tutto sommato ne mostrò anche l'umanità profonda. Cesare Lombroso, abbiamo visto, collezionava di tutto, crani, scheletri e altri resti antropologici in modo quasi compulsivo, persino con modi non tanto legittimi, come lui stesso confessò, perché andavano anche in giro nei cimiteri un po' di tutta Italia a raccogliere di tutto. Quando si trasferisce a Torino, nel 1876, ed è anche l'anno in cui pubblica L'uomo delinquente, che poi avrà tante edizioni, si porta con sé tutta la collezione, che a questo punto sta per diventare quasi un museo di antropologia criminale. Non sa dove metterla, la tiene in casa per un po', con sconcerto della moglie e dei suoi tre figli, e poi la mette nelle stanze del suo laboratorio. Poi nel 1884 ha la sua grande occasione, perché viene organizzata l'Expo, l'Expo di Torino, l'esposizione generale italiana che raccontò i primi decenni dell'Italia unita, fu molto importante. Dentro l'Expo fu organizzata una mostra di antropologia in cui Lombroso e i suoi crani furono protagonisti. E lì Lombroso espose anche le sue maschere mortuari, le fotografie, i disegni e gli scritti dei criminali, dei pazzi, degli epilettici, i loro tatuaggi, le opere d'arte realizzate in carcere e anche i corpi del delitto, le armi, eccetera, eccetera. Voleva mostrare al pubblico praticamente i prodotti devianti e artistici al contempo della mente criminale. Poi prese questa esposizione, la portò anche a Roma, a Parigi. Nel corso degli ultimi anni dell'Ottocento lui ottenne anche nuovi fondi, nuove acquisizioni e alla fine progettò il suo amatissimo museo psichiatrico e criminologico che poi diventerà il museo di antropologia criminale. Era il primo museo al mondo che raccontava la storia di questa disciplina, compreso per esempio un plastico smontabile del carcere di Filadelfia. Era inteso proprio come un modello del carcere totale, quello dove il guardiano vede tutto, come nel panopticon di Bentham. E poi appunto opere d'arte di criminali dei pazzi, perché l'ombroso era convinto che ci fosse una qualche parentela tra il genio e la follia di queste persone. E poi ovviamente il cranio dei ladri di briganti come i Villella, da cui Fossetta campeggiava in una sala. E poi c'erano piante carnivore ataviche e anche una bellissima scultura del viso di un uomo di Neandertal, pieno di ferocia e di stupore, come i bestioni raccontati da Gian Battista Vico e come l'uomo delle caverne, perché poi il mito dell'uomo delle caverne fu proprio alimentato da questa pessima stampa di cui godeva il nostro cugino Neandertal. L'idea del curatore del museo di allora, quando l'ombroso era ancora vivo, si chiamava Mario Carrara, allievo di l'ombroso che poi sposerà anche la figlia di l'ombroso. Personaggio interessante perché poi nel 1932 è uno dei pochissimi che vengono espulsi dall'università perché si rifiuta di giurare fedeltà al regime fascista. Anche questo è interessante, poi nella famiglia di l'ombroso ci sarà una forte componente antifascista. Dicevo, l'idea del curatore era quello di esporre tutto in modo rigoroso e di colpire emotivamente il visitatore. Quindi il museo aveva un valore storico e poi doveva suscitare meraviglia e anche un po' di raccapriccio. Poi il museo ha avuto alterne vicende, finché in tempi recenti è stato progettato un nuovo allestimento insieme col museo di antropologia e quello di anatomia umana in un unico grande polo museale torinese molto importante. E adesso nel museo l'ombroso si può ammirare anche una ricostruzione per esempio dello studio suo. E qui però succede un fatto interessante che ci dice molto poi su come questi temi vengono in questo caso malamente attualizzati. Perché nel novembre del 2009, a cento anni esatti dalla morte di l'ombroso, il museo fu riaperto a Torino nella sua nuova veste e ne nacque una polemica montata ad arte e molto surreale. Perché alcuni gruppi di sedicenti neoborbonici o neomeridionalisti accusarono il museo e i suoi curatori di diffondere un'ideologia razzista contro i calabresi. Sostennero, contro ogni realtà storica, che il brigante Villella era un martire della resistenza del regno delle due Sicilie e che i suoi poveri resti andavano riportati al suo paese d'origine in provincia di Catanzaro. Ma soprattutto chiesero di chiudere quel museo a loro detta così offensivo verso i meridionali. La campagna continua ancora oggi, c'è ancora questa polemica alimentata da strumentalizzazioni e mistificazioni di vario tipo e adesso ha anche un risvolto giudiziario perché c'è stata la richiesta ufficiale di restituzione del cranio di Villella da parte del comune d'origine. Ora la giustizia naturalmente farà il suo corso, però noi sappiamo che le collezioni anatomiche hanno un valore scientifico e storico inestimabile, sono un patrimonio pubblico e quindi sarà bene valutare con molta prudenza prima di stabilire un precedente giudiziario a favore della restituzione, del seppellimento di tutti i reperti anatomici presenti nei musei italiani. Questo museo è il frutto di un modo di guardare al problema della criminalità e alla nascente criminologia, creazione del finire dell'Ottocento come un qualche cosa di assolutamente datato, ovvero sia proprio degli anni sul finire dell'Ottocento, principio del Novecento, posto che il primo materiale che è stato raccolto dal museo è del 1892 e che è l'ultimo materiale che è pervenuto è grossomodo essenziale nel 1930 quando la creazione del museo di criminologia del Ministero di Grazia e Giustizia a Roma ha fatto finire il flusso del materiale ai corpi di reale. Dicevo che è un modo di guardare al problema e vuole dire che soprattutto è una lente di ingrandimento, una lente con la quale si guardava un fenomeno con la parzialità della cultura del tempo in maniera che non deve stupire se questo museo è un museo che è lontano da noi. Si è detto che è un museo distante, beh è un museo distante. Guarda noi se vedessimo queste cose nello stesso modo con cui sono state guardate. Cesare Lombroso cercava le basi biologiche e neurologiche del comportamento criminale. Oggi cosa possiamo dire della sua opera? Possiamo dire che oggi lo fanno a modo loro la genetica del comportamento e lo studio delle aree cerebrali coinvolte in atteggiamenti violenti. Questo perché siamo sempre affascinati dalle cause naturali del male, anche se l'atavismo lombrosiano è una teoria destituita oggi di fondamento. Però non dobbiamo avere paura di indagare gli aspetti biologici connessi ai comportamenti umani. Dobbiamo farlo ovviamente con le dovute cautele, senza gli entusiasmi un po' ingenui del positivismo lombrosiano di un secolo fa e soprattutto senza pensare che nell'aspetto fisico esteriore o in una gibbosità del cranio si nascondano chissà quali indizi della nostra personalità. E questo per due ragioni scientifiche precise e importanti. La prima è che cercare il gene specifico o il tratto fisiologico specifico di comportamenti complessi, che ne so, della gelosia o dell'omosessualità o della criminalità, come ancora spesso sentiamo dire purtroppo sui mass media più sensazionalistici, è assurdo, è insensato, perché le nostre scelte sono sì il frutto di vincoli biologici e genetici, ma ancor più di singolarità individuali, di storie di vita, di influenze sociali, familiari, ambientali, insomma un groviglio che spesso è inestricabile. E poi c'è una seconda ragione, e cioè che noi oggi sappiamo che i geni sono importanti ma non sono tutto. Persino due gemelli omozigoti, che sono due cloni genetici, presentano differenze individuali evidenti dovute al modo in cui i loro geni sono espressi e regolati nel corso dello sviluppo e dell'intera vita. Tornando all'ombroso è interessante raccontare forse un elemento della sua fine. L'ombroso ha lasciato tre figli, una famiglia, dicevo, molto attiva sia sul piano scientifico che dell'attività culturale. Fra l'altro una figlia diventa poi una scrittrice di libri per bambini, mentre gli altri due proseguono una carriera, diciamo, di ricerca scientifica e ancora oggi i discendenti di l'ombroso in alcuni casi sono scienziati di grande rilievo. Il loro padre o antenato l'ombroso fece una scelta tipica dei positivisti dell'epoca, cioè donò il suo corpo alla scienza. Il 21 ottobre del 1909, dopo un giorno di veglia nel suo amato museo, fu eseguita l'autopsia ovviamente e poi si fece una maschera facciale. Il cervello, il cuore e lo scheletro furono prelevati e conservati nel museo stesso e oggi il suo scheletro accoglie i visitatori e quindi lo scienziato soggetto di tutti quegli studi diventa ora l'oggetto di studio. La sua opera va capita nel contesto dello spirito del suo tempo, cosa che oggi ci dimentichiamo spesso di fare. Non avrebbe nessun senso né assolverla né condannarla con i criteri scientifici e la sensibilità del ventunesimo secolo. Le teorie di l'ombroso a metà ottocento erano plausibili, oggi no e il museo l'ombroso lo spiega benissimo in modo critico. Per questo è ancora più assurdo che qualcuno chieda di chiuderlo perché visitarlo significa ricevere un ammonimento sugli errori di l'ombroso e al contempo significa avere una lezione su come la scienza abbia cercato un secolo e mezzo fa, quindi anche in modo maldestro e peraltro in una Italia post-unitaria in cui la scienza aveva un valore culturale importante, dicevo racconta questo museo di come la scienza ha cercato di comprendere qualcosa di molto importante, cioè la natura profonda del male. Nella parabola terrena di Pierre Teilhard de Chardin sono racchiuse non una ma più biografie diverse perché c'è la biografia di uno scienziato, paleontologo per la precisione, la biografia di un esuita, teologo, ma anche la biografia di un uomo d'azione, di viaggi, un uomo contrastato che nel tentativo di conciliare tante cose ha scontentato i più. Gli inizi della sua vita sono quelli di un'infanzia molto felice, da lui stesso definita una campana di vetro perché Pierre Teilhard de Chardin nasce nel castello di Sarsena vicino a Orsin in Alvernia sulle pendici del massiccio centrale il primo di maggio del 1881 da una famiglia di possidenti benestanti che aveva anche acquisito titoli nobiliari, da qui il doppio cognome. Era il quarto di ben undici figli, essendo la madre una religiosissima pronipote di Voltaire, uno strano insieme di contraddizioni. Fino all'età di undici anni visse in campagna appassionandosi a osservazioni naturalistiche finché non entrò nel collegio dei Gesuiti, di una cittadina vicina dove svolse i primi studi. Non avevo più di sette o otto anni quando cominciai a sentirmi attratto da qualcosa che luccicava nel cuore della materia. Vedo ancora la serie dei miei idoli. In campagna un bullone taratro, in città la testa esagonale di una colonnita di ferro. Non ho mai dimenticato le patetiche disperazioni di bambino, constatando che il ferro si riga e si arrugginisce. E allora cercavo degli equivalenti in una fiamma azzurra, così inafferrabile e pura, serpeggiante fra i ceppi del focolare. O in qualche pietra trasparente, o meglio colorata, cristalli di quarzo e diametista, e luccicanti frammenti di calcedoni raccolti nei rintorni del paese. Al volgere del secolo, nel 1899, decide di entrare nel noviziato della compagnia di Gesù ad Aix-en-Provence. La storia, con la S maiuscola, si fa sentire già nel 1901, quando in Francia vengono approvate le cosiddette leggi speciali antireligiose e l'ordine dei Gesuiti viene espulso dal territorio nazionale. E allora Teilhard continua i suoi studi, i suoi lavori sull'isola di Jersey, come novizio e studia filosofia, però comincia anche a scrivere di geologia, quindi comincia a formarsi questa figura un po' ibrida tra gli studi filosofici, umanistici, letterali, religiosi e quelli scientifici. Essere un gesuita, tra l'altro, a quel tempo, come oggi, significava viaggiare molto per il mondo. Infatti, da 1905 al 1908, Teilhard de Chardin e al Cairo, come lettore di chimica e di fisica al Collegio della Sacra Famiglia, Collegio dei Gesuiti. E lì, si inoltra nel deserto, comincia a interessarsi alla paleontologia e nei suoi diari descrive le sue cacce sfrenate a fossili, minerali e insetti rari. Dopo quattro anni di seminario teologico in Gran Bretagna, dove era tornato a Hastings, facendo poi vari soggiorni a Lovagno, nel 1911, a meno di trent'anni, viene ordinato prete. L'anno dopo, però, è già al lavoro, a Parigi, al Museo Nazionale di Storia Naturale, dove incontra uno dei suoi primi grandi maestri, Marcelin Boulle, un grande paleontologo francese, quello che aveva pubblicato la prima descrizione completa di uno scheletro di Neandertal, trovato nel sito di La Chapelle au Saint, interpretandolo a quel tempo come un brutto, come un peloso uomo delle caverne, poco intelligente, quando in realtà le deformazioni trovate sulle sue ossa erano dovute più all'età e all'artrite che non ad altri problemi. Comunque sia, Teilhard de Chardin respira subito l'aria della migliore paleontologia umana dell'epoca e si perfeziona proprio in paleontologia alla Sorbona di Parigi, facendo amicizia, tra l'altro in quegli anni, con un altro personaggio che farà la storia dell'archeologia della prima metà del secolo, l'abate Henri Breuil, che poi diventerà abate naturalmente, grande studioso delle industrie paleolitiche europee e soprattutto dell'arte rupestre. Insieme a Breuil, Teilhard compie una memorabile spedizione alle grotte cantabriche, bellissime come Altamira. Pitecantropo fu chiamato quest'essere ancora vicino alla scimmia come dimostrano le sporgenti arcate orbitali di questa calotta cranica scoperta nell'isola di Java e questa formidabile mandibola detta dell'uomo di Mauer, ma in lui era la ragione. Questo teschio detto di Neandertal ci rappresenta un'ulteriore evoluzione dell'uomo. Il cranio è pur sempre primitivo, ma il cervello si è affinato. Le selci sono più abilmente lavorate, vedi questo raschiatoio reso dentellato ai bordi per facilitare la squoiatura degli animali e questa punta di lancia dalla linea già decisa. A soli 30.000 anni avanti Cristo ecco l'uomo sapiens rappresentato dal teschio detto di Cro-Magnon, ormai simile a noi, siamo nel paleolitico superiore. Abitava in caverne simili a questa dove al tepore del fuoco, meno assillato dalla fame o dalla paura, il suo cervello scopriva le libere creazioni dell'arte. Dapprima solo motivi ornamentali incisi nell'osso con bulini di pietra, poi figure più decisamente delineate di animali a lui quotidianamente vicini. In questi anni di formazione scientifica Teilhard viene però indirettamente coinvolto anche nella più famosa frode che sia mai stata realizzata in campo evoluzionistico. Nel 1912 un archeologo dilettante inglese Charles Dawson consegna ad Arthur Smith Woodward, che era il capo del dipartimento di geologia del Natural History Museum di Londra, quello che a suo avviso doveva essere un ritrovamento rivoluzionario, una sezione di cranio umano preistorico associata a una mandibola dall'aspetto molto scimmiesco trovato a Pildown, un piccolo villaggio del Sussex. Woodward al valora la scoperta e scava nel sito di Pildown insieme al collega Dawson. La notizia fa subito il giro del mondo, scoperto il tanto ricercato anello mancante tra l'uomo e la scimmia. Vissuto 500.000 anni fa, sostengono gli scopritori, è per di più sul suolo di sua maestà, quindi direi perfetto. Una perfetta dimostrazione che l'evoluzione umana era cominciata con la crescita del cervello e per di più in Inghilterra. Marceline Bull, che era il maestro di Teilhard de Chardin, esprime però subito tutti i suoi dubbi. Secondo lui quella mascella era di una scimmia e non c'entrava niente con il cranio. Teilhard, invece, che è proprio da quelle parti negli stessi mesi, è molto incuriosito e partecipa agli scavi di Pildown insieme a Woodward, scoprendo tra l'altro un canino che quest'ultimo poi interpreta come appartenente anche lui all'uomo di Pildown. Poi però Teilhard rientra a Parigi e si associa ben presto a Bull nella perplessità circa la verità di questa scoperta. L'arcano, incredibilmente, viene svelato soltanto molto tempo dopo, nel 1953, due anni prima della morte di Teilhard de Chardin, perché si trattava di una vera e propria truffa intenzionale, molto ben orchestrata, perché la mandibola era quella di un orango invecchiata artificialmente con un acido e associata poi a denti di scimpanze rimaneggiati e al cranio di un individuo umano, di piccole dimensioni, rinvenuto in un cimitero vicino che era di epoca medievale. Qualcuno, in seguito, sospettò che Teilhard de Chardin, avendo partecipato proprio tra i primi agli scavi con quelli che probabilmente erano gli artefici dell'imbroglio, fosse coinvolto nel complotto. Ma in realtà non vi è alcuna prova sicura di questo ed è improbabile che Teilhard potesse dare il suo avallo a un'operazione che sapeva molto di nazionalismo britannico. Le ultime indagini sul caso, che sono conclude proprio nel 2016, hanno portato a Charles Dawson come presumibile unico artefice della frode, scagionando tutti gli altri, compreso Teilhard de Chardin, il quale non ebbe comunque molto tempo per pensare ancora al presunto anello mancante, perché la prima guerra mondiale incombeva, era lì dietro l'angolo, e Teilhard, ansioso di dare un contributo al suo paese in guerra, viene spedito nelle trincee sul fronte franco-tedesco dove fa il porta feriti, si distingue per il grande coraggio e lo sprezzo del pericolo, motivato già nei suoi diari proprio dalla vocazione religiosa, viene nominato caporale e partecipa, dal 1915 al 1918, a praticamente tutte le grandi battaglie, quella di Verdun, la battaglia della Marna, e il valore sul campo gli viene confermato da molte testimonianze, con il risultato che viene insignito addirittura dalla croce di guerra e poi nominato cavaliere della legione d'onore. La guerra mi ha permesso di prendere la misura dell'uomo. La guerra è un caso estremo e anormale di rinuncia ai diritti e alle aspirazioni dell'individuo. Bisogna sforzarsi di diminuire la morte e la sofferenza. Non posso credere che Dio ci abbia dispensati dal continuare l'opera della creazione. Bisogna sorvolare il presente, vivere proiettati in alto nel pensiero dell'avvenire. Nonostante tanto dolore e tanto odio, la compagine umana non può disgregarsi nel suo profondo. Ogni guerra no ha che un solo risultato, quello di far legare e mescolare fra loro le nazioni che vi sono impegnate. Più ci rispingeremo e più ci competeremo. Se vi sarà mai un ultimo giorno dell'umanità, esso coinciderà per lei con il suo massimo rinserrarsi su se stessa. Nel frattempo, subito dopo la guerra, prende anche solennemente i voti. Ma torna subito a studiare. Prende il diploma di geologia, botanica, zoologia, praticamente scienze naturali, alla Sorbona di Parigi e torna a lavorare con Marceline Boulle, il suo maestro. Nel 1920 difende una tesi di laurea sui mammiferi europei dell'Eocene, che è l'epoca che va da 55 a 40 milioni di anni fa, e poi prende l'incarico di paleontologia all'Istituto Cattolico di Parigi. Diventa a tutti gli effetti un gesuita teologo e paleontologo, una figura molto particolare. Legge Henri Bergson, ma rimane deluso dalla sua idea di uno slancio vitale senza finalità, e inizia a elaborare quella sua originale visione di un'evoluzione spiritualista, di un grande movimento ascensionale verso l'umanità compiuta e poi verso il superamento in Cristo. La chiama addirittura la santa evoluzione. Inaugura anche quel suo tipico stile letterario, molto poetico, sincretistico, dove mette insieme un po' tutto, scienza, poesia, teologia e anche la mistica. A questo punto però la sua ambizione di tenere insieme la teologia e l'evoluzione umana comincia a creargli qualche problema con i difensori dell'ortodossia religiosa. Per conto del Museo di Parigi, Teilhard de Chardin fa un primo viaggio di esplorazione in Cina nel 1923, rimanendone folgorato e affascinato. E ben presto però dovrà comunque tornarci, perché decide di mandare un saggio molto audace, in cui tentava di tenere insieme l'evoluzione biologica umana e la dottrina del peccato originale addirittura, ai teologi di Lovagno, i quali non lo apprezzano particolarmente, cosicché i suoi superiori gesuiti gli consigliano di sospendere l'insegnamento per chiarirsi un po' le idee e magari di andare all'estero. Teilhard obbedisce e si trasferisce proprio in Cina, dove rimarrà addirittura per vent'anni, dal 1926 al 1946 ed è il suo primo lungo esilio. In Cina, prima a Tianjin e poi a Pechino, Teilhard de Chardin consolida la sua già robusta carriera di paleoantropologo, comincia a lavorare per il servizio geologico cinese e prende parte a importanti spedizioni in tutta la Cina, lungo le vallate dei grandi fiumi cinesi, ma in tutta l'Asia centrale, in Mongolia, in India, Birmania, va anche a Java e spesso insieme al suo amico, l'abate Breuil. Grazie a questi scavi, ai viaggi per i convegni, anche in Africa, negli Stati Uniti e anche ai risultati che cominciano ad accumularsi, Teilhard de Chardin si costruisce una rete molto ricca di collaborazioni internazionali con colleghi anche dell'American Museum Natural History di New York e di molte altre istituzioni. In particolare, tra il 23 e il 27, tra le due guerre, Teilhard, insieme a Breuil e altri, partecipa agli scavi nel sito di Zucudian, che è vicino a Pechino, che era stato aperto nel 1921, dove viene scoperto, anche grazie al suo contributo, il Sinantropo, quello che a quel tempo si chiamava Sinantropo, che sarebbe l'uomo scimmia della Cina, che era chiamato così allora e oggi invece è interpretato come un uomo erectus asiatico, praticamente un rappresentante del primo popolamento dell'Asia da parte dei rappresentanti del genere uomo, il nostro genere, che erano usciti dall'Africa per la prima volta a partire da due milioni di anni fa, quindi un ritrovamento molto antico e molto importante. Oggi, secondo l'ultima ridatazione scientifica, l'uomo di Pechino, scoperto da Teilhard e da altri, avrebbe circa 750 mila anni, anche se nello stesso sito e in altri siti cinesi sono stati rinvenuti molti altri fossili di età diverse, segno di un lungo popolamento della Cina da parte di homo erectus e anche di altre specie probabilmente uscite dall'Africa in tempi successivi, ultima delle quali proprio noi, cioè Homo sapiens. Dal 1939 al 1946, Teilhard resta bloccato a Pechino a causa dell'invasione giapponese e poi dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, del grande conflitto. Questa volta però non fa il soldato, ma lo scienziato e nel 1940 fonda addirittura l'Istituto di Geobiologia di Pechino. Nel frattempo il suo sincretismo, questa sua ricerca di una grande sintesi culturale si allarga ulteriormente, oltre che di paleoantropologia, di teologia, si occupa della mistica, della grande mistica orientale. La mistica indiana, cinese, giapponese, nella sua diversità, scrive diversi testi sulle possibili convergenze tra la mistica orientale e quella occidentale nel comune senso di una, lo sappiamo, della mistica, un'unione del singolo individuo con il tutto, con il cosmo, con la natura, con la vita. Un'unione che però in Teilhard non annulla le differenze individuali, ma le porta a compimento. Quindi a questo punto nel suo lavoro si unisce anche la tradizione mistica. nel 1946 Teilhard de Chardin torna finalmente a Parigi a 65 anni e diventa il direttore di ricerca di una sezione del CNRS, cioè del Centro di Ricerche Nazionale Francese. L'anno dopo è ufficiale della Legion d'Onore, è praticamente al culmine della sua carriera scientifica, tanto che gli offrono la massima onorificenza probabilmente in Francia, cioè una cattedra al prestigiosissimo Collège de France per la quale però gli è necessaria un'autorizzazione ecclesiale e qui ha purtroppo la conferma di quanto sia in viso alle gerarchie perché lui va a Roma va a chiedere questa autorizzazione ma da Roma gli arriva non soltanto una risposta negativa ma addirittura l'invito a lasciare la Francia a smetterla di scrivere i suoi libri e di insegnare nonostante nel frattempo gli si è stata offerta una cattedra all'Istituto di Francia nel 1950 e Teilhard ancora una volta come era già successo per la Cina decide di obbedire come destinazione per il nuovo esilio la più naturale gli sembra New York dove Teilhard nel frattempo aveva sviluppato rapporti con grandi paleontologi come George Gail Simpson per esempio all'American Museum di New York dal 51 collabora con una fondazione di ricerche antropologiche per la quale organizza nuovi scavi e si rimette a viaggiare in particolare in Africa meridionale dove anche lì fa scoperte molto interessanti in campo paleoantropologico il suo libro più rappresentativo che si intitola Il fenomeno umano si diffonde a livello internazionale e diffonde soprattutto la sua idea di questa evoluzione spiritualizzante poi però un infarto che già aveva dato qualche avvisaglia negli anni precedenti pone fine alla sua esistenza il giorno di Pasqua del 1955 il 10 di aprile nella Grande Mela che lo aveva accolto e dove ancora oggi è sepolto ad Hyde Park Ma che tipo di evoluzionista era Teilhard de Chardin? Sicuramente molto strano molto particolare da uomo profondamente religioso lui accettò la realtà completa dell'evoluzione naturale compresa quella di Homo sapiens frutto recente di una storia naturale ma Teilhard aveva anche una concezione profondamente progressionista e finalistica dell'evoluzione che lui intendeva come un grande cammino cosmico di trasformazione della materia in spirito con stadi di sempre maggiore complessità e coscienza fino al culmine del raggiungimento di una fase in cui l'uomo pienamente evoluto e compiuto si eleva al di sopra di sé per raggiungere il suo vero fine e diventare sovraumano quello che Teilhard chiamava il punto omega dell'evoluzione un nuovo umanesimo o anche la noosfera che è un termine di grandissimo successo che fu coniato da Teilhard già nel 1925 per indicare l'avvento evolutivo del mondo del pensiero umano che lui immaginava come un super organismo fatto da tutti i cervelli umani sempre più interconnessi tra di loro che vedeva come il preludio del disvelamento finale di quello che lui chiamava il Cristo cosmico capiamo anche un po' la sua terminologia spesso molto roboante quindi lui pensava che tutta l'evoluzione in 3,5 miliardi di anni fin dall'inizio stesse convergendo verso questo esito finale una sorta di elevazione scritta fin dall'inizio una ascensione umana che tra l'altro è un termine che aveva già usato in anni precedenti uno scrittore italiano Antonio Fogazzaro proprio in un tentativo molto simile a quello di Teilhard de Chardin di conciliare la fede religiosa e la scienza dell'evoluzione quindi nel tentativo di fondere evoluzione e teologia Teilhard aderisce sia a un monismo che rifiuta la distinzione ontologica tra la materia e lo spirico sostenendo che si può trovare il Cristo nella materia e che la materia stessa contiene una sua potenza spirituale e questa è proprio una di quelle idee che gli procureranno molti problemi con la dottrina ufficiale della Chiesa sia aderisce a un radicale antropocentrismo perché per lui tutta l'evoluzione l'universo la vita doveva portare necessariamente verso l'umanità come si sostiene oggi nel cosiddetto principio antropico che assomiglia anche un po' all'idea del disegno intelligente nell'evoluzione un'idea che naturalmente si scontra con le forti evidenze scientifiche che noi abbiamo oggi invece al contrario della grande contingenza della forte contingenza e imprevedibilità dell'evoluzione in primo luogo è evidente che il mondo nel suo attuale stato rappresenta il risultato di un movimento sia che si guardino la posizione degli strati rocciosi che avvolgono la terra o il raggruppamento delle forme viventi che la popolano o la varietà delle civiltà che se ne dividono il dominio o la struttura delle lingue che vi si parlano si impone sempre una stessa conclusione ogni essere racchiude un passato nessuna cosa è comprensibile fuori della sua storia natura significa divenire farsi ecco il punto di vista al quale ci costringe irresistibilmente l'esperienza particolarmente cattivo caustico contro Teilhard de Chardin e contro il suo finalismo cosmico fu per esempio Eugenio Montale che fu proprio poeta della storia che secondo Montale non si snoda affatto come una catena di anelli ininterrotta ma è appunto un intreccio di contingenze di deviazioni Montale non amava Teilhard e lo definiva un paleontologo e prete ad abundanziam prendendo in giro un po' il suo stile e diceva che non amava leggerlo lo annoiava molto ma forse questo è un po' ingiusto se letto attraverso le conoscenze attuali dell'evoluzione biologica Teilhard difficilmente trova sponda presso gli scienziati ma inquieta anche molti teologi quindi scontentando un po' gli uni e gli altri come capita spesso a chi tenta audaci sintesi per rendere compatibili tradizioni di pensiero molto diverse tra di loro ma il modo in cui se dobbiamo fare le differenze in cui le gerarchie ecclesiastiche hanno manifestato il loro disappunto verso Teilhard è stato sicuramente più duro rispetto a un normale dibattito in campo scientifico e filosofico l'opposizione della chiesa alle idee di Teilhard de Chardin si manifestò concretamente durante la sua vita come abbiamo visto in più occasioni e con due esili forzati ma soprattutto dopo la sua morte con modalità che sfiorano quella che una volta si chiamava la damnazio memorie cioè l'ingiunzione a non diffondere e a non tramandare l'insegnamento di un individuo e di un pensatore ritenuto eretico il concilio Vaticano II era ancora là da venire e Teilhard fu accusato di tante cose ma soprattutto di panteismo cioè di rifiutare il dio personale del monoteismo cristiano e di vedere la presenza della divinità in ogni cosa il sacro nella natura stessa e non invece in una grazia oltremondana proveniente da un altro da una dimensione sovrannaturale le sue opere non furono messe ufficialmente all'indice dalla curia romana ma poco ci mancò perché nel 1962 il Sant'Uffizio pronunciò un severo monito in cui si ordinava le congregazioni religiose di ritirare le opere del gesuita francese da tutte le biblioteche il testo era molto chiaro l'accusa principale era quella di aver voluto naturalizzare il sovrannaturale il risultato atteso dagli inquisitori non fu però raggiunto come quasi mai succede e Teilhard ha continuato e continua ancora oggi a dividere i teologi e i pensatori cristiani divisi tra oppositori come Jacques Maritain e simpatizzanti o almeno indulgenti come due pontefici poi come Paolo VI e Benedetto XVI e come tutti coloro che vedono in Teilhard de Chardin colui che ha saputo concepire la creazione come un divenire dinamico togliendo alla materia la corporeità lo stigma del peccato e della colpa Teilhard fu uno scrittore molto prolifico si contano più di 250 opere raccolte in 13 volumi spesso scriveva in modo oscuro la sua lettura non è facile talvolta è anche confuso è contraddittorio nei suoi tentativi di tenere insieme concetti diversissimi che mesclano nel livello fisico biologico spirituale l'energia dell'universo con l'amore e così via oggi però Teilhard gode di rinnovato interesse la damnazio memorie contro di lui non solo è finita ma è un autore sempre più spesso citato nei discorsi dei pontefici strano destino è diventato un nome tutelare dei movimenti new age per la sua idea di un'evoluzione planetaria della coscienza e la sua noosfera è stata presa in consegna ed esaltata dagli internauti oggi di tutto il mondo forse perché in un'epoca come la nostra di frammentazione di disordine sentiamo il bisogno di tornare qualche volta a una cosmogonia rassicurante come quella di Teilhard de Chardin a un'armonia universale in cui forse illusoriamente cullarsi per un po' oggi sembra quasi impossibile ma un tempo circa un secolo fa si poteva essere nella stessa persona un teologo un filosofo un celebre organista di talento un medico e anche un missionario in Africa per riuscire a fare tutte queste cose insieme era necessario avere una grande curiosità una grande energia e soprattutto una indomita reverenza per la vita questa espressione reverenza per la vita è il motto più famoso che ci ha lasciato Albert Schweitzer che era nato in Alsazia Lorena nel 1875 in una terra particolare una terra contesa fra tedeschi e francesi dove si consumerà la strage della grande guerra esattamente un secolo fa forse anche per questo per tutta la sua vita e poi soprattutto a partire dai primi anni del novecento lui volle costruire addirittura una filosofia della civiltà lui nel 22 presenta a Oxford la sua visione universale di un ritorno della civiltà e di quello che lui chiamava l'autentico umanesimo dopo il massacro della guerra alla fine degli ottimismi troppo facili della modernità e soprattutto il grido di ingiustizia che aveva ascoltato in Africa quella di Schweitzer però è una voce dissonante nel 22 perché in quegli anni altri tamburi di crisi e poi di totalitarismi e di guerre stanno per dettare di nuovo il ritmo della storia lui era un uomo multiforme che ebbe modo di incontrare la diversità fece riflessioni sulle colpe del colonialismo su lo shock che si ha quando si incontra la diversità umana e l'ingiustizia che spesso la permea e come molti suoi predecessori europei si spinse fino a riflettere sul grado di moralità che potevano avere gli occidentali e i colonialisti per lui la vita la vita in sé era il fondamento dell'etica non la conoscenza razionale per Albert Schweitzer diciamo lui amava dire la vera filosofia deve cominciare dal fatto della vita la vita vuole continuare a vivere e ogni etica deve partire dalla simpatia oggi diremmo dall'empatia nei confronti della vita di ogni essere umano e anche non umano di ogni essere vivente in generale perché la volontà di vivere lui diceva è una necessità evolutiva e al contempo un fenomeno spirituale ho meditato ho meditato a lungo su Buddha quando dice che dobbiamo amarci ci invita a un gesto anche se dello spirito se c'è amore c'è solidarietà e questa non può essere dopo tutto un sentimento inerte riconosco tuttavia che a Buddha preme principalmente la meditazione sulla verità e ciò non può bastare all'intera vita dell'uomo io suonavo l'orgono mi occupavo di teologia di estetica di morale ero insomma portato a meditare ma ero nutrito da una religione una filosofia fondate sull'affermazione non sulla negazione del mondo la comunione con l'infinito mi è parsa possibile prendendo coscienza della mia solidarietà con tutti gli altri esseri non esistiamo solo per noi stessi pensando alla misteriosa solidarietà che unisce tutti non riusciamo a porci dei limiti sia nel dare che nell'accettare Albert Schweitzer non è una biografia sono tante vite insieme era nato a Kaisersberg il 14 gennaio del 1875 ma era poi vissuto nel villaggio alsaziano di Gunzbach dove ancora adesso è ricordato con un memoriale con un museo villaggio che insieme con tutta la regione era tedesco ma solo dal 1871 e poi passerà come sappiamo dopo la prima guerra mondiale alla Francia il padre era un pastore evangelico luterano del paese e insegnerà fin da piccolo al figlio la musica in particolare l'organo insegnerà anche la tolleranza a dire il vero e lo spirito interreligioso basti pensare che la chiesa di quel piccolo villaggio era condivisa la domenica in zone e in orari differenti naturalmente sia da protestanti che da cattolici poi infuriranno invece le guerre più sanguinose proprio in quelle terre ma proprio per questo è bene ricordare che il progetto dell'Unione Europea che oggi è tanto discusso ha permesso di fare germogliare quel seme di pace e di condivisione trasformando in una straordinaria e unica realtà politica la terra in cui antichi nemici avevano convissuto e che adesso si tendevano la mano e Schweitzer visse personalmente questa tragica vicenda e c'è da dire che per sua fortuna visse sufficientemente a lungo per superare poi la seconda guerra mondiale e per vedere fece in tempo a vedere l'Unione Europea lui grazie al padre fu dunque un musicista di vaglia un organista esperto e appassionatissimo di Bach la cui musica secondo lui gli suggeriva l'infinito è un senso mistico di eternità potremmo dire studiò organo o in modo professionale per diversi anni cimentandosi su Wagner e su altri autori e già nel 93 si esibisce a Saint-Sulpice a Parigi con un celebre organista che è Charles-Marie Guidor con il quale entratterà poi una grande amicizia all'insegna del comune amore per Bach insieme poi fonderanno a Parigi la Bach Society in onore di Bach gireranno l'Europa per concerti e diventano tra l'altro poi gli autori di commentari fondamentali su Bach poi Schweizer studia a Strasburgo anche pianoforte e nel frattempo gira per l'Europa per non perdersi nessuna rappresentazione wagneriana quindi sembra una carriera destinata principalmente alla musica e così sembra anche perché lui come organista si prende molto sul serio e addirittura contribuì al movimento della riforma organistica tedesca sostenendo che bisognava recuperare la storia degli strumenti musicali delle loro performance originarie recuperando la vecchia cornice barocca vera e che il criterio lui diceva per giudicare un organo doveva essere proprio la sua capacità di suonare la musica di Bach e quindi poi lui si dedicò per tutta la vita anche al recupero al restauro alla valorizzazione di antichi organi nel 1906 pubblica addirittura un libriccino proprio sull'arte di costruire e di sognare gli organi in Germania e in Francia un libro che fa scuola e tre anni dopo nel congresso mondiale della società internazionale di musica a Vienna che viene proprio aperto da una conferenza di Schweitzer darà avvio alla stesura proprio delle regole internazionali ufficiali per la ricostruzione degli organi moderni per lui la musica di Bach però era qualcosa di molto più grande e riuscì addirittura a dare un contributo anche in quello perché fu il primo a sostenere che Bach andava visto come un poeta potremmo dire cioè che la musica di Bach andava letta in modo visuale letterario come una rappresentazione simbolica quasi pittorica come una trama di figure di motivi ricorrenti tutti intrecciati dentro una cornice naturalmente religiosa e nel 1905 Schweitzer pubblica in Francia proprio un libro su Bach come musicista poeta che poi viene tradotto in tedesco in inglese insomma musica teologia come vedremo fra poco letteratura filosofia poesia non c'erano confini di interpretazione per Schweitzer e Bach in questa fase della sua vita ma poi anche dopo è il fulcro della rappresentazione corale dello spirito religioso perché Schweitzer fu anche un grande teologo Albert Schweitzer compie i suoi studi fra Strasburgo la Sorbona di Parigi e Tubinga quindi in sede universitarie di primordine approfondisce prima la teologia protestante poi le idee religiose di Kant di Manuel Kant fino a poi laurearsi in teologia a Tubinga nel 1899 lui era di religione luterana come la famiglia e si dedica a un'interpretazione molto personale della figura storica di Gesù un'interpretazione abbastanza controcorrente sicuramente in contrasto con le dottrine correnti a quel tempo sia in ambito protestante che cattolico per lui Gesù era un rivoluzionario un visionario che davvero aveva creduto in cuor suo che il mondo fosse in procinto di finire e che lui lo avrebbe potuto salvare con il suo sacrificio Schweitzer sottolineò molto questo aspetto millenaristico della cultura di quel tempo nel 1906 pubblica proprio un libro sulla vita storica di Cristo che poi viene stampato in molte lingue e diventa l'antesignano di ricerche poi successive sulla figura storica di Gesù di Nazareth nel volume lui ripercorre la storia di tutte le interpretazioni molto diverse date nelle varie epoche alla figura storica di Gesù criticando molto i tentativi della teologia moderna di ingabbiare la figura di Gesù a posteriori come diceva lui di trasformarlo in una figura razionalizzata un po' stereotipata e idealizzata il suo invece era un Gesù vivo umano fermamente convinto come poi saranno i suoi discepoli delle intuizioni millenaristiche sulla fine imminente del mondo che erano molto diffuse nei primi secoli della cristianità il tempo della fine è vicino loro pensavano e bisogna comportarsi di conseguenza poi secondo Schweitzer la cristianità dei tempi moderni aveva invece perso questo senso di urgenza contenuto nel messaggio originale forse anche perché potremmo aggiungere perché nel frattempo il mondo non sembra proprio intenzionato a finire e ogni presunta fine è stato in realtà un nuovo inizio Schweitzer continuerà su questo filone di studi del nuovo testamento spingendosi fino a scrivere addirittura uno studio psichiatrico su Gesù nel 1911 seguito poi da un'analisi di San Paolo del suo misticismo e delle sue credenze escatologiche quindi il suo occhio diciamo fu centrato in modo abbastanza originale sul messaggio cristiano come filosofia della storia potremmo dire oggi come un senso profondo da dare alla vicenda storica umana sui tempi sui tempi lunghi nel 899 diventa diacono nella chiesa di San Nicolás a Strasburgo e prosegue ancora i suoi studi teologici lavorando al collegio teologico di San Thomas e un concetto cardine della sua filosofia è molto interessante la gratitudine nel senso che secondo lui e vedremo come questa è un po' la chiave di lettura poi di tutto il resto della sua vita un cristiano vero deve restituire al mondo il regalo che gli è stato fatto di essere qui di essere vivo deve servire l'umanità e lasciare questa terra avendo contribuito almeno un poco a renderla più giusta e più solidale rispetto a come l'ha trovata da qui per lui il senso di reverenza verso la vita che poi impronterà tutto il resto della sua esistenza anche ciò che è mistico animandosi può diventare azione non credo al misticismo chiuso in se stesso al misticismo che si contempla sono quindi convinto di essere un mistico ma un mistico capace di agire c'è sì un misticismo medioevale che rinunzia a capire il mondo ma ce n'è un altro invece in grado di raggiungere e affermare valori etici secondo il quale tutto ciò che esiste intorno a noi è vita e volontà di vivere Albert Schweitzer fa il servizio militare obbligatorio prussiano nel 1894 perché non può altrimenti ma sta già maturando dentro di sé anche se è ancora implicita la sua filosofia della non violenza della pace e come abbiamo detto della reverenza per la vita in tutte le sue forme umane e animali a 30 anni nel 1905 comincia a essere attratto dall'impulso missionario e si avvicina alla società delle missioni evangeliche di Parigi quindi non quelle tedesche ma quelle francesi che sarà poi sempre un po' la sua scelta fondamentale questa società però per sua grande delusione respinge la sua prima richiesta di partire come missionario perché trova il suo curriculum di teologo luterano poco attinente lui anziché affidarsi a una missione evangelica tedesca ferito probabilmente dalla bocciatura dei francesi che in realtà cercavano un dottore cercavano un medico decide caparbiamente di iniziare a studiare medicina e si iscrive a corsi avanzati di clinica e è anzi contento dice meglio così così avrebbe diffuso il vangelo come lui voleva come medico quindi attraverso cure concrete alle persone anziché come teologo e quindi solo attraverso le parole e le preghiere e incredibilmente ben presto diventa davvero un potremmo dire un filosofo scienziato che si applica alla medicina materia in cui completa con grande cura e volontà i suoi studi già nel 1911 nel 12 sposa poi Hélène Breslau che gli starà accanto per tutta la vita anche perché diventerà un'utilissima anestesista nell'ospedale che poi fonderanno la quale era figlia di uno storico di origine ebraurica Henry Breslau che quindi ci fa capire come il dialogo interreligioso in qualche modo rientrò più volte nella sua vita in quegli stessi mesi ripete la domanda di ammissione come diremmo noi oggi alla società missionaria di Parigi e questa volta lo prendono lo prendono lo immaginiamo l'orgoglio di essere preso come medico dopo pochi anni da coloro che lo avevano rifiutato pochi anni prima in realtà lui garantisce anche di voler partire a sue spese e grazie ai proventi dei concerti e gli aiuti di famiglia comincerà poi lui stesso a finanziare questa missione durante gli esami lui si rifiuta di discutere di religione delle sue dottrine religiose un po' diciamo eterodosse ma lo prendono comunque si fidano la destinazione diventerà famosissima è la missione di Lambarenne in Gabon che a quel tempo era una colonia francese in Africa centro-occidentale un posto particolare a 200 miglia all'interno dal porto di Port Gentile sull'Atlantico che a quel tempo però voleva dire 14 giorni di navigazione controcorrente per raggiungerlo sulle grosse schede nell'autunno del 13 quindi ormai siamo alle soglie della grande guerra insieme alla moglie e al primo figlio inizia la costruzione di un nuovo ospedale vicino alla piccola missione francese che già esisteva lì e che si chiamerà poi l'Albert Schweitzer Hospital di Lambarenne il luogo è accessibile dal mare ma soprattutto come Schweitzer si accorgerà subito permette di convergere lì attraverso tutti gli affluenti del fiume Uguè che è un po' il cuore diciamo geografico del Gabon e quindi diventa una specie di punto di riferimento strategico per le popolazioni attraverso la rete fluviale fatto sta che nei pochi mesi dopo l'inaugurazione dell'ospedale migliaia di malati letteralmente confluiscono a Lambarenne dopo aver fatto giorni di cammino estenuante di canoa un vero e proprio esodo di gente affetta da ogni tipo di patologia malattie tropicali tipiche ma anche effetti del fumo e del bere l'ospedale all'inizio è poco più che una baracca poi diventa di lamiera con stanze separate un dispensario e una sala operatoria poi si aggiungono una sala d'attesa il dormitorio e così via con l'aiuto naturalmente anche di operai locali che danno una mano nel frattempo scoppia l'inferno della grande guerra e gli Schweizer si trovano in una situazione particolare perché sono tedeschi in terra francese e dunque sotto stretta sorveglianza almeno nei primi anni loro continuano a lavorare fino allo stremo per quasi tre anni e poi nel 17 quando ormai la guerra è veramente al culmine diventano ufficialmente nemici e vengono trasferiti dai francesi in Francia e internati a Saint-Rémy-de-Provence fino a luglio del 1918 ciò nonostante quando tornerà libero pochi mesi dopo Schweizer opterà per il recupero della vecchia cittadinanza francese che avevano i suoi genitori che erano alsaziani e prima del 71 erano francesi e quindi lui stesso diventerà cittadino francese a tutti gli effetti quindi fu proprio un uomo a cavallo fra due grandi culture europee a quel punto lavora come medico come pastore a Strasburgo continua a dare concerti molto apprezzati recupera la salute e ricomincia ostinatamente a recuperare fondi per tornare in Gabon perché l'Africa chiama nel 22 arriva la consacrazione accademica perché viene invitato a tenere le Dale Memorial Lectures a Oxford dove parlerà della sua filosofia della civiltà e della sua visione etica e lì Schweizer a cavallo tra le due guerre comincia a diventare un personaggio importante conosciuto in tutto il mondo per le sue idee pacifiste non violente questa visione un po' mistica globale dell'umanità nel 24 torna finalmente nella sua Lambarenet con farmaci di nuova generazione ricostruisce un po' tutto in pochi anni l'ospedale diventa un vero e proprio villaggio continuano ad esserci carestie le epidemie abbastanza terribili però adesso c'è uno staff professionale di medici al lavoro che riescono persino a fare ricerca scientifica e a scoprire le cause batteriche di diverse epidemie intanto Schweizer fa avanti e indietro dall'Europa in cerca di fondi ed è ormai noto in tutto il mondo per le sue idee e per le sue opere e passa tutto il periodo della seconda guerra mondiale in Gabon quando ho detto loro sono vostro fratello ma un fratello maggiore non ho voluto affermare così semplicemente un principio di superiorità ma a prendermi invece sulle spalle il peso come ritenevo indispensabile di una mia responsabilità quando chiesi di aiutarmi a costruire l'ospedale nella foresta mi servivano le loro braccia e dovevo mostrarmi sicuro di avere il diritto di chiedere il loro aiuto ecco perché ho detto fratello maggiore perché lo scopo era molto più grande dei loro servigi ma erano tutti magnificamente pigri subito dopo la seconda guerra mondiale Schweitzer è ormai sempre più impegnato nella sua filosofia e nella sua opera pacifista comincia a tuonare contro il colonialismo che lui giudica uno dei peggiori crimini contro l'umanità e continuerà a dire che quello che lui ha deciso di fare in Gabon con il suo ospedale è solo una goccia nel mare di ciò che dobbiamo restituire a quei popoli e quindi non è soltanto un servizio cristiano per l'umanità ma è un debito storico da saldare e aggiunge che chi ha utilizzato la religione il nome di Dio per fondare il razzismo ha perpetrato un'infamia ancora peggiore e più colpevole degli altri perché l'ha avallato su basi religiosi ci sono alcuni autori africani che hanno criticato Schweitzer perché gli hanno imputato un certo paternalismo iniziale infatti ci sono alcune dichiarazioni sue nei primi anni dove lui dice che gli africani sono suoi fratelli però fratelli minori che devono ancora crescere e lui sostenne che l'uscita dal colonialismo doveva essere graduale e meditata perché alcuni popoli non erano pronti a fare il grande salto da società praticamente paleolitiche a stati indipendenti tuttavia nell'ultima parte della sua vita lui cambierà un po' impostazione e come medico teologo rese molto più chiare le sue posizioni le radicalizzò anche un po' addirittura sostenendo la superiorità morale delle culture native rispetto al sempre più decadente occidente che non aveva più la reverenza per la vita che aveva nelle sue fasi iniziali tuttavia ecco c'è da dire diciamo Schweitzer a differenza di altri progetti che oggi definiremmo di cooperazione moderna decentrata impiegò raramente maestranze locali africane e non si dedicò come altri alla formazione di medici e infermieri in loco però nonostante queste luci e ombre che è normale che ci siano in ogni figura dobbiamo tenere presente che siamo in una fase storica in cui per dire gli antropologi americani più autorevoli erano ancora fermamente razzisti quindi Schweitzer fu comunque un grande anticipatore lui continua a fare avanti e indietro con l'Europa tra l'Europa e l'Africa quando in Europa si dedica sempre di più alle campagne pacifiste in particolare per la messa al bando delle armi nucleari insieme a personaggi come Albert Einstein e Bertrand Russell quindi fece parte di quel gruppo di grandissimi scienziati e filosofi che risvegliarono in quegli anni le coscienze e seminarono l'idea di pace di disarmo che poi darà i suoi frutti purtroppo molto tempo dopo diversi decenni dopo così succede che nel 1952 quando lui ha 77 anni Albert Schweitzer riceve il premio Nobel per la pace come riconoscimento per le sue attività di fondazione e di sostegno proprio dell'Albert Schweitzer Hospital di Lambarenne ma ancora di più per aver affermato così si legge delle motivazioni del più ambito premio una filosofia di rispetto e di riverenza verso la vita lui fa un discorso memorabile al Nobel che ritira l'anno dopo intitolato il problema della pace dove analizza tutte le condizioni che rendono difficile la pace e propone delle soluzioni che sono sia pragmatiche sia però soprattutto di risveglio spirituale come lui amava amava dire accorgersi ancora una volta del nostro impulso per la vita e del nostro obbligo di avere cura della vita dei nostri simili e di tutti gli esseri viventi a quel punto premio Nobel famoso in tutto il mondo lui si dedica alla divulgazione alla comunicazione alla sensibilizzazione i suoi discorsi pacifisti da Radio Oslo diventano proverbiali pieni di passione e nel 1957 promulga una famosa dichiarazione di coscienza come la definì lui per l'abolizione totale di tutte le armi nucleari tutte le armi di distruzione di massa che si concludeva così la fine di qualsiasi prossimo ulteriore esperimento con le bombe atomiche sarà percepita come i primi raggi del sole della speranza di un'umanità che finora ha sofferto e che non può più continuare a farlo in questo modo facciamo ciascuno una rinuncia sacrifichiamo qualcosa per qualcuno sacrifichiamo per esempio il mito della forza io ed Einstein ci volevamo bene fu lui a spiegarmi quale immane disastro l'umanità stava confezionando con le sue mani ho fatto delle conferenze qua e là nel mondo impressionando qualcuno convincendo nessuno forse come i due famosi aeroplani di Follerot le mie parole sono già finite in mezzo alla roba vecchia le prime voci non sono violente se le ascolteremo potremo ancora sperare di vivere intera la nostra vita lui era solito dire che il lambarenè ospital era soltanto la sua particolare improvvisazione sul tema della reverenza per la vita e già questa citazione ci fa è un'implicita citazione di Bach rielaborata in chiave filosofica e che ciascuno di noi deve avere il proprio lambarenè a lambarenè proprio nel 1913 gli amici di Schweitzer con lui un po' perplesso avevano portato un pianoforte a pedale dentro una enorme cassa di zinco portata a fatica su una canoa lungo il fiume lui all'inizio è scettico perché si era convinto che la sua nuova vita in Africa dovesse coincidere con una con una svolta quindi con una rinuncia radicale alla musica e all'arte e al suo amato Bach poi però gli anni passano a lambarenè e l'antica passione riprende il sopravvento e nel villaggio nelle pause pranzo e la domenica pomeriggio così recitano le cronache tutti cominciano sempre più spesso a sentire di nuovo risuonare i pezzi di Bach e di Mendelsso da colui che era stato un grande organista un grande concertista in Europa e dicono addirittura di averlo sentito anche negli anni 60 quando ormai Schweitzer ha quasi 90 anni e le dita tremano è bello pensare a quale effetto avrà avuto nella sua mente un Bach suonato ai tropici forse un effetto dissonante o forse al contrario un senso di appartenenza inaspettato gli avrà certamente ricordato i suoi studi teologici l'ansia di eternità ma il tutto percepito in quell'umido scenario con una rigogliosa foresta in cui la biodiversità esplode di forme odori e colori e intanto invece gli esseri umani non riescono a vivere in pace si uccidono in guerre fomentate dall'odio tribale dall'avidità e oggi dal fondamentalismo religioso che probabilmente sarebbe la principale preoccupazione di Schweitzer e che è proprio la negazione violenta di quella tolleranza che Schweitzer aveva respirato fin da piccolo nella sua Alsazia e come risultato gli umani non riescono a distribuire a tutti nemmeno il cibo sufficiente per fare una vita dignitosa e per poter essere sufficientemente sani per non continuare ad ammalarsi questa però è solo una speculazione su ciò che avrà pensato questo incredibile novantenne che è stato un musicista teologo filosofo medico missionario e anche vegetariano fra l'altro chissà cosa avrà pensato appunto sul ciglio della sua dipartita che avviene lì naturalmente a Lamberenet il 4 settembre del 1965 e lui adesso è sepolto vicino alla riva del fiume Uguè nella sua Africa il 10 settembre del 1941 nasceva a New York uno scienziato molto particolare un grande evoluzionista un grande scrittore di scienza un collezionista di libri antichi e un grande fan del baseball americano si chiamava Stephen Jay Gould e molti lo ricordano per i suoi scritti riguardanti l'evoluzione la storia naturale per il modo che aveva di raccontare da dove veniamo la nostra storia e il posto dell'uomo della natura i suoi nonni erano di origine ebraica ungherese ed erano arrivati pensate alla coincidenza a New York l'11 di settembre del 1901 esattamente un secolo prima della tragedia delle torri gemelli i genitori non erano agiati vivevano in un subborgo del Queens e Stephen Jay Gould divenne rapidamente un ragazzo particolarmente vivace lui ricordava sempre il momento culminante della sua gioventù quando visitando l'American Museum Natural History di New York su Central Park West vide al quarto piano il T-Rex i dinosauri e lì capì vedendo quegli enormi bestioni estinti 65 milioni di anni fa che il suo mestiere sarebbe stato quello del paleontologo e da lì in poi la carriera scientifica e umana di Gould sarà una sorta di cascata di novità di pubblicazioni di idee e anche di polemiche studia all'Antio College a New York studia geologia ma anche filosofia mostrando sempre fin dall'inizio di avere un grande interesse per gli aspetti teorici poi prende il dottorato alla Columbia un dottorato molto autorevole con Norman Newell e lì inizia ad essere chiamato dalle più importanti università americane e decide di andare nel 67 ad Harvard e a Harvard inizierà una serie di ricerche che lo porteranno poi a diventare il responsabile paleontologo degli inverpedrati del museo di zoologia comparata di Harvard uno dei posti sacri potremmo dire della scienza evoluzionistica mondiale è ancora giovanissimo quando nel 1972 avviene il primo evento fondamentale della sua vita la pubblicazione di un articolo molto importante scritto con un amico suo coetaneo e collega Niles Eldridge dedicato agli equilibri punteggiati una parola difficile ma che aveva un significato abbastanza semplice Eldridge e Gould e due paleontologi che studiavano gli invertebrati riprendevano una teoria di un grande maestro dell'evoluzionismo del novecento che si chiamava Ernst Mayer che morì a 101 anni qualche anno fa all'inizio del nuovo millennio e Mayer che cosa aveva scoperto? che le specie nascono spesso quando delle piccole popolazioni disperse in un territorio rimangono isolate dalla specie madre dalla popolazione madre vanno in qualche modo alla deriva questa speciezione geografica Mayer l'aveva osservata però soltanto negli animali che vivono oggi Eldridge e Gould invece capirono che quel tipo di meccanismo di nascita di nuove specie era proprio ciò che spiegava quello che i paleontologi osservavano da tanto tempo ovvero che le specie biologiche per lo più nel corso del tempo lunghissimo dell'evoluzione non cambiano necessariamente in un modo molto lento graduale uniforme noiosissimo come pensava Charles Darwin nella seconda metà dell'ottocento le specie secondo Gould e Eldridge evolvono attraverso due tempi fondamentali lunghi periodi di stasi apparente dove succedono tante cose ma l'apparenza generale di una specie rimane la stessa e poi le punteggiature le punteggiature sono dei momenti rivoluzionari sono dei momenti di grande cambiamento in cui nascono nuove specie piccole popolazioni si separano vanno alla deriva e danno origine a delle specie figlie gli equilibri punteggiati hanno generato infinite polemiche in campo evoluzionistico perché mettevano in discussione un dogma un assunto fondamentale dell'evoluzione del novecento ovvero appunto che l'evoluzione dovesse necessariamente sempre essere molto lenta e graduale ma in realtà la novità di quella teoria che Gould sottolineò sempre fin dall'inizio è che in realtà mostrava come l'evoluzione è un processo che ha dei ritmi diversi può essere a volte lenta a volte molto veloce a volte addirittura velocissima ma soprattutto mostrava che le specie sono potremmo dire come degli individui di livello superiore sono delle entità discrete hanno una nascita un'evoluzione e una morte un'estinzione sono come degli individui di ordine superiore e la geografia è importante è importante l'ecologia è importante il modo con cui le popolazioni si disseminano nello spazio geografico era un modo di guardare l'evoluzione molto innovativo non più soltanto nel tempo inesorabile ma anche nello spazio fisico nello spazio ecologico di immersione degli esseri viventi nella biosfera dell'evoluzione 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 nel senso di cambiamento di umani perché non si aspettavano di essere una specie di 4-5 milioni di persone che vivono all'interno del mondo entità come questa non cambiano che si aspettavano di essere abbastanza stabili per lunghi periodi di tempo quindi in realtà credo che quello che vedete su questo planet oggi è esattamente quello che aspettavano se l'evoluzione fosse così come è Stephen Jay Gould continuò le sue ricerche anche dopo la proposta degli equilibri punteggiati lavorando sui temi delle specie dell'evoluzione del cambiamento lui era un esperto di chiocciole terrestri delle isole Bahamas ogni biologo evoluzionista come del resto ogni scienziato deve essere un grande esperto di una piccola porzione della natura e la sua passione erano cerion queste specie di piccole chiocciole che lui studiava però da un punto di vista particolare anche questo molto innovativo le studiava dal punto di vista della forma Stephen Jay Gould è stato un grande morfologo uno che ha capito che l'evoluzione non andava a vista soltanto scomponendo gli esseri viventi come dei mosaici con tessere tutte separate l'una dalle altre capì che gli organismi erano un tutt'uno erano delle morfologie complesse piene di correlazioni di crescita dove cambiando una parte hai degli effetti collaterali da un'altra parte quindi dei sistemi integrati e che le specie di organismi erano pieni di vincoli questa è una parola importante per Gould vincoli di sviluppo vincoli strutturali vincoli architettonici quello che Gould capì già dai primi anni della sua storia di scienziato è che la selezione naturale non fa quello che vuole la selezione naturale è un grande meccanismo fondamentale dell'evoluzione ma che deve trovare dei compromessi con le forme con i vincoli con le strutture che gli organismi hanno ereditato dalla loro storia e questo gioco complicato di compromessi tra funzioni e strutture è stata la seconda potremmo dire grande novità di questo scienziato che ha pure in questo caso suscitato un putiferio perché sembrava mettere in discussione l'onnipotenza dell'estrezione naturale Gould nel 77 pubblica un libro che tradotto in italiano sarebbe ontogenesi e filogenesi due nomi difficili che vogliono dire però una cosa semplice lo sviluppo individuale quindi il processo che porta dalla fecondazione allo sviluppo dell'embrione e alla nascita e poi alla maturazione verso lo stadio gli stadi adulti e la filogenesi cioè la storia delle specie sul lungo periodo adesso potrà sembrare una questione tecnica ma in realtà allora fu un'anticipazione notevolissima adesso nel 2012 esiste addirittura un'intera disciplina che si chiama Evodevo che nasce proprio si dedica esattamente allo studio delle interazioni tra i processi di sviluppo e il processo evolutivo sul lungo periodo e l'idea centrale qual è? è che l'evoluzione spesso ha lavorato proprio sul processo di sviluppo cioè l'evoluzione ha lavorato attraverso innovazioni nei modi con cui gli esseri viventi si sviluppano e una grande intuizione che Gould ebbe alla metà degli anni settanta è per esempio la neotenia che è un esempio di questi processi che riguarda proprio l'uomo in particolare cos'è la neotenia? è un cambiamento nel processo di sviluppo che porta a rallentarne i tempi noi Homo sapiens disse Gould in cosa siamo davvero diversi da uno scimpanzè e da un gorilla dal fatto che rimaniamo bambini più a lungo la neotenia vuol dire trattenere per un tempo più lungo le caratteristiche infantili e adolescenziali noi siamo una scimmia bambina una scimmia che prolunga molto di più che non addirittura l'uomo di Neandertal o altre forme umane o quasi umane il periodo dell'apprendimento e questo è un altro insegnamento importante di Gould perché la neotenia non è un adattamento facile la neotenia significa che in una specie tu hai dei cuccioli che rimangono molto più fragili che nascono immaturi come nel caso per esempio dell'uomo in cui il cervello ha un processo di maturazione per larga parte dopo la nascita e tutto questo è molto rischioso perché è anche molto costoso perché avere dei cuccioli così fragili alle dipendenze dei genitori è un grande investimento eppure questo adattamento ha prevalso perché evidentemente ci ha dato come compromesso dei vantaggi formidabili e quali sono questi vantaggi? Sono la cultura sono la possibilità di avere un maggiore un più lungo periodo di apprendimento sono il fatto che noi non siamo soltanto una specie il cui comportamento è dettato dai geni e dalla biologia ma siamo un intreccio di natura e cultura questo è un altro dei grandi temi che Gould ci ha lasciato due anni dopo questo libro così anticipatore nel 79 Gould esce allo scoperto con un altro suo collega e amico Richard Leventin di Harvard puro lui genetista con un saggio che è diventato famosissimo in campo scientifico il famoso saggio sui pennacchi di San Marco cosa sono i pennacchi di San Marco? tutti noi li abbiamo visitati almeno una volta nella nostra vita nella grande basilica di San Marco se voi entrate osservate la struttura e queste meravigliose opere d'arte che sono contenute al suo interno ma Gould e Leventin fanno notare un aspetto un po' particolare e dicono alzate lo sguardo guardate verso l'alto e vedrete che in San Marco le cupole poggiano su degli archi e questi archi incrociando le cupole formano degli spazi triangolari che sono degli spazi di risulta degli spazi come dire frutto semplicemente dell'architettura questi spazi triangolari si chiamano pennacchi in ambito architettonico e poi Gould diceva beh adesso guardate bene i pennacchi e vedrete che dentro questi pennacchi ci sono delle opere d'arte meravigliose guarda caso quasi tutte con allegorie in base 4 i quattro evangelisti i fiumi sacri adesso guardando questa struttura voi potreste pensare disse Gould che quelle opere d'arte sono lì perfettamente adattate ai pennacchi o addirittura potreste dire beh ma perché esistono i pennacchi per farci stare dentro quelle opere d'arte e Gould disse così facendo fareste un grande errore ma non preoccupatevi perché è lo stesso errore che hanno fatto i biologi evoluzionisti fino adesso detto in altri termini è quello di pensare che nell'evoluzione tutto serva a qualcosa e che qualsiasi struttura tu vedi serve per la funzione che svolge oggi quante volte noi guardando gli animali o guardando i documentari abbiamo pensato beh a cosa servono le gambe per camminare a cosa servono le ali per volare a cosa servono i polmoni per respirare e così via queste assunzioni che ci sembrano così banali sono in realtà quasi tutte sbagliate perché le ali non possono essersi evolute per volare questo lo sapeva già Darwin che tentò di dare una risposta se l'evoluzione è un processo lente e graduale ci sarà stato l'inizio di un'ala e l'inizio di un'ala cosa può servire non certo per volare perché non ti permette di librarti nel cielo ma deve servire a qualcosa d'altro probabilmente nell'evoluzione quindi una struttura nasce per una certa ragione come il pennacchio e poi dopo opportunisticamente potremmo dire come una sorta di bricolage l'evoluzione fa quello che può e riadatta risistema quello che si è sviluppato per arte e ragioni questa è un'idea molto potente molto bella che Gould ci ha lasciato insieme con Elisabeth Verba negli anni 80 e lui la chiamò Exaptation cioè non un adattamento nel senso che la struttura che tu vedi non è nata per la funzione che sta svolgendo oggi ma l'exaptation vuol dire che una struttura è nata per altre ragioni o addirittura forse anche per nessuna ragione questo non è più uno scandalo sostenerlo dopo Gould e che poi nel corso del tempo l'evoluzione ha rimaneggiato come una sorta di artigiano di bricolore con le strutture che si erano formate questo è il momento in cui Gould ingaggia un'altra delle sue grandi battaglie contro tutte quelle visioni che lui chiamava adattazioniste della biologia tutte quelle visioni in cui si ricostruiscono delle storie proprio così molto plausibili in cui la funzione oggi assolta da un organo diventa la ragione della sua evoluzione e questo noi sappiamo Gould che in questo Gould aveva ragione pensate a quando noi guardiamo un comportamento umano per esempio una caratteristica umana quello che noi facciamo spesso diciamo beh noi ci siamo evoluti per assolvere quella funzione Gould invece ci fece capire che l'evoluzione è un processo più complicato un processo più complesso pieno di contingenze e di rimaneggiamenti la selezione naturale quindi non è un ingegnere che ottimizza pezzo per pezzo ma è un artigiano che fa quello che può con il materiale a disposizione Stephen Gould dalla seconda metà degli anni 70 è dunque strenuamente impegnato nella sua battaglia contro le visioni funzionaliste della biologia contro la sociobiologia che venne proposta nel 75 da Wilson da Edward Wilson ma anche contro l'idea del gene egoista di Richard Dawkins questa ricostruzione dell'evoluzione come un gioco meramente competitivo in cui i geni comandano il gioco e gli organismi sono soltanto dei robot che devono soltanto trasmettere la maggiore quantità possibile dei loro geni alla discendenza questa è una visione dell'evoluzione che Gould non amava per niente contro la quale polemizzò a lungo e negli anni 80 escono due opere molto belle di Gould quella che senz'altro è il suo capolavoro assoluto riconosciuto da tutti esce nel 1989 e si intitola Wonderful Life la vita meravigliosa riprendendo il titolo di un famoso film di Capra e poi nel 96 quello che potrebbe essere considerato un po' il suo seguito che in italiano è stato tradotto con gli alberi non crescono fino in cielo che cosa ci raccontano questi libri ci raccontano i due concetti fondamentali nel lavoro di Gould la prima è la critica ad ogni idea di progresso nell'evoluzione che è in fondo una conseguenza di tutto quello che abbiamo detto fino adesso se l'evoluzione è bricolage se l'evoluzione avviene per improvvise punteggiature beh allora vuol dire che tutte le volte che noi associamo l'idea di evoluzione all'idea di progresso e quindi di un costante prevedibile miglioramento ci stiamo ingannando celebre fu l'esempio che Gould le fece e in questo fu davvero un grande anticipatore perché lui allora non aveva grandi dati a disposizione e noi oggi sappiamo che è proprio così quando focalizzò l'attenzione contro quell'immagine di grande successo che abbiamo visto tutti l'evoluzione umana interpretata come una grande marcia di progresso con lo scimmione da sinistra che diventa sempre più umano sempre più simile a noi poi diventa un tipo Neandertal e alla fine diventa magicamente Homo Sapiens come apice di questa grande marcia di progresso Gould raccolse nella sua carriera migliaia di esempi di questa immagine e lui diceva che era la nostra più grande iconografia della speranza cioè la speranza che la storia naturale dovesse portare necessariamente a noi e invece e invece Gould ci fece capire come anche la storia umana era stata non una scala di progresso ma un cespuglio un albero irregolarmente ramificato pieno di specie pieno di esplorazione di possibilità diverse e pieno di contingenza questa è la grande parola che forse sta al centro di tutte le eredità di Gould contingenza che vuol dire non siamo proprio figli del caso ma che siamo figli di una storia in cui gli eventi potevano andare diversamente come amava ripetere Gould l'evoluzione la vita in generale è come un film che ha avuto una certa trama e che ha avuto un certo esito ma ripetendo il film della vita tante volte diceva Gould probabilmente noi otterremmo sceneggiature diverse e soprattutto tanti finali diversi quindi il presente che noi stiamo vivendo oggi non è l'unico necessario ma è stato solo uno dei tanti possibili c'erano altre storie possibili l'evoluzione avrebbe potuto prendere altre direzioni quindi non c'era una necessità scritta fin dall'inizio che si arrivasse proprio qui con la presenza di una specie intelligente capace di interrogarsi sulla natura negli anni 80 e poi negli anni 90 Gould proseguì su questi sviluppi scientifici e nel 1996 pubblicò la seconda edizione di un libro che era già uscito negli anni 80 che fu il libro che gli procurò sia la maggiore quantità di polemiche in assoluto ma anche molti premi perché è un altro vero capolavoro che è intelligenza e pregiudizio il libro in cui Gould rifacendosi a tutto quello che aveva studiato precedentemente attacca fortemente l'idea che si possa dare una definizione genetica e biologica del concetto di razza umana se la prende con l'idea che si possa quantificare l'intelligenza umana con dei quozienti molto precisi e in generale analizza in un modo molto critico tutti quegli sforzi fatti da molti scienziati purtroppo nel passato di usare delle quantificazioni di facoltà e comportamenti complessi per discriminare gli esseri umani tra di loro per discriminare le donne dagli uomini per discriminare una razza da un'altra e questa è stata un'altra grande battaglia ideale di Gould contro tutti i tentativi di usare la scienza per motivi che le erano del tutto estranei per esempio quello di discriminare i gruppi umani Gould non ha sempre avuto ragione ha proposto teorie ipotesi che non hanno avuto seguito per esempio l'idea che ci fosse una selezione tra le specie in la vita meravigliosa ricostruisce la storia della nascita della vita pluricellulare in un modo che oggi è stato rivisto si scagliò contro delle innovazioni anche in ambito evolutivo che oggi invece si sono rivelate molto utili come la cladistica e così via e addirittura nel 2011 si è scoperto che in intelligenza e pregiudizio lui aveva forse messo troppo in caricatura uno scienziato ottocentesco che aveva classificato le razze e nel metterlo in caricatura anche lui aveva fatto lo stesso errore che gli scienziati facevano nel passato cioè di dare troppa importanza a certi dati anziché ad altri Gould fu anche un provocatore in molte occasioni nella sua carriera radicalizzò appositamente molte sue posizioni forse anche per attirare l'attenzione o forse per creare dei dibattiti più accesi poi spesso tornò sui suoi passi e riformulò le sue idee in un modo più moderato però in generale fu un grande anticipatore sia sul piano teorico che sul piano scientifico e nel 2002 pochi mesi prima di morire molto giovane purtroppo pubblica un'opera lunga 1700 pagine il suo potremmo dire monumentale testamento scientifico che si intitola La struttura della teoria dell'evoluzione dove alla fine propone la sua grande idea di estensione e revisione della teoria darwiniana quello che lui chiamava pluralismo darwiniano l'idea che l'evoluzione avvenga attraverso una pluralità di tempi cioè di ritmi attraverso una pluralità di livelli dell'evoluzione non soltanto i geni ma anche gli organismi i gruppi le specie gli ecosistemi e una pluralità di fattori cioè non soltanto adattamento ma anche vincoli strutturali lo sviluppo i compromessi la deriva genetica e così via c'erano tre accuse che Gould non tollerava la prima era quella di essere definito un anti-darwiniano Gould non fu affatto un anti-darwiniano fu un riformatore fu un evoluzionista che propose opportunamente secondo molti un aggiornamento un'estensione una revisione della teoria darwiniana come è giusto che sia per qualsiasi teoria scientifica non fu un relativista radicale come spesso fu accusato di essere lui dava una grande importanza ai fattori sociali che influiscono sulla scienza però era convinto che la scienza ci dicesse qualcosa di vero qualcosa di affidabile che ci raccontasse dei fatti che fosse addirittura oggettiva ed è questa ragione per cui forse l'accusa che più lo ferì nella sua vita fu quella che gli mossero alcuni suoi avversari dicendogli che lui con tutto questo suo riformismo nei confronti della teoria darwiniana fiancheggiava o dava lo spunto ai creazionisti questo lo fese molto e lui si impegnò sempre moltissimo in tutta la sua vita contro le posizioni del fondamentalismo religioso americano testimoniò addirittura in diversi processi riguardanti l'insegnamento delle dottrine neocreazioniste nelle scuole americane poche settimane prima di morire nel dicembre del 2001 addirittura stava per firmare una lettera insieme con il suo grande nemico di sempre Richard Dawkins in questa lettera i due avversari di sempre si equalizzavano si mettevano insieme e proponevano a tutti gli evoluzionisti di non accettare più dibattiti pubblici con i creazionisti perché in questo modo avrebbero fatto chiarezza e avrebbero evitato di sottoporsi a dei dialoghi non alla pari dialoghi non leali contro questi negazionisti Gould sostenne nella sua vita l'idea che la scienza e la religione fossero diceva lui due magisteri indipendenti e non sovrapponibili l'uno all'altro dovevano rispettarsi dovevano dialogare l'uno con l'altro ma non necessariamente entrare in conflitto l'uno con l'altro So that's what we were fighting we were fighting the attempt by these strict biblical literalists to dishonestly force the teaching of their marginal religious view as an alternate science in public schools of course you'd have to object to that as a science nobody how can you be a decent educator if you're forced to teach a manifest falsehood and give it equal time with something that the evidence overwhelmingly points to you just couldn't possibly teach honestly in such a circumstance Stephen Jay Gould venne colpito giovanissimo nel 1982 da una forma molto aggressiva di mesotelioma addominale si curò con grandissima intensità e scrisse addirittura un saggio che si intitola La mediana non è il messaggio dove analizzava le possibilità di sopravvivenza a questa malattia e in modo molto pieno di speranza disse che lui probabilmente non faceva parte di questa mediana e che quindi le prognosi avverse che gli facevano i medici sarebbero state smentite e aveva ragione perché guarì da quel tumore che lo colpì nel 1982 poi però la malattia forse non la stessa forse un'altra forse indipendente si è ripresentata nel 2002 questa volta ai polmoni e Gould non è riuscito a vincerla e muore il 20 maggio nel 2002 a New York lasciandoci tantissimi libri lasciandoci addirittura 300 saggi che lui pubblicava mese per mese sulla rivista Natural History del Museo di Storia Naturale di New York dei capolavori di scrittura lui partiva da dei dettagli insignificanti e da quelli era capace di ricostruire degli scenari di storia della scienza straordinari era un amante delle tradizioni minori gli piacevano i cattivi della storia che lui diceva poi così cattivi non lo erano mai davvero gli piacevano i marginali i dimenticati quelli che avevano detto cose troppo presto o al momento sbagliato e che non erano stati ascoltati e amava ripetere che la storia delle scienze è piena di scienziati che hanno avuto ragione per dei pessimi motivi e gente che ha avuto torto ma per dei buoni motivi era un grande comunicatore della scienza e ci ha insegnato che si può essere scienziati e grandi intellettuali nello stesso tempo e che la scienza deve essere considerata una forma alta di cultura che può dialogare alla pari con l'arte con la filosofia e con altre grandi forme gloriose di ricerca intellettuale questa è la storia di una grande rivoluzione scientifica di cui però quasi nessuno al tempo si accorse a riprova del fatto che la storia della scienza e delle grandi scoperte non è sempre lineare ma spesso segue percorsi tortuosi è la storia di Johann Mendel perché il nome originale era Johann Mendel nato il 20 di luglio del 1822 a Incice in Slesia al confine con la Polonia da una modesta famiglia di mezzadri buongiorno gente del 21esimo secolo mi chiamo Johann ma un giorno tutti mi chiameranno Gregorio sono nato a Heisendorf un borgo che ora fa parte della Repubblica Ceca la regione dove sono nato nel mio tempo faceva parte dell'impero d'Austria e Ungheria come anche le vostre Milano e Venezia papà coltivava le piante da frutto e lavorava nei campi dall'alba al tramonto il parroco mi aveva insegnato a leggere e a innestare le piante Mendel è uno studente brillante parla il tedesco e il cieco frequenta il ginnasio di Opava per sei anni dando tra l'altro già lezioni private per mantenersi agli studi e soprattutto mandare soldi a casa alla famiglia che nel frattempo era caduta in povertà a causa di una carestia si diploma nel 1840 ma non ha i soldi per continuare gli studi e così cade in una delle sue frequenti depressioni ne avrà diverse poi nel corso della vita ma si riprende e trova il modo di iniziare gli studi universitari la famiglia però è sempre più in povertà e non riesce più ad aiutarlo essere ammessi in un monastero era a quel tempo un modo possibile e abbastanza sicuro per potersi guadagnare da vivere e proseguire gli studi Mendel viene ammesso nel 1843 nel monastero agostiniano di San Tommaso a Bernon risalente al XIV secolo con una storia antica prende il nome di novizio e viene chiamato Gregor Gregor Mendel il monastero aveva un'ottima biblioteca e si studiavano lì le scienze naturali soprattutto ci lavorava Anton Keller che era un grande esperto di incroci di piante meloni piante da frutta e così via che dà a Mendel le prime nozioni di agronomia e di impollinazione artificiale l'abate di Bernon capisce però ben presto che Gregor era sprecato per il lavoro della parrocchia soltanto e lo destina all'insegnamento e allo studio delle scienze tant'è che nel 49 Mendel già insegna sia materie classiche che matematica in un villaggio vicino nel 1851 l'abate trova il modo finalmente di mandare Mendel all'università di Vienna a studiare matematica e scienze naturali lui è abbastanza vecchio ha dieci anni più degli altri studenti ma in compenso trova ottimi maestri per esempio il fisico Doppler quello che diventerà poi famoso per la scoperta dell'omonio effetto e anche il botanico Karl Naghelli è un grande studioso della divisione cellulare e dell'impollinazione Mendel così consolida la sua formazione matematica studiando statistica applicata alla meteorologia l'analisi matematica la combinatoria la teoria della probabilità dal 1953 insegna il ginnasio di Bernot continuando a frequentare saltuariamente Vienna e continuando a mandare soldi a casa alla famiglia a metà tra la statistica e la botanica era scattata una scintilla si stava formando uno scienziato che a quel tempo era del tutto particolare perché univa alla passione per l'osservazione minuziosa dei fenomeni naturali come ce l'aveva anche Darwin le competenze matematiche e statistiche necessarie per quantificare per dare una misura alle regolarità della natura Gregor Mendel nel 1854 decide di inserirsi in un filone di ricerche che era già esistente sulla riproduzione delle piante e sulla ibridazione altri studiosi lavorando per esempio sui piselli ma anche sulle piante di tabacco sul mais già dalla fine del settecento avevano notato come certi caratteri ricomparissero con una certa regolarità dopo due generazioni in particolare allora Mendel cosa fa? progetta esperimenti per comprendere appunto le regole generali della trasmissione ereditaria sceglie le piante di pisello perché può essere incrociata facilmente produce a ogni incrocio molti discendenti e come sanno bene gli orticoltori cresce sia in serra che in giardino Mendel fa arrivare a Bernot venticinque varietà diverse di pisello e ne studia tutte le caratteristiche possibili il colore posizione dei fiori la lunghezza dello stelo la forma e colore dei baccelli la forma e colore dei semi poi soprattutto per ciascuna di queste caratteristiche lui disponeva di varietà con caratteristiche alternative il fiore poteva essere bianco o rosso il seme giallo o verde eccetera eccetera già nei primi incroci si rende conto che alcune caratteristiche permangono attraverso le generazioni mentre altre scompaiono e poi però ricompaiono tutto molto strano però era l'inizio in realtà di una scoperta rivoluzionaria soprattutto Mendel a differenza di altri si rende conto che è meglio concentrarsi su una caratteristica per volta per esempio sulla superficie del seme allora cosa fa incrocia una varietà di pisello per esempio con semi lisci fertilizzandola con una varietà con i semi rugosi e scopre che la prima generazione ottiene tutti i semi lisci e basta segno che uno dei due caratteri è dominante sull'altro allora l'anno dopo cosa fa decide di auto fecondare le piante con i semi lisci che aveva ottenuto nella prima generazione e così ottiene dei numeri particolari ottiene 5474 semi lisci e 1850 semi rugosi e qui entra in gioco il suo occhio da matematico perché si accorge che questo è un rapporto numerico preciso 3 a 1 interessante quindi cosa è successo che tre quarti alla seconda generazione sono ancora lisci ma un quarto torna ad essere rugoso come mai a questo punto lui è molto incuriosito cosa fa ripianta e auto feconda tutte le piante della seconda generazione e qui le cose si fanno più complicate perché Mendel nota che incrociando le piante con i semi rugosi che aveva ottenuto un quarto non soltanto si ottengono soltanto piante con semi rugosi vanno avanti così mentre dalle piante con i semi lisci si ottengono per un terzo semi lisci di nuovo e per due terzi torna fuori quella strana proporzione da 1 a 3 a questo punto Mendel forse ha capito si concentra sugli altri 6 caratteri e ottiene tutte le volte le stesse proporzioni a questo punto capisce che esistono due fattori ereditari in ogni pianta e che sono loro a determinare trasmissioni delle caratteristiche chiamerà la caratteristica che si manifesta nei libri di prima generazione per esempio abbiamo visto la superficie liscia del seme dominante e recessiva quell'altra la sua mente da matematico a questo punto sistema il resto inventa una notazione famosissima e decisiva con la A maiuscola e B maiuscolo per i caratteri dominanti A e B minuscoli invece per quelli recessivi in estrema sintesi ecco la scoperta rivoluzionaria di Mendel l'aspetto esterno della pianta che più tardi verrà chiamata fenotipo è il risultato della combinazione di unità di particelle potremmo dire che costituiscono quello che poi dopo verrà chiamato genotipo ognuna delle quali può esistere in forme diverse che oggi chiamiamo alleli come stati poi chiamati da William Bateson nel 1902 se un individuo possiede lo stesso fattore sarà omozigote mentre se possiede entrambe le forme sarà eterozigote per quel fattore era davvero un modo nuovo di pensare alla trasmissione ereditaria e alle piante e al loro modo di trasmettere le informazioni da una generazione all'altra Grecoel Mendel ricava da questi esperimenti sui piselli tre principi generali il primo dice che ciascuno dei caratteri che passano da una generazione all'altra dipende da coppie di fattori ereditari specifici abbiamo visto semi lisci semi rugosi e così via poi seconda idea è che queste coppie di fattori specifici sono ereditate in modo separato cioè non si influenzano l'una con l'altra nei libri non si mescono non trovano dei compromessi il pisello nasce o con i superfici dei semi lisci o rugosa e poi una terza idea molto importante è che ciascuna caratteristica ereditaria è prodotta dalla combinazione di due fattori uno che proviene da un genitore e l'altro dall'altro e che può essere dominante o recessivo dando origine poi a quelle proporzioni numeriche che Mendel calcola Mendel invece non si occupa di mutazioni questo è importante cioè dei cambiamenti negli elementi ereditari stessi quando passano da una generazione alla successiva quello verrà dopo soltanto nel novecento si calcola che Mendel abbia coltivato fino al 1868 24.000 piante di piselli cosa succede che nel febbraio del marzo del 1865 Mendel è convinto a questo punto ha capito di avere per le mani una scoperta importante e la presenta alla società di scienze naturali di Bernot in una comunicazione che a dire il vero aveva un titolo molto poco accattivante cioè esperimenti sull'ibridazione delle piante semplicemente ne fa stampare 40 coppie di questa comunicazione e le spedisce a 40 colleghi un po' in tutta Europa di queste 11 sono state ritrovate mentre di 29 non si è più avuta traccia e qui succede una cosa abbastanza incredibile cioè che ben pochi gli rispondono fra loro gli risponde il suo maestro Karl Naghelli che però non coglie affatto il valore degli esperimenti del suo allievo e non lo incoraggia affatto a perseguire anzi gli dice ma insomma guarda lascia stare perché addirittura Mendel gli manda i semi e lo incoraggia a rifare l'esperimento ma Naghelli non ci pensa nemmeno e gli sconsiglia di andare avanti anche perché il suo maestro aveva in mente una teoria diversa della ereditarietà e non sempre gli scienziati amano essere contraddetti ben presto Mendel si lascia sopraffare dalla delusione per il mancato riconoscimento anche perché e questo è un fatto per cui lui è stato un po' sfortunato lui si mette poi a fare altri esperimenti su altre piante che però non funzionano altrettanto bene ci prova con i fagioli accorgendosi che alcuni caratteri sono trasmessi secondo le leggi che lui aveva trovato nei piselli ma altri no poi fa esperimenti con altre piante che però hanno altre modalità di trasmissione ereditarie e quindi non funzionano e allora lui comincia a dubitare della generalità delle sue leggi quando il 30 di marzo del 68 viene eletto Abate a quel punto gli impegni amministrativi cominciano a portargli via un sacco di tempo tra l'altro a Bernou e anche all'interno del monastero c'erano molte tensioni tra la comunità tedesca e la comunità cieca il governo austro-ungarico pretendeva tasse sempre più alte Mendel aderisce al partito liberale inimicandosi peraltro molti monaci e la chiesa cattolica insomma praticamente due anni dopo avere pubblicato il suo famoso saggio aveva un sacco di altre cose a cui pensare e decide malauguratamente di lasciar perdere tutte quelle storie sui piselli e sui loro meccanismi ereditari non smette però di fare ricerca perché in pochi lo ricordano ma Mendel fu anche un apprezzato meteorologo il più autorevole a dir la verità di tutta la regione ed era un membro della Vienna Meteorological Society lui dall'abbazia di Bernou faceva osservazioni sui venti sulle piogge sulle falde acquifere pubblica un articolo di grandissimo successo su un tornado che si era scatenato nella zona un articolo che incredibilmente vende 500 coppie quindi molto più dell'articolo suo sui piselli e inventa poi una rete di punti di osservazione meteo in tutta la Moravia e incredibile a dirsi ma nel necrologio ufficiale di Mendel i suoi studi meteorologici sono citati come molto più importanti di quelli sull'ibridazione delle piante poi si occupa anche di api continua a incrociare piante da frutto e viti vince un sacco di premi per aver inventato nuove varietà di mele e di pere e piccola consolazione qualche tempo dopo nel 1882 un grande esperto di bridatore di fiori inventa una nuova varietà di fucsia che avrà un grandissimo successo e la dedica proprio a Mendel perché era il suo fiore preferito a Mendel piaceva così tanto fare ricerca che questa sua attività occupava gran parte della sua vita lavorativa e almeno in un'occasione i suoi superiori religiosi fecero delle ispezioni nell'abbazia per capire se i monaci si dedicavano davvero anche ai loro obblighi pastorali cioè l'educazione l'assistenza ai malati oltre che alle osservazioni naturalistiche e la segnalazione in un caso giunse persino in Vaticano senza però sortire alcun effetto perché le rassicurazioni di Mendel bastarono e fu perdonato dalle gerarchie ed è stata trovata una lettera molto simpatica nella quale Mendel rassicura i suoi superiori dicendo che a Berno non si fa soltanto scienza ma anche attività pastorale in quegli anni si consumò anche uno stranissimo incontro mancato tra due giganti delle scienze naturali dell'ottocento nello stesso periodo infatti in Inghilterra da un'altra parte dell'Europa anche Charles Darwin niente meno si stava occupando delle leggi della variazione e di come le variazioni che sorgono tra gli individui biologici si trasmettono da una generazione alla successiva Gregor Mendel lesse in tedesco l'origine delle specie di Darwin quasi subito ma non si accorse questo è un fatto molto strano della complementarità con le sue idee abbiamo trovato la copia di Mendel del libro di Darwin dove Mendel si è annotato un po' di cose un po' di appunti ma più che altro su questioni come la compatibilità tra le idee evoluzionistiche e la religione ma non si accorge che in realtà Mendel lui ha per le mani le leggi delle elitarietà che mancano a Darwin e Darwin dal canto suo non lesse invece il saggio di Mendel e non ne riconobbe l'importanza anche se nella sua libreria abbiamo trovato due volumi che parlavano degli esperimenti di ibridazione condotti a Burn da un certo Mendel in uno dei due libri tra l'altro Darwin e Mendel sono citati persino insieme nelle stesse pagine però Darwin le lasciò in tonse non le lesse e quindi si è perso questa connessione invece nella biblioteca di Darwin non è mai stato trovato il saggio di Mendel anche se spesso questa notizia è circolata è stata scritta da più parti non è mai stato trovato il fatto qual è è che Darwin era interessato a variazioni diverse da quelle che studiava Mendel Darwin era interessato alle variazioni cosiddette continue quelle che si presentano con una gradazione per esempio l'altezza di una persona che non è mai o tutto o niente come avere i piselli con i semi lisci o rugosi e che non presentano le proporzioni di Mendel con la stessa chiarezza Darwin poi aveva già formulato negli anni precedenti una teoria sulla ereditarietà che era sbagliata lui pensava un mescolamento dei caratteri nel sangue insomma non aveva capito che cosa succedeva veramente e inoltre Darwin a differenza di Mendel non sapeva molto di matematica non aveva una preparazione statistica come quella di Mendel per tutte queste ragioni molti pensano che se Darwin avesse anche letto il saggio di Mendel probabilmente non lo avrebbe capito nei testi che Darwin dedicò alle piante perché Darwin pure si occupò molto di piante abbiamo trovato dei calcoli fatti tra l'altro alcuni proprio sui piselli che arrivavano molto vicini alle proporzioni scoperte da Mendel quindi praticamente Darwin aveva sotto gli occhi gli stessi fenomeni che Mendel aveva osservato ma non aveva la teoria giusta per interpretarli e questo è molto importante perché è una prova del fatto che nella scienza non basta la sola osservazione del fatto ma ci vogliono anche gli occhiali giusti per interpretarlo ci vuole anche il modo giusto e corretto per capire l'importanza di un dato che hai sotto mano così alla fine due scienziati rivoluzionari Mendel e Darwin si sfiorarono senza incontrarsi e pensare che Mendel era andato a Londra nel 1862 tre anni dopo l'uscita dell'origine delle specie per visitare la grande expo l'esposizione universale che era tra l'altro un'ottima occasione anche per convegni per scambi scientifici come anche adesso Darwin era a poche miglia di distanza ma aveva un figlio malato e poi sappiamo che lui non aveva molto muoversi dalla sua casa di campagna nel Kent e alla fine i due non si diedero appuntamento è molto bello immaginare come sarebbe cambiata la storia della scienza se davanti a un tè avessero deciso all'expo di Londra di raccontarsi l'un l'altro quello che stavano facendo Gregor Mendel morì ai primi di gennaio del 1884 per mal di cuore e venne sepolto nel piccolo cimitero di Bernou soltanto la società agricola locale menzionò distrattamente le sue scoperte sull'ereditarietà abbiamo dei testi però dove diversi suoi monaci riferiscono che negli ultimi anni era solito ripetere in modo un po' nostalgico verrà il mio tempo cioè verrà un giorno in cui capiranno che cosa ho scoperto e in effetti quel giorno è arrivato ma soltanto 16 anni dopo la sua morte in particolare nell'anno 1900 quando succede qualcosa di insolito cioè che tre diversi scienziati ibridatori di piante anche loro contemporaneamente ma indipendentemente gli uni dagli altri riscoprono le leggi di Mendel tutti e tre erano entrati in contatto indirettamente con il saggio di Mendel e ne confermano i risultati tra l'altro usando la stessa terminologia e subito gli riconoscono tutti gli onori del caso e le leggi vengono chiamate le leggi di Mendel nel 1910 viene finalmente organizzata una grande celebrazione di Mendel a Bernot e gli dedicano una statua e la piazza è finalmente la consacrazione scientifica ancorché postuma della sua scoperta ma soprattutto del suo metodo negli stessi anni poi nasce ufficialmente la genetica e verranno poi capiti i meccanismi cellulari e poi molecolari di ciò che Mendel aveva osservato nel 1936 Ronald Fisher contestò a Mendel di aver aggiustato le statistiche le proporzioni numeriche secondo Fisher erano troppo perfette per essere il frutto di incroci casuali così Fisher sospettò che Mendel avesse scartato le piante che contraddicevano le attese il dibattito proseguì per decenni tra colpevolisti e innocentisti e alla fine il genetista Cyril Ryle concluse che Mendel non poteva aver falsificato intenzionalmente i dati e poi alla fine Fisher stesso anche senza ritirare l'accusa tributò a Mendel i massimi onori per tutti i contributi dati alla biologia sulla figura di Mendel pesarono nel novecento però anche delle incredibili censure ideologiche negli anni dello stalinismo il famigerato biologo lamarchiano Trofim Lisenko rifiutò le idee mendeliane perché la stabilità dell'informazione contenuta nei geni nel frattempo scoperti sembrava in contraddizione con la capacità del comunismo di forgiare l'umanità e anche i prodotti agricoli per modificarli da generazione a generazione la genetica venne bollata come falsa scienza borghese i suoi esperimenti furono bocciati e tutti i suoi esponenti dovettero emigrare oppure furono arrestati così che cosa succede che nel 1950 la polizia segreta cecoslovacca chiude il museo Mendel a Berno distrugge la serra dove Mendel aveva lavorato nel 59 viene rimossa la sua statua e il monastero viene trasformato in una fabbrica soltanto nel 1965 nel centenario di Mendel la società di genetica russa ammise il grave errore chiese scusa e riconobbe ufficialmente il valore di Mendel ma soltanto nel 1990 pochi monaci sparuti rientrarono in possesso del monastero oggi un piccolo ma molto prezioso museo dentro l'abbazia ricorda la storia di quest'uomo che per primo ma troppo in anticipo sui tempi decifrò le leggi segrete dell'ereditarietà ascoltando il suo cognome gli occhi di qualsiasi scienziato un po' ambizioso cominciano subito a brillare perché sognano di nascosto il più prestigioso e ambito premio scientifico mondiale il cognome è quello di Nobel Alfred Nobel nato a Stoccolma nel 1833 rampollo di una famiglia di ricchi industriali svedesi cresciuto in realtà in Russia a San Pietroburgo da quando aveva nove anni perché il papà era coinvolto nell'industria degli armamenti russi il tema delle armi tornerà spesso in tutta la sua vita Alfred si mise poi a studiare chimica diventando ben presto un precoce cosmopolita viaggiò tantissimo e parlava fluentemente sei lingue un po' per l'aria di famiglia comincia a interessarsi giovanissimo di armi di armamenti in particolare di esplosivi a base di nitrati a Torino viene a sapere durante uno dei suoi viaggi della scoperta di una strana miscela esplosiva chiamata nitroglicerina per opera di un italiano il piemontese Ascanio Sobrero ancora una volta un italiano un medico un chimico che in pochi ricordano oggi che fu al centro di una scoperta che in realtà ha cambiato il mondo anche se poi porterà il nome di altri scienziati e pensare che Sobrero che fu il pioniere tra l'altro dei fluidificanti per i bronchi e di alte scoperte aveva già capito anche la funzione medica vasodilatatoria di questa nitroglicerina Nobel impara tutto questo poi va a Parigi dal maestro di Sobrero e affina la tecnica per produrre il cosiddetto olio esplodente a partire dall'acido nitrico appunto nel 52 quando ha solo 19 anni va già negli Stati Uniti a studiare chimica e ingegneria mineraria e inizia così la sua brillante carriera di inventore brevettando già subito un contatore a gas e poi alcuni detonatori Nobel era un tipo solitario molto schivo non rilasciò mai interviste in tutta la sua vita non voleva farsi fare dei ritratti forse dicono affetto da attacchi di depressione era un gran lavoratore non credente appassionato di poesia e di letteratura lui stessa poeta dilettante tra l'altro autore di componimenti anche un po' scabrosi legge il prometeo liberato di Shelley e si innamora lo ispira tantissimo e lo interpreta come metafora della potenza della scienza e della tecnologia nel 1876 cercò una segretaria ma anche una dama di compagnia attraverso un annuncio sul giornale tanto era timido e riservato definendosi un uomo ricco e molto colto di una certa età e si innamorerà di Bertha Bertha von Sottner la prima che rispose all'inserzione una bellissima contessa decaduta che fuggì però poi per sposarsi di nascosto con un altro diventando poi Bertha in seguito una leader dei movimenti pacifisti internazionali e mantenendo comunque con Nobel una lunga corrispondenza che lo influenzerà molto sui temi appunto del pacifismo un'altra storia poi lui la ebbe con una giovane viennese Sophie S che diventerà poi importante per il suo testamento che lui si portò a Parigi ma la storia durò 18 anni e poi finì anche quella ma nella sua mente c'era sempre fin da ragazzo quell'idea di addomesticare la nitroglicerina scoperta dall'italiano Sobrero bisogna fare molta attenzione la devi far scendere molto lentamente bastano poche gocce per saltare in aria oggi sono andato a registrare il brevetto ho scelto un bel nome olio esplosivo nel 1864 la fabbrica laboratorio di Nobel sulla nitroglicerina a Ellenborg vicino a Stoccolma purtroppo salta in aria uccidendo il fratello ventunenne di Alfred Emil Oscar la nitroglicerina è un potente esplosivo ma è molto instabile è pericolosissima da maneggiare perché è molto sensibile al calore e alla pressione come già Sobrero aveva capito suggerendo di usarla con estrema cautela troppi incidenti si susseguono e viene addirittura bandita per un certo periodo in diversi paesi europei poi in Germania vicino ad Hamburgo Alfred Nobel scopre la diatomite una roccia porosa inerte di origine fossile in pratica una farina fossile di origine organica che è il frutto dell'erosione dei gusci di certe alghe microscopiche chiamate diatomee dentro la quale lui riesce a diluire la nitroglicerina modellandola in una specie di pasta più stabile nasce così la dinamite cioè la miscela potente con i suoi famosi candelotti di segatura compressa Nobel la brevetta nel 1867 e fa una montagna di soldi viene usata per esempio nel 1870 per aprire il tunnel del San Gottardo Nobel fonda 90 fabbriche in 20 paesi diversi tra i quali l'Italia e investe nei pozzi petroliferi del Caspio diventa un uomo ricchissimo uno dei più ricchi al mondo per correttezza o forse per senso di colpa Nobel riconosce una parte della paternità della sua scoperta a Sobrero e decide di intestargli una pensione un vitalizio che però ovviamente era una briciola rispetto ai suoi guadagni nel 68 Nobel e il padre e qui comincia anche una certa ironia della storia ricevono dall'Accademia Reale delle Scienze di Svezia il premio per la scoperta più importante di valore pratico per l'umanità davvero un'ironia se pensiamo agli usi che poi ne verranno fatti il dettaglio però è importante perché a premiarli è proprio l'Accademia Reale Svedese di cui Nobel diventerà poi membro e a cui poi affiderà il suo celeberrimo l'ascito del premio Nobel alla fine lui diventerà titolare di più di 350 brevetti comprese gelatine esplosive ancora più potenti della dinamite che si usano ancora oggi in tutte le miniere del mondo e purtroppo anche in guerra lui però stranamente pensava che la dinamite avrebbe in realtà scongiurato le guerre nel mondo in una lettera la definisce un'efficace deterrente proprio a causa della sua potenza e scrive che se due esercici capiscono che possono annientarsi reciprocamente senza scampo allora capiranno di dover evitare la guerra e smobiliteranno insomma la dinamite per la pace è un po' il controverso argomento della deterrenza che nel secolo successivo verrà ripetuto anche con le armi nucleari e del resto non era da solo Nobel perché anche un grande genetista come J.B.S. Holden pensava lo stesso dei gas tossici furono previsti come strumenti di pace in terra anche la mitragliatrice l'aeroplano il sottomarino da Jules Verne e anche la radio da Guglielmo Marconi che nel 1909 vincerà giovanissimo a 35 anni appunto il premio Nobel per la fisica molti lo hanno pensato anche del telefono del di internet e invece ci tocca assistere alla nascita della cyber guerra quindi il tema della deterrenza è sempre stato molto controverso e Nobel lo ha in qualche modo inaugurato secondo gli storici pur con tutte le cautele del caso ci fu un evento scatenante e contingente all'origine del premio Nobel il premio appunto che porta il nome di Alfred Nobel nel 1888 anche un altro suo fratello Ludwig un ricco imprenditore pure lui muore mentre è nei paraggi di Cannes e un giornale francese per sbaglio attribuisce la scomparsa al più famoso fratello appunto Alfred lo scopritore della dinamite il titolo del quotidiano è scioccante e lascia Alfred di sasso recita il mercante di morte è morto lui proprio lui filantropo progressista pacifista definito da un giornale un mercante di morte e in particolare uno diventato ricco dice il giornale trovando il modo di uccidere il maggior numero di persone nel modo più veloce possibile la guerra di troia non si farà di Jean Giraudoux e voi volete la guerra Ulisse io no ma non sono sicuro che non la voglia lei stessa ma i nostri popoli ci hanno delegati tutte e due per scongiurarla il fatto che siamo qui dimostra che nulla è perduto siete giovane Ettore alla vigilia di ogni guerra è normale che i due capi dei popoli in conflitto si incontrino soli in qualche innocente paese sulla terrazza e riva ad un lago in un angolo di giardino e ad intervalli una breccia leggera e convengono che la guerra è il peggior flaggello del mondo e tutte e due a seguire con lo sguardo quei riflessi e quelle rughe sulle acque a sentirsi sulle spalle quei petele di magnolie si sentono pacifici modesti leali e si studia una vicenda e si guardano e indipiditi dal sole inteneriti da un dolce vinello non ritrovano nel volto che hanno di fronte nessun tratto che giustifichi l'odio nessun tratto che non invochi l'amore tra gli uomini e niente di incompatibile nelle loro parole nel loro modo di grattarsi il naso di bere essi sono veramente ricolmi di pace di desiderio di pace e si lasciano streggendosi la mano e sentendosi fratelli si voltano ancora dalle loro vetture per sorridersi ma il giorno dopo come va come non va scoppia la guerra a questo punto Alfred Nobel pensa dentro di sé beh devo avere sbagliato qualcosa devo porre rimedio per non essere ricordato dopo morto in questo in questa maniera terribile quindi la motivazione dell'istituzione di un premio al suo nome per la pace è abbastanza strana nel 1893 Nobel annuncia di voler assegnare ogni cinque anni il premio e per sei volte soltanto perché dice se in trent'anni l'umanità non avrà raggiunto la pace perpetua riformando i suoi sistemi politici allora vorrà dire che sarà ricaduta nella barbarie quindi diciamo che era un convinto pacifista ma anche molto pragmatico la pace raggiunta anche attraverso il deterrente della dinamite un premio figlio del senso di colpa e del tormento interiore quindi per certi aspetti ma forse più che altro frutto di suoi convincimenti lui non aveva figli e pensava che fosse sbagliato fare vivere di rendita i propri discendenti e quindi decide di dare gran parte dei suoi averi non alla famiglia ma a un premio e poi era sicuramente mosso anche dal desiderio ovviamente di non essere ricordato soltanto come il padre della dinamite a causa di qualche problema legale con lo stato francese nel 1891 Nobel lascia Parigi per l'Italia e muore abbastanza giovane a 63 anni nel suo buon ritiro di Sanremo la Sanremo della Belle Epoque peraltro il 10 di dicembre del 1896 una data importante perché è quella in cui ancora oggi si celebra la consegna del premio Nobel e ancora oggi la magnifica sala blu del municipio di Stoccolma dove si tiene il banchetto del Nobel successivo alla premiazione è ornata ancora ogni anno da migliaia di fiori di Sanremo un anno esatto prima della morte ai primi di dicembre del 1895 Alfred Nobel firma a Parigi dove ancora stava davanti a quattro testimoni da lui convocati dai paesi scandinavi nella sede proprio del circolo della cultura scandinava un testamento che lo renderà celebre per sempre e che lo farà anche odiare dai suoi parenti stretti che speravano di ereditare la sua fortuna e che porta la fatidica data nella firma del 27 di novembre è un testamento composto in una sola pagina una sola facciata scritta fitta fitta che cambierà per sempre la storia della scienza in realtà c'è scritto che gran parte del suo patrimonio è stato calcolato che sarebbe equivalente oggi a circa 180 milioni di euro dovrà essere impiegato in investimenti sicuri di lungo periodo redditizi istituendo un fondo i cui interessi ogni anno dovranno essere elargiti sotto forma di premio alle persone che nell'anno precedente si saranno distinte per i loro servigi all'umanità scrive Nobel in cinque campi ben precisi un quinto del premio a chi avrà fatto la scoperta o invenzione più importante nella fisica un altro quinto a chi avrà fatto scoperta o apportato il cambiamento più importante invece nella chimica e un quinto ancora per il più grande scopritore dell'anno prima sempre nel campo della fisiologia o della medicina poi un quinto all'autore dell'opera letteraria più notevole e qui Nobel scrive stranamente di ispirazione idealistica un'indicazione piuttosto strana criptica che poi per fortuna non verrà seguita pedissequamente anche perché ovviamente gli stili letterari evolvono e non si potevano certo premiare soltanto autori romantici come il suo amato Percy Shelley infine c'è un quinto e ultimo premio che dovrà essere assegnato dice Nobel a chi individui o gruppi in questo caso si fosse prodigato di più ai fini della fraternità tra le nazioni per l'abolizione o la riduzione degli eserciti e per i progressi in generale nella pace e qui nasce il famoso premio Nobel per la pace anche come quinta categoria l'entità economica del premio quindi per come è scritto il testamento dipende dagli andamenti della borsa degli interessi sul fondo Nobel e infatti ha avuto alti e bassi a seconda dei periodi è stato molto basso dopo la seconda guerra mondiale però poi per esempio dal metà degli anni 90 agli anni 2000 va abbastanza bene e per la cronaca porta quasi ogni volta un premio di più di 800 mila euro al singolo premio Nobel il premio Nobel secondo Alfred deve essere questo è molto importante transnazionale cioè non deve tenere in alcun conto scrive il cosmopolita e poliglotta Alfred la nazionalità dei candidati questo resta vero anche se obiettivamente nelle ascendazioni dei Nobel le lobby e gli orgogli nazionali contano moltissimo e lo hanno sempre fatto e proprio perché è un premio estremamente prestigioso su cui si sono giocati poi anche lotte tra nazioni e tra rivalità nazionali i primi due premi quello per la fisica e per la chimica scrive Nobel devono essere assegnati dall'Accademia Reale Svedese delle Scienze che lo aveva appunto già premiato anche lui di cui era membro quello in fisiologia e medicina invece dal Karolinska Institut di Stoccolma quello per la letteratura naturalmente dall'Accademia invece artistica e umanistica di Stoccolma quello per la pace invece da una commissione di cinque persone istituita dal Parlamento norvegese quindi non in Svezia ma in Norvegia e questo perché Nobel voleva unire Svezia e Norvegia nel segno della pace e della neutralità politica il premio per Nobel doveva essere dato assegnato in terra neutrale i premi Nobel sono irrevocabili e inappellabili questo è molto particolare cioè non lo si può revocare nemmeno se il premio Nobel commette gli atti più più terribili dopo averlo preso se per caso in un certo anno nessuno è ritenuto meritevole lo si può anche non attribuire è successo diverse volte e dal 1974 questa è una modifica successiva e più recente non possono essere assegnati i postumi cioè al momento della designazione ufficiale il premiato deve essere in vita la scienza italiana nei riconoscimenti mondiali è giunto a Stoccolma con la sua bella famiglia l'accademico d'Italia professore Enrico Fermi giovane scienziato di fama universale eletto vincitore del premio Nobel 1938 per la fisica nella grande sala dei concerti sua maestà re Gustavo di Svetia accompagnato dai principi ereditari e da altri membri della casa reale dai cavalieri del supremo ordine seratico e dalle alte cariche dello stato ha personalmente consegnato l'alto riconoscimento ad Enrico Fermi che è riuscito a scoprire due nuovi elementi chimici l'ausonio e l'esperio e a scoprire le straordinarie proprietà dei neutroni detti lenti importantissimi per la fisica nucleare il premio Nobel per la letteratura è stato attribuito alla scrittrice americana Pearl Book autrice del celebre ciclo di vita cinese la buona terra il premio Nobel per quanto retrospettivo nel senso che glorifica e onora scienziati o autori già affermati consideriamo che l'età media del premio Nobel oggi è intorno ai 60 anni non è però un premio alla carriera ma all'opera specifica di chi viene premiato nello statuto della fondazione Nobel il limite temporale poi dell'anno precedente cioè di premiare solo una scoperta un'opera dell'anno prima viene eliminato e si decide di istituire un tetto massimo di tre vincitori per i premi scientifici mentre quello per la pace può essere assegnato ed è già stato assegnato anche a intere organizzazioni internazionali è molto interessante la scelta che Alfred fece a quel tempo perché la scienza per Nobel era quella che lui aveva vissuto personalmente quindi prima di tutto la chimica poi la fisica e poi la fisiologia e la medicina non ci sono purtroppo né la matematica né le scienze naturali della terra e questo è un vero peccato perché in queste discipline si sono cimentati alcuni tra i più grandi scienziati poi del novecento ma non hanno il loro premio Nobel compaiono invece la sua passione intellettuale di sempre la letteratura e quella politica appunto la pace nel mondo risulta essere invece una diceria quella secondo cui Alfred Nobel odiasse la matematica perché la moglie l'aveva tradito con un matematico spesso si legge questa storia in realtà lui non era sposato e non risulta che nessuna delle sue amate lo avesse lasciato per un matematico a proposito di questo però è bene notare che le donne premiate con il premio Nobel purtroppo sono pochissime sono soltanto 49 su un totale finora di 885 premi Nobel assegnati poche anche le invenzioni pratiche obiettivamente premiate come pure Nobel aveva scritto lui era un grande inventore e più spesso il premio è andato a scoperte scientifiche in quanto tali nel 1968 poi c'è un aggiornamento interessante anche molto controverso perché quindi siamo nella seconda metà degli anni 60 la banca di Svezia di propria iniziativa decide di aggiungere un altro premio questa volta in memoria di Alfred Nobel il premio per l'economia quindi il Nobel per l'economia non è un vero e originale Nobel è stato introdotto dopo e peraltro ha sollevato così tante polemiche che la fondazione Nobel a quel punto decise purtroppo di non integrare più nessun'altra disciplina e quindi è rimasto così come adesso i primi premi Nobel furono assegnati il 10 di dicembre appunto 1905 il quinto anniversario della morte di Nobel e da allora si consegnano sempre nella stessa data nel 1905 il Nobel per la pace fu assegnato proprio a Berta von Suttner la donna che forse aveva influenzato più di ogni altro la visione del mondo di questo solitario imprenditore milionario per tutti l'inventore della dinamite le cui idee furono definite inizialmente dal re di Svezia molto stravaganti ma che con il suo testamento filantropico ha obiettivamente cambiato la storia della scienza nell'ultimo secolo un piccolo premio postumo lo ha ricevuto lo stesso Alfred Nobel negli anni 50 del 900 i fisici ovviamente molto grati gli hanno dedicato un elemento chimico sintetico altamente radioattivo il Nobelium con numero atomico 102 portone un grande leone alato veneziano il leone di San Marco ci troviamo in una delle quattro grandi aperture di una città fortezza le mura venete di Bergamo furono costruite a partire dal 1661 dai veneziani i lavori per fare questa fortezza avrebbero dovuto durare un anno in realtà ne durarono 27 soltanto per finire il recinto il percorso e finirono davvero i lavori soltanto nel 1627 quindi un'impresa veramente ciclopica i veneziani pensavano all'inizio di spendere 100.000 ducati ne spesero più di un milione ne spesero dieci volte di più una vecchia storia in Italia peraltro delle grandi opere che costano dieci volte di più di quanto previsto di vendere un grande guscio di pietra che circonda la città medievale protegge e isola la città medievale di Bergamo nel luglio del 2017 dopo un processo di dieci anni di valutazione l'UNESCO ha deciso di riconoscerle come patrimonio mondiale dell'umanità non da sole ma insieme con altre fortificazioni venete quelle di peschiera quelle di palmanova e insieme con le fortificazioni della dalmazia quelle in croazia e in montenegro ed è molto interessante e bello secondo me che l'UNESCO abbia deciso di trasformare delle fortezze quindi dei luoghi di guerra in un luogo che invece unisce tre nazioni diverse nel Mediterraneo peraltro due di queste si sono anche fatte la guerra per lungo tempo i veneziani hanno fatto anche questo miracolo di condivisione perché quest'opera ciclopica perché ad un certo punto nella seconda metà del XVI secolo Venezia capisce che non ha più alcuna possibilità di espandere i suoi territori terrestri di proteggersi le spalle del resto però ha bisogno di consolidare questi territori la scoperta dell'America ha portato altrove il centro degli scambi commerciali vuole avere rapporti più fitti più stretti con le grandi potenze europee Bergamo diventa fondamentale Bergamo non deve essere presa e qui nasce uno dei paradossi di queste mura venete perché vennero costruite in un periodo in cui le tecnologie della guerra stavano evolvendo molto rapidamente e il fatto strano è che ci volle così tanto per farle che quando furono finite già erano state inventate delle tecniche di assedio che le vanificavano per esempio il lancio parabolico quindi con questi cannoni di nuova concezione che permettevano di superare anche grandi fortezze e grandi muri quindi già in questo furono un po' vanificate tant'è vero che poi i bergamaschi le adottarono e si affezionarono a queste mura valorizzandole peraltro e conservandole indipendentemente dalla loro funzione originaria il secondo paradosso è che in realtà non furono mai attaccate veramente non furono mai vittime non subirono mai un vero assedio non furono mai bombardate furono sempre prese sostanzialmente pacificamente e quindi questa grande opera di guerra in realtà si è capito a posteriori che per Venezia era più un deterrente che non un segno di atteggiamento offensivo anche perché per esempio queste mura non potevano ospitare al loro interno grandi esertici quindi il nemico capiva che da qui non doveva temere un attacco era un deterrente la politica del deterrente che poi nel novecento ha avuto sviluppi di grande successo fare un'opera così grande così imponente tale da incutere un tale timore che nessuno si potesse permettere di attaccarle e in effetti dopo la costruzione di questa grande opera la Pax Veneta durò per più di due secoli e queste mura accaddero la prima volta soltanto nel 1797 quando Napoleone le truppe napoleoniche entrarono senza sparare un colpo dentro la città e diedero inizio a un periodo di grande stravolgimento con gli espropri per esempio delle proprietà della chiesa della ricchissima e potente chiesa bergamasca pieghiamo verso destra e iniziamo il circuito delle mura venete di Bergamo circuito molto lungo perché fu un'opera veramente impressionante sono quasi 5 chilometri tutto il giro e inizialmente era fatto anche di baluardi in gran parte ancora presenti garitte più di 32 100 aperture per bocche di fuoco due polveriere tantissime sortite esterne cannoniere strade sotterranee insomma un'opera di ingegneria militare straordinaria che come abbiamo detto non ha avuto sostanzialmente grande utilità militare se non come deterrente e venne conquistata soltanto al termine del potere veneziano quindi alla fine del 1700 1797 con la fine della serenissima e con uno dei grandi traumi che ebbe Bergamo come tutte queste terre molto religiose e cioè che le truppe napoleoniche istituirono la repubblica bergamasca che in realtà durò soltanto pochi mesi poi divenne repubblica cisalpina i monasteri vennero chiusi vennero espropriati i terreni e le proprietà della chiesa e per 16 anni ci fu sostanzialmente questa fase di grande rivolgimento fra l'altro con le popolazioni montane bergamasche che si ribellarono perché invece apprezzavano molto di più l'autonomia che i veneziani avevano dato ai popoli agli abitanti delle vallate quindi i montanari bergamaschi in realtà erano filo filo veneti in realtà queste mura furono un trauma molto particolare per Bergamo qui vediamo come dalle mura si possa ammirare e sostanzialmente accedere a un panorama straordinario su tutta la pianura padana immaginate ora ci stiamo affacciando sul lato occidentale delle mura venete quello che dà verso Milano quindi quello che dà verso il nemico di sempre della città di Bergamo della città veneta e qua vediamo dalla grandezza e dalla complessità di questa architettura come essa creò una sorta di grande trauma urbano perché i veneziani alle dipendenze di Sforza Pallavicino che fu il grande capo sostanzialmente dell'impresa delle mura in pochi anni obbligò la città di Bergamo ad avere una ferita straordinaria perché prima delle mura la città medievale si diceva era come il palmo di una mano cioè era il cuore di una struttura che poi si diramava in tanti borghi in realtà in cinque borghi medievali che erano quelli che accoglievano gli artigiani dove c'erano le attività commerciali che poi confluivano verso la città questa fortificazione recise le dita e quindi spezzò la città medievale da tutto il resto anche dalla città bassa che qui potete immaginare vediamo di stendersi verso la pianura e questo significò la distruzione di centinaia di case la distruzione di monasteri l'esproprio di tantissime proprietà fra l'altro senza indennizzo i veneziani non indennizzarono nulla ai bergamaschi e addirittura alle nostre spalle nella parte settentrionale delle mura venne rasa al suolo una straordinaria cattedrale paleocristiana che era quella di Sant'Alessandro e qui nasce uno dei paradossi di questa struttura che oggi è molto amata dai bergamaschi nacque come un grande trauma ma diede anche tantissimo lavoro perché per decenni quasi praticamente un secolo migliaia di maestranze tantissimi operai cavapietra tagliapietra marchi architetti ingegneri lavorarono a questa impresa straordinaria e probabilmente nasce anche da qui uno dei miti diciamo del lavoro bergamasco cioè i muratori bergamaschi che sono, ne sappiamo vanno in tutta Italia a lavorare li vediamo per le autostrade all'alba che si muovono in effetti in ambito diciamo del territorio bergamasco c'è una grande tradizione di carpintieri e di muratori e in effetti i veneziani devono averlo capito subito perché questa è un'opera veramente da un punto di vista architettonico ingegneristico formidabile indipendentemente dal fatto che non sia mai stata utilizzata veramente la fortezza delle mura venete secondo me è un bellissimo esempio di rifunzionalizzazione come diciamo noi che ci occupiamo di evoluzione cioè una grande struttura che ha richiesto anche un grande impegno economico e tanti decenni di lavoro nasce per una certa funzione e poi nel corso del tempo ne assume un'altra e poi un'altra ancora è interessante perché noi adesso stiamo passeggiando sul belvedere alberato che venne fatto poi nell'ottocento e nel novecento e oggi le mura per Bergamo sono diventate un elemento identitario e anche questo secondo me è un po' una contraddizione ma anche bella perché da un lato hanno protetto la città medievale perché hanno impedito qualsiasi tipo di rottura degli equilibri antichissimi pluriseculari della città medievale con la piazza vecchia in mezzo con tutti i vicoli attorno quindi l'hanno protetta però l'hanno anche isolata obiettivamente ed è il motivo per cui spesso la città medievale di Bergamo ha vissuto anche periodi di abbandono di isolamento di crisi quindi le mura come queste che adesso sono un grande giardino pensile perché sono piene di alberi di prati la gente viene e ci passeggia sono frutto di una storia che le ha portate a cambiare funzione tante volte e isolano e proteggono allo stesso tempo che è uno dei grandi paradossi dell'identità bergamasca che è quella di una certa chiusura tradizionale per secoli ma anche di una grande apertura verso l'esterno forse è per questo che amano così tanto le loro mura venete stiamo percorrendo il lato occidentale delle mura venete qui davanti a noi si stende potete immaginare tutta la pianura padana nelle giornate terse di vento si vede tutto l'arco degli appennini là in fondo tutto l'arco alpino alle nostre spalle e così si capisce anche la collocazione strategica di questa fortezza anche ben prima dei veneziani alle nostre spalle si erge la sagoma di un edificio molto pesante neoclassico in realtà fatto alla metà dell'800 1847 che è il liceo Sarpi che è poi anche uno dei forti legami miei con questa città io ho fatto questo liceo classico durissimo molto selettivo ed è sostanzialmente la fine anche della mia permanenza in questa città perché poi dopo questo liceo io ho lasciato Bergamo per studiare poi sono stato negli Stati Uniti sono rientrato nei primi anni 2000 anche devo dire un po' in conflitto con la città perché per un ragazzo di quell'età la percezione è che qui non cambia niente non puoi non puoi incidere sulle dinamiche della città non puoi fare il lavoro che veramente sogni e allora te ne devi andare però e questo un po' penso faccia parte anche dello spirito delle contraddizioni di questa città anch'io poi non l'ho mai abbandonata perché poi non ho mai smesso di abitare qua la mia famiglia adesso abita qui perché secondo me questa è una città che è un po' un nido un nido protetto un nido d'aquila ti permette di viaggiare di peregrinare di andare in giro per il mondo di avere le tue avventure la tua professione ma poi ci torni ci torni perché è un luogo protetto ed è un luogo strategico adesso siamo proprio nell'angolo alla fine del lato occidentale e si apre davanti a noi tutta la città bassa di Bergamo e quindi si apprezza proprio plasticamente il dualismo noto a tutti delle due città Bergamo alta e Bergamo bassa girando l'angolo al termine del lato occidentale delle mura venete iniziamo a percorrerle nel loro lato meridionale quello più spettacolare e arriviamo alla porta San Giacomo la seconda quella che univa direttamente la città bassa con la città alta con una grande possiamo immaginare un sentiero di pietra che sale dalla città bassa con delle grandi arcate monumentali molto belle e porta portava i carri le mercanzie e le persone dentro la città vecchia passando attraverso questa che è la porta più monumentale tutta di marmo molto bella perché era praticamente la cartolina di accesso alla città adesso è soltanto pedonale e naturalmente al centro della porta c'è un enorme leone alato di San Marco perché questa è Venezia che comunica la sua potenza sia ai suoi nemici che ai suoi alleati naturalmente da qua è bellissimo perché potete immaginare che di fronte a noi c'è tutta la Pianuro Padana si stende tutta la città nuova di Bergamo che ha una storia invece prevalentemente dalla metà dell'Ottocento in avanti la svolta è quando arriva la ferrovia costruita dagli austriaci che doveva unire Milano e Venezia arriva qui a Bergamo nel 1857 e a questo punto gli austriaci capiscono che devono unire la ferrovia far attraversare con un camminamento con una grande strada tutta la città e allora costruiscono la strada Ferdinandea chiamata così perché era in onore della visita che fece l'imperatore Ferdinando d'Austria qui a Bergamo che unisce la stazione ferroviaria in modo netto è proprio un taglio netto alla funicolare che portava poi e porta ancora oggi il pubblico e i visitatori nella città alta nella città medievale a metà ci sono dei propilei neoclassici che era l'antico cancello dei dazzi dove si pagavano i dazzi lì c'erano le muraine esterne quelle che avrebbero dovuto ma in realtà non l'hanno mai fatto proteggere anche i borghi quindi non soltanto la città fortezza ma anche i borghi che come delle dita si allungano dalle porte e scendono verso la città bassa con questa struttura molto suggestiva e il meccanismo urbanistico che si è creato poi è che la città da mano con un palmo e con le dita si è circondata di un fluire di case come una marea di case prima con il centro progettato da Marcello Piacentini quindi il grande centro dell'area il grande architetto di epoca fascista con questi grandi palazzi che in realtà rispettano abbastanza la vista poi della città vecchia quindi sono abbastanza ariosi oggi sono considerati un esempio virtuoso di architettura monumentale le strade poi incrociano perpendicolarmente la strada ferdinandea e su queste soprattutto con il boom economico quindi anni 50 anni 60 invece in modo totalmente anarchico disordinato come un ectoplasma la città è esplosa e ha raggiunto i 100-120 mila abitanti oggi sono un pochino di meno insomma legato poi alle vicissitudini economiche ciò che a me colpisce sempre molto di questo panorama qui potete immaginare la città bassa che si stende una volta aveva dei confini adesso questi confini invece non ci sono più perché la pianura padana è una grande conurbazione senza limiti discreti dove città si uniscono ad altre città ad altri paesi ogni tanto c'è qualche zona verde ma è tutta una sorta di tentacolo di case di costruzioni verso Milano si vede il grande stabilimento della Dalmine che ha fatto la storia di questa città il grande stabilimento siderurgico della Dalmine e una cintura oggi di grandi centri commerciali sancisce in qualche modo un confine invisibile in realtà un confine fatto di non luoghi perché in questi centri commerciali accedono sia gli abitanti della città che gli abitanti di questa popolosissima provincia perché poi tutto qua attorno abitano più di un milione di persone quindi una delle parti più abitate più densamente abitate del nostro paese e fa impressione pensare che una volta il mercato era qui nella fiera di Bergamo vicino alla città medievale e adesso invece è disperso in queste enormi cittadelle del consumo che sono questi grandi centri commerciali affacciandosi da Porta San Giacomo dalla città alta verso la città bassa si vede tutta questa cintura di orti di giardini molto ben curati di prati che ingentiriscono la passeggiata e che in realtà non sono recenti perché praticamente le cronache dicono che già poco dopo la costruzione delle mura i contadini erano tornati a fare i loro terrazzamenti molti di questi occupati dalla vite perché non lo si ricorda mai ma queste terre attorno a Bergamo erano terre di produzione di vino e la seta il lino i tessuti e la viticoltura erano gli assi fondamentali dell'economia adesso questo retaggio è rimasto ma un pochino più spostato verso Brescia cioè nella Francia corta che rimane ancora oggi una zona vinicola di primissimo piano camminando lungo il lato meridionale delle mura venete e guardando verso la pianura che si stende lontanissima davanti a noi si vede tutta l'area occupata dall'aeroporto di Bergamo l'aeroporto di Orio al serio che mi colpisce sempre molto perché è un'altra delle caratteristiche paradossali di questa città una città che nasce dalle valli dai montanari una città nota per essere chiusa ha un aeroporto l'aeroporto dei low cost che la collega ormai in un batter d'occhio con tutte le capitali le grandi città europee in questo momento chi abita a Bergamo come me in un quarto d'ora va in aeroporto prende un aereo e in un paio d'ore è praticamente in qualsiasi angolo dell'Europa compresa l'Europa orientale e viceversa arrivano qua flussi ormai di turisti da tutta Europa questo è un cambiamento che da qualche decennio ha letteralmente mutato il dna di questa città ma che in qualche modo rispetta questa sua natura duplice di forte identità ma anche di grande apertura verso l'esterno al termine del lato meridionale delle mura venete c'è la terza porta che è la porta di Sant'Agostino che dà inizio poi al lato orientale delle mura venete quello che dava verso la montagna l'altro grande elemento importante della città di Bergamo accanto a Sant'Agostino che era la porta della guarnigione la porta più militare c'è il complesso gotico meraviglioso di Sant'Agostino che racconta un'altra storia della città medievale c'è la storia degli ordini monastici francescani domenicani tutti hanno abitato nella città medievale in questo caso però sono gli eremitani che l'hanno fondata la metà del 300 la facciata gotica delle più classiche col tetto a capanna con il piccolo rosone il portale molto molto bella molto molto elegante e si affaccia sullo spiazzo della Fara che è una zona piana della città della città alta dove si tenevano le esecuzioni è famosa perché qua c'era la ghigliottina che funzionava il monastero di Sant'Agostino ha avuto alti e bassi è stato poi abbandonato lungamente in età veneta si dice che sia passato di qui Martin Lutero che abbia visitato il monastero e poi è diventata guarnigione in prigione fino a diventare adesso fortunatamente università e quindi è tornata a diventare come in fondo era stata fin dall'inizio un luogo di studio camminando sul lato orientale poi settentrionale delle mura davanti a noi ci sono invece le montagne le montagne orobiche sempre ritenute inaccessibili selvagge abitate da montanari irriducibili che in realtà furono lungamente fedeli alla Repubblica Veneziana e che poi hanno sempre nascosto briganti contrabandieri il più famoso di tutto era il Pacipaciana che fu un brigante che poi finì appunto ghigliottinato qui in città alta e più recentemente terra di partigiani di resistenti perché queste montagne nascondono una bellissima e gloriosa storia di resistenza arriviamo alla quarta e ultima porta la porta di San Lorenzo anche se per tutti i bergamaschi è molto più famosa come la porta Garibaldi e questo per un evento storico particolare perché i cacciatori delle Alpi con a capo il generale Giuseppe Garibaldi scesero proprio dalla valle brembana e il punto di accesso per la conquista anche se poi in realtà non ci fu nessun colpo nessun combattimento qui della città fu proprio questa porta che è la più piccola di tutti la più povera era la porta di ingresso dei carrettieri dei popolani ed era anche il punto più debole delle mura perché una piccola vallata che fu aggiunta alla città vecchia per una ragione pratica perché era la zona dove c'erano le sorgenti d'acqua e quindi in vista di un assedio era bene che le sorgenti fossero all'interno delle mura Garibaldi entrò con i suoi uomini prese la città che venne quindi unificata al Piemonte e poi all'Italia e da lì nacque una storia molto particolare che però dice qualcosa di profondo secondo me su lo spirito di questa città e anche di questa di questa storia di queste mura venete perché 180 dei famosi mille che partirono per il regno delle due Sicilie per unificare l'Italia erano bergamaschi da qui l'appellativo di Bergamo come città dei mille uno di questi era Francesco Nullo per esempio che funge prima nasceva come imprenditore tessile come tanti ricchi bergamaschi e poi si diede invece al patriottismo alle lotte di indipendenza e dopo quella italiana morirà in Polonia per difendere l'indipendenza dei polacchi dalla Russia questa storia a me colpisce molto perché è l'emblema della storia di questa città una città nota per il suo orgoglio separatista e indipendentista per il suo isolamento soprattutto se guardiamo le montagne qui proprio davanti a noi siamo nella parte a nord della città che è in perfetta contiguità con i colli e poi con le montagne ma che poi ha dato i mille ha dato lo spunto invece per una grande impresa di slancio al di fuori della città addirittura per unificare il paese per unificare popoli che non erano mai stati insieme culturalmente linguisticamente sì ma politicamente no e questa è la dualità di questa di questa città un poeta disse una volta che Bergamo sembra una nave adagiata tranquilla sulla collina ormeggiata attraccata sulla collina io che abito qua vicino e quando e quando mi sveglio alla sera la vedo sempre davanti a me in effetti soprattutto di sera con le luci sembra davvero una nave attraccata è come una nave che guarda verso la pianura è sempre pronta a salpare ma non parte mai e questo è quello che per me è Bergamo una città dove non devi aspettarti rivoluzioni o stravolgimenti ma è un nido d'aquila dove puoi sempre sapere di poter tornare di trovare un po' di protezione tra una peregrinazione e l'altra e tra un viaggio e l'altro siamo siamo nell'Inghilterra meridionale ed è un giorno molto freddo di dicembre in particolare il 27 dicembre del 1831 c'è un ragazzo molto giovane non ha ancora 25 anni con una carriera di studi alle spalle molto incerta ha studiato medicina a Edimburgo con scarsi successi per un anno e mezzo dopo avere scoperto che è incapace di vedere il sangue che scorre durante le operazioni chirurgiche scappa e torna a casa dal padre il quale padre abbastanza nervoso e deluso lo spedisce a Cambridge a studiare per diventare parroco di campagna e a studiare in particolare le scienze naturali questo ragazzo prenderà la prima laurea di primo livello con voti diciamo di sufficienza e torna durante l'estate di quell'anno proprio dell'agosto del 31 a casa dal padre per le sue attività preferite che sono la caccia e i passatempi della campagna inglese è un ragazzo ricco benestante perché il padre è un medico facoltoso e il nonno anche era stato un medico facoltoso che aveva lasciato una enorme eredità alla discendenza e anche la famiglia materna è una ricca famiglia di industriali in particolare i wedgewood cioè i costruttori i fabbricanti delle ceramiche inglesi questo ragazzo nell'agosto del 31 riceve un invito del tutto inaspettato un invito anche molto fortunato o potremmo dire fortuito perché due altri naturalisti avevano rifiutato quello stesso invito e il suo professore di botanica a Cambridge che si chiamava John Haslow propone a questo ragazzo di partire come gentiluomo di compagnia quindi non come scienziato come naturalista sul vascello di sua maestà il brigantino Beagle capitanato da Robert Fitzroy valente giovanissimo capitano della marina inglese abile tecnologo e ottimo uomo di mare il padre risponde molto negativamente e dice che non se ne parla perché non hai combinato nulla fino adesso figuriamoci se io ti mando in giro per anni una nave a osservare il mondo e a non combinare nulla però il padre lascia socchiusa la porta perché dice beh però se tuo zio che è un uomo pragmatico mi convince sul fatto che questo viaggio sarà per te utile dal punto di vista educativo io forse cambio idea ed è quello che succede perché lo zio consiglia al padre di questo ragazzo di mandarlo perché in fondo anche se ha combinato poco fino adesso un viaggio per mare è un'esperienza molto formativa che non potrà che fargli del bene quel ragazzo si chiamava Charles Robert Darwin parte con il Beagle da Plymouth proprio il 27 dicembre del 31 dopo mesi di estenuanti attese il primo incontro con il capitano Fitzroy non è stato dei più fortunati perché a quel tempo andava molto di moda la fisiognomica e Fitzroy era un seguace di questa disciplina che presumeva di poter giudicare il carattere e il talento e le potenzialità delle persone dalla forma del viso o dalle conformazioni del cranio e quando Fitzroy incontrò Darwin la prima volta disse che un ragazzo con un naso così grande con una faccia di quel tipo non avrebbe mai potuto combinare nulla di importante nella vita segno abbastanza evidente che la fisiognomica non aveva basi scientifiche molto solide fatto sta che comunque Darwin è un ragazzo mite intelligente di ottima conversazione e alla fine Fitzroy che è un aristocratico conservatore discendente di ministri e di duchi e di nobili alla fine consente a portarlo con sé e si pentirà si pentirà amaramente perché Robert Fitzroy morirà suicida nel 1865 uccidendosi nella stessa modalità con cui si erano uccisi anche dei suoi parenti perché Fitzroy era incredibilmente convinto che il suicidio avesse una propensione ereditaria che fosse ereditario e quindi lui non fa altro che confermare la profezia e fra i suoi crucci della sua vita ci sarà anche quello di essere stato complice di questa storia cioè di avere portato in giro per il mondo un ragazzo che poi con le sue idee scardinerà e distruggerà proprio l'universo filosofico di riferimento di Fitzroy che era la teologia naturale che era l'idea che il mondo fosse stato creato così come lo vediamo oggi il mondo naturale che le specie fossero tutti pensieri fossero tutti tipi ideali inscritti da una divinità nel mondo naturale durerà molto più del previsto avrebbe dovuto durare due anni e mezzo tre anni secondo i piani di Fitzroy ma durerà cinque anni torneranno nell'ottobre del 1836 visitando tantissimi luoghi in giro per il mondo e lasciando una traccia scritta celeberrima che uscirà negli anni 40 dell'ottocento cioè il viaggio di un naturalista attorno al mondo scritto da Darwin molti anni prima di scrivere le sue opere evoluzionistiche era un vascello sul quale si navigava era lungo 24 26 metri e sopra erano stipate più di 60 persone quindi era una vita molto dura tra l'altro Darwin soffrì per cinque anni il mal di mare e infatti non vedeva l'ora di scendere a terra e per fortuna gran parte di questi cinque anni sono stati riempiti con lunghe escursioni sulla terraferma durante le quali Darwin ha completato e ha raccolto una grande quantità di reperti che poi lo aiuteranno proprio a capire l'idea evoluzionistica fu un viaggio caratterizzato fortemente dalle isole le isole sono state importanti è come se la teoria dell'evoluzione fosse nata in qualche modo per mare e le isole sono lo scenario privilegiato dell'evoluzione perché sono luoghi di isolamento appunto sono luoghi che producono diversità però sono luoghi anche dove si va a migrare sono luoghi di passaggio e quindi questo gioco di isolamento di migrazioni di adattamenti a climi diversi e ad ambienti diversi è praticamente il laboratorio a cielo aperto dell'evoluzione di quello che Darwin capisce o per meglio dire intuisce durante il viaggio di isole ne hanno visitate tantissime a cominciare dall'isola di Santiago nell'arcipelago di Capoverde dove Darwin fa le prime osservazioni geologiche poi le isole Falkland e poi le isole al di sotto della terra del fuoco l'arcipelago di Ciloè le isole cilene e poi naturalmente le Galapagos Tahiti le isole nell'oceano indiano insomma è stata una circunabilizzazione del globo in cui le tappe fondamentali sono state le isole non credo di poter descrivere in termini adeguati l'eccitazione che provavamo nel disotterrare i resti di creature vissute in tempi tanto lontani è enorme troviamo varie ossa di un megaterio di grosse proporzioni un grande toxodon uno dei più strani animali mai scoperti e una gigantesca creatura rassomigliante a un armadillo il fatto che così tante specie differenti si provassero insieme e tutte entro uno spazio di circa 200 metri era una circostanza certamente degna di nota Darwin rimane in giro per il mondo sul brigantino Beagle per 5 anni ma i primi reperti che raccoglie non sono naturalistici sono piuttosto antropologici e questa è una stranezza che si ricorda molto meno rispetto ai fossili o agli studi sulle iguane o le tartarughe i fringuelli delle Galapagos in realtà le prime evidenze che colpiscono molto l'attenzione di Darwin furono proprio i tratti antropologici Darwin insieme a capitano Fitzroy in una delle primissime tappe lungo l'oceano atlantico scende a Salvador de Bahia e assiste a delle scene di crudeltà perpetrate contro gli schiavi neri di quelle città e di quei villaggi rimane molto colpito signor Wickham comandante appena arriviamo a terra metta al sicuro le barche e tracci la linea di confine del nostro accampamento signor si comandante e metta delle sentinelle niente indigeni dentro il nostro perimetro forse dovremo usare la forza niente spari se non si può evitare e dopo poche settimane scendono a Rio de Janeiro e insieme a Fitzroy scendono a cavallo e percorrono una zona interna del Brasile visitando le fazendas di allora dove lavoravano centinaia e migliaia di schiavi neri portati con la forza con la violenza dal continente africano e una scena sarà una sorta di pietra miliare di questo viaggio perché Fitzroy membro dell'aristocrazia inglese era a favore della schiavitù ed era convinto che la schiavitù fosse una facesse parte potremmo dire dell'ordine naturale delle cose e il giovane Darwin invece non era assolutamente d'accordo lui veniva da una famiglia progressista da una famiglia liberale di umanitari e quindi già dalla partenza aveva già assistito a delle battaglie per l'abolizione della schiavitù e quando Fitzroy si permette di interrogare questi schiavi davanti ai loro padroni chiedendo loro se sono contenti e questi rispondono che sì sono contenti Darwin si indigna si arrabbia molto e dice a Fitzroy ma come come puoi pensare che questi poveri derelitti possano rispondere diversamente sapendo che hanno di fronte a sé il loro padrone che in caso contrario li fustigarebbe li punirebbe con grande crudeltà e Fitzroy si arrabbia moltissimo per questa risposta impudente di questo ragazzo ma qui comincia la storia delle grandi differenze fra questi due uomini che non si capirono mai del tutto perché avevano due visioni sia del mondo sociale e poi vedremo del mondo naturale molto diverse le une dalle altre Fitzroy fra l'altro sul Beagle porta anche dei fuegini cioè dei nativi diremmo oggi Yamana della cultura degli abitanti della terra del fuoco cultura antichissima popoli che erano arrivati in quelle terre dieci dodicimila anni prima e che avevano trovato delle straordinarie modalità per adattarsi a quegli ambienti così estremi così freddi così inospitali e Fitzroy decide e questo è tipico della mentalità dell'epoca di fare una sorta di esperimento antropologico nel viaggio precedente dove lui era il vice del capitano e poi aveva preso in mano le redini il timone della nave perché il suo capitano si era suicidato ecco che torna di nuovo questa ossessione di Fitzroy per il suicidio dovuto alle solitudini del mare Fitzroy aveva portato in Inghilterra quattro fuegini quattro nativi Yamana uno di questi poi purtroppo muore in Inghilterra gli altri tre invece potremmo dire si adattano culturalmente all'Inghilterra confermando all'apparenza quello che voleva dimostrare Fitzroy cioè che questi bruti questi selvaggi come li chiamava lui se portati in Inghilterra potevano imparare benissimo a mangiare con le posate a parlare in inglese a vestirsi come dei gentiluomini vittoriani quindi per dimostrare secondo Fitzroy la superiorità culturale della civiltà inglese in realtà con grande soddisfazione di Darwin l'esperimento fallisce miseramente perché poi Fitzroy decide di imbarcare questi tre fuegini sul viaggio sul secondo viaggio quello dove c'è anche Darwin li riporta nelle loro terre li lascia di nuovo nelle vicinanze dei loro villaggi d'origine con l'illusoria speranza che essendo stati ormai come dire educati all'Inghilterra vittoriana essi potessero trasformarsi in missionari in evangelizzatori e potessero cioè civilizzare i loro simili l'esperimento fallisce miseramente perché poi il Beagle passò a più riprese da quelle terre a distanza di mesi perché il compito del Beagle ricordiamolo era quello di fare la mappa delle coste per la marina inglese di sua maestà e soprattutto cercare dei buoni passaggi quindi calcolare le correnti trovare dei buoni porti trovare delle scorciatoie trovare come evitare di incappare nei punti più pericolosi del mare dove si incontrano l'oceano Atlantico e l'oceano Pacifico e in questo Fitzroy fu straordinario e raggiunse il suo risultato ma poi tornando in quella terra dei fuigini scoprono che i loro tre amici fuigini nel giro di pochi mesi sono tornati allo stato di natura come si diceva allora cioè si sono tolti i vestiti si sono rimesse le loro pelli di foca hanno ricominciato a cacciare a parlare e a vivere come i loro simili Fitzroy è molto scosso da questo fallimento del suo esperimento antropologico in realtà Darwin ne trae un insegnamento fondamentale e cioè che tutti gli esseri umani sulla terra indipendentemente dal loro grado di sviluppo in questo momento sono in grado se vogliono di raggiungere straordinarie acquisizioni culturali possono diventare dei perfetti gentiluomini inglesi e questo per Darwin è la riprova del fatto che tutti gli esseri umani sono fratelli e sorelle cioè discendono tutti quanti da un ceppo comune sono tutti strettamente imparentati fra di loro e non è vero come pensavano i poligenisti di allora che ogni razza umana discendesse addirittura da una forma di primate o da animali bruti diversi gli uni dagli altri e ancor meno Darwin è ormai consapevole del fatto che le razze umane non sono state create così l'una superiore l'una dominante sull'altra per un volere di Dio ma che tutto questo è frutto di una storia di una storia contingente di una storia che ha fatto sì che alcuni si siano adattati a certe circostanze ambientali e altri a circostanze diverse raggiungendo livelli di sviluppo e di civiltà semplicemente diversi gli uni dagli altri il viaggio del Beagle di Darwin cominciato il 27 di dicembre prosegue per lunghi mesi addirittura per anni in Sud America che è stato il luogo dove la nave si è fermata più a lungo perché lì c'erano i maggiori interessi della Marina Inglese Darwin scende per settimane e settimane in Patagonia per esempio dove scopre per la prima volta i fossili ricordiamo che Darwin era un geologo di formazione quindi andava in giro con il suo martelletto da geologo scavando qua e là e scopre i fossili di grandi mammiferi estinti grandi mastodonti il gliptodonte il bradipo gigante questi animali che non ci sono più oggi in Patagonia ma di cui rimangono alcuni parenti e questa è una delle prime intuizioni darwiniane perché per esempio capisce che l'armadillo questo marmifero corazzato che lui vede circolare per la Patagonia in quel periodo e di cui peraltro si cibavano normalmente a cena i gauchos che accompagnano Darwin in giro l'armadillo assomiglia molto al gliptodonte gigantesco estintosi migliaia di anni prima però è anche un po' diverso e questo gioco di somiglianze e di differenze è stata una delle prime intuizioni che lo hanno portato poi all'idea dell'evoluzione unitamente alle prove biogeografiche cioè al fatto che gli animali hanno delle distribuzioni geografiche particolari che fanno capire che alcuni sono più imparentati con altri c'è un episodio molto bello in Patagonia dove una sera a cena chiacchierando con i gauchos hanno appena finito di mangiare un nandù questi uccelli che non sono capaci di volare sono un po' come l'equivalente degli struzzi ma sudamericani e Darwin chiede ingenuamente ai gauchos come mai da quando hanno superato un certo fiume catturano soltanto del nandù piccoli di piccole dimensioni e i gauchos ridendo gli rispondono no signor Darwin vede dal fiume in giù tutti i nandù sono piccoli e non ce ne sono più di grandi e invece al di sopra a nord del fiume sono tutti grandi e non ce ne sono di piccoli questa risposta banale in realtà diventa un indizio fondamentale per Darwin perché Darwin capisce che il fiume è una barriera geografica che ha diviso due popolazioni biologiche che non si incrociano più le une con le altre e che danno origine quindi a due specie diverse in pratica capisce che il nandù piccolo e il nandù grande sono cugini e hanno avuto in passato un antenato comune tra l'altro è ironico che nel caso del nandù nel caso dell'armadillo ma anche delle iguane e delle tartarughe fossero tutti animali a quel tempo commestibili nel senso che li si mangiava e quindi potremmo dire che Darwin durante il viaggio si è praticamente mangiato le prove fondamentali dell'evoluzione una strana via gastronomica alla formulazione di una teoria scientifica il viaggio del Beagle prosegue risalendo lungo la costa del Pacifico abbandonano l'Atlantico le Falkland e la Terra del Fuoco e avviene nella quella che comincia a essere la Via del Ritorno un evento anche questo molto importante durante il viaggio e anche questo molto casuale e anche drammatico perché Darwin è molto fortunato in questa occasione lui è appena tornato da una esplorazione lungo le Ande molto bella nella parte settentrionale dell'attuale Cile dove tra l'altro ha scoperto delle conchiglie fossili a delle altitudini straordinarie e quindi capisce che le Ande una volta erano che quei terreni erano sotto il mare erano sotto l'oceano e che si sono sollevati tantissimo nel corso del tempo di ritorno mentre si sta riposando su una spiaggia a Valdivia si scatena un terremoto catastrofico un terremoto fortissimo che rade al suolo la città vicina di Concepción e che mieterà migliaia di vittime e Darwin rimane sconvolto da questo fenomeno e come prima cosa naturalmente insieme con i membri dell'equipaggio del Beagle presta soccorso alle popolazioni colpite dal sisma però non smette mai di avere un occhio da scienziato da naturalista e si accorge che dopo il terremoto la costa si è alzata quasi di mezzo metro perché vede che indipendentemente dalle maree i molluschi sono esposti ora alla luce del sole per quasi mezzo metro quindi si accorge che il terremoto è stato un evento puntiforme che ha prodotto proprio a forza di accumulo di queste scosse l'innalzamento della terra rispetto all'oceano e quindi mette insieme questi due indizi ha visto le conchiglie in cima alle montagne e ha assistito al terremoto che è l'espressione di quel movimento della crosta terrestre e qui questo è un momento importante del Darwin geologo perché Darwin capisce che la terra è un sistema instabile è un sistema in movimento che la terra è in trasformazione che le isole una volta erano penisole che si formano attraverso i vulcani che le catene montuose si sollevano e questo diventerà il grande scenario ecologico della teoria evoluzionistica le specie si trasformano perché si spostano perché si frammentano perché il clima cambia perché i ghiacci avanzano e arretrano perché si formano le montagne perché si vive in sostanza in un ambiente instabile e questo Darwin lo capisce sulla sua pelle vedendo e assistendo all'episodio del terremoto da lì a poche settimane il Biggola arriva finalmente alle Galapagos le tanto famose Galapagos ma forse anche le tanto sopravvalutate Galapagos perché ormai il viaggio è sulla via della conclusione siamo già al 15 di settembre del 1835 e quindi ormai manca soltanto un anno al ritorno Darwin peraltro è già molto stanco e non vede l'ora di tornare arriva su queste isole vulcaniche e ne ha un'impressione molto negativa perché sono desolate perché sono gli sembrano poco interessanti ci sono degli strani animali diversi da quelli del Sud America però nonostante tutto comincia a ragionarci su e si accorge che di isola in isola ci sono delle piccole differenze tra questi animali per esempio le testugini grandi tartarughe terrestri hanno degli scudi dei carapaci diversi da isola in isola e questo glielo dice il capo della guarnigione inglese al pub una sera ancora una volta nella contingenza delle chiacchiere del viaggio il comandante per vantarsi dice vede signor Darwin lei mi faccia vedere una testugine e io guardandola con una sola occhiata dal carapace cioè da questo scudo che le protegge le so dire da quale isola proviene e questa battuta di nuovo sarà un indizio importante per Darwin insieme con i fringuelli e tutti gli altri animali che lui raccoglie durante quelle cinque settimane di soggiorno alle Galapagos però e questo è importante per smentire l'idea romantica troppo semplice che le le grandi teorie scientifiche nascono tutte ed un colpo come una lampadina che si accende in realtà non succede quasi mai così quando Darwin è alle Galapagos non ha ancora capito la teoria dell'evoluzione e questo è dimostrato dal fatto che per esempio i fringuelli famosi di Darwin lui li raccoglie malamente li mette tutti alla rinfusa dentro una cassa e si pentirà molto di questo perché se invece avesse segnato l'isola di provenienza avrebbe capito molte più cose però questo piccolo indizio fa capire che quando lui è alle Galapagos non ha ancora capito l'evoluzione si sta si sta interrogando ha tante domande in testa ma non ha ancora risposte però è molto ricettivo è un grande osservatore è molto indifferente agli steccati disciplinari e questo è stato una sua grande fortuna non era uno specialista faceva il botanico faceva il geologo faceva lo zoologo non gli interessavano tanto queste differenze lui osservava tutto quello che riteneva interessante e la sua grande genialità è stata proprio quella di saper collegare tra loro come disse lui stesso fatti sparsi e qui c'è un grande insegnamento riguardo al metodo scientifico le grandi scoperte scientifiche spesso non sono dovute a singole idee geniali che nascono dal nulla come Minerva dalla testa di Giove spesso le scoperte scientifiche nascono quando uno scienziato riesce a connettere fatti già noti in un modo che nessun altro aveva intuito prima mettere insieme a trovare delle connessioni che nessun altro aveva visto prima il viaggio volge ormai al termine con molta fretta Fitzroy punta verso l'Inghilterra attraversano tutto l'oceano pacifico arrivano a Tahiti dove di nuovo Darwin apprezza l'intelligenza e la gentilezza dei modi delle popolazioni native poi arrivano in Australia attraversano l'oceano indiano c'è un'ultima tappa interessante in Sudafrica dove incredibilmente Darwin incontra a città del capo un altro grande scienziato inglese John Herschel che faceva però un mestiere diverso era uno studioso del cosmo dell'universo un astrofisico diremmo oggi ed era molto più vecchio di Darwin ed era un'autorità della scienza Darwin va a trovarlo va a pranzo da lui nella sua bella casa e Herschel chiacchierando gli dice beh sa quale sarà la grande scoperta del futuro quella che ancora dobbiamo decifrare il mistero dei misteri gli dice John Herschel sarà l'origine delle specie il grande scienziato del futuro sarà quello che riuscirà a capire come hanno avuto origine come si sono evolute le specie nel mondo vivente e questo ragazzo questo naturalista rimane molto impressionato da questa frase di questo suo maestro di questo grande dei scienziato inglese e l'ironia della storia vuole che John Herschel avesse proprio di fronte a sé l'uomo che poi svelò il mistero dei misteri e l'origine delle specie molti anni dopo nel 1859 inizia proprio con una frase in cui Darwin dice che ha svelato ha capito dopo tanti anni di lavoro il mistero dei misteri cioè l'origine delle specie il Beagle ritorna in Inghilterra il 2 di ottobre del 1836 sbarcano a Falmouth e Darwin è un uomo completamente cambiato è partito con una concezione del mondo ed è tornato con una completamente nuova per quanto ancora incerta è una concezione che contempla ora esplicitamente la trasformazione dei viventi la loro parentela storica e il loro adeguarsi alle mutevoli circostanze ambientali quello del Beagle cominciato il 27 dicembre è stato un viaggio di iniziazione è stato un vero e proprio romanzo di formazione proprio come quelli che si scrivevano nell'ottocento da cui però poi è nata una rivoluzione scientifica è appena sbarcato stravolto corre a casa e inizia un altro viaggio questa volta un viaggio tutto mentale che lo porterà all'idea della teoria dell'evoluzione per selezione naturale questa è la storia di un ingegnere civile olandese con un debole per il pattinaggio impiegato nell'ufficio costruzione ponti della città di Amsterdam in effetti di ponti ne costruirà parecchi ma non tra una sponda e l'altra dei canali e dei fiumi bensì tra le discipline e anche tra le parole stiamo parlando di Paul Kruzen nato nel 1933 ad Amsterdam da una famiglia umile il padre era cameriere la madre donna delle pulizie lui bambino durante la seconda guerra mondiale sopravvive alla terribile caristia dell'inverno del 1944 45 è bravo a scuola soprattutto nelle lingue tanto che imparerà presto a parlare inglese francese e tedesco loro professori di sommità mondiale come il suedo Paul Kruzen prix Nobel e a 26 anni decide di lasciare ben presto l'ingegneria per occuparsi di altro per occuparsi di meteorologia e di chimica dell'atmosfera si trasferisce in Svezia all'università di Stoccolma per condurre ricerche di dottorato prima su modelli computazionali i primi a quel tempo in meteorologia e poi sull'ozono presente nella stratosfera l'ozono a quel tempo non era un tema di studio particolarmente avvincente a Stoccolma quasi tutti lavoravano in quegli anni sulle piogge acide di cui oggi quasi non ci ricordiamo più l'ozono è un gas dall'odore pungente quello che si sente per intenderci durante i temporali molto forti che è fatto di molecole composte da tre atomi di ossigeno e l'ozono rispetto alla vita ha un destino molto paradossale perché se inalato è velenoso e fa male agli esseri viventi in pratica è uno sterilizzante però è anche essenziale per la vita sulla terra perché la sua presenza nella bassa stratosfera in particolare cioè tra 15 e 35 chilometri di altitudine dove l'ozono si forma e si riforma continuamente per effetto dei raggi del sole sull'ossigeno contribuisce ad assorbire la radiazione ultravioletta e a non farla arrivare sulla superficie dove sappiamo causerebbe danni molto gravi alle cellule al loro DNA come alla nostra pelle agli occhi l'ozono quindi funge da schermo protettivo fondamentale le ricerche svedesi di Krutzen rappresentavano quindi un lavoro pionieristico di ricerca di base la sua carriera si svolse poi in molte prestigiose università tra Boulder in Colorado poi Oxford quindi al Max Planck Institute di Magonza in Germania dove poi rimase praticamente sempre per tutta la carriera però collaborando anche con per esempio lo Scripps Institution di Oceanografia a San Diego in California e poi a Seul ancora Stoccolma Chicago Utrecht insomma una grande carriera internazionale membro delle più prestigiose accademie scientifiche mondiali il culmine della sua vita di scienziato fu senz'altro il premio Nobel per la chimica che gli fu assegnato nel 1995 insieme a Sherwood Roland e Mario Molina per leggiamo nella motivazione gli studi sulla chimica dell'atmosfera in particolare riguardo alla formazione e alla decomposizione dell'ozono quindi l'ozono gli portò molta fortuna nel 1995 in occasione del decimo anniversario del protocollo di Montreal l'Accademia delle Scienze Svedese ha assegnato il premio Nobel per la chimica a Paul Krutzen Sherwood Roland e Mario Molina i loro studi nello spiegare i meccanismi chimici che sono alla base della sottiliarsi dello strato di ozono hanno contribuito a salvarci da un problema ambientale su scala planetaria che avrebbe potuto avere conseguenze catastrofiche ma Krutzen fu un Nobel diciamo particolare forse il Nobel che più di ogni altro ci aiuta a illuminare ciò che oggi riempie le cronache dei giornali tutti i giorni la crisi ambientale il riscaldamento climatico il ruolo dell'umanità come forza geologica che sta plasmando il pianeta e rischia per questo di pagarne le conseguenze il matrimonio di Krutzen con la moglie la finlandese Tertu Soininen è durato ben 65 anni e gli ha dato due figlie e tre nipoti un appiglio di stabilità e di sicurezza in una vita dedicata a studiare l'instabilità del mondo Paul Krutzen si trovò nel bel mezzo di una bufera alla metà degli anni 80 una bufera però almeno questa volta a lieto fine o quasi già dal 1974 si sapeva infatti che lo strato di ozono si assottiglia ai poli e che i colpevoli individuati lo stesso anno da Mario Molina e Sherwood Roland che poi condivideranno il Nobel con Krutzen erano certi gas chiamati cloro-fluoro-carburi alla metà degli anni 80 divenne chiaro a Krutzen e a molti altri fisici dell'atmosfera che questo assottigliamento stava aumentando di anno in anno e che non era quindi dovuto a diciamo fluttuazioni naturali alla fine del 1985 ci fu lo shock che ci vogliono sappiamo questi momenti di emozione lo shock fu quello di vedere letteralmente lo squarcio nell'ozono sopra l'Antartide e a quel punto le nazioni più potenti decisero finalmente di correre ai ripari grazie ai lavori di Krutzen e di altri furono proposte misure per ridurre la produzione e il consumo dei gas cloro-fluoro-carburi usati principalmente nei circuiti frigoriferi e per le bombolette spray anche in quell'occasione come per il riscaldamento climatico gli scettici di professione diciamo gli scettici interessati cioè i mercanti di dubbi che seminano confusione per far perdere tempo e proteggere gli interessi economici in gioco dissero che l'ozono si stava riducendo per vie naturali o per colpa dei vulcani e che non c'era nulla di cui preoccuparsi per fortuna non prevalsero e nel 1987 venne firmato il protocollo di Montreal per una progressiva messa al bando di quei gas tre anni dopo già 90 paesi avevano sospeso la produzione e stavano riprogettando le filiere industriali trovando alternative che non distruggessero l'ozono quelle alternative furono trovate anzi incentivarono la ricerca e l'innovazione tecnologica per la conversione industriale e non ci furono drammatiche conseguenze sociali o perdite di posti di lavoro a causa dell'ozono il Nobel per la chimica fa tre nomi Mario Molina messicano Sherwood Roland americano e l'olandese Paul Kruzen furono loro a definire minaccia e rimedi via i gas cloro fluoro carbonici se vogliamo che l'ozono continui a proteggerci dai raggi ultravioletti Mario Molina credo che la storia finirà bene perché dopo lo scetticismo iniziale studiosi di tutto il mondo sono riusciti a mettersi d'accordo una delle caratteristiche dell'atmosfera aggiunge Roland è che nel bene e nel male avvolge tutto il mondo quindi la soluzione deve essere globale conclude Kruzen il fatto è che l'atmosfera si ripara da sola se smettiamo di contaminarla ecco perché è una storia quasi a lieto fine perché gli scienziati come Kruzen avevano previsto che gli effetti positivi del protocollo di Montreal non avrebbero poi tardato così tanto a farsi sentire e Kruzen ha fatto in tempo a vederli perché fino al 2000 il buco nell'ozono continuò purtroppo ad allargarsi perché noi sappiamo che questi processi hanno un'inerzia molto lunga poi però cominciò la attesa prevista inversione di tendenza e quindi tra il 2016 e il 2018 il MIT e la NASA hanno certificato che il buco nell'ozono si è sostanzialmente ridotto dal 2000 in poi e che intorno al 2050 dovrebbe tornare alle sue dinamiche naturali anche se poi nel 2020 l'anno pandemico abbiamo scoperto che il riscaldamento climatico influenza anche l'ozono per via di un complesso sistema di correnti ed è tornato quindi a ridursi ma questa è un'altra storia poi noi sappiamo che forse anche altri gas e le correnti interagiscono con l'ozono e la fisica dell'atmosfera è veramente molto complessa ma ciò non toglie che quel protocollo sia un esempio positivo ancora oggi di come l'umanità prendendo le decisioni giuste per la difesa dell'ambiente e in modo tempestivo a livello transnazionale possa rimediare ai danni che ha provocato si può fare insomma e gli effetti si vedono dopo alcuni decenni non secoli cioè per intenderci quando saranno adulti i nostri bambini che sono piccoli adesso e sarebbe bello se i risultati della scienza potessero guidare le decisioni politiche globali anche sul riscaldamento climatico in generale come successe con il buco nell'ozono grazie proprio a Paul Krutzen il premio Nobel per la chimica Paul Krutzen è uno dei massimi esperti mondiali dell'atmosfera che ha contribuito alla scoperta della nube di sostanze inquinanti che avvolge i tropici ha presentato il suo ultimo libro che spiega i cambiamenti climatici dovuti all'azione dell'uomo e la nuova era che sta vivendo la terra ma anche della notizia sullo scioglimento dei ghiacci dei poli l'unica cosa che possiamo fare attualmente è di trasferire la nostra attenzione sull'impiego di fonti di energia pulite e quindi di passare dall'utilizzo di combustibili fossili ad altre fonti di energia cosiddette alternative Paul Krutzen dunque è stato uno dei massimi esperti di chimica dell'atmosfera ma sempre attento a ogni aspetto dei rapporti fra scienza e società si spese contro i tentativi dei creazionisti statunitensi di affiancare l'insegnamento religioso dell'intelligent design nell'ora di scienze a scuola come presunta alternativa alla spiegazione evoluzionistica era piuttosto scettico sulle reali possibilità delle classi politiche mondiali di affrontare il riscaldamento climatico al punto che polemicamente ben prima che arrivassero i leader populisti che negano la realtà stessa del cambiamento climatico nel 2006 propose di cominciare a progettare qualche soluzione diciamo di emergenza per esempio interventi di ingegneria climatica ancora oggi ritenuti molto controversi come per esempio bombardare le nuvole o disseminare l'atmosfera di sostanze che riflettano la luce solare e raffreddino la febbre del pianeta essendo un amante delle provocazioni non si capisce a dire il vero se ci credesse veramente o se lo facesse più che altro per smuovere le coscienze sull'urgenza dell'azione di sicuro gli erano ben chiare le complessità e le interdipendenze che caratterizzano un sistema altamente non lineare come il clima terrestre fu per esempio tra i primi a capire che la produzione di biocarburanti in sostituzione dei combustibili fossili se fatta a spese delle foreste cioè consumando territorio e rilasciando gas serra poteva essere una soluzione persino peggiore del male da un premio Nobel Krusen arriva a una proposta che appare provocatoria anche un po' strampalata lanciare zolfo nel cielo per abbattere l'effetto serra è la proposta a dir poco originale lanciata da Paul Krusen lo scienziato sostiene che portando nell'alta atmosfera polveri di zolfo si potrebbe creare una barriera di protezione lo strato di zolfo dovrebbe fare da specchio alle radiazioni solari impedendo ad una parte di esse di reclugere il suono Krusen amava i neologismi le espressioni a effetto un po' visionarie nel 1982 insieme a John Birx era stato il primo a introdurre l'idea dell'inverno nucleare cioè un'analisi di cosa sarebbe successo nell'atmosfera terrestre e in generale agli ecosistemi dopo una guerra nucleare in pratica The Day After film guarda caso uscito l'anno dopo nel 1983 però visto non come fiction ma come un vero e proprio modello scientifico ancora una volta Krusen seppe influenzare la politica e le trattative sul disarmo che erano in corso proprio in quegli anni poi applicò lo stesso approccio calcolando gli effetti sul clima dei fumi non nucleari questa volta ma quelli degli incendi delle foreste e poi dell'inquinamento dell'aria nei centri urbani industriali e nelle raffinerie di petrolio in fondo il suo interesse di ricerca fu sempre lo stesso comprendere i processi di origine umana che minacciano l'atmosfera e con essa la nostra sopravvivenza nel discorso di accettazione del Nobel disse che lui avrebbe tanto voluto studiare i fenomeni naturali ma con il passare del tempo finì per occuparsi esclusivamente di attività umane che interferiscono con i processi naturali un ascoltatore ci scrive Paul Kruzen col punto di domanda ed è proprio di Paul Kruzen che vogliamo parlare con Filippo Giorgi io l'ho incontrato fin dagli anni 80 perché quando ero ancora uno studente di dottorato lavoravo su una tematica che si chiamava l'inverno nucleare o in inglese nuclear winter che è un'altra delle teorie che Paul Kruzen inventò appunto l'inverno nucleare significa gli effetti climatici di un conflitto nucleare lui ha lavorato su tantissime cose ha avuto delle idee veramente fuori dal comune l'inverno nucleare aveva una sua teoria sull'estinzione dei dinosauri insomma era veramente una mente brillante l'amore per i neologismi fece diventare famoso Paul Kruzen anche vent'anni dopo l'invenzione dell'inverno nucleare nel 2002 propose quasi per gioco su Nature insieme all'ecologista Eugene Sturmer di dare un nome alla geologia dell'umanità cioè alla recente drammatica fase in cui Homo sapiens è diventato un fattore geofisico su larga scala una vera e propria forza della natura il nome proposto fu semplice ed efficace antropocene cioè l'epoca recente dominata dall'umanità la provocazione di Kruzen e Sturmer ebbe un immediato successo mediatico serviva un nome da dare diciamo al peso dell'umanità sull'ambiente certe parole hanno un potere quasi taumaturgico e cominciano a circolare in modo virale sui giornali nei musei e anche nella comunità scientifica ben oltre le intenzioni dei loro creatori anche in questo caso Kruzen traeva le debite conseguenze da una serie di evidenze scientifiche inoppugnabili quando gli archeologi del futuro immaginiamoli tra milioni di anni si metteranno a scavare in concomitanza del sottilissimo strato che corrisponde alla nostra epoca disse Kruzen rimarranno di stucco in un millimetrico battito di ciglia del tempo geologico si accorgeranno che una sola specie con le sue attività minerarie ha spostato più sedimenti di tutti i fiumi della terra messi assieme quella stessa specie pompando gas serre in atmosfera ha scaldato il suo pianeta natale e gonfiato il livello dei mari e poi avanti così ha eroso appunto lo strato di ozono come Kruzen sapeva bene ha acidificato gli oceani ha frammentato gli habitat ha decretato il successo di poche specie ed estinto quasi la metà di tutte le altre per ciascuna di queste azioni oltre agli effetti momentanei sarà rimasta anche una traccia geologica cioè una cicatrice indelebile sulla superficie terrestre insomma gli scienziati del futuro capiranno ciò che noi dall'interno stentiamo ancora a vedere Homo sapiens è diventato una superpotenza biologica e geologica Kruzen con i suoi occhi puntati là in alto verso gli strati superiori dell'atmosfera lo aveva visto per primo Stormer invece era un biologo un grande esperto delle meravigliose diatomee che sono alghe unicellulari i cui cristalli silicei formano strutture di una bellezza straordinaria disegnate e immortalate da Ernest Eccle già nel 1904 Stormer sapeva che la Terra è un grande sistema di relazioni e di autoregolazioni in cui anche le diatomee hanno un ruolo essenziale parlava di antropocene già dagli anni 80 del novecento e nel 2000 ne aveva scritto insieme a Crutzen su un bollettino specialistico che però nessuno si era filato praticamente Crutzen invece ne aveva parlato la prima volta quasi per caso dopo un convegno sui cambiamenti globali tenutosi a Quernavaca in Messico nel febbraio del 2000 durante le sessioni del lavoro era saltato su dicendo ma su basta parlare di olocene ormai siamo nell'antropocene oggi antropocene è una parola valigia una parola passepartout sulla bocca di chiunque che ovviamente ha i suoi limiti perché per esempio sembra che l'umanità sia colpevole tutta nello stesso modo e sappiamo che non è così in ogni caso pochi ricordano che il termine fu inventato proprio da quest'uomo in realtà come Crutzen e Storm riconobbero di era antropozoica si discuteva già nell'ottocento in Inghilterra con il sottofondo potremmo dire degli sferragliamenti della rivoluzione industriale cavalcante e anche in Italia più aulicamente se ne parlava grazie all'abate geologo Antonio Stoppani che definiva l'uomo una nuova forza tellurica ancora prima in Francia Buffon aveva scritto che la settima e ultima età del mondo sarebbe stata l'epoca dell'uomo e di antropogene con la G parlavano anche gli scienziati russi già negli anni venti del novecento attratti dall'idea che l'uomo nuovo nato dalla rivoluzione d'ottobre potesse trasformare il mondo ed erano interessati più degli occidentali a concepire la terra la vita e l'umanità come un sistema integrato precursori comunque se ne trovano sempre ciò che più conta è il clima intellettuale del momento adesso è molto favorevole all'antropocene sentiamo insomma il bisogno di dare un nome a questa cosa sei anni dopo la proposta di Crutzen la International Commission on Stratigraphy ha preso sul serio la questione e nel 2009 ha istituito un gruppo di lavoro apposito composto da geologi archeologi geografi e scienziati del sistema terra ma anche da storici per valutare se sia davvero il caso di introdurre ufficialmente l'antropocene nell'immensa scala del tempo geologico cioè in quel monumento bellissimo dell'intelletto umano dall'aspetto inviolabile che scandisce 4,5 miliardi di anni di storia della terra e che sta giustamente appeso in tutte le aule scolastiche insieme alla tavola periodica degli elementi senta ci consiglia un libro Mario Tozzi un libro magari dei temi che lei affronta con il suo programma ultimamente io ho rilezzo molto volentieri anche cose passate da un po' di tempo in particolare uno che si chiama Benvenuti nell'antropocene che è un libro di Paul Krutzen è un bel libro perché ci fa capire come l'uomo può influire sulla terra e fare addirittura un periodo geologico che chiamiamo appunto antropocene è un libro leggero veloce da leggere non è un sacco barboso insomma ma quando comincia l'antropocene Paul Krutzen da chimico dell'atmosfera non ebbe dubbi l'antropocene va fatto partire dalla rivoluzione industriale di fine settecento e seconda metà dell'ottocento mettiamo per comodità l'anno 1800 cioè sedici anni dopo la macchina a vapore di James Watt e dai suoi effetti sulla composizione dell'aria che respiriamo lo dicono con chiarezza le carote di ghiaccio antartiche che misurano i livelli di anidride carbonica nel passato a partire da quel punto esatto un combinato disposto di uso di combustibili fossili di deforestazione sta facendo schizzare i gas serra a livelli mai raggiunti negli ultimi ottocento mila anni e più è da quel momento insomma che inconsapevolmente abbiamo cominciato a rinviare il naturale arrivo della prossima glaciazione certo non è una decisione da poco stabilire quando la specie umana divenne una forza della natura con impatto geologico non tutti oggi concordano con Krutzen alcuni pensano che l'antropocene sia molto più antico che cominci quando l'uomo ha imparato ad addomesticare le piante e gli animali cambiando già da allora la composizione dell'atmosfera con più metano e anidride carbonica Krutzen lo sapeva naturalmente ma riteneva che quella transizione fosse troppo sfumata per poter essere usata come demarcazione netta i geologi del futuro dovranno avere a disposizione un segno chiaro e preciso di inizio dell'antropocene proprio per questo secondo altri andrebbe fatto cominciare non prima ma dopo la rivoluzione industriale per la precisione nel 1945 quando l'esplosione delle bombe nucleari sulla popolazione civile in Giappone e poi centinaia di test nucleari fatti in superficie in atmosfera e nel sottosuolo letteralmente disseminarono il mondo di scorie radioattive e impregnarono la terra di elementi pesanti che decadranno per milioni di anni lasciando una firma indelebile una firma triste e molto sinistra come inizio dell'antropocene in pratica gli scienziati del lontano futuro riconosceranno l'esordio dell'era geologica umana attraverso gli indizi di un inverno nucleare sfiorato una suggestione che sicuramente affascinava Krutzen cioè colui che quell'espressione inverno nucleare l'aveva coniata Paul Krutzen oggi a 83 anni non si ferma in collaborazione con scienziati di tutto il mondo ha ideato il progetto ABC Atmospheric Brown Cloud Nube Atmosferica Marrone con gli studiosi del CNR accampati sull'Himalaya sta studiando quella densa coltre formata più che altro da carbone che si aggira sull'Asia un tipo di inquinamento atmosferico che al contrario di quanto si penserebbe non è legato principalmente allo sviluppo industriale La decisione sull'introduzione ufficiale dell'antropocene nella nomenclatura scientifica e su quando farlo cominciare è ormai imminente ma Paul Krutzen non potrà dire la sua se n'è andato a 87 anni il 28 di gennaio del 2021 i suoi occhi vispi e ironici vegliano adesso come un monito sulle decisioni che gli esseri umani sapranno o non sapranno prendere per evitare di umiliare e alterare ancora di più quell'atmosfera che lui studiò per tutta la vita quel sottile strato di gas che rende possibile ogni nostro respiro quando immaginiamo una macchina da scrivere tutti subito pensiamo alla lettera 22 Olivetti e alla sua splendida carrozzeria in diversi colori al contempo bella e funzionali magari sulle ginocchia di Indro Montanelli in quella famosa foto oppure sul tavolino un po' esotico di Ernest Hemingway oppure esposta addirittura al MoMA di New York come è successo in quanto un capolavoro di design quale in effetti è essendo stata progettata nel 1950 dall'architetto Marcello Nizzoli nel manifesto della macchina da scrivere Olivetti M1 presentato quando ci fu l'esposizione universale di Torino nel 1911 quindi è passato più di un secolo si vedeva un Dante Alighieri che batteva con aria severa e compiaciuta sui tasti il prototipo era venuto in mente a Camillo Olivetti dopo due viaggi negli Stati Uniti patria della sperimentazione tecnica sulle macchine da scrivere e siamo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento Olivetti ci va la prima volta nel 1892 e la seconda nel 1904 e il suo intendimento quando poi torna in Italia è però di metterci qualcosa in più perché è un valore speciale secondo lui doveva essere posto anche sulla forma della macchina perché una macchina da scrivere non doveva essere soltanto un soprammobile pieno di elementi decorativi e neanche soltanto una macchina per automatizzare la scrittura doveva essere qualcosa che doveva tenere insieme le innovazioni tecniche ma anche il senso estetico non è ben chiara l'origine prima di questo manufatto così particolare che ha permesso di redigere i testi e documenti in modo standard in tempi rapidi documenti facilmente leggibili il tutto imprimendo le lettere sul foglio attraverso un nastro di inchiostro di solito nero o rosso e permettendo fra l'altro di fare anche più copie perché bastava mettere una carta carbone sotto e questo permetteva di fare anche già delle copie un primo brevetto è segnalato nel 1829 il 23 di luglio a firma di William Austin Barth all'inizio questa innovazione o invenzione come tante altre peraltro nella storia fu vista quasi come una minaccia perché secondo alcuni rendeva troppo meccanica troppo uniforme l'arte della scrittura una macchina per scrivere fu inventata anche in Italia qualche tempo dopo da Giuseppe Ravizza a Novara nel 1846 il fine di questo Ravizza però era di tipo filantropico perché lui voleva che anche i ciechi potessero scrivere e inventò questo cembalo scrivano come fu chiamato che fu presentato ufficialmente al pubblico nel 1855 quindi siamo proprio alla metà dell'Ottocento e il nome riecheggiava questa idea un po' strana di inventare una macchina che avesse i tasti da clavicembalo ma fatti non per suonare bensì per scrivere praticamente un pianoforte per scrivere ci sono anche altri presunti inventori di macchine da scrivere sia italiani che tedeschi quasi tutti però all'inizio pensandola come uno strumento per i non vedenti fatto sta che però comunque nessuno fu contattato da un'azienda per produrle e le macchine da scrivere nei primi tempi vinsero qualche medaglia nell'esposizione nelle fiere ma nulla più di questo per avere la macchina da scrivere prodotta proprio su scala industriale bisogna aspettare qualche decennio ritornare oltreoceano negli Stati Uniti dove il senso del business aveva altre connotazioni diciamo altre spinte e il prototipo della tastiera alfanumerica che poi sarà il più usato al mondo e lo è ancora oggi fu brevettato da Christopher Scholes negli Stati Uniti negli anni 60 dell'Ottocento e fu messa in commercio dalla Remington & Sons che fino ad allora peraltro aveva fatto soltanto fucili perché era la famosa azienda di armi che decise di diversificare un po' la sua produzione e si mise a fare questo strano aggeggio inventato da Scholes nel 1880 ne esistevano circa 5.000 esemplari quindi ancora non era di grande diffusione ma sarebbero passati pochissimi anni e sarebbe diventato quasi un oggetto di culto grazie a tutti di rado noi ci soffermiamo su un dettaglio delle macchine da scrivere che poi è rimasto anche nelle tastiere dei computer cioè la disposizione dei tasti perché le lettere sono sistemati in quel modo sulle macchine da scrivere può sembrare una domanda banale o strana in realtà se proviamo a riflettere un po insieme magari avendo sotto una tastiera del nostro computer scopriamo una storia molto particolare le lettere già nelle macchine da scrivere sono diciamo per definizione minuscole disposte su tre file con un tasto unico poi per il maiuscolo nella fila sopra la fila superiore da sinistra le prime sei lettere sono la q w e r t e y lunga quindi fa qrt se lo pronunciamo ora in inglese più del 70 per cento delle parole si scrive con altre lettere non con queste la d la i la la t la h la e la n la s eccetera eccetera quindi la disposizione più razionale ed efficiente sarebbe quella di mettere queste lettere nella riga più accessibile cioè la seconda in posizione centrale in effetti tra i tanti altri esempi nel 1893 quindi verso la fine del secolo venne messa in commercio una tastiera fatta in questo modo diciamo più razionale ma non ebbe alcun successo perché prevalse proprio la tastiera qwerty cosa aveva di speciale e di funzionale la qwerty è una funzione in realtà molto semplice che era quella di distanziare fra di loro le lettere più frequenti la a e la o per esempio che sono battute molto spesso nella tastiera sono molto lontane tra di loro sono laterali e si battono con le dita più deboli l'anulari in un caso il mignolo nell'altro nella riga centrale invece non ci sono le lettere più comuni ciò a noi può sembrare irrazionale e imperfetto perché disporla in questo modo in realtà a noi sembra così viviamo in un mondo che è completamente diverso da quello in cui sono nate le macchine da scrivere a quel tempo una funzione fondamentale era quella di allontanare di distanziare le lettere più frequenti perché le macchine da scrivere avevano i martelletti che spesso si accavallavano si inceppavano producendo rallentamenti e un sacco di altri danni perché poi si finiva per imprimere sempre la stessa lettera bisognava sostituire il foglio oppure usare il bianchetto la gomma insomma un disastro invece allontanando fra di loro le lettere più frequenti la battitura poteva rimanere comunque veloce senza però accavallare i martelletti la riga centrale è fatta in ordine quasi alfabetico soltanto che la e e la i sono allontanate anche queste nella riga superiore ecco allora che ciò che ci appariva come irrazionale dal nostro punto di vista adesso diventa sensato non solo ma anche ingegnoso potremmo dire così è nata la tastiera qwerty in modo molto pragmatico e anche in modo così un po borracciato imperfetto per allontanare leggermente tra di loro quei rapidissimi momenti in sequenza in cui i martelletti colpivano la striscia di inchiostro e subito dietro si stampavano sul sul foglio un'eccessiva velocità oppure un ritmo troppo disuguale di battitura quando c'erano i martelletti era disfunzionale incastrandosi l'uno sull'altro interrompevano la battitura e uno degli elementi fondamentali della prima dattilografia era proprio la velocità si facevano addirittura dei campionati di velocità nella nella battitura risultato furono progettate delle macchine da scrivere con i martelletti in vista quindi non nascosti ma che si vedevano mentre battevano con il rullo in modo da vedere subito l'inconveniente dei martelletti in caso si fossero sovrapposti e poi appunto con le lettere più comuni ben distanziate tra l'altro la r non è poi così comune ma fu aggiunta in alto a sinistra perché in questo modo questa è una curiosità molto particolare i venditori potevano impressionare i potenziali acquirenti scrivendo di getto il termine inglese per macchina da scrivere che è typewriter usando soltanto i tasti della prima riga e molto velocemente potete provarci anche a casa e vedrete che funziona ancora adesso nello stesso modo a più di un secolo di distanza qui però si pone una domanda un po come dire difficile e particolare ma se quella tastiera è nata più di un secolo fa per quella funzione e oggi i martelletti non esistono più anzi probabilmente le nuove generazioni fra di noi nemmeno si ricordano dell'esistenza di questo sistema perché quasi tutte le tastiere nel mondo sono ancora fatte nello stesso modo quindi la tastiera qrt dai nome delle prime sei lettere in alto a sinistra conserva una specie di segreto perché l'abbiamo ancora adesso benché sia nata per una funzione che oggi non ha letteralmente più senso qui la storia diventa ancora più intrigante perché già nel 1932 era uscita sul mercato della dattilografia una tastiera che era ancora più veloce ed efficiente la cosiddetta DSK che sta per vorax simplify keyboard quindi una tastiera semplificata che era la campionessa di tutti i record di velocità in dattilografia a quel tempo eppure la DSK non riuscì a soppiantare la qrt cioè la vecchia e obsoleta e molto meno efficiente qrt come mai oggi il fatto ovviamente ancora più 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 sorprendente perché archiviati da decenni i martelletti e siamo entrati nell'era digitale le tastiere dei nostri computer portano ancora la qrt nella prima riga in alto a sinistra se non ci credete potete provare di persona può darsi che cambi una o due lettere ma il modello è lo stesso allora se l'economia come qualcuno dice è un dominio dell'efficienza e deve prevalere sempre la forma più efficiente tutto ciò non ha senso nel 1986 provo a rispondere a questo enigma tecnologico un grande storico dell'economia di stanford che si chiama paul david e che si chiese proprio questo ma perché la qrt è sopravvissuta tutti i competitori che ha avuto che erano chiaramente superiori a lei già nel 1872 scoprì david thomas edison niente meno che il grande inventore aveva progettato e brevettato una macchina da scrivere elettrica quella con la ruota porta caratteri eppure niente nel 1879 era uscita sul mercato una prima macchina da scrivere senza martelletti addirittura ma con un cilindro che ruotava e che portava tutte le lettere poi nella posizione giusta eppure niente quasi tutti continuarono a usare la qrt con i suoi scomodi martelletti che che si incastravano il lanno d'oro delle macchine da scrivere è diciamo il decennio è tra il 1880 e il 1890 perché nel mondo dell'adattivografia vengono proposti modelli più più diversi molti di questi senza martelletti e tuttavia come se nulla fosse al volgere del nuovo secolo la la qrt divenne la norma industriale a livello internazionale furono inventate le testine ruotanti nel 1901 fu proprio prodotta a livello industriale la prima macchina per scrivere elettrica venne poi il momento del della selectrid famosissima della ibm poi la macchina con le schede perforate la hollerith e infine la tastiera di personal computer quindi un vero e proprio cambiamento di epoca un'evoluzione tecnologica per molti aspetti rivoluzionaria eppure la tastiera qrt è ancora lì resiste ostinatamente e anzi continua ad avere una posizione dominante la tastiera qrt è quella che gli studiosi di evoluzione delle tecnologie chiamano un accidente congelato cioè una soluzione nata inizialmente per motivi contingenti abbiamo visto i martelletti che si accavallavano che diventa ben presto non ottimale ma che nel frattempo ha conquistato una posizione dominante cioè è diventata una moda un modello una una norma anche grazie peraltro nel caso di questa tastiera una concatenazione di eventi fortunati e anche molto strani e anche abbastanza divertenti per esempio una delle prime e più frequentate il maggior successo scuole di dattilografia quella con il metodo a otto dita venne aperta a Cincinnati nel 1882 e usava le tastiere qrt un celebre campionato di velocità di battitura se ne facevano negli stati uniti fu vinto nel 1888 da un da un dattilografo bravissimo fu uno dei primi a battere la macchina senza guardare la tastiera no battitura cieca e ovviamente usavano a qrt e questo pure diede un grande successo e una grande fashion diciamo a questa a questa tastiera e di lì in poi la valanga andò avanti perché poi i primi manuali di dattilografia usavano come modello la qrt e insegnano la battitura cieca sulla qrt insomma potremmo andare avanti a lungo la questione è che diciamo una congiura di condizioni favorevoli ma di per sé non necessarie fece prevalere questo modello di macchina da scrivere su tutti gli altri grazie a queste circostanze contingenti molto favorevoli la storia si è incanalata in quella direzione e a quel punto spostarsi su un altro binario divenne costoso e rischioso per chi lo avesse fatto nessuno finora ha preso la decisione nel 2015 coordinata a livello mondiale di sostituire tutte le qrt e di rimpiazzarle con tastiere ergonomiche per esempio ce ne sono già tantissime in circolazione forse l'operazione potrebbe anche avere successo sul piano economico ma fatto sta che finora nessuno ha avuto il coraggio di farlo risultato usiamo quasi tutti una tastiera non ottimale oppure delle varianti per esempio in germania si usa con la z finale in modo da avere tz vicini oppure in francia si usa la a all'inizio della q quindi azzerti sarebbe e fatto sta che comunque il modello di partenza è sempre quello evidentemente l'efficienza almeno in questo caso ma anche in molti altri non è l'unico criterio del successo nell'evoluzione tecnologica la qrt quindi è un bellissimo esempio come figlia della storia delle contingenze che spesso interessano anche il mondo dell'economia del mercato e delle tecnologie la storia della macchina da scrivere e della tastiera qrt ci dice qualcosa di interessante sulle leggi che governano la storia sia delle tecnologie che potremmo dire anche degli esseri viventi perché poi è tipico anche dell'evoluzione nostra questo questo fenomeno noi pensiamo di solito che il frutto dell'ingegno umano sia più libero e più incondizionato rispetto a ciò che possiamo fare per esempio con gli organismi che sono ancorati alla loro storia al loro dna ai vincoli fisici mentre l'acciaio il vetro la plastica sono più malleabili ed è vero perché oggi abbiamo le automobili non abbiamo più le carrozze a cavallo abbiamo le lampadine non più le lampade a gas poi l'evoluzione tecnologica è molto più rapida spesso è travolgente siamo noi a decidere un'innovazione possiamo subito insegnarla diffonderla tutti basta metterla in rete per esempio e in natura invece non è così nelle tecnologie possiamo sostituire rimescolare tutto eppure qualcosa in comune con l'evoluzione biologica sotto sotto rimane perché perché le tecnologie se ci pensiamo bene come gli organismi viventi non sono il frutto di un disegno ottimale no ma sono figlie di un processo che prevede spesso arrangiamenti imperfezioni soluzioni di fortuna e anzi è proprio l'imperfezione il marchio di fabbrica potremmo dire della storia darwin stesso il padre della teoria di evoluzione lo diceva nei suoi scritti che dove c'è perfezione scriveva darwin non c'è più storia perché tutto si è compiuto non c'è più margine di cambiamento e invece il naturalista l'evoluzionista devono cercare le imperfezioni perché è lì che si annida una promessa di trasformazione o se non altro una traccia per ricostruire l'operato dell'evoluzione attraverso proprio rimaneggiamenti spesso per nulla ottimali quindi sono proprio le imperfezioni le prove primarie dell'evoluzione tanto nella biologia quanto nelle tecnologie qualche decennio fa un grande paleontologo ed evoluzionista che si chiamava steven jay gould aveva battezzato questo tema dell'imperfezione come il principio del panda illustrandolo con un esempio molto molto interessante che è proprio il falso pollice del panda i panda sono una stranezza evolutiva di per sé perché sono dei discendenti erbivori di orsi carnivori quindi sembrano proprio nel posto sbagliato al momento sbagliato come può sopravvivere un orso che deve adattarsi a mangiare bambù sopravvive arrangiandosi come può riadattando il suo sistema digerente e soprattutto mangiando tutto il giorno perché l'apporto nutrizionale del bambù crudo non è equiparabile certo a quello della carne ma soprattutto il panda si è trovato di fronte a un problema di presa potremmo dire proprio di preensilità perché provate infatti ad afferrare un bambù con la zampa di un orso non ce la farete mai no perché il pollice non è più adattato a una a una presa piuttosto ad afferrare in modo più brusco e poi a lacerare quindi l'adattamento alla dieta vegetariana obbligò il panda ad aumentare la flessibilità di manipolazione con le dita il pollice però era già impegnato nella mano da orso nella zampa da orso e allora cosa cosa succede ecco che spunta un surrogato ingegnoso rimediato in qualche modo un ossicino che si chiama sesamoide radiale che sta nel polso ce l'abbiamo anche tutti noi si è ingrandito in modo insolito fino a diventare il supporto per un sesto dito cosiddetto falso pollice del panda che permette al panda non proprio in modo perfetto ma insomma in qualche modo di afferrare il bambù non è il massimo dell'ingegneria ma funziona o almeno fino adesso ha funzionato quindi la natura è piena di queste storie di subottimalità di imperfezioni che ce l'hanno fatta di soluzioni di fortuna e di rimaneggiamenti il nostro corpo pure è un'evoluzione non tecnologica ma biologica e imperfetta il mal di schiena l'appendice che ci si infiamma il dente del giudizio sono tutti difetti dovuti al fatto che noi abbiamo un'architettura da quadrupedi che si è riadattata a quella da bipedi con tutti gli effetti collaterali che ne conseguono questo è un meccanismo molto noto nell'evoluzione che si chiama exaptation che è una parola difficile per dire qualcosa di semplice cioè che l'evoluzione forse quella biologica di sicuro ma forse anche quella tecnologica è fatta di tanti riutilizzi di strutture già esistenti nate magari per certe ragioni e poi riutilizzate per tutt'altro e poi è piena anche di cose che all'inizio magari servivano a qualcosa e poi sono rimaste perché ci siamo affezionati anche se poi hanno smesso di svolgere quella funzione quindi oggi le macchine da scrivere con la loro bella tastiera qrt sono diventate un oggetto di culto e qualcuno addirittura le riscopre per dare un senso più autentico ai suoi scritti è bello però notare che dentro la loro tastiera si nasconde uno dei segreti della storia che è la sua contingenza e il suo essere piena di imperfezioni il presidente degli stati uniti richard nixon lo definì l'uomo più pericoloso d'america ma non si trattava né di al capone né di un capo terrorista l'oggetto di tanta apprezzione era in realtà un ex psicologo di harvard amante delle sostanze che alterano la mente arrestato per possesso di droghe più volte fuggito all'estero nel 65 poi ripreso condannato addirittura a 30 anni di prigione poi in appello perché sua figlia portava in auto una scatoletta di marijuana stiamo parlando di timothy francis leary che nove mesi più tardi già era evaso da un altro carcere e fino al 1976 visiterà in effetti diversi penitenziari americani ma la figura e la vita di questo scomodissimo anticonformista libertario e pacifista non può certo essere ridotta alla cronaca giudiziaria leary era nato a springfield il 22 ottobre del 1920 in massachusetts in una delle tante città che negli stati uniti si chiamano springfield è proprio un emblema diciamo della città qualunque della sterminata provincia americana e in effetti la provincia è stata subito molto stretta a leary a cominciare dall'educazione cattolica impartita al college di worcester dove lo mandarono i genitori e per non farsi mancare nulla dell'america profonda passò anche 18 mesi all'accademia militare di west point prima di essere poi allontanato per cattiva condotta anzi per disonorevole condotta la carriera scientifica di leary in realtà non era cominciata poi tanto male lui si laurea in psicologia in alabama nel 45 pur con qualche turborenza caratteriale fa comunque il suo dovere di dottore in tempo di guerra prende il dottorato in psicologia clinica all'università della california berkeley dove resta tra l'altro come assistente ricercatore fino al 58 quando poi passa niente meno che ad harvard la prima moglie marianne si suicida si toglie la vita nel 1955 lasciandolo da solo con due bimbi piccoli il suo argomento di studio era particolare era interessante le dimensioni della personalità e dell'intelligenza cioè i suoi limiti i livelli che può raggiungere l'intelligenza la coscienza umana però più che le teorie psicologiche o la vita universitaria che lui considera di una noia impiegatizia potè però un viaggio una vacanza in messico nell'agosto del 1960 durante la quale assaggia funghi allucinogeni usati durante i riti sciamanici da una tribù nativa quella dei mazzatec a quernavaca per lui è una rivelazione uno shock non vuole più fare l'uomo robot dice lui della classe media americana si convince che la mente umana possiede vaste dimensioni e potenzialità ancora inesplorate torna subito ad harvard intenzionato a fare sperimentazioni innovative sulle sostanze di origine naturale capaci di alterare gli stati di coscienza dal 1960 al 63 timothy leary e alcuni colleghi studiano gli effetti di quei funghi allucinogeni messicani e anche dell'lsd sintetizzato molto tempo prima già negli anni 30 e 40 da albert hoffman negli stati uniti a partire dall'acido lisergico che poi diventato famosissimo contenuto in un fungo peraltro molto diffuso della segale l'ipotesi iniziale è che questo acido se assunto correttamente sotto controllo medico possa essere un antidoto contro l'alcolismo e contro le dipendenze e possa diventare persino secondo liri un possibile trattamento calmante per rieducare i criminali recidivi infatti fanno sperimentazione anche con pazienti nelle carceri fra tutti gli altri pazienti del team di liri ad harvard cominciano a circolare i primi resoconti sulle esperienze diciamo mistiche cioè di distacco praticamente dalla realtà materiale di potenziamento della sensibilità che sono appunto indotte dalla somministrazione dell'lsd nel 1963 però dopo tre anni di sperimentazione ad harvard la diffusione degli allucinogeni tra gli studenti anche i ricercatori di harvard comincia a non essere affatto tollerata dai colleghi dagli amministratori e anche dai genitori dei ragazzi alla fine liri viene allontanato e va a lavorare da solo in proprio con i suoi colleghi a millbrook nello stato di new york per continuare i suoi esperimenti in quella che poi diventerà secondo molti resoconti una sorta di comune hippie lo stesso anno nel 63 esce l'esperienza psichedelica che è un po il suo libro fondamentale scritto insieme i suoi due maggiori collaboratori ralph metzner e richard alpert e qui i tre in questo libro teorizzano l'espansione della coscienza umana attraverso diverse tecniche che possono essere la deprivazione sensoriale lo yoga varie forme di meditazione ma soprattutto per via chimica proprio attraverso le droghe cosiddette psichedeliche come l'lsd o come la mescalina contenuta nel peyote messicano che è un cactus di terra un viaggio quindi piuttosto insidioso verso nuovi livelli di coscienza che molti giovani delle controculture americane ma in tutto il mondo intraprenderanno negli anni successivi hoffman lo scopitore dell'lsd che era stato usato in psichiatria per decenni e che muore fra l'altro nel 2008 quindi molto recentemente a 102 anni lui fece in tempo ad accorgersi del pericolo e sostenne che l'acido andava somministrato in modo molto prudente e solo sotto rigido controllo medico e non invece in modo indiscriminato e per ragioni diciamo più spirituali e filosofiche che scientifiche ormai però era troppo tardi nel 1966 per esempio anche john lennon sarà fortemente attratto dall'esperienza psichedelica teorizzata da leary di cui peraltro diventa amico l'fbi comincia a rompere più volte nei laboratori di leary e inizia ben presto una storia intricata di fughe dai processi e dagli arresti di espatri di rimpatri concordati che terminerà soltanto nel 1976 prima di essere bandito come illegale alla fine degli anni 60 anche la cia però va detto aveva flirtato con l'lsd per eventuali usi nel potenziamento delle facoltà mentali e negli interrogatori soprattutto poi venne invece l'età della proibizione assoluta e leary dovette cercare vie secondarie e private per espandere le proprie e le altrui facoltà mentali pensavamo davvero che la droga avrebbe cambiato il mondo ne eravamo certi pensavamo che se viaggiavi se prendevi un acido saresti cambiato davvero perché noi stessi eravamo cambiati da quelle esperienze esperienze di unità cosmica dove sentivo nel profondo di non essere diversa da te né diversa dai miei amici neri non ero diversa da nessun altro in qualunque altra parte del mondo ma non ero diversa neanche dal mio cane per dirla come la sentivamo all'epoca dio viveva dentro di noi la sensazione è di essere a contatto con potenze più grandi di te e con un'intelligenza che supera di gran lunga la mente umana e energie molto antiche si prova la sensazione di essere trasportati nell'opera di dio e che il velo venga strappato e per la prima volta si possono vedere le cose come sono realmente l'uso di sostanze psichedeliche per raggiungere nuove presunte dimensioni spirituali e creative non era certo un'invenzione di timothy leary negli anni 50 già lo praticavano il suo amico poeta della big generation allen ginsberg ma anche william barrocks e tanti altri ma in fondo è una pratica antica quanto l'umanità stessa gli sciamani delle più diverse culture del mondo assumevano e assumono allucinogeni per farsi mediatori e interpreti a loro dire degli spiriti della natura che suggeriscono loro guarigioni dispensano consigli eccetera un antenato dell'lsd pare che fosse implicato anche nei misteri e le usini dell'antica grecia e proprio le le sostanze psicotrope illustrano se vogliamo al meglio l'ambivalenza semantica del termine farmakon che che in greco significa principio curativo ma anche veleno in questo caso potenziamento ma anche veleno per il cervello la ricerca della alterazione mentale è stata dicevamo una costante nella storia dell'umanità ovunque sul pianeta le popolazioni umane hanno trovato il modo di assumere sostanze psicoattive quasi sempre ricavate dalle piante o dai funghi delle piante che dessero euforia che alleviassero dalla fatica e che permettessero esperienze particolari noi quindi nella storia abbiamo assaggiato bollito inalato fumato e distillato praticamente di tutto questo perché il mondo vegetale è il più grande laboratorio chimico del mondo tutto sommato ed è stato il principale fornitore di sostanze psicotrope che normalmente sono prodotte dalle piante per assolvere funzioni completamente diverse spesso quasi sempre di difesa contro i predatori praticamente il messaggio della pianta è tu prova a mangiarmi e d'accordo mi avrai mangiato ma andrai fuori di testa non capirai più niente alcune di queste sostanze vegetali sono note fin dalla preistoria sono molto antiche in particolare i cannabinoidi contenuti nella marijuana nell'ashish ma anche l'oppio che è ricavato da una specie di papavero il tabacco e fin dalla preistoria erano usate per fini terapeutici anche oggi noi siamo consapevoli dei gravi danni fisici che il consumo prolungato e smodato di queste sostanze provoca a causa di meccanismi precisi che conosciamo bene che sono la suefazione il bisogno di dosi sempre più alte e quindi lo sviluppo della dipendenza che può diventare una trappola mortale lì lui pensava invece che queste sostanze psicoattive di origine vegetale o anche sintetica poi fossero una benedizione della natura i funghi allucinogeni provati da lì all'inizio in messico la prima volta contenevano psilocibina che è una sostanza organica di origine vegetale anche questa con effetti farmacologici di per sé abbastanza interessanti perché favorisce la neurogenesi e può anche avere effetti positivi sulle facoltà mnemoniche per esempio e anche nel trattamento delle dipendenze di disturbi della personalità come tutte le sostanze psicoattive agisce sui meccanismi che già esistono nel nostro corpo meccanismi interni del piacere e dell'eccitamento quindi va a colpire dei recettori che già sono sensibili nel nostro cervello però lì li eccita molto di più li stimola molto di più e per questo può creare dipendenza secondo tim leary in questo modo la natura lui diceva entrava in contatto direttamente con il sistema nervoso umano e condivideva con lui i suoi segreti quando Hoffman che è quello che scoprì nel 43 l'LSD lo inalò per sbaglio la prima volta perché gli erano cadute delle gocce sulla mano raccontò di avere visto un flusso di immagini meravigliose disse forme straordinarie con un continuo gioco caledoscopico di colori simile peraltro coincidenza interessante ai disegni di alcune figure geometriche frattali che sono state scoperte poi dopo quindi tutto diciamo affascinante curativo per certi aspetti ma anche piuttosto pericoloso l'esperienza psichedelica con i zuccherini famosi o i francobolli all'LSD doveva permettere secondo leary una trasformazione in tre fasi della mente umana che la sua famosa filosofia la sua teoria la prima fase è l'accensione lui diceva cioè l'apertura delle cosiddette porte della percezione che erano state raccontate nel 1954 da Aldous Huxley dopo un trip a base di mescalina come raccontò Huxley quelle stesse doors of perception da cui prese il nome la celebre band di Jim Morrison e doors la seconda fase è la sintonizzazione cioè sentirsi in sintonia con la natura con gli altri con l'universo percependo l'infinito che ci circonda scriveva leary la terza invece è l'abbandono cioè liberarsi dai vincoli che bloccano la nostra libera espressione di volontà desideri e azioni quindi è una sorta di filosofia del miglioramento di sé attraverso l'espansione della mente naturalmente con l'aiuto con un aiuto chimico diciamo le tre fasi di leary coincidono con precetti religiosi e con idee filosofiche di antica data che conosciamo ben presto infatti gli studi prettamente psicologici di liri sconfinarono in una visione del mondo in una neonata antropologia a base di allucinogeni in un nuovo paganesimo come diceva sempre liri nei suoi libri erano gli anni quelli del grande successo delle religioni orientali in occidente il movimento psichedelico di liri si agganciò perfettamente a queste idee di estasi di stato di grazia ciascuno poteva insomma costruirsi una religione personale come in molte filosofie sapienziali e anche in tantissime sette il fulco centrale è interessante perché è molto simile ed è l'idea che la mente abbia una struttura potremmo dire a cipolla cioè a strati liri richiamava circuiti di consapevolezza le persone normali accedono soltanto ai primi livelli ma grazie a un percorso di illuminazione spirituale si possono raggiungere gli stadi più avanzati e più profondi questa è un'idea molto diffusa in molti di questi movimenti così facilmente si scivola dalla filosofia alla fantascienza pop e anche un pochino kitsch per esempio liri favoleggiava di livelli superiori di coscienza in cui si poteva viaggiare nello spazio cosmico in assenza di gravità in cui si costruivano società autopistiche dove regnava l'empatia dove si fanno scoperte scientifiche sensazionali naturalmente tutti questi viaggi più che nel cosmo reale erano tutti racchiusi nella nella sua mente in stato più o meno alterato viaggi quindi solipsistici ed extracorporei da figli dei fiori voli pindarici resi possibili dalla perdita dei freni inibitori indotta dalle droghe del resto la nostra mente può essere davvero vasta quanto l'universo pensiamo a quanti miliardi di connessioni possibili ci sono fra i nostri neuroni che appunto un numero astronomico ovviamente l'ultimo stadio ambito sempre da queste teorie è la fusione con l'universo stesso con la mente universale che sia poi nelle vesti del grande brama buddista o di altre entità spirituali supreme poi non cambia tanto in cerca di nuovi livelli di consapevolezza o più spesso semplicemente per assuefazione e dipendenza fatto sta che l'utilizzo di allucinogeni negli anni 60 crebbe esponenzialmente e tim leary con i suoi manuali d'uso ne divenne il principale guru diciamo lui si vedeva come un coach come un allenatore gli avversali lo definivano invece un corruttore della gioventù una minaccia non violenta puntata contro qualsiasi ortodossia educativa e religiosa le sue sfide televisive contro i leader conservatori americani i fondamentalisti cristiani erano pirotecniche le esperienze a cui la mente umana può accedere non hanno limiti lui teorizzava perché bisogna trascendere il linguaggio verbale la prigione dello spazio tempo e in ultima istanza anche la gabbia della propria identità grazie a questa così questa scalata della mente verso vette indomite la specie umana poteva inaugurare addirittura diceva leary una nuova fase della sua evoluzione lui lo scrive in un famoso libro del 1970 l'idea di timothy leary che la mente umana nasconda dimensioni inesplorate si basa su un'idea molto diffusa un luogo comune che in realtà scientificamente non è non è dimostrato secondo cui noi useremmo soltanto una piccola parte del nostro cervello no l'abbiamo sentito tantissime volte benché questa idea sia infondata in termini strettamente neurologici però ha avuto una grandissima fortuna letteraria cinematografica e artistica basti pensare per esempio all'ultimo film di di luke besson lucy dove appunto si immagina il raggiungimento di nuovi stadi di conoscenza di percezione racchiusi nelle potenzialità inespresse del cervello della protagonista che è interpretata peraltro molto bene da scarlett johansson quindi l'idea fa ormai parte del nostro immaginario collettivo sul futuro anche grazie a timothy leary ci piace insomma molto questa idea che possa esserci una scorciatoia chimica chiamiamola così una porta di accesso immediato a queste praterie sconfinate di esperienze mistiche ed eccitanti proprio alle visioni del futuro un po oniriche e spesso anche un po confuse leary ha dedicato l'ultima parte della sua vita gli ultimi vent'anni della sua vita appassionandosi alla cibernetica disciplina scientifica interessantissima che tecnicamente si occupa del controllo dei sistemi studiando come si autoregolano i sistemi naturali e cercando poi di applicare queste regole ai sistemi artificiali non la cibernetica ma più in generale alla cybercultura californiana tra comunità di hippies di beatnik come si diceva quel tempo leary ispirò artisti e cantanti si mise a progettare software per videogiochi mentali e anche per nuove forme di realtà virtuale fu uno degli antisignani della realtà virtuale in effetti e in fondo se ci pensiamo bene è un aggiornamento coerente del suo progetto di ricerca che è quello di appunto era sempre dell'espansione delle capacità esperienziali umane lui una volta scrisse che il personal computer era diventato l'LSD degli anni 90 e ci fa abbastanza piacere visto che fa meno danni diciamo entro certi limiti il computer che non lsd e per certi aspetti quindi lui anticipò il movimento che oggi chiamiamo di transumanesimo no questa idea di superare i limiti dell'umanità però se possiamo dire la sua idea di coscienza superiore rimase sempre molto individualistica anche se lui parlava di coscienza interpersonale in realtà è sempre una ricerca molto individuale come gli eroi solitari appunto della fantascienza cyberpunk che lui amava che sono sempre in lotta con il mondo intero che non li capisce il fatto curioso che però va ricordato per correttezza storica è che negli ultimi anni adesso proprio diciamo dal 2010 al 2015 la scienza sperimentale sta in effetti confermando che la pista iniziale quella proprio iniziale di Leary ad Harvard e dei suoi colleghi non era poi completamente sbagliata le sostanze psichedeliche possono avere in effetti degli usi terapeutici importanti che sono attestati da molte pubblicazioni scientifiche purché ovviamente siano somministrate correttamente e sotto controllo medico in vari campi nella lotta alle dipendenze nella cura di traumi anche in altre patologie neurologiche però ecco nei turbolenti anni sessanta Leary poi prese tutta un'altra strada l'intuizione di partenza non era completamente sbagliata quanto alle potenzialità inesplorate della mente naturalmente esistono davvero ma sono di tipo culturale nel senso che il nostro cervello ha ancora tantissimo da imparare e da scoprire anche su se stesso senza fare uso di stupefacenti nei suoi slanci futurologici timoti leary volle anche giocare con la morte e sfidarla a modo suo lui negli ultimi anni della vita era ormai diventato un conferenziere di successo obiettivamente carismatico anche molto divertente divenne l'amico e consulente di attori di hollywood come susan sarandon per esempio che fu una sua carissima amica e che anche recentemente proprio a settembre di quest'anno ha di nuovo fatto una cerimonia ricordo di leary distribuendo le sue una parte delle sue ceneri leary si sposò più volte ci vettò per qualche tempo con la crionica altra disciplina futurologica immaginando di congelare il suo corpo per futuri usi per essere risvegliato ma aveva una formazione scientifica quindi sapeva che questo non era possibile infatti poi la ragionevolezza diciamo della sua formazione sperimentale prese il sopravvento e diede indicazione di essere cremato ebbe un grande dolore anche nell'ultima parte della sua vita perché la figlia susan ormai più che quarantenne si suicidò in carcere nel 1990 leary morì sei anni dopo a causa di un cancro all'apostata a beverly hills all'alba del 31 maggio del 1996 facendo videoregistrare la sua fine proprio fino fino agli ultimi respiri fino alle ultime sue parole che si pensa siano state evolute quindi anche quelle in qualche modo recitate e poi lui voleva che questa videoregistrazione fosse messa in rete fosse messa in internet questa prospettiva della rete lo appassionava tantissimo in fondo non è strana questa bizzarria perché lui aveva fatto esperimenti spericolati sul proprio corpo per tutta la vita e non poteva lasciarsi sfuggire l'occasione di raccontare in ogni suo dettaglio anche l'ultimo dei suoi viaggi il più difficile quello senza ritorno in realtà però grazie a un amico non fu quello in effetti il suo ultimo viaggio perché una parte delle sue ceneri furono spedite nello spazio insieme a quelle di altri inguaribili visionari come lui quindi possiamo dire in qualche modo non con le droghe ma con i suoi resti mortali timothy leary ha raggiunto davvero il suo obiettivo poetico diffondersi con l'universo vincere due premi nobel in una vita sola non è da tutti ci sono riusciti soltanto la grande mary curie in fisica in chimica il fisico john bardin tutte e due in fisica e il grande genetista inglese padre delle tecniche di sequenziamento del dna friedrich sanger tutte e due in chimica solo uno scienziato al mondo però in tutta la storia ne ha vinti due senza condividerli con nessuno si tratta del chimico linus poling che lo vinse per la chimica nel 1954 e per la pace quindi tutt'altro argomento nel 1962 la chimica e la pace quindi la scienza potremmo dire è una visione del mondo una visione della società nello stesso uomo la cui storia merita di essere raccontata anche se poco noto perché ha veramente alcuni lati particolari sorprendenti mio padre era un farmacista io nonostante sia morto quando ero ancora giovane avevo 19 anni sono sicuro che il fatto di osservarlo mentre preparava i medicinali nella farmacia ebbe un'influenza su di me cominciai a collezionare insetti e minerali quando avevo 11 anni e all'età di 13 anni un altro ragazzo della mia stessa età mi mostrò alcuni esperimenti chimici e io ero estremamente interessato a quegli esperimenti volevo vedere come poteva una sostanza trasformarsi in un altro all'età di 14 anni decisi che sarei diventato un chimico o un ingegnere chimico linus poling era nato in oregon a portland 1901 quindi più di un secolo fa da una famiglia luterana piuttosto modesta padre di origini tedesche che poi tra l'altro muore quando poling ha soltanto nove anni e una madre inglese coraggiosa che da sola crebbe tre figli l'infanzia è quella tipica di un promettente scienziato grandi letture esperimenti di chimica in garage e a 15 anni quando ancora non ha il diploma perché gli mancano un po di di corsi e di esami è talmente bravo che viene subito ammesso alla oregon state university negli stati uniti si può accedere così giovani già all'università lui non ha soldi deve guadagnarsi da vivere e allora lavora in laboratorio come tecnico e tiene lezioni già universitarie di fisica nelle stesse aule dove praticamente pochi mesi prima era passato come studente quindi veramente uno studente precoce ci sono tutte le condizioni per una carriera scientifica brillante lui è interessato poi a temi particolari di frontiera tipico dei grandi innovatori della scienza che hanno sempre aperto nuovi nuovi settori a lui interessa la struttura elettronica degli atomi cioè come è fatta la struttura profonda della materia com'è che stanno insieme le molecole il lavoro sulla struttura elettronica delle molecole di un cristallo e la natura dei legami chimici mi sembravano così interessanti che quando ricevetti la laurea in ingegneria chimica andai al california institute of technology all'età di 21 anni cominciai a lavorare per determinare la struttura dei cristalli con il metodo della diffrazione ai raggi x studiai matematica e fisica tanto quanto la chimica così il mio dottorato fu insieme in chimica fisica e matematica nel 1922 quindi a 21 anni giovanissimo si laurea in ingegneria chimica viene subito chiamato al caltech che è il prestigiosissimo politecnico di pasadina in california nel 25 ha già il dottorato di ricerca in chimica fisica deve continuare a procurarsi da vivere però perché non ha risorse sufficienti insegna chimica ai laureandi e all'ultimo anno di università tiene un corso nella classe di economia domestica che era una vecchia disciplina che esisteva negli stati uniti molto particolare li conosce una ragazza che si chiamava eve ellen miller che diventerà sua moglie l'unica compagna poi della sua vita che gli darà quattro figli e influenzerà molto le sue idee pacifiste successive essendo eve una fervente attivista poling aderisce alla confessione unitariana fra l'altro che è una confessione religiosa con forti convinzioni non violente almeno quella a cui appartiene poling anche se poi lui dirà nella vecchiaia di essere diventato ateo di avere perso la qualsiasi credenza religiosa come per tanti scienziati della sua generazione in atti nei primi anni del secolo scorso la seconda guerra mondiale in particolare lo scoppio delle due bombe atomiche americane segnarono una cesura uno spartiacque biografico ed esistenziale benché avesse rifiutato poling di far parte anche questo interessante del progetto manattan lui aveva precedentemente lavorato comunque a progetti militari americani mettendoci tutta la sua competenza di geniale chimico inventò per esempio un misuratore di ossigeno molto utile nei sommergibili per esempio lavorò a dei nuovi combustibili per razzi ea nuove munizioni molto più efficaci tanto da ottenere poi da harry truman alla fine della guerra la medaglia al merito del presidente degli stati uniti poi però arriva alla fine della guerra arrivano le bombe nel 1946 le sue idee mutano profondamente hiroshima 6 agosto 1945 esplode la prima bomba atomica l'esplosione fu accompagnata da un enorme fragore e una luce verde azzurra illuminò la tragedia lo scoppio provocò un aumento della pressione da uno a due chilogrammi per centimetro cubo tutte le case furono rase al suolo linus poling nel 1946 aderisce all'emergency committee of atomic scientists cioè il comitato di emergenza degli scienziati atomici diretto da un altro grandissimo e ben noto pacifista albert einstein un comitato che aveva lo scopo di sensibilizzare la popolazione mondiale sui pericoli connessi alla proliferazione delle armi nucleari ben presto arrivano dopo la seconda guerra mondiale gli anni bui del mercatismo e del sospetto così nel 1952 il dipartimento di stato americano ritira a poling il passaporto a causa delle sue convinzioni politiche poco ortodosse diciamo non sufficientemente nazionaliste e glielo ritira proprio mentre si stava imbarcando per un importantissimo convegno a londra siamo nel 52 ed era un convegno in cui si cominciava a parlare della struttura del dna un anno prima della scoperta famosissima di watson e creek però poling a londra quell'anno non ci arriverà mai il senato lo convoca addirittura per chiarimenti e insomma si sente è sospettato di socialismo di simpatie per il socialismo e naturalmente non mancarono nemmeno nella comunità scientifica i colleghi che lo accusarono come accusarono peraltro anche einstein di essere complice del comunismo sovietico di giocare in favore del nemico socialista in pratica di essere un collaborazionista non è facile fare delle scoperte non ho mai asserito che avrei scoperto la doppia elica ma ho comunque incontrato delle difficoltà in quei giorni intorno al 1952 il governo degli stati uniti mi guardava con sospetto a causa del mio impegno per la pace nel mondo sostenevo che gli stati uniti l'unione sovietica e anche altri paesi dovessero lavorare insieme per il beneficio della razza umana la royal society di londra decise di tenere un simposio nel 1952 sul mio lavoro sull'alfa elica e la struttura a strati ripiegati e sul lavoro che altre persone avevano iniziato a fare sulla stessa linea io dovevo essere il primo a parlare al simposio di londra così feci domanda per rinnovare il mio passaporto che era scaduto ma il governo degli stati uniti si rifiutò di lasciarmi andare due anni dopo però succede una cosa inaspettata perché il comitato svedese del nobel per la chimica prontamente sgambetta diciamo così le autorità statunitensi conferendo questo premio ambitissimo proprio a polling da solo si legge nelle motivazioni per la sua ricerca riguardo alla natura dei legami chimici e alle ricerche per la comprensione della struttura delle sostanze complesse a quel punto negargli la possibilità di andare a stoccolma a ritirarlo avrebbe comportato una figuraccia mondiale diciamo così per l'amministrazione americana che infatti gli restituisce il passaporto il suo impegno pacifista a quel punto naturalmente aumenta e l'anno seguente nel 55 polling è tra i firmatari del celebre manifesto di einstein e bertrand russell contro l'uso la sperimentazione e in generale la produzione di armi nucleari è interessante ricordare che mikhail gorbachev dichiarò di essere stato influenzato molto dal manifesto einstein russell quando diede inizio ai negoziati proprio per la riduzione delle armi nucleari con con gli americani aprendo quella fase di disgelo che poi precedette la caduta dell'unione sovietica e polling però voleva andare ancora più sul concreto nel 58 per esempio fu tra gli artefici del comitato che dimostrò dati alla mano gli effetti terribili dei test nucleari di superficie che si facevano a quel tempo sulla salute pubblica lui dimostrò che la ricaduta radioattiva si poteva misurare sui vegetali e nel latte in particolare e quindi con effetti molto negativi soprattutto sui bambini suscitando un grandissimo clamore perché quelli erano gli anni in cui polling ed altri dimostrarono proprio chiaramente che la ricaduta radioattiva causava proprio direttamente le mutazioni genetiche e non era una cosa banale a quel tempo perché ricordiamo che la struttura del dna era stata scoperta pochi anni prima quindi adesso ci sembra ovvio ma a quel tempo non lo era affatto nello stesso anno nel 58 polli e la moglie raccolgono più di 11.000 firme di scienziati di tutto il mondo e le presentano le nazioni unite per chiedere la fine di tutti i test nucleari di superficie lui in un libro famosissimo dello stesso anno descrive il suo pacifismo che diventa ormai totale polling comincia a sostenere che non bisogna solo abolire i test e le bombe bisogna proprio dire no alla guerra in quanto tale questo movimento di opposizione ebbe i suoi effetti perché portò prima una moratoria sui test di superficie e poi un importante trattato che fu firmato da kennedy da krushov nel 63 che limitava fortemente questi test e così maturò sorprendentemente il secondo nobel quello per la pace che gli venne dato si legge nel testo per l'impegno infaticabile sin dal 46 non solo contro i test di armi nucleari non solo contro l'estensione di questi armamenti leggiamo non solo contro il loro uso ma contro tutta la guerra come mezzo di soluzione di conflitti internazionali un nobel aggiungerei che forse ma in realtà lo ha detto anche polling che forse poteva essere assegnato congiuntamente e meritoriamente anche alla moglie Eve per la medicina premiati su Eccles Alan Oaken e Andrew Axley per la pace Linus Follig Gianno Bell come chimico nel 54 questi uomini entrano da oggi nella scuola d'Atene del ventesimo secolo l'esplosione della bomba di bikini il primo marzo 1954 aveva depositato nell'atmosfera un gran numero di materiali radioattivi ma la commissione americana per l'energia atomica cercò di sopprimere le informazioni sui pericoli della radioattività per il genere umano allora alcuni scienziati in Giappone negli Stati Uniti e in Inghilterra denunciarono al mondo l'esistenza nell'atmosfera di questi materiali radioattivi e il pericolo che essi rappresentavano fra questi scienziati c'ero anch'io come scienziato Linus Follig è stato un pioniere molto anticonvenzionale anche molto versatile Alcaltech in California lavora usando i raggi X la diffrazione per determinare la struttura dei cristalli quindi già si indirizza in questa strada vuole guardare dentro la struttura atomica delle cose Fa un viaggio in Europa molto interessante nel 26-27 dove conosce fisici straordinari del calibro di Niels Bohr di Erwin Schrodinger quindi si interessa di meccanica quantistica ed è uno dei primi ad applicare proprio la meccanica quantistica per studiare la struttura delle molecole e capire la natura dei legami chimici che è anche il titolo di un suo libro famosissimo del 1939 che poi diventa una sorta di bibbia della chimica studiato per decenni e ancora adesso citato la natura del legame chimico la carriera scientifica è incredibile perché a poco più di 30 anni è già autore di decine di articoli scientifici fondamentali sui diversi tipi di legami che si instaurano tra gli atomi nei tanti elementi chimici studia la struttura del benzene insomma un sacco di temi molto interessanti e innovativi la sua carriera vola e diventa full professor cioè professore ordinario diremmo in Italia il coronamento della carriera nel 1931 a 30 anni diventa amico di Robert Oppenheimer il fisico del progetto Manhattan ma curiosamente l'intesa naufraga subito perché Oppenheimer si mette a fare la corte alla moglie di Pauling che non apprezza quindi l'amicizia tra questi due giganti della scienza finisce subito per questa ragione Pauling continua le sue ricerche straordinarie e ha un'ossessione che poi si porterà dietro per decenni capire in che modo le proprietà fisiche chimiche delle sostanze che compongono tutta la realtà sono in relazione con la struttura degli atomi di cui sono composte questa è un po' l'idea di fondo di tutto il suo lavoro Francis Crick che fu il coscopritore della struttura del DNA diceva che senza Pauling la biologia molecolare non sarebbe stata possibile perché lui sapeva proprio spiegare i segreti dell'affinità chimica e della struttura di tutte le sostanze complesse compreso anche il DNA, le proteine, gli enzimi e la cosa curiosa è che in realtà Pauling per poco non riuscì ad anticipare proprio Watson e Crick sulla struttura del DNA solo che Pauling sbagliò l'ipotesi perché lui pensò a un'elica tridimensionale particolare, quindi una tripla elica l'ipotesi era sbagliata, gli inglesi invece avevano le immagini di Rosalind Franklin che erano molto più precise e alla fine Watson e Crick furono quelli che diventarono famosi per aver scoperto la doppia elica e non la tripla elica nel frattempo Pauling però intelligentemente aveva cominciato a studiare la biologia, cioè le molecole organiche quelle che vanno a comporre gli organismi, collabora con grandi genetisti e a quel punto prosegue in scoperte fantastiche perché la Rockefeller Foundation gli dà una grande quantità di denaro per comprendere per esempio la struttura dell'emoglobina e come l'emoglobina si modifica chimicamente per trasportare l'ossigeno Cominciai a interessarmi agli organismi viventi nel 1929 Il California Institute of Technology, quando io ero professore, inaugurò il Dipartimento di Biologia Il direttore di questo dipartimento era Thomas Hunt Morgan Egli venne dalla Columbia University a Pasadena portando con sé i suoi studenti più importanti quelli che avevano scoperto insieme a lui il gene Questo successe intorno al 1910, vent'anni prima Così ora avevo alcuni colleghi nuovi a Pasadena che erano biologi e genetisti interessati al corpo umano, agli animali e alle piante Fu qualcosa di nuovo per me cominciare a pensare agli organismi viventi Cominciai a interessarmi in modo particolare all'emoglobina Nel 1949 pubblica un altro articolo famosissimo dove spiega la natura molecolare dell'anemia falciforme Ed è la prima volta che si scopre che un'anomalia nella struttura di una proteina può dare origine a una malattia Quindi praticamente Polin la chiamò malattia molecolare Nasce praticamente la genetica molecolare L'indagine della struttura proprio profonda delle molecole per spiegare anche le malattie E poi la carriera continua, lui si occupa della struttura delle proteine Che è un altro tema difficilissimo Poi fa scoperte sugli enzimi, sugli anticorpi Insomma veramente una carriera fantastica E alla fine poi, dopo la seconda guerra mondiale, dopo il Nobel Continua a lavorare ancora sul DNA e su come si replica E negli ultimi decenni affronterà un problema che in realtà non riuscirà a risolvere Cioè capire la struttura geometrica, come la chiamava lui, dei nuclei atomici Però, come tutti gli esseri umani fallibili Anche un mostro della ricerca scientifica come Polin prese qualche abbaglio Forse proprio perché è troppo fiducioso nel potere delle singole molecole E fu così che divenne noto, oltre che per i suoi due Nobel Anche come avvocato, come difensore strenuo di una discussa terapia anticancro Che avrebbe dovuto rivoluzionare la medicina grazie all'utilizzo massiccio di vitamine E qui comincia una storia tutta diversa L'impiego della vitamina C ad alte dosi Consigliato nella profilassia e nella terapia del raffreddore Da Linus Pauling, premio Nobel per la chimica Continua a suscitare interesse e polemiche Da una parte sono stati pubblicati esperimenti clinici In una certa misura favorevoli alla tesi di Linus Pauling Così in Inghilterra un esperimento compiuto nei bambini a dosi di 200 e di 500 mg al giorno di questa vitamina Ha dato risultati positivi sui vari segni che accompagnano il raffreddore D'altra parte un ricercatore americano mette in guardia dai possibili effetti collaterali Della somministrazione ad alte dosi di vitamina C Prendendo come modello la sua scoperta sull'anemia falciforme E sul ruolo quindi delle alterazioni nella struttura molecolare per capire le malattie Linus Pauling si convinse che forse anche altre malattie Addirittura quelle mentali Potessero essere dovute ad alterazioni ereditarie nella struttura e nella funzionalità delle proteine Dopo essere guarito nel 1941 Quindi prima del Nobel Da una malattia renale Con una terapia nutrizionale sostanzialmente A base di vitamine, poche proteine Quindi cambiando alimentazione Cominciò a interessarsi proprio di problemi di nutrizione Di integratori E formulò la teoria secondo cui Somministrando forti dosi di vitamina C Si potessero non solo prevenire i raffreddori Ma anche curare addirittura molte forme di cancro Malattie cardiocircolatorie L'arteriosclerosi Insomma una grande quantità di patologie Nel 68 Quindi qui ha già vinto tutti e due i Nobel Pubblica su Science Quindi su un'importantissima rivista Questa cura che lui chiamò Orto-molecolare Che è una parola difficile ma vuol dire una cosa semplice Aggiustare Mettere a posto la salute Diciamo così Compresa quella mentale Con le molecole Cioè in pratica Variando le concentrazioni di sostanze Che sono normalmente presenti nel nostro corpo Per curare o prevenire Ancora meglio Le malattie Lui stesso Cominciò a prendere super dosi di vitamine Sintetiche In una prima fase Ed integratori Negli anni 70 Questa scuola di pensiero Non convenzionale in medicina Si diffuse con grandissimo successo Nel 73 Pauling fondò l'istituto di medicina Orto-molecolare in California Che esiste ancora adesso Anche se ha cambiato nome Oggi si chiama Linus Pauling Institute of Science and Medicine E che si occupa ancora adesso Proprio di nutrizione Di cibi naturali E del rapporto tra l'alimentazione E molte malattie La cura Pauling A base di iniezioni Proprio di alte dosi di vitamine Venne proposta anche a malati terminali di cancro Sostenendo Pauling Che sarebbero sopravvissuti Quattro volte più a lungo E quindi Generando anche grandi speranze Grandi aspettative Pauling pubblica in quegli anni Un libro che diventerà un best seller mondiale Come vivere più a lungo E sentirsi meglio Che è un libro che ha venduto tantissimo E ancora in tarda età Nel 1982 Il 29 di marzo di quell'anno Pronuncia un famoso discorso Nell'esposizione Sui cibi naturali Discutendo Delle differenze di effetto Dell'assunzione di vitamine sintetiche Rispetto a quelle naturali Che sono presenti Nei cibi Ora naturalmente Noi oggi sappiamo Che le vitamine Fanno benissimo E che sono fondamentali Nell'alimentazione Che a volte anche Una loro integrazione Può essere utile Però nel caso Della cura E della terapia Orto molecolare di Pauling C'era un problema E cioè che la scienza È fatta da una comunità Di ricercatori Non da un singolo Quindi non è sufficiente Che un premio Nobel Anzi In questo caso Un doppio premio Nobel Sostenga una teoria Con tutta la sua autorità Perché quella teoria Diventi vera I colleghi infatti Fecero In tante parti del mondo Molti esperimenti Per verificare I suoi risultati Perché Pauling Era uno scienziato Di grandissima Ovviamente autorevolezza E però Non riuscirono Purtroppo A replicarli mai Vennero fatte indagini Anche su vasti Campioni Di pazienti oncologici Con trial Quindi con Lavori molto lunghi Rigorosi Con gruppi di controllo E purtroppo Non si ottenne Alcun riscontro Dico purtroppo Ovviamente Perché sarebbe stata Un'ottima notizia Scoprire che Poteva essere sufficiente Cambiare le concentrazioni Di vitamine E di altri Costituenti fondamentali Per guarire Da tante malattie Quindi diciamo L'idea che questi trattamenti Con vitamina C A E Betacarotene Potessero essere così Miracolosi È stata smentita Pauling A dire il vero Reagì in modo Piuttosto risentito Continuò a sostenere Queste terapie Anche sui bambini Ne nacque Una vivacissima Polemica Che ha degli strasci Che tra l'altro Che continuano Ancora adesso Nel frattempo L'idea di Pauling Divenne una vera e propria Medicina alternativa Come si suol dire Con i suoi seguaci In tutto il mondo Ma in realtà Non c'era niente Di alternativo Pauling era Uno scienziato tradizionale Anzi Piuttosto riduzionista Aveva un grande Fiducia nelle molecole Era soltanto Una medicina Senza evidenze Purtroppo Un tentativo fallito Può succedere Anche ai migliori Anche ai doppi Premi Nobel Vitamina C Dai mille volti Fa bene al cuore Preziosa leata Contro il raffreddore E combatte L'invecchiamento Nei suoi processi Ossidativi Balz Frey Direttore dell'istituto Linus Pauling Dell'Università Dell'Oregon In America Vi sono due importanti meccanismi Che costituiscono un fattore di rischio Per malattie cardiovascolari L'ossidazione delle LDL Ovvero del colesterolo cattivo E la minore produzione Dell'ossido di azoto Importante nella prevenzione Degli eventi acuti Come infarto ed ictus Nel caso del colesterolo cattivo Quando si ossida Si attiva un processo Di arteriosclerosi Si ha cioè Un'alterazione Delle cellule del sangue Per la sua proprietà antiossidativa La vitamina C controbilancia Inibisce l'ossidazione del colesterolo A bassa densità Mentre conduceva Le sue eccellenti ricerche scientifiche E difendeva strenuamente Le sue controverse idee Sulle vitamine La carriera di pacifista Di Pauling Non si arrestò di certo Non risparmiò energie Nelle campagne contro la guerra In Vietnam Di cui fu uno dei Più importanti esponenti E nel 1970 Ricevette Fatto abbastanza eccezionale Il premio Lenin per la pace Dato dall'unione sovietica Diventando un illustre precursore Della fine della guerra fredda E infastidendo naturalmente Ancora di più I suoi nemici In patria Fonda diverse Leghe internazionali Unioni internazionali Per la pace Accumula Onoreficenze Di ogni tipo Tra le più curiose Citerei il fatto Che il liceo dell'Oregon Dove non aveva preso il diploma Poi glielo ha dato Successivamente Ad onorem Hanno chiamato con il suo nome Un asteroide Ovviamente E una curiosità Persino lo sviluppatore Del sistema Linus Ha preso il nome Da lui Quindi Pauling poi Ha fecondato Diverse storie Dopo di lui Pauling si spegne A Big Sur Splendida località Sulla costa californiana Nell'agosto 1994 A 93 anni La donna Della sua vita Eve L'aveva lasciato Nel 1981 Quindi una lunga vita Quella di Pauling Dedicata sia alla scienza Sia alla pace Viste da lui Come due dimensioni Non parallele Ma fortemente intrecciate Potremmo dire Legate da un'affinità chimica Usando la sua metafora Preferita E questo non ci deve sorprendere Perché la scienza È un linguaggio universale Che trascende I confini Di nazionalità Di censo Di religione Di cultura E Pauling Era convinto Che la scienza Potesse parlare a tutti E dovesse essere utilizzata Solo per il benessere Dell'umanità E non per la sua distruzione Attraverso La follia Della guerra nucleare E forse è utile Ricordare oggi Che la guerra fredda È finita Da più di vent'anni Ma non È finito il problema Della diffusione Del potenziale uso Di ordini nucleari Su cui combattè Pauling per tutta la vita Soprattutto oggi In uno scenario Geopolitico mondiale Dove non ci sono più Soltanto due giocatori Forti Che conducono la partita E un po' La controllano Ma in cui invece Esiste una molteplicità Disordinata Di attori E di interessi Ben più difficile Da controllare Linus Pauling Come Einstein Sosteneva un'idea semplice E cioè che A medio e lungo termine La guerra Non è mai una soluzione Razionale Soprattutto da quando L'umanità Possiede armi Che potrebbero Distruggerla E non sarebbe Certo un esito Particolarmente Intelligente Per una specie Che si è Autodenominata Homo sapiens L'America latina Era la sua passione Ci andò più volte Come medico E come antropologo Alla metà dell'ottocento Per poi tornarci anche Tra il 1870 E il 1890 E andò in zone remote Dell'Argentina Della Bolivia Del Paraguay Paolo Mantegazza È stato un esempio Della curiosità Della versatilità E potiamo dire anche Del genio Molto ottimista Degli scienziati italiani In particolare Dei naturalisti italiani Dell'ottocento Il secolo di Darwin Sua moglie Era argentina Ed ebbe da lei Quattro figli Visitando tribù E villaggi Si innamorò In particolare Dei cosiddetti Cocheros Il cui consumo Di foglie di coca Li rendeva Secondo Mantegazza Quanto di più vicino Vi fosse Alla massima felicità Sulla terra Ma l'osservazione Non gli bastava Lui sperimentò La pianta magica Degli incas Anche su di sé E iniziò A studiarne Gli effetti Digestivi E nervosi Se ne fece mandare Anche cospicue dosi Dal sud America Senza che nessuno Avesse da ridire A quel tempo Finché Nel 1859 Pubblicò Il suo primo saggio Sulle virtù Della coca Con la ricondita Speranza Di poterla usare Anche per curare Le malattie mentali Per esempio Paolo Mantegazza Era nato a Monza Il 31 di ottobre Del 1831 Fu innanzitutto Un medico Patologo Grande innovatore Si era laureato In medicina e chirurgia Molto giovane All'istituto Lombardo Di Pavia E a 27 anni Già faceva Il medico igienista Tenendo la cattedra Di patologia generale Dell'università Di Pavia Qui fondò Il primo laboratorio Europeo Davvero sperimentale Di questa disciplina Che attrasse Ricercatori Da tutta Europa Compreso Un certo Camillo Golgi Che poi vincerà Il premio Nobel Nel 1906 Per la scoperta Della reazione nera Nello studio Dei neuroni Famosissima ricerca Poi Mantegazza Si trasferisce A Firenze Alla metà Degli anni 60 Dell'ottocento E diventa Il pioniere assoluto In Italia Di un'altra disciplina Anche quella Molto importante Cioè L'antropologia Che nasceva In quegli anni Fondando Nel 1869 La prima cattedra In tutta Europa Di antropologia Che aveva sede Nel palazzo Non finito A Firenze Dove poi Tra l'altro Nascerà Anche il primo Museo nazionale Di antropologia E etnologia Ma qual era La concezione Dell'antropologia Quali erano Le sue caratteristiche Qual è L'ambito Dei fenomeni Da indagare Quali i suoi rapporti Con le altre scienze La risposta A Mantecazza L'antropologia È racchiusa Nel grembo Della filosofia E della zoologia L'uomo È un animale E quindi Doveva essere Studiato Dallo zoologo D'altra parte Il pensiero È tanta parte Di lui È la sua prima gloria E quindi I filosofi Prendevano per sé La parte migliore Di lui L'antropologia Non è anatomia Non è fisiologia Non psicologia Molto meno Metafisica Ma è la storia Naturale dell'uomo E nel suo indirizzo Pretende di studiare L'uomo Con lo stesso criterio Sperimentale Con cui si studiano Le piante Gli animali Le pietre Non ha altra ispirazione Che quella di misurare Di pesare L'uomo E le sue forze Senza il gioco Di tradizioni religiose E di teorie Filosofiche Preconcette Una scienza laica Dunque E materialista Come ben savvide Nella polemica Antipositivista La cultura ecclesiastica Al giorno d'oggi Chi allontana i cuori Dalla religione È il materialismo Pochi scienziati Si rendono conto Dell'esistenza Di un essere supremo E dell'importanza Della chiesa cattolica Per celebrarne Il culto È facile notare Come i più celebri Increduli Contemporanei Siano materialisti Spencer Büchner Vogt Brocca Mollenscott Erzen Axley Ekel Mantegazza Due anni dopo Mantegazza fonda La rivista Base di questa disciplina Cioè l'archivio Per l'antropologia Ed etnologia E poi anche La società italiana Di antropologia Ed etnologia Tra i suoi temi Di ricerca Il piacere Fu sempre uno Dei più costanti In un libro Del 1893 Sul concetto Di femminilità Attraverso i tempi Sosterrà Che la visione Di una bella donna Sprigiona Tutte le migliori E le peggiori Energie Dell'uomo Dalla coca Poi lui estese Il suo interesse Al tema del piacere A tutte le sostanze Psicoattive Non vedendole Soltanto come Delle pericolose Droghe Che ovviamente sono Ma anche come potenziali Farmaci Se ben dosate E gestite E noi oggi sappiamo Che questo è corretto Basti pensare Alle proprietà Della cannabis Nel 1858 Propose Una classificazione Di tutte le droghe Che lui chiamava Alimenti nervosi Che rimase Un punto di riferimento E nel 1871 Diede alle stampe Un volume Sui loro usi Anche in chiave Etnografica Condotte Dissertazioni Su feste Ebrezze E usanze Insomma Una vera e propria Enciclopedia Di tutte le droghe Conosciute Al tempo E i loro effetti Un secolo dopo Albert Hoffman Lo scopitore Dell'LSD Renderà omaggio A questo italiano Paolo Mantegazza Come il primo Vero scienziato Delle droghe I lavori di Paolo Mantegazza Sulle sostanze Psicoattive Sarebbero bastate Per farlo diventare Un autore di successo Ma nulla fu Al confronto Delle innumerevoli edizioni Del suo best seller Pubblicato nel 1854 Il cui titolo Dice tutto La fisiologia Del piacere E pensare Che era stata La sua tesi di laurea Proprio il suo inizio Paolo Mantegazza Però non fu Soltanto un grande patologo E un precursore Di quella che noi oggi Chiameremmo La neurofisiologia Applicata in particolare All'effetti Di queste sostanze Ma fu anche Uno dei primi Divulgatori Delle teorie Darwiniane In Italia Anche se A dire il vero Sarebbe riduttivo Dipingerlo Soltanto come Un megafono Diciamo così Delle idee Evoluzionistiche Del grande Naturalista inglese La rivoluzione Darwiniana Fu accolta In Italia Con grandi rapidità E con molto interesse Nel pieno Dei fermenti Unitari Per altro Tra il 1865 E 1890 Tutte le opere Di Darwin Erano state Tradotte In italiano I naturalisti Italiani Capirono subito Le implicazioni Della teoria Dell'evoluzione Soprattutto Per il ripensamento Totale Del posto Dell'uomo Nella natura Vi furono Memorabili Scontri Dialettici Chiamiamoli così Con i difensori Della vecchia visione Creazionista Per esempio Padre Antonelli Matematico Così parlava I suoi allievi Liceali Nel 1866 Che cosa non deve temere La patria Da questi sciagurati Che insegnano Con impudenza Pari o stupidezza Non avere noi un'anima O non essere Questa immortale Non esistere un Dio Creatore amoroso Una vita futura E simile in pietà Degna di vituperio Di morte Quali sventure Non ha la patria Da paventare da chi Rinnegando L'intimo sentimento Il consenso universale E la evidenza Fisica e matematica Non si vergogna Di accattare Da qualche imbecille straniero E di spacciare Che nostra prima madre Dovette essere Una scimmia schifosa Nostro progenitore Un fetente urango O un babbuino Nostri fratelli mandrilli Sorelle nostre Lebertucce Parenti Un branco di bestie O ponga Un termine Dio pietoso Alle conseguenze Di queste oscene dottrine Illumini I governanti A conoscere l'infamia E a punirla Degnamente Le risposte Non si fecero attendere Alessandro Erzen Ribadendo Nel 1869 La parentela Tra l'uomo E la scimmia Scriveva Ebbene Allora quando per spiegare Un fenomeno della natura Stanno di fronte Due idee Delle quali L'una Ricorre al miracolo Soprannaturale E l'altra Benché un'ipotesi Non dimostrabile Con l'esperimento diretto È indicata Da un gran numero Di fatti In questa alternativa Dico Conviene ad ogni modo Accettare L'ipotesi scientifica Massime Quando essa spiega Tutti quanti I fenomeni generali Darwin dal canto suo Aveva in grande stima Fin da giovane I naturalisti E i geologi italiani Non solo I positivisti italiani Furono anche Tra i primi al mondo A capire l'importanza Di un'educazione scientifica Diffusa E di massa E organizzarono Molte lezioni Cosiddette Popolari Cioè rivolte Al grande pubblico E a tutti gli interessati Anche a coloro Che non avevano Alcun titolo Di studio Praticamente Nasceva l'idea Di divulgazione Che quindi C'è già Alla metà dell'ottocento In Italia Nacquero poi Scuole evoluzionistiche A Torino A Padova A Pavia A Modena A Napoli E appunto A Firenze Con Mantegazza Qui Nel pieno Dei dibattiti Pro o contro Darwin Fu fondato Il primo museo E la prima cattedre Di antropologia Come abbiamo visto E Mantegazza Intendeva proprio La disciplina Dell'antropologia Come una storia Naturale Dell'uomo Lui la chiamava così Interpretata In chiave Darwiniana Mantegazza Tra gli anni Sessanta e settanta Dell'ottocento Fu persino In corrispondenza Diretta Con Charles Darwin Il quale Lo omaggiò Gli fece Veramente un grande regalo Citandolo Nell'origine dell'uomo Del 1871 Dove Mantegazza È citato In riferimento Alle notizie Sugli ornamenti Dei popoli selvaggi Come si chiamavano A quel tempo Tratte Del resoconto Che Mantegazza Aveva scritto Intitolato Rio della Plata Tenerife Viaggi e studi In Sud America Del 1867 E che raccontava Appunto Uno dei suoi primi Soggiorni Giovanili Subito dopo La laurea In America Latina Il cambiare clima Guarisce molti mali Così come L'emigrazione Purga e guarisce Molte nazioni Povero Quel paese Che non abbia Una terra lontana E quasi sua Dove possano Trapiantarsi I violenti E gli impazienti Dove possano Errare Le comete Della società civile Dove possano Guarirvi Gli ammalati Nel sangue O nel cervello Quando l'emigrazione Non è fuga Né vendetta sociale Ne fame Mantiene vigoroso Ed agile L'organismo Delle nazioni Celebre fu poi La commemorazione Del naturalista inglese Appena scomparso Letta a Firenze Nel maggio Del 1882 Da Mantegazza Il quale Si definiva Nonostante tutto Un darwiniano Con beneficio Di inventario Come disse Quella volta Abbastanza spiritosamente Perché con beneficio Di inventario Perché lui Non condivideva Proprio Tutti Gli aspetti Della teoria Darwiniana In particolare Non lo convinceva La selezione sessuale E soprattutto Sospettava Delle applicazioni Del darwinismo Al di fuori Delle scienze naturali Non senza qualche ragione Peraltro In una sua lettera A Darwin stesso Del 1871 Ha il coraggio Di prendersela Con quelli Che lui chiama Mantegazza I cervelli balzani Che vorrebbero Allargare Le idee darwiniane Fino a portarle Nei campi Della morale Della filosofia sociale E persino Dell'astronomia E della fisica terrestre Lui ce l'aveva In particolare Con certe esagerazioni Acritiche Ultramaterialistiche E a suo avviso Un po' Fanatiche Di certi darwiniani Come il tedesco Ernest Ekel Mantegazza Odiava I dogmatici Anche quelli Darwiniani Come lui Quindi Mantegazza Fu un darwiniano Si convinto Ma sempre critico Eterodosso E comunque A modo suo Un darwiniano Con beneficio Di inventario Che dialogava Direttamente Con il titolare In Inghilterra Niente male Assegnare Il posto naturale All'uomo Nella gerarchia Delle creature vive Studiarne i mutamenti Dovuti al clima Alla razza Al sesso All'alimentazione Alle malattie Studiare le varietà Le razze I tipi differenti Dell'umanità Classificarli Far delle ricerche Sugli incrociamenti Gli ibridismi umani Analizzare gli individui Definirne E misurarne le forze Studiare i differenti Gruppi umani Nei loro usi Nella loro storia Nella loro psicologia E di ciascuno Tracciare la storia naturale Tentare la delimitazione Della perfettibilità umana Ecco Ciò che si propone Questa scienza L'antropologia Non soltanto Quella di tipo medico Di Paolo Mantegazza Fu una vera e propria Storia naturale Delle diversità umane Al plurale Amate in quanto tali E studiate con metodo Scientifico Analitico E con spirito di osservazione Senza sovrastrutture Metafisiche O finalistiche Ma sempre con un esercizio Del dubbio Critico E sistematico L'umano L'umano Di Mantegazza È sempre molteplice Plurale In ogni sua espressione Per spiegare I sentimenti umani Secondo lui Serviva la fisiologia Poi però Bisognava raccontarli Con la poesia E con trasporto Come faceva lui Mantegazza Era un materialista Coerente Darwiniano Però non era Un riduzionista Ingenuo Per lui L'antropologia Era un grande albero In cui si doveva Tenere insieme Tutto il labirinto Dell'umano Senza tralasciare O disprezzare Nulla Una disciplina Secondo lui Che andava insegnata A scienze Ma aperta Anche i letterati Perché era per lui Una sorta di introduzione A tutto il sapere Apprezzava Lo stile di vita Dei popoli nativi E soprattutto I loro incroci Tra di loro I meticciati Con i discendenti Dei conquistatori Ma anche degli schiavi In Sud America Assistette All'emigrazione Di massa Di italiani Poveri e disperati Che andavano in Argentina Scrivendone Alcuni pezzi Molto Molto toccanti A proposito Di popoli Non europei Lui davvero Darwiniano Capì Che la diversità Che conta Non è tanto Quella tra specie diverse E nemmeno Quella tra razze Reali o presunte Che siano Bensì Quella tra individui Ogni essere vivente È unico a modo suo E lì sta La ricchezza Il carburante Dell'evoluzione Quindi Non esiste l'uomo Nell'antropologia Di Mantegazza Esistono soltanto Gli uomini E non ce n'è uno Uguale A un altro Gli individui Sono i soggetti Importanti Del cambiamento Non le specie E le razze Che spesso Sono etichette arbitrarie Anche se utili E Mantegazza De usava Che noi appiccichiamo Su gruppi Di soggetti Che si assomigliano Superficialmente Tra di loro Voi mi chiedete oggi Se vi siano molti Adami O uno solo Ed io rispondo subito Secondo la definizione Delle specie Che esigerete da me Io sarò monogenista O poligenista E che la scienza Non mi provi Con tutto il rigore Della critica Che vi sono razze umane E fisiologicamente Sterili tra loro Io credo Che tutti quanti Possiamo crederci Individui Di una sola specie Pure ammettendo Che tra razza Permanente E specie Piccolissima O nessuna Sia la differenza Lui era convinto Come Darwin Che tutti i popoli Della terra Partenessero E derivassero Da un unico Ceppo Un'unica famiglia Umana Cioè praticamente Una sola specie Per esempio Scrisse più volte Che secondo lui La razza ariana E la razza semitica Erano dei miti Da sfatare In questo Mantegazza fu molto Moderno Perché capì Che non esistono Popolazioni umane Omogenee E perfettamente Distinguibili Le une dalle altre Come appunto Erano chiamate Le razze umane A quel tempo Noi oggi sappiamo Che è proprio così Anche se poi Lui Mantegazza Era ovviamente Un uomo dell'ottocento Quindi troviamo Nei suoi scritti Anche teorie Molto scivolose Sui metodi Per il miglioramento Umano Per esempio O troviamo anche cose Per noi oggi Sgradevoli Come le sue affermazioni Sul ruolo sociale Della donna O i pericoli Degli incroci Tra individui Di classi sociali Diversi O portatori Di malattie Ma che anche Nei matrimoni Fosse da rispettare Una certa igiene Una igiene Dell'amore Come diceva lui Era un'idea Molto diffusa All'epoca E anche Mantegazza Seguì Per quanto A modo suo E moderatamente Il filone Della eugenetica Che era appena nata Ed era stata definita così Da Francis Galton Come Darwin Anche Mantegazza Era ossessionato Dal tema Dei matrimoni Tra consanguinei E dai rischi Che comportano Da antropologo Si occupò Anche di tante cose Diverse Del popolo sardo Della etnologia Dell'India Dei lapponi Dell'espressione Del dolore Di cui scrisse Un vero e proprio Atlante Con l'utilizzo Innovativo Di fotografie A scopo scientifico Ma insieme In questo Dimostrando tutto Il suo eclettismo Usando anche Le opere d'arte Quindi mettendo insieme Come sempre Faceva lui Evidenze molto Diverse tra di loro Per arrivare A mostrare La validità Di una certa ipotesi Mantegazza fu Per certi aspetti Lo scienziato Dell'ebbrezza Anzi delle ebbrezze Al plurale Perché lui Le classificò In diversi suoi libri In tutte le sue varianti E cause Scriveva che L'ebbrezza Non è vizio Non è cinismo Non è abitudine Ma è la gioia Che vivifica E dà nerbo Alle molle Della vita Questa è la sua prosa Ottocentesca Sempre Abbastanza esuberante Paolo Mantegazza Sta scritto in vita sua Di tutto Veramente Di estasi varie Di fisiologia della donna Moltissimi libri Per il vasto pubblico Compreso Sul finire della vita Un elogio della vecchiaia Molto bello E consigli vari Su come viver bene Quando De Amicis Pubblicò Cuore Lui rispose Con Testa Un libro Intitolato Testa Perché anche di quella C'è bisogno Per capire L'umano Come un tutto Come un mosaico In cui tutte le discipline Devono essere Coinvolte Scrisse anche Un libro di fantascienza Nel 1897 Dal titolo L'anno 3000 Un sogno D'altronde Alcune sue idee A quel tempo Parvero davvero Fantascientifiche Anche se in realtà Poi non lo erano Così tanto Per esempio Lui fu uno dei primi A interessarsi Al tema Della fecondazione Artificiale Per risolvere Il problema Dell'infertilità femminile Scrisse Della ibernazione Di cellule E tessuti Per fini medici E riproduttivi In particolare Propose di creare Una banca del seme Dei soldati Che partivano in guerra Tutte idee Che poi verranno sviluppate Nel secolo Successivo Mantegazza Fu anche un uomo politico Nell'Italia Da poco unita Del resto Già quando aveva 16 anni Lui era già sulle barricate Perché aveva partecipato Insieme con la madre Alle cinque giornate Di Milano Deputato per undici anni Dal 1865 Lui era diventato Giovanissimo Quando aveva 34 anni Già era deputato Fino al 1876 L'anno in cui poi diventa Senatore del Regno Mantegazza capì subito Di che pasta Era fatta La politica italiana Che era piena Lui scrisse Di veti incrociati Di tattiche E la descrisse Con parole Che potremmo ripensare Alla luce dell'oggi La politica italiana Scrisse È un laboratorio Di forze disperse Un meccanismo Alla rovescia Dove cioè Quasi tutte le forze Anziché coordinarsi Per andare avanti Si trasformano In attriti Alla fine In modo molto autoironico Si definì Un fantaccino Del Parlamento italiano Perché era riuscito A realizzare Ben poco Di tutte le sue proposte Per l'educazione Scientifica di massa Del paese Per il progresso Scientifico E tecnologico Dell'Italia Faceva parte Dell'impegno pubblico Di Paolo Mantegazza E della sua fiducia Nel progresso umano Tipicamente positivista Oltre alla divulgazione Della scienza E dell'antropologia Darwiniana in particolare Anche l'igiene Che fu uno Dei suoi temi Prediletti Scrisse diversi libri Sul tema dell'igiene E intorno al 1864 Cominciò a pubblicare I suoi famosissimi Almanacchi di igiene Che ebbero un successo Straordinario Furono vendute Tantissime coppie E diventarono Il fondamento Poi delle politiche Igeniste italiane Di quel periodo E a dire il vero Un caposaldo Del progresso medico Del nostro paese In quegli almanacchi Il rispetto Delle norme basilari Di igiene Per prevenire le malattie Veivano spiegate Molto correttamente Anche considerando Che in molte parti Del paese Quegli standard Non erano Assolutamente rispettati Come lo sono oggi Eravamo molto Indietro Gli almanacchi Erano molto sistematici Come faceva sempre Mantegazza Divisi in sezioni Che rilette oggi Sono abbastanza divertenti C'era un libro Sull'igiene in cucina Un libro Sull'igiene Della casa In generale L'igiene del sangue L'igiene della pelle E poi ancora L'igiene dei visceri Dei sensi Del lavoro Dei nervi L'igiene dell'età Cioè come invecchiare bene L'igiene dell'amore Quindi l'igiene del matrimonio E così via Noi oggi Lo diamo Praticamente per scontato Ma perché viviamo In paesi ricchi Ma l'igiene fu Effettivamente in quegli anni Una rivoluzione comportamentale E fece il paio Con gli sviluppi Della medicina A cavallo Tra 800 e 900 Ricordiamo che non era Molto vecchia A quel tempo L'idea che i medici Dovessero lavarsi le mani Prima di toccare Il malato E di interagire Con i pazienti Conscio Del suo tipico Grande Inesauribile Eclettismo Mantegazza Si definiva Se stesso Un poligamo Di molte scienze Cioè uno che aveva Tradito Le appartenenze Disciplinari Tante volte Riteneva Che la scienza E la fede Fossero due dimensioni Distinte E incommensurabili E in questo Anche in questo Era darwiniano Cioè applicava L'idea del naturalismo All'indagine Dei fenomeni naturali Ma non escludeva Affatto Che potessero esserci Dimensioni Trascendenti Verso le quali Però la scienza Non aveva nulla Da dire Né in senso positivo Né in senso negativo Era uno di quelli Che pensavano Che la scienza Avrebbe tolto Dalla faccia Della terra Lui schisse Proprio così L'ingiustizia Il pregiudizio E il male Si spense Vicino al suo Amato mare A San Terenzo Di Lerici Sul golfo Di La Spezia Alla fine di agosto Del 1910 Anche in quell'anno Aveva tenuto Il suo corso Di antropologia E scritto Le ultime pagine Del sessantesimo volume Sessantesimo volume Delle sue memorie Personali Soprattutto in Italia E in Sud America Dove ancora oggi È ricordato In moltissimi nomi Moltissimi istituti Anni prima Due botanici Grati per tutti i suoi studi Gli avevano dedicato Il nome di una pianta La panace di Mantegazza Chiamata ancora così Una pianta ornamentale Del Caucaso Che poi è diventata invasiva E si è diffusa In tutta Europa Fra le tante ebrezze Di cui lui scrisse Verso la fine della sua vita Disse che l'ebbrezza Che lui preferiva Era quella Da lungimiranza E da ottimismo Poi però venne il Novecento Ma questa è tutta Un'altra storia Come rimedio Per il mal di testa E la stanchezza Ha avuto Un notevole successo Fu inventata Ad Atlanta Nel 1886 Da un farmacista americano Che si chiamava John Pemberton Il quale Con poca fantasia Dobbiamo dire Le diede il nome Partendo da due Ingredienti fondamentali Della sua ricetta Che poi rimarrà Segreta Cioè le piante Del genere cola E la pianta Della coca Che il nome Che porta il nome Scientifico Di eritruxilum coca La coca cola È un prodotto globale Con una storia globale Perché le noci di cola È un genere originario Dell'Africa tropicale Sono ricchissime di caffeina E vengono utilizzate Da tantissimo tempo Come stimolanti Così come È una tradizione Masticare le foglie Di coca È una pianta originaria Invece del Sud America E quindi Questo è un esempio Interessante Di come un prodotto Così fortemente connotato Geograficamente E culturalmente Negli Stati Uniti In questo caso È in realtà Il risultato Di migrazioni Culturali E soprattutto Biologiche Del passato Quindi un po' Sudamericana E un po' Africana Anche le origini Della ricetta Di questo Drink Analcolico Raccontano Storie planetarie Perché Questo Pemberton Per la sua ricetta Si ispirò Al Vin Mariani Come veniva chiamato A quel tempo Detto anche Vin di coca Che era una bevanda tonica A base di Bordeaux Quindi con vino E coca Appunto Brevettata dal chimico Della Corsica Angelo Mariani E che era diffusissima A cavallo Tra l'Ottocento E il Novecento Il segreto Qual era? Che l'etanolo Presente nel vino Estraeva dalle foglie di coca Il principio attivo La cocaina E quindi aveva degli effetti Diciamo notevoli Il Vin Mariani Era usato Come analgesico Come antidepressivo Come stimolante gastrico Ebbe un grandissimo successo E le cronache Dicono Che tra i suoi estimatori C'erano anche due papi Leone XIII E Pio X Oltre alla regina Vittoria L'idea di Pemberton Dell'americano Però fu geniale Perché lui cosa fece? Tolse l'alcol Evitando così Un sacco di problemi Negli Stati Uniti Anche nei decenni successivi E al suo posto Mise l'estratto Delle noci di cola Quindi la caffeina E la cocca statunitense Divende quindi Una bevanda industriale Analcolica A grandissima diffusione Gli affari però Non andarono molto bene Al farmacista Che dopo qualche anno Vendete la formula E tutti i diritti A un businessman Invece molto furbo Che si chiamava Asa Candler Il quale aveva capito Probabilmente prima di molti altri L'importanza del marketing E della pubblicità Infatti da quel momento Il destino della coca cola È proprio legato Alle tecniche di promozione Molto particolari Di grande successo Che la conducono A diventare Praticamente La bevanda leader Prima negli Stati Uniti Già nei primi del novecento Con una quotazione in borsa Della compagnia Nel 1919 E poi avanti Dagli anni venti Diventa una bibita Gassata mondiale Con le sue famose Bottigliette E dal 1960 Anche in lattina È la bevanda Gassata Con passaporto Statunitense Che vanta sicuramente Più imitazioni Nella storia Dell'economia mondiale Da 128 anni Ci sono centinaia Di imitazioni E spesso è imitata Per poterne gustare Il sapore Ancorké Diciamo simulato E spesso Non proprio bene Senza comprarla Dagli americani Tutto nella Coca-Cola È pensato Per ammagliare Il consumatore Cominciare Dalla celebre bottiglia Panciuta Del 1916 Che richiama I fianchi anatomici Delle prosperose Attrici americane Anni venti Così almeno È stata presentata In quegli anni Per finire poi In anni più recenti Con Babbo Natale Arruolato come testimonial In bianco e rosso Già dal 1931 Veniamo allora Alla prima parte Del nome Coca-Cola Cioè la Coca Il nome scientifico È Eritruxilum coca Ed è una pianta Dal fogliame Molto fitto Che è nativa Dei versanti orientali Delle Ande Il suo nome Coca Significa semplicemente Pianta Nella lingua Degli Aymara Che è una popolazione Nativa del Sud America Molto antica Antecedente Agli Incas Anche La cocaina È invece Un alcaloide Che la pianta Produce Di suo Per difendersi Dagli insetti E la quale Però funziona Sul sistema nervoso Dei mammiferi Quindi anche noi Interferendo Sul riassorbimento Della dopamina Che è il neurotrasmettitore Della Della gratificazione Diciamo Quindi Cosa succede Che normalmente Una volta che questa molecola Ha svolto la sua funzione Nelle connessioni nervose Viene riassorbita Dai neuroni stessi La cocaina Invece impedisce Questo riassorbimento E prolunga Chimicamente L'effetto Della dopamina E quindi Le sensazioni Anche a essa collegate Cioè Piacere Estasi E anche un po' Di allucinazione Una curiosità storica Italiana Che fu Un italiano Un monzese Per la precisione Paolo Mantegazza A compiere I primi studi scientifici Davvero importanti Sulle droghe In particolare Sulla pianta di coca Mantegazza Era una figura eclettica Un fisiologo Un medico Un antropologo Fu colui che fondò La prima cattedra Di antropologia A Firenze E fu anche uno scrittore Un patriota Nel 1858 Pubblica Sulle virtù igieniche Medicinali Della coca E sugli alimenti nervosi E sugli alimenti nervosi In generale Lodando In modo esplicito La magica pianta Degli incas Per i suoi affetti Analgesici Curativi In generale E furono proprio Gli studi di Mantegazza A ispirare Quel Mariani Che appunto Creò il celebre infuso Il Vin Mariani Che poi ispirò L'inventore Della coca cola Per i popoli Quecia Sudamericani Masticare foglie di coca Ha una valenza Che trascende Naturalmente Gli effetti Psicotropi Della cocaina Il rituale Ha un ruolo essenziale Nel mantenere I principi culturali Condivisi Perché è una sorta Di simbolo Di identità Culturale Masticare le foglie Identifica Un membro Come appartenente Alla comunità Oltre ad essere Un balsamo Per culare Loro dicono Il dolore di vivere Ma naturalmente Dobbiamo interpretarlo Nel loro caso Come dal punto di vista Scientifico Come un adattamento Culturale Alla vita In alta quota Sulle alture Andine Per gli inca Invece la pianta Della coca Era il fulcro Della vita religiosa Addirittura Quindi non si poteva Entrare nei templi Del sole Senza in bocca Una foglia La coca Era coinvolta Nella iniziazione All'età virile Dei giovani E foglie di questa pianta Venivano abbandonate Nelle tombe Di personaggi importanti Per alleviare Dicevano loro La vita Anche Nell'aldilà E c'è una leggenda Molto bella Che narra Che all'inizio Dei tempi Il primo imperatore Inca Capac Ricevette la pianta Di coca Da proprio dai figli Del sole Per sfamare E dare agli affamati E dare agli stanchi E agli affaticati Nuovo vigore Inoltre per fare Dimenticare agli infelici Le loro miserie Un altro fatto storico Che spesso non viene ricordato Che il primo grande saggio Del fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud Fu proprio Uber coca Sulla coca Nel 1884 Freud era molto interessato Agli effetti Della masticazione Delle piante di coca Della cocaina Che a quel tempo Era un blando Anestetico Locale E non era ancora Una sostanza stupefacente Diffusa E testò La sostanza Direttamente su se stesso Registrando i risultati Facendo una sorta Di autoanalisi E pare che poi Ci vogliono diversi anni Prima che Riuscisse a interrompere L'uso compulsivo Di questa Di questa abitudine Diciamo Ora Come per l'alcol Anche la coca Ben presto Divenne Per la coca cola Un ingrediente scottante E suscettibile Di controlli Alle frontiere Ovviamente E naturalmente Questo creò dei problemi E allora Che cosa successe Che la variante usata Dei produttori Da coca cola È in particolare Una qualità Di coca peruviana La novo granatense E si decise Chimicamente Di eliminare L'alcaloide Con i suoi effetti Psicotropi E allucinogeni Dagli estratti Delle foglie di coca Durante la preparazione Della bevanda Che avviene Negli Stati Uniti Non in Sud America Così Si ottenne Un estratto aromatico Potremmo dire Decocainizzato Sulla cui identità L'azienda Da quel momento È rimasta molto Reticente Alimentando Certamente Ad arte Anche per ragioni Di pubblicità La storia Della famosa Segretezza Della ricetta Della coca cola Che sta proprio In quegli aromi Naturali Non meglio Specificati Anche perché La legge Non richiede Che vengano Specificati E che danno Poi questo gusto Molto particolare Quello di cui siamo Sicuri Quindi che la ricetta Però è cambiata Perché Gli è stata tolta Ad un certo punto Quell'alcaloide Che l'avrebbe fatta Assomigliare Diciamo Un po' troppo All'utilizzo E alla masticazione Delle foglie di coca Con gli effetti Legati alla cocaina Eccoci adesso Alla seconda parte Invece del nome Coca cola Meno nota Sicuramente Cioè la cola Il piante Del genere cola Che contengono Molta caffeina E altre sostanze chimiche Correlate Se ne conoscono Otto specie Tra le quali La più nota È la cola Accuminata Che è un albero Molto bello Alto più di 10 metri Anche 15 a volte Con queste foglie Accuminate E ha questa peculiarità Di avere fiori Maschili Femminili E fiori Ermafroditi Quindi anche Dal punto di vista botanico È molto particolare Per migliaia di anni In Africa Se ne sono masticati I semi Per migliorare La prontezza mentale Combattere la stanchezza La si consuma Durante le cerimonie Per dare il benvenuto A qualcuno Diciamo che è un simbolo Di amicizia Di condivisione Di buone energie Comuni Venne addirittura Messa nelle doti Delle spose Come auspicio Di fedeltà E di prosperità È nota Da tantissimo tempo La cola Prima di partire Per i lunghi viaggi Nel Sahara Gli arabi Scambiavano Addirittura Polvere d'oro Erano disponibili A scambiare polvere d'oro Con questi semi Miracolosi E anche gli italiani Furono coinvolti Nello studio Perché L'esploratore Ingegnere Vicentino Filippo Pigafetta Per esempio Alla fine del Cinquecento Raccontava Di queste castagne rosse Lui le chiama così Che venivano masticate In Africa E scrive Sono buone Conto il mal di fegato E si dice Che trattando Con la cola Il fegato Di un pollo Già puterfatto Esso ritorni Alla freschezza primitiva Quindi tra leggende E piccoli semi Di verità Come capita Spesso in questi racconti Un altro Della famiglia Pigafetta Peraltro Antonio Qualche anno Qualche decennio prima Era stato l'autore Della prima Segnalazione storica Di un'altra Pianta importantissima Che era la patata Alla quale accenna Nella reazione Del suo viaggio In Brasile Con la spedizione Di Magellano La patata Fu introdotta In Spagna Probabilmente E poi In Italia Attraverso L'orto botanico Di Padova Dove si trova Ancora adesso E dove si trova Anche la cola Sono piante Quindi che hanno Praticamente Cambiato La nostra vita Venderemo sempre E continueremo A vendere sempre di più Non esiste Un punto di saturazione Tu bevi una coca E sei già pronto Per un'altra coca Dopo non più Di 30 minuti Il potenziale Di crescita È illimitato Su e giù Per le grandi arterie E le piccole stradine Di questo bel mondo Dappertutto Gli uomini Non rinunceranno Al loro bisogno Di rinfresco È inevitabile Tutto gioca In nostro favore La gente è convinta Che si devono consumare Bevande non alcoliche Ogni giorno È il risultato Di una pubblicità massiccia Molto sentita Nelle zone interne In questi stessi villaggi I prodotti naturali Come la frutta Vengono consumati Addirittura Una volta Soltanto la settimana Alcune famiglie Vendono i loro prodotti Per essere in grado Di comprare E delle bibite È una dichiarazione Di un prete Che vive nei villaggi Messicani dell'interno La cola è utilizzata Nella medicina tradizionale Anche come afrodisiaco Sopprime l'appetito E cura nausee mattutine Ed emicrania Teniamo presente Tutti questi aspetti Perché poi appunto Gli estratti Della coca E della cola Messi insieme Finiscono In questa bevanda Di grandissimo successo La cola viene anche usata Sulla pelle Per trattare le ferite Le infiammazioni Come antirughe I ramoscelli Vengono utilizzati Addirittura Per cui ridenti Le gengive Insomma Una specie di tocca sana A uso globale Come capita peraltro Per molte piante medicinali Tipo il NIM Che oggi vengono riconsiderate E studiate anche dai biologi Dai biologi molecolari Per esempio Per recuperare principi attivi Di grande valore medico Quindi Non sono soltanto storie Queste o leggende Spesso in queste leggende C'è un fondo di verità Legato a dei principi attivi Che questi popoli nativi Nelle culture tradizionali Abbiamo imparato In modo potremmo dire Intuitivo Ad utilizzare Oggi per esempio Sappiamo che in certe piante Ci sono addirittura Degli antitumorali Potentissimi Come il taxolo Per esempio Che è ricavato Dalla corteccia Del tasso del pacifico E che oggi è Di vitale importanza Per la terapia Contro molte forme Di tumore Alla pelle O al colon Qualche anno fa La cola È stata anche coinvolta In un dibattito scientifico Di cui si trova Eco ancora Su web Perché Un suo consumo Troppo elevato Sembrava correlato Alla perdita Di fertilità Nei maschi In realtà Andando a guardare bene Si è visto Che il problema Forse non era La cola O soltanto la cola Ma le pessime abitudini Che i maschi Bevitori Di queste sostanze Avevano Ed erano correlate Cioè la sedentarietà Cibi ricchi Di grassi Di zuccheri Quindi la cola Alla fine È stata Diciamo Assolta Abbiamo analizzato Le due parti Del nome Coca Cola Due piante A uso globale Che hanno fatto Il giro del mondo E alla fine Finiscono in una farmacia Negli Stati Uniti E diventano La Coca Cola Ma cosa nasconde La Coca Cola Che in tanti Se lo sono chiesti È diventata una sorta Di leggenda metropolitana Che circola tantissimo Anche su web La Coca Cola È associata Per antonomasia Ai fast food americani E quindi Diciamo A un'alimentazione Non proprio Delle più Delle più sane Per via Del suo alto contenuto Zuccherino Sotto forma di sciroppo Di glucosio E viene accusata Da molti Di essere Una delle cause Dell'obesità È accostata A tutte queste malattie È ormai sempre più diffusa Con una grande epidemia Contemporanea Soprattutto tra i più piccoli Purtroppo E diciamo che Viene associata Ad altre forme Di cattiva alimentazione Sindromi metaboliche In realtà Se allarghiamo ancora di più Lo sguardo Vediamo un po' La storia Di questa bevanda La Coca Cola È per molti È stata Ed è per molti Il simbolo Dell'imperialismo americano Quindi un imperialismo Commerciale Culturale Che arriva dappertutto E che ci uniforma Uniforma I nostri comportamenti Quindi Non stupisce Che la Coca Cola Abbia subito Attacchi feroci E insistenti Delle movimenti No global Se andiamo a guardare bene Dal punto di vista Scientifico Che cosa succede Vediamo che Sotto imputazione Ci sono oltre A fenomeni sociali Legati alle condizioni Di lavoro Diciamo Nella sua filiera produttiva Queste sono polemiche Che ci sono state In passato Sono state messe Sotto accusa Le vernici Delle etichette Poi l'aspartame Di cui si discute molto E soprattutto I coloranti utilizzati Alcuni dei quali Sono stati sotto esame Si è detto Per un potenziale Rischio Cancerogeno In particolare Il metilimidazolo Che c'è dentro Il caramello Si tratta però Di dati Molto controversi E la stessa Food and Drug Administration Americana Che di solito È abbastanza severa Anzi quasi sempre Molto severa Ha stabilito In occasione Di un processo Che ci fu in California Recentemente Nel 2012 Al termine del quale Le aziende Di queste bevande Perché non c'è solo La Coca Cola Hanno comunque ridotto Questo colorante La Food and Drug Administration Ha concluso Che una persona Dovrebbe bere Oltre mille lattine Al giorno Per raggiungere Il livello cancerogeno Segnalato nelle ricerche E lo stesso vale Per l'aspartame Come dolcificante A basse dosi Però qui c'è un fenomeno Sociale ben noto Che gli studiosi Hanno conosciuto Da tempo E c'è che Il rischio È percepito In modo molto strano Dal pubblico Quindi se io dico Che c'è un millesimo Di rischio cancerogeno Bevendo una lattina Al giorno È comunque Una pessima pubblicità Ovviamente E quindi L'azienda Ha deciso Di aggiornare I processi Di produzione Riducendo in ogni caso Quel colorante Specifico Quindi diciamo Gli effetti Sulla salute Bevendone troppa Sono gli stessi Di tutte le bevande Gassate E chi soffre Di ipersensibilità I denti O di refusso gastrico Li conosce bene Senza bisogno Di particolari diagnosi Durante un'udienza Della commissione Senatoriale americana Dedicata al problema Dei danni provocati Dalle bevande Zuccherate alla salute Un esperto Sudafricano Autorità In campo mondiale Dichiara Devo fare una premessa Dovete sapere Che sono Consulente Della Coca Cola Per quel che riguarda I dolcificanti sintetici E mi dispiacerebbe Compromettere Il mio ottimo rapporto Con questa compagnia Ma ritengo Che le bevande Non alcoliche Siano i maggiori Responsabili Nei danni alla salute Perché sono loro Che si insinuano Per prime Nell'alimentazione Del bambino Troppi bambini Bevono un litro Di Coca Cola Zuccherata Al giorno L'esperto Sudafricano Fu ovviamente Licenziato Dalla Coca Cola E la risposta Della compagnia A queste accuse Fu la seguente La Coca Cola Non ha rivendicazioni Nutritive da fare Per la sua bibita E così pure Per le altre Del suo gruppo Poiché gli esseri umani Hanno bisogno Sia di un rinfresco Fisico Che psicologico C'è posto C'è posto In una dieta Bilanciata Per le grande Non alcoliche E i piaceri Fini a se stessi Eppure si dice anche Che aiuti Invece in positivo In varie cose Per esempio A digerire Ma ovviamente Non è merito suo Quanto piuttosto Del frizzante Non è certo Tipico della Coca Cola E non mancano medici Che in modo informale La consigliano E l'hanno consigliata In passato Contro l'acetone Contro la diarrea E ovviamente Per l'apporto Di zuccheri Di acqua O per gli effetti Generali Della caffeina Positivi Su alcuni di noi Per esempio A molti di noi Fa passare il mal di testa E così torniamo Se ci pensiamo bene Alla sua origine Cioè a quel vino di Coca E i suoi effetti benefici Che erano già noti Ai farmacisti Ottocenteschi Ma c'è davvero Questo segreto Nella ricetta? Allora Se guardiamo un po' Da un puntito scientifico Sull'etichetta Vediamo che Molte cose sono note Il colore scuro È dovuto Al colorante sintetico Detto caramello Appunto Che è presente E che è dichiarato Poi la Coca Cola Contiene ovviamente Acqua Contiene anidride carbonica Che conferisce Il frizzante Contiene tanto zucchero E questo è dichiarato Perché è il secondo Ingrediente Che viene messo Quindi è quello Dopo l'acqua È quello più pesante Quello più presente Oppure se non è zucchero Sono i dolcificanti Vari Nelle versioni light E così via Poi ci sono La caffeina E questo è dichiarato Lo sappiamo Quindi teniamolo presente Chi ha problemi Ad addormentarsi Ad si beve caffeina Poi viene ad andare a letto C'è l'acido fosforico E poi ci sono i famosi Aromi naturali Che è quelli Su cui si concentra Il segreto Le proporzioni esatte Degli ingredienti Non sono messe Non sono note E nemmeno la ricetta Cioè Come vengono armonizzati E miscelati Ma soprattutto Non si sa esattamente Quali siano Gli estratti aromatici Della coca E della cola Che rimangono Dentro questa ricetta Quindi Da qui Quella grande aura Di segretezza Che sta tutta appunto In quella definizione Di aromi naturali Senza aggiunta Di conservanti Però diciamo Per gli scienziati È un po' un segreto Di pulcinella Le piante sono quelle Gli estratti aromatici Che contengono Sono quelle Ci sarà semmai Forse qualche particolare Tecnica Qualche abilità particolare Ottocentesca Di commistione Degli aromi Nella ricetta Fatto sta che Ci piace un sacco Piace a molti Ed è probabile Che si tratti Anche in questo caso Di un segreto Promozionale Visto che la ricetta È cambiata Nel corso del tempo E come abbiamo visto A proposito Prima dell'alcol E poi delle foglie Di coca E della cocaina Quindi Diciamo È un segreto Per modo di dire Però si sa Il segreto È molto attraente E quindi Continuiamo a trovare Questa cosa Che la ricetta Della coca cola È un segreto Profondissimo Dunque la coca cola Per i suoi Due ingredienti Principali E poi per tutte Queste storie Sui segreti È un Potremmo dire Un generatore Di leggende Per fare parlare Di sé Altre leggende Altrettanto divertenti Sono quelli Degli effetti Della coca cola Come corrosivo Provate a immergere Un chiodo Nella coca cola Per una settimana E verificate Di persona Che cosa Gli effetti Dell'acido fosfolico Che c'è dentro Che è un corrosivo Ma non è tossico La chimica La chimica Ha anche queste Magie Nell'edizione Del 2008 Degli Ig Nobel Che sono Un premio Dato alla scienza Più assurda E inutile Però un premio serio Perché è consegnato Proprio dalla comunità Scientifica In una cerimonia Ad Harvard Che suscita molto scalpore Molto divertente Nel 2008 Il riconoscimento Per la chimica È andato a due Gruppi di ricerca Uno Statunitense E uno Di Taiwan Che hanno verificato Se la Coca Cola Può essere un valido Spermicida La scienza Ne combina spesso Di tutti i colori Si fanno ricerche Non proprio fondamentali E il fatto però curioso È che i due Studi Sono arrivati A risultati Esattamente opposti Uno risposto di sì E l'altro di no Quindi anche in questo caso La questione è aperta Si calcola che Oggi ci siano Un miliardo Di consumazioni Di Coca Cola Servite ogni giorno Quindi un brand Commerciale Così universale Che verrebbe Credo subito Scelto Persino da un extraterrestre Come marchio Diciamo dell'umanità Almeno di quella Più ricca È stata immortalata Interpretata Da grandi artisti Da Andy Warhol Forse sono le opere Più famose Le sue bollicine Sono state cantate Da Vasco Rossi Da tanti altri Ha interi musei Dedicati a lei E per molti È oggetto Di un collezionismo Quasi feticistico Si possono trovare Queste collezioni Anche raccontate Descritte Sul web Eppure tutto Era cominciato Se torniamo indietro 128 anni fa In una piccola farmacia D'Atlanta Giocando con due piante Notte da tantissimi secoli Ai popoli tribali Una pianta africana E una sudamericana Figlie dei tropici E della biodiversità terrestre Dimostrazione Che il nostro pianeta È una grande comunità Anche di piante E di animali E che la biodiversità È ciò che in fondo Alimenta anche I nostri costumi Ciò che mangiamo Ciò che beviamo E ciò che siamo Uno scienziato È in un certo senso Un artista La sua opera È simile a quella Di chi dipinge Un quadro E poi Per essere felici Nella vita Bisogna trovarsi Un obiettivo Irraggiungibile L'autore di queste Due affermazioni Piuttosto inusuali È George Wald Noto nel mondo scientifico Per i suoi studi Fondamentali Sulla visione E sui pigmenti Nella retina Che rendono possibile La visione dei colori Già nelle ricerche Dopo il dottorato Wald aveva scoperto Che una componente Fondamentale Per il funzionamento Della retina È la vitamina A Poi Anche con l'aiuto Della moglie Biochimica Ruth Hubbard Inventò Dei metodi chimici Per estrarre I pigmenti Dalla retina Al fine di misurare Le loro capacità Di assorbimento Della luce In base alle diverse Lunghezze d'onda In anni successivi Imparò addirittura A misurare Questo assorbimento Della luce Direttamente Nei fotorecettori Quelli Aconi e bastoncelli Lo sappiamo Che ci sono Nella retina In pratica Fu il primo a capire Quali tipi di luce E quindi di colori Assorbono gli occhi Di varie specie animali Umani compresi E attraverso Quali processi chimici Per queste scoperte Nel 1967 George Wald Condivise il premio Nobel Per la medicina Con il fisiologo Di origini tedesche In forza Della John Hopkins Haldan Keffer Heartline E con il neurofisiologo Finlandese Del Karolinska Institute Ragnar Granit Gli altri due Avevano studiato La neurofisiologia Della vista Potremmo dire La parte elettrica Della questione Wald Invece Tutti gli altri Processi Fisiologici E chimici Che avvengono Nell'occhio Brooklyn Per la precisione Il 18 di novembre Del 1906 Da genitori ebrei Immigrati Alcuni anni prima Da qui la pronuncia Wald Già inglesizzata Mente brillantissima Orgogliosamente figlio Della classe operaia Come diceva lui Aveva preso L'ascensore sociale Americano Conseguendo prima La laurea Alla New York University E poi il dottorato In zoologia Alla Columbia University Nel 1932 Si era innamorato Della biologia Leggendo nel 1925 Un inno Alla tenace libertà Di ricerca Dello scienziato Quel Dottor Harrow Smith Romanzo Di Sinclair Lewis Che fu peraltro Il primo premio Nobel Per la letteratura Statunitense Grazie a una borsa Di studio Per viaggiare All'estero Prima ancora Di finire il dottorato Il giovane Wald Andò a lavorare Per qualche tempo Nel laboratorio Berlinese Del grandissimo Biochimico Tedesco Otto Warburg Nobel Nel 1931 Per le sue scoperte Sulla respirazione Cellulare Ispirato Da quell'ambiente Scientifico Che a quel tempo Era all'avanguardia Assoluta Nel mondo Wald scoprì appunto La vitamina A Nella retina Una scoperta fondamentale Anche poi Per curare Gli occhi A quel punto Gli venne naturale Andare a Zurigo Dal mago Delle vitamine Il chimico Organico Paul Carrer Che sarà anche lui Nobel Nel 1937 Quindi diciamo Un pedigree scientifico Di tutto rispetto Ai massimi livelli Della scienza europea Però soltanto Per pochi mesi Perché nel 1933 Il vento gelido Del nazismo Spinse saggiamente Wald A riparare Nuovamente Oltreoceano Prima All'università Di Chicago E poi Dal 1934 E per tutto Il resto Della sua carriera A Harvard Nel 1950 A 44 anni Viene eletto Nella National Academy Of Sciences Statunitense Ma la scienza Non è certo L'unico Dei suoi interessi La scienza Di George Wald Fu sempre Una ricerca Di base Scienza pura Come si dice Talvolta Cioè Un'indagine Sui fenomeni naturali Nel suo caso La vista Mossa soltanto Dalla curiosità Di conoscere Senza necessità Di trovare Applicazioni mediche Cliniche O industriali Quelle tanto Arrivano comunque Spesso proprio Da ricerche Non finalizzate Fortunati I paesi Che finanziano La ricerca pura Senza aspettarsi Un ritorno Immediato E sicuro Wald Ebbe così successo Grazie Proprio Alla lungimiranza Di finanziatori Che non gli chiesero Mai di inventare Un prodotto Commerciale Per ripagare L'investimento Non solo Wald si vantava Di essere L'unico professore Di Harvard Che chiedeva Espressamente Di tenere Un corso Introduttivo Alla biologia Per le matricole Del primo anno I suoi colleghi Evitavano Questo tipo Di impegno Come la peste Ancora oggi È così Gli scienziati Al top Del loro settore Generalmente Non amano Perdere tempo Con la didattica Chiedono Di esserne dispensati E di sicuro Non vanno in aula A far lezione A schiere Di giovani In erba Del primo anno Preferiscono I corsi avanzati Con pochi studenti Selezionati Wald No Lui voleva Il corso Del primo anno Con 350 studenti In classe Ed era un incanto A sentire I suoi allievi Che sono diventati Poi dei brillanti Ricercatori Anche grazie All'incontro Con un docente Così ispirante Wald Adorava insegnare E dialogare Con gli studenti Secondo il bollettino Di Harvard Che di solito È attendibile Leggiamo che Il corso Del professor Wald Ha trasformato Più scienziati In poeti E più poeti In scienziati Di qualsiasi altro Corso Mai insegnato In questo campus Wald Parlava sempre A braccio Tra l'altro Tenendo giusto Qualche bigliettino Di appunti E inchiodava La platea Senza gli effetti Speciali Delle tecnologie Di oggi Schermi Slide Proiezioni Così via Niente Solo lui Un fogliettino La narrazione E tanta Buona scienza I suoi trucchi Erano La fabulazione Da colto Ebreo New Yorkese L'uso delle metafore Delle citazioni Letterarie Riusciva a fare Immedesimare Gli studenti Persino nel destino Di una molecola Raccontando loro Per esempio Di come tutti Gli atomi Di ossigeno Sulla terra Completano Il loro ciclo Tra fotosintesi E respirazione Ogni duemila anni L'anidride carbonica Invece ci mette Trecento anni Mentre una molecola Di acqua Fa tutto il suo ciclo In due milioni Di anni E così faceva capire A tutti Che gli organismi Viventi Con le loro attività Metaboliche Hanno letteralmente Plasmato La fisica Della terra La vita E il pianeta Che la ospita Coevolvono insieme L'uno con l'altro Da tre miliardi E mezzo Di anni In una conferenza Disse Che la vita È una grande cosa Smisurata Nelle sue conseguenze Al punto Da rivaleggiare Con le stelle Quanto all'umanità Intelligente Questa è la sua definizione Bellissima È il metodo Usato da una stella Per comprendere Se stessa Amando L'improvvisazione orale Non gli veniva Però facile La scrittura Perché avrebbe voluto Dire Sistematizzare Un po' troppo Il suo racconto E Wold Infatti Non lasciò libri Ma nonostante ciò Alcune sue espressioni Sono diventate Molto celebri Come quest'altra Dove lui dice Se il DNA Vuole nuotare Nell'oceano Si fa pesce Se vuole volare In cielo Si fa uccello Se vuole andare A Harvard Si fa uomo La fama Del premio Nobel Portò Wold A farsi promotore In pubblico Delle idee politiche Libertarie In cui credeva Fermamente Delle battaglie Per i diritti civili Negli anni Sessanta Settanta Del Novecento E in particolare Nel suo attivismo Pacifista Divenne uno Dei più influenti Oppositori Della guerra In Vietnam E della corsa Agli armamenti Nucleari Nonostante L'aspetto L'aspetto Mite Sorridente Arguto La sua lingua Diventava di fuoco Quando accusava Il governo Statunitense Di mandare Al massacro Inutilmente I suoi figli Nel fiore Dei loro anni Quando nel 1969 Gli studenti Di Harvard Decretarono Lo sciopero generale Wold fu Uno dei pochissimi Docenti Ad aderire A marzo Di quell'anno Nel campus Del MIT Di Boston Gli studenti Organizzarono Un infuocato Dibattito pubblico Sulla guerra In Vietnam Wold arrivò E improvvisò Davanti ai ragazzi Un discorso pacifista Che divenne memorabile Dal titolo Una generazione In cerca Di un futuro Questa Arringa Fece Il giro Del paese Registrata E messa Persino Su disco E poi tradotta In almeno 40 lingue Wold In quell'occasione Toccò il cuore Di milioni Di persone Perché Descriveva Perfettamente L'inquietudine Il turbamento Ma anche L'eccitazione L'ansia Di rinnovamento Che tanti provavano In quegli anni Wold spiegava Questi sentimenti Contraddittori Con l'incertezza Verso il futuro Nessuno sapeva più In che direzione Stava andando Il mondo Se verso La distruzione Ambientale E nucleare O verso Una rivoluzione Della società E dei costumi Lui preferiva La pace E la democrazia A qualsiasi idea Di società Pianificata Fosse questa Di sinistra O di destra Non importa Perché per lui Il processo democratico Gli sembrava simile Alla scienza Cioè provvisorio Fragile Flessibile Una sperimentazione Continua Per tentativi Ed errori Quindi Imperfetto Ma molto meglio Di qualsiasi Utopia Di paradisi In terra Abbiamo filmato Alcuni momenti Di una conferenza Sul tema La vita extraterrestre E la mente dell'uomo Organizzata recentemente Dalle università Di Boston Di Nassau A questo incontro Hanno partecipato Alcuni Tra gli scienziati Più qualificati Penso non ci sia Alcun dubbio Sul fatto che viviamo In un universo Abitato e ricco di vita Per quanto riguarda La nostra galassia Si calcola che Dall'1 al 5% Delle stelle In essa presenti Potrebbero avere Pianeti sui quali È presente la vita Il che vuol dire Che nella sola nostra galassia Sono miliardi I posti in cui è possibile Sia presente la vita Per quanto riguarda Il tipo di vita Eventualmente presente In tali posti Sono del parere Che essa Somiglierebbe Alla vita Che noi conosciamo Non si tratterebbe Forse delle stesse creature Ma d'altro canto Anche sulla terra Durante la sua evoluzione Non sono state presenti Sempre le stesse creature Che vediamo oggi Ma sono convinto Da molti anni Che la vita In tutto l'universo Si basa Sui medesimi elementi Costituenti Carbonio Idrogeno Azoto E ossigeno Questi quattro elementi Costituiscono Il 99% Della materia Vivente sulla terra E sono del parere Che dovunque esista La vita Essi siano presenti Nella stessa misura Wold dopo quel marzo Del 69 Divenne un acclamato conferenziere Girò gli Stati Uniti E tutto il mondo Secondo lui Le università Non dovevano mai Collaborare A ricerche Con finalità belliche E piuttosto Si dovevano alleare Con i sindacati Nel 1973 Nel 1973 Sostenne una famosa Discussione In tv Sulla probabilità Dell'esistenza Di forme di vita Su altri pianeti Convinse tutti Che l'evoluzione Della vita Per quanto improbabile È sicuramente successa Molte altre volte Altrove Considerando Quanti pianeti Abitabili Esistono E quanto tempo C'è stato Per sperimentare Queste forme di vita Quindi Non siamo soli Nell'universo Disse Perché la vita Fa parte Dell'ordine Della natura Nel 1980 Venne chiamato A far parte Della delegazione Statunitense In Iran Con il delicato compito Di negoziare La crisi Degli ostaggi Come fautore Del disarmo nucleare Multilaterale Nel 1986 Fu invitato a Mosca Insieme ad altri Premi Nobel Da Mikhail Gorbachev Per discutere Di temi ambientali Wold ne approfittò Per perorare Direttamente Con il segretario Generale Del partito comunista La causa Della liberazione Del suo collega fisico Andrei Sakharov Premio Nobel Per la pace Nel 75 E della moglie Yelena Bonner I quali in effetti Verranno rilasciati Alla fine Di quello stesso anno A dicembre Nel 1986 Più della mediverso George Wold Aveva un'idea Della scienza Molto affascinante Per lui Fare scienza Significava Farsi le domande giuste Non ottenere Risposte certe La scienza Diceva È un compito Infinito Perché le risposte Vengono riviste E ci si pone Sempre nuove domande Sulla base Sulla base Del progredire Delle conoscenze Le risposte sicure Sono delle religioni Non della scienza Aggiungeva L'uomo felice Diceva È quello che ha trovato Un obiettivo Irraggiungibile Da perseguire Proprio così Irraggiungibile Cioè Un obiettivo Che non smette mai Di essere tale E che non viene mai Soddisfatto Che magari Ti concede Qualche vittoria Momentanea Ma lui poi Continua a sfuggire Ecco La scienza È questa rincorsa Infinita Una ricerca Che non ha mai fine Nella sua definizione La scienza È un indefesso Tentativo Di estrarre La saggezza Dalle cose Chiaramente Per lui La vera scienza Doveva essere Disinteressata Un'eterna lotta Per la conoscenza Fine a se stessa Tutt'altra cosa Erano le tecnologie Cioè Il fare L'applicazione La produzione Quella invece Per lui Doveva essere Regolamentata E posta sotto Legi della tutela Di una concezione Giusta Ed egualitaria Della società Lo scienziato È un bambino Istruito Che fa della curiosità Il suo pane quotidiano Come l'artista Altra cosa Sono le applicazioni Delle sue scoperte Wald odiava La tipica frase Che si sente Ripetere spesso Secondo cui La scienza Spiegherebbe Solo il come Delle cose Cioè Le descrive Ma non spiega Il perché Delle cose Cioè il loro senso Più profondo Lui non era d'accordo Assolutamente Diceva Che quando la scienza Scopre qualcosa Di importante Sulle origini Dell'universo Del nostro pianeta O sull'evoluzione Allora cambiano I nostri perché E cambiano anche Le risposte Alle grandi domande Filosofiche Da dove veniamo Chi siamo Qual è il nostro futuro E poi la scienza Non può essere Eticamente neutrale Perché con le sue acquisizioni Cambia il mondo E cambia anche La vita Delle persone In particolare Secondo Wald La scienza Ci regala Un nuovo senso Dell'unità Del mondo Proprio grazie Alla storia Questa è una sua idea Molto interessante Lui diceva Noi conosciamo La storia Dell'universo Fin da pochi istanti Dopo il Big Bang E poi la storia Delle galassie Delle stelle Dei pianeti Del nostro pianeta stesso E poi della vita Che è sgorgata E si è evoluta Sulla Terra Giungendo alla fine A noi Homo sapiens Che ci poniamo Delle domande scientifiche Filosofiche Sulla realtà Quindi Noi ora Vediamo dall'interno L'universo Di cui Facciamo parte Tutto questo Diceva Wald È È la profonda Armonia Delle cose Che c'è Nel nostro universo È Per lui Era il significato Della vita Questo diceva Ci fa sentire parte Di una storia grandiosa La più grande storia Che io conosca Diceva La più incredibile La più meravigliosa La più importante E bisogna Filosoficamente Accettare questa realtà Ed essere Acquiescenti Nei confronti Di questa bellissima Storia Dell'universo Una storia Che ha portato Ancora con parole sue Che cito Un insieme di molecole Organizzate Come William Shakespeare A scrivere L'amleto Il che Aggiungeva Non scredita L'uomo Ma esalta Il potere Delle molecole L'uomo Nei necessitano Più di più che mai Per diventare Una comunità Se non possiamo Aggiungere Un senso Comunemente Accettato Di necessità E di obiettivi We're lost Nel 1970 Grazie alla sua fama Di comunicatore Di insegnante George Wald Venne invitato A tenere Le prestigiose Messy Lectures Cioè conferenze Radiofoniche Trasmesse a Toronto Da Radio Canada International Prima di lui Per dire Avevano parlato Da quei microfoni Martin Luther King Claude Levi-Strauss Noam Chomsky Margaret Hattpun Insomma grandissimi nomi Della scienza E della cultura È la fase Della sua esistenza Questa Tre anni dopo il Nobel In cui l'interesse Per la scienza Va lentamente tramontando E viene sostituito Dalla passione politica E dall'insegnamento Universitario Che non interruppe mai Una conferenza La più sorprendente Di tutte Wald Decise di dedicarla All'origine evolutiva Della morte Aggiungendo Con il suo solito Fare ironico Beh già da ora Posso dirvi Che questa sarà La conferenza Più allegra Di tutte E in cosa consisteva La sua idea Beh lui nota Innanzitutto Che gli organismi Unicellulari Quelli molto semplici E tutti quelli Che si riproducono Duplicandosi Oppure dividendosi Non conoscono La morte Individuale Come la intendiamo noi La morte Entra in scena Insieme con il sesso Mezzo miliardo Di anni fa Si separarono Negli organismi Due linee cellulari Da una parte Le cellule sessuali Cioè la linea germinale E dall'altra Le cellule del corpo Cioè la linea somatica La prima linea contiene Troviamo il senso Della morte individuale Ma anche una speranza Di immortalità Che è l'immortalità Dei nostri geni Che ci rendono partecipi Di una Ininterrotta linea Della vita Che va avanti Da miliardi Di anni E allora Il corpo di Wald In effetti morì A Cambridge In Massachusetts Il 12 di aprile Del 1997 Passava le sue estati Al laboratorio Di biologia marina Di Woods Hole In Massachusetts Per insegnare Fare ricerche E navigare Con la sua piccola barca A vela I suoi geni Invece Non sono morti Si era sposato Una prima volta Nel 1931 Avendo due figli Michael e David E una seconda volta Con la collega biochimica Ruth Hubbard Nel 1958 Da cui ebbe una figlia Deborah Nota avvocatessa E un figlio Elia Che è un chitarrista Folk blues Apprezzato musicologo E grande esperto Di world music Elia Due anni dopo La morte del padre Scrisse un libro Insieme alla madre Intitolato Esplodere il mito del gene In cui i due Contestavano Il mito Dell'onnipotenza Dei geni A scapito dell'ambiente E paventavano Che l'informazione genetica Un giorno Potrà essere prodotta E manipolata Per fini economici Assicurativi E discriminazione Sociale Insomma Ancora Scienza E giustizia Insieme Nel segno Del padre World World era ateo Perché pensava Che ricorrere A creatori Trascendenti Anime immateriali Fosse Una scorciatoia Troppo banale Lui parlava Di una religione Laica Che per lui Era la scienza C'è già abbastanza Meraviglia e bellezza Nella natura Diceva Per rendere Superfluo Il sovrannaturale La visione Evoluzionistica Dell'universo E della vita Gli sembrava Più nobile Eppure La sua cultura Ebraica Lo portava A citare Spesso E mai banalmente Il Vecchio Testamento Considerava La Bibbia Il testo Mitologico Più bello E coinvolgente La fonte Del nostro Immaginario Comune Per le sue Bellissime conferenze Radiofoniche World aveva scelto Appunto come titolo Un passo Del Deuteronomio Scegli dunque La vita E in questa scelta Sta tutta la sua Tensione Tensione Di una vita intera Tra la passione Della conoscenza E l'urgenza Dell'impegno Etico E politico La scala Del tempo Geologico È qualcosa Di grandioso Un po' come La tavola periodica Degli elementi È uno di quei documenti Fondamentali Che mostreremo Orgogliosi Agli extraterrestri Qualora dovessero mai Venire A trovarci È una grande acquisizione Della conoscenza Umana E anche del nostro Orgoglio Per avere capito Che abitiamo Su un pianeta Molto antico Che ha più di 4 miliardi di anni E che poi La sua storia È stata scandita Da un succedersi Di tante ere geologiche Fino ad arrivare All'attuale Cioè per la precisione Al dodicesimo millennio Del Olocene Che è il nome Appunto Che diamo All'epoca in cui Viviamo noi oggi È chiaro a tutti Quindi che Un calendario Così importante Così maestoso Che viene chiamato Carta cronostratigrafica Non può essere modificato A cuor leggero Devono esserci Delle ragioni Veramente Molto importanti Per aggiornarlo E sussistono Allora o no Queste ragioni Nel 1873 Un geologo italiano Antonio Stoppani Pensando All'impatto umano Sul mondo Aveva parlato Già a suo tempo Di un'era Antropozoica Poi passano Un po' di decenni Nel Novecento Diversi scienziati Avevano accarezzato L'idea Che la nostra epoca Geologica Dovesse essere chiamata In un modo Speciale Proprio per rimarcare L'impatto pervasivo E spesso Devastante Diciamolo Della specie umana Sul pianeta Così negli anni 30 Un mineralogista Geochimico Molto importante Ucraino-russo Che si chiamava Vladimir Vernansky Ma anche A dire la verità Il teologo Gesuita E paleoantropologo Francese Pierre Teilhard de Chardin Avevano immaginato La cosiddetta Noosfera Come una nuova fase Dell'evoluzione Caratterizzata Dalla presenza Di una specie Intelligente E invasiva Cioè noi Homo sapiens Vernansky Era stato uno dei primi A capire Che la vita Nel suo insieme La cosiddetta Biosfera Come si cominciava A dire a quel tempo Era stata uno Dei fattori più potenti Di modellamento Geologico Del pianeta E che oggi Adesso L'umanità Nel ventunesimo secolo Sta facendo lo stesso Grazie alla scienza E alla tecnica Il primo però A usare Il termine Antropocene Che vuol dire Età recente Con impronta umana Fu negli anni 80 L'ecologo Eugene Sturmer Grande esperto Di alcune alghe Bellissime Unicellulare Che si chiamano Ghiatomee Ma non ebbe Praticamente Quasi nessun seguito Finché nell'anno 2000 Forse complice Anche un clima culturale Che nel frattempo Era cambiato Erano gli anni In cui si parlava Molto del buco Nell'ozono Avvenne un episodio Apparentemente casuale Che ne decretò Un successo popolare Incredibile Il chimico Dell'atmosfera E già premio Nobel Olandese Paul Krutzen Insieme allo stesso Sturmer Prima in un convegno In Messico E poi in una newsletter Per specialisti Sostenne Che i comportamenti Umani Stavano a tal punto Modificando L'atmosfera E la superficie Terrestri Da rendere ormai Homo sapiens Un vero e proprio Agente geologico Di conseguenza Gli ultimi secoli Della storia della terra Dovevano essere Ribattezzati Con un nuovo nome Antropocene Appunto L'età geologica Recente Dominata Dall'uomo Da anni Ma che anche Le capacità Per porvi rimedio Paul Krutzen Il premio Nobel Che rese popolare Il termine Antropocene È un provocatore Nato Poliglotta Cresciuto da bambino Durante le devastazioni Della seconda guerra mondiale Negli anni 70 Fu il primo a studiare Le fluttuazioni Nello strato di ozono Che c'è Nella stratosfera E a comprendere Che l'emissione in atmosfera Di alcuni gas Dovuti Alle attività umane In particolare I gas Refrigeranti O gli spray Stava pericolosamente Assottigliando Proprio Questo importantissimo Schermo Dei raggi Ultravioletti Di tipo B In particolare Questa intuizione Gli valse La condivisione Del primo Nobel Per la chimica Nel 1995 Il Nobel Per la chimica Di quest'anno Fa tre nomi E domani Li premia Mario Molina Messicano Sherwood Roland Americano E l'olandese Paul Kruzen Furono loro A definire Minaccia E rimedi Via i gas Clorofluorocarbonici Da spray Frigoriferi Apparecchiature Industriali Se vogliamo Che l'ozono Continui a proteggerci Dai raggi Ultravioletti All'Accademia Delle scienze Di Stoccolma La mia domanda Se quando E con quale ago Riusciremo a rammendare Il buco nell'ozono Ha dato luogo A un piccolo dibattito Fra i tre ricercatori Mario Molina Credo che la storia Finirà bene Perché dopo Lo scetticismo iniziale Studiosi di tutto il mondo Sono riusciti A mettersi d'accordo Coinvolgendo Responsabilmente Industria E politica Una delle caratteristiche Dell'atmosfera Aggiunge Roland E che nel bene E nel male Avvolge tutto il mondo Quindi la soluzione Deve essere globale Conclude Kruzen Il fatto è che L'atmosfera Si ripara da sola Se smettiamo Di contaminarla Però Molto lentamente I nostri figli Saranno vecchi Quando la situazione Potrà tornare normale Da Stoccolma Linea Roma Ma già molti anni prima Già nel 1982 In particolare Paul Kruzen Aveva calcolato Gli effetti atmosferici Di una guerra nucleare Dimostrando per primo Che avrebbe sconvolto Il clima terrestre Distrutto l'agricoltura Riportato l'umanità Al paleolitico E annientato Gran parte Della biodiversità Da questa idea Di Kruzen Nacque la famosissima Espressione Inverno nucleare Che molto contribuì A diffondere Una coscienza Ambientalista Circa i pericoli Delle armi nucleari Nella stratosfera Si trova Una sottile regione Ricca di ozono L'ozono Ci protegge Dalle radiazioni Ultraviolette E le radiazioni Ultraviolette Causano tumori Alla pelle E problemi del genere L'ozono Può essere attaccato Da agenti inquinanti Finiti nell'atmosfera A guerra finita Quando le particelle Ultramicroscopiche Saranno ricadute Sulla superficie terrestre Potrebbero verificarsi Nella stratosfera Reazioni Tali da ridurre La quantità di ozono D'altro canto Nella troposfera Potrebbero iniziare Altre reazioni Tali da produrre ozono Ed è proprio qui Che la presenza Di ozono È negativa L'ozono Deve essere presente Nella stratosfera Non nella troposfera L'ozono Nella troposfera Causerebbe gravi problemi Agli apparati respiratori Degli esseri viventi E inoltre Attaccherebbe le piante Kruzen è Un ambientalista E un umanista Al contempo Perché Secondo lui Interrompere La devastazione Del pianeta È un dovere Verso l'ambiente Ma soprattutto Verso noi stessi E verso le generazioni Future E per questo Lui ha studiato A lungo I cicli Biogeochimici Terrestri E il clima Globale Kruzen è pessimista Sui tentativi umani Di limitare gradualmente Le emissioni Di gas Serra E secondo lui Bisognerà intervenire Prima o poi Con qualche piano Di emergenza Di geo-ingegneria globale O di ingegneria climatica Immettendo in atmosfera Sostanze che contrastino L'effetto Serra Questa proposta Suscita Molte perplessità E viene dai più Giudicata Rischiosa Però Come facciamo A dargli torto Sul pessimismo Di fondo Oggi Che le emissioni Di gas Serra Hanno ricominciato A salire Anziché scendere Come sta scritto In tutte le carte Degli intenti Internazionali Così Nato quasi Per scherzo Come una provocazione Anche il termine Antropocene Viene oggi preso Sempre più sul serio Otto anni dopo La proposta Di Kruzen Nel 2008 La commissione Stratigrafica Della Geological Society Di Londra Mise all'ordine Del giorno La discussione Sulla possibile Introduzione Dell'antropocene Nel 2011 L'omologa Società statunitense Lo usò nel titolo Del suo congresso Annuale E l'Economist Niente meno Titolò Benvenuti Nell'antropocene La parola Divenne contagiosa Fioccarrono Le prime copertine Di grandi settimanali E nacque persino Una rivista scientifica Intitolata proprio L'antropocene Insomma Il concetto Non era soltanto Molto pop Aveva anche Basi scientifiche Solide Il messaggio è La specie umana È una minacciosa Superpotenza Geologica E Kruzen Aveva ragione Anche i batteri In passato Attraverso la fotosintesi E il rilascio Di ossigeno Avevano sconvolto Il pianeta Ma non lo sapevano Noi siamo Un pandemonio globale Potremmo dire E sappiamo Di esserlo Così Piano piano Anche la comunità Degli specialisti Più conservatori Cominciò a interrogarsi Sulla possibilità Epocale Di modificare davvero La grande scala Del tempo Geologico Il 2009 È attivo Un gruppo di lavoro Internazionale Di scienziati Da tutto il mondo Sull'antropocene È guidato Da un geologo Dell'Università di Leicester Che si chiama Jan Zalasiewicz Ed è un gruppo Che nell'agosto Del 2016 Ha deciso Che l'epoca antropocene Deve essere Ufficialmente Formalizzata E ha consigliato Di procedere In tal senso Alla Unione Internazionale Delle Scienze Geologiche Che insieme Alla Commissione Sulla Stratigrafia Decide I nomi E le datazioni Dei periodi Che si sono succeduti Nella storia Del nostro pianeta Un problema Infatti È quando Fare cominciare L'antropocene Questo perché Per regola Un'epoca geologica Deve essere caratterizzata Da un preciso momento In cui farla cominciare Quindi in questo caso Bisogna trovare Un chiaro momento In cui si vede Un'impronta Umana Climatica Biologica Geochimica Globale Che sia Quantificabile E riconoscibile Nei sedimenti Dai geologi Del futuro Anche tra milioni Di anni E allora C'è chi sostiene Che questa firma Pesante dell'umanità Cominci a dare Un segno di sé Nei sedimenti Già per esempio Con l'invenzione Dell'agricoltura Cioè 11.000 Anni fa O giù di lì In varie parti Del globo Perché da quel momento Gli ecosistemi terrestri Vengono sconvolti Dalle attività agricole Dagli allevamenti Degli animali E in generale Dallo sfruttamento Del suolo Ma il segno Della rivoluzione Neolitica Non convince Abbastanza Perché non è chiaro E poi In questo modo L'antropocene Finirebbe con il coincidere Esattamente con L'olocene Che andrebbe quindi Soppresso come nome E dovremmo cambiare Tutti i manuali Scolastici Di sicuro L'impatto Di Homo sapiens Sul pianeta È molto antico E volendo Potrebbe essere fatto Risalire ancora più Indietro Per esempio All'epoca in cui 40.000 anni fa La nostra specie Portò all'estinzione Tutte le altre forme umane Come i Neandertal Per esempio E andò ad invadere Continenti Come l'Australia Le Americhe Distruggendo Centinaia di specie Di mammiferi Di grossa taglia Ma la soluzione Più Diciamo Praticabile Sembra quella Di fare cominciare L'antropocene In tempi Molto più recenti In coincidenza Magari con la Rivoluzione Industriale O con l'inizio Della crescita Demografica Alla metà Dell'Ottocento La proposta Iniziale di Crutzen Era di farlo Coincidere Con il 1784 Che è l'anno Di invenzione Della macchina A vapore Da parte Di James Watt Una vera E propria Rivoluzione Avviene Nel mondo Occidentale La macchina A vapore Di Watt E' destinata A soppiantare Il mulino Idraulico Come motore Primario In una serie Di congegni Che si muovono E funzionano Esattamente Come avete A lungo Sperato Vedete In fondo Tutto questo Mio lavoro Ha teso A realizzare Due esigenze Che sempre Sono state Presenti Nelle mie Intenzioni La prima Quella di Costringere La natura In cui vi assicuro Niente È dato al caso Per collaborare Con me Che cerco Di indagare Razionalmente E con l'osservazione Tento di chiarirne I principi La seconda E senz'altro Più importante Credo Quella di Dilatare Le limitate Possibilità Umane Di lavoro E soprattutto Quella di Moltiplicare Per un numero Infinito Di volte La fragile Potenza Delle sue braccia Anche Anche il network Intergovernativo Sul cambiamento Climatico Usa proprio L'era industriale Come spartiacque Teorico E storico Tra un prima E un dopo Oggi però La maggioranza Dei scienziati Compreso il gruppo Di lavoro Proprio Sull'antropocene Propende Per farlo Cominciare In tempi Ancora più Recenti In particolare Nel 1945 Cioè con il Macabro Segno Della ricaduta Radioattiva Globale Prodotta Dall'esplosione Delle bombe atomiche Su Hiroshima E Nagasaki E poi Dalle centinaia Di test atomici Che sono stati condotti Fino al 1963 Il rintocco Un po' funereo Sarebbe Per la precisione La data Dell'esplosione Del primo Ordigno Nucleare Nel Trinity Test Del 16 luglio Del 1945 Ad Alamogordo Certo È difficile Trovare un istante Esatto Di inizio Di un processo Così Enorme Sfaccettato Ma questo Ci assomiglia Molto E poi È anche Una scelta Molto simbolica Un monito Comunque Poco male Visto che Per i geologi Che vivranno Tra un milione Di anni Un secolo Più O in meno Non farà Una grande Differenza Alamogordo Inoltre Un grande Senso Di compassione L'olocene Cominciò 11.700 Anni fa E da quando i geologi La formalizzarono Come epoca Nel 2008 Quindi neanche tanto tempo fa È considerata L'epoca In cui anche noi Viviamo Oggi Il suo inizio È marcato In modo chiaro Dai tepori Della fine Dell'ultima glaciazione E Di lì a poco Dalla transizione Neolitica Quindi Finisce Il pleistocene Cominciato 2,58 Milioni Di anni fa Quindi parecchio Tempo prima E parte L'olocene Che include Già La presenza Umana Tutto chiaro Lo abbiamo studiato Tutti a scuola E funziona Possiamo allora Caratterizzare In modo altrettanto Netto L'antropocene E poi Ce n'è davvero Bisogno Allora Proviamo a guardare La situazione Della terra Come se stessimo Fuori Come se fossimo Che ne so Degli scienziati alieni Che la osservano Da Aldebaran O da Andromeda Allora Innanzitutto Cosa vedremo Noteremo Il riscaldamento Climatico Dovuto All'emissione In atmosfera Di gas Serra Prodotti Dal consumo Di combustibili Fossili Stiamo praticamente Prelevando L'anidride carbonica Accumulatasi Per decine Di milioni Di anni Nei sedimenti Fossili E la stiamo Immettendo In atmosfera Una vera e propria Opera di Ingegneria geologica Su scala globale Se ci pensiamo Poi Senz'altro Vedremo Tutte le alterazioni Dirette Del suolo terrestre E la costruzione Del paesaggio Ad opera dell'uomo Le dighe Che formano i laghi E deviano i fiumi Le canalizzazioni I terrazzamenti I ponti I porti I campi coltivati I latifondi I pascoli E così via Poi vedremo Miniere Miniere Che scavano Le montagne In tutte le parti Del mondo E poi Infrastrutture Trasporti E anche L'illuminazione Notturna Della terra Che ci hanno fatto Vedere tante volte Gli astronauti Poi in terzo luogo Vedremmo O meglio Misureremmo L'inquinamento Chimico Chimico Agricolo Soprattutto dovuto Ai fertilizzanti Azotati Poi quello industriale Acustico Su scala globale Vedremmo la diffusione Di metalli pesanti Dove non dovrebbero esserci E di sostanze radioattive Il picco Ci fu Nel 1964 Ma i segni Sappiamo Resteranno per millenni Purtroppo E poi ancora Rifiuti tossici E plastiche Soprattutto le insidiose Particelle Microplastiche Che si accumulano Nei fiumi E negli oceani Oltre che Nello stomaco E nell'intestino Dei pesci Delle tartarughe E dei cetacei La concentrazione più alta Di microplastiche spiaggiate Si trova vicino Alle foci dei fiumi La spiaggia toscana Di San Rossore Inizia dove sfocia l'Arno Nella riserva integrale È vietato entrare E la spiaggia viene lasciata Così com'è Piena di plastica Portata dal mare Restituendoci Una fotografia Molto efficace Dei guasti alla natura Combinati nell'antropoceno Questi sono oggetti Tipici della filatura Perché sono i rocchetti Dove si avvolge il filo Allora di questi A San Rossore Ce n'è una quantità Esorbitante Un altro materiale Tipico di San Rossore Sono questi Bottiglietti Il vetro Abbiamo trovato Che il vetro Occupa il 20% Di tutti Gli oggetti Recuperati Un'altra categoria Che troviamo Sono I bastoncini Dei costonfioc Rappresentano Nei nostri monitoraggi Circa il 30% Di tutti gli oggetti Di plastica Trovati Nelle spiagge Naturali Quasi tutti Questi fattori Si ritrovano Già oggi Nei carotaggi Dei ghiacci Che rappresentano Fedelmente L'impatto Umano I paleontologi Del quarto millennio Troveranno per esempio Negli strati Corrispondenti Alla nostra epoca Oltre a un sacco Di plutonio radioattivo Tra il 45 E il 64 Anche Per esempio Una quantità Smisurata Di ossa Di pollo E di mucca Perché fa parte Dell'antropocene Anche il successo Esagerato Di poche specie Che noi alleviamo Bovini Ovini Suini Galline E così via O anche di piante Coltivate Il riso Il mais Il grano In sintesi Tra un migliaio di anni L'antropocene Sarà misurabile La procedura Per il riconoscimento Formale Invece È ardua E molto conservativa I geologi Sono ancora scettici E non gradiscono Il clamore mediatico Di tutta questa faccenda Altri lamentano L'assenza Nel gruppo di lavoro Di storici Sociologi Antropologi Insomma Come capita spesso Nella scienza Il dibattito È aperto Da tempo Infatti I geologi Usano Le estinzioni Di massa Cioè Le grandi Ecatombi Di specie Che ci sono state Nel passato Come punti Di cesura Tra le ere geologiche Appunto In particolare Noi sappiamo Ci sono state Cinque grandi Estinzioni di massa L'ultima delle quali Quella che colpì I dinosauri Tranne quelli Che poi sono diventati Gli uccelli Separa appunto Il cretaceo Dal paleocene Ebbene Oggi sappiamo Che Homo sapiens Sta causando La sesta Grande estinzione Di massa Con una riduzione Della biodiversità Che varia Da gruppo a gruppo Di organismi Su percentuali Che oscillano Dal 35 Al 45 Per cento Addirittura In pratica Una specie Una specie sola Sta facendo fuori Più di un terzo Di tutti gli altri Esseri viventi Non era mai successo Prima Potremmo dire Che questa volta L'asteroide killer Siamo noi Homo sapiens Ora le cause Di questa estinzione Sono note Non abbiamo alibi Non possiamo dire Che non lo sapevamo Si tratta Di 5 attività umane 5 Che caratterizzano Molto bene L'antropocene E sono La deforestazione La diffusione Di specie invasive A causa Dei commerci Dei trasporti Dei viaggi Come La zanzara tigre Per esempio La crescita Squilibrata Della popolazione umana L'inquinamento In tutte le sue forme E poi La caccia La pesca Ovviamente Indiscriminate E' un mix Questo Micidiale Di cause Di concause Alle quali Si aggiunge Peraltro oggi Un sesto fattore Che è il riscaldamento Climatico Che interagisce Con le altre Causando riduzione Del ghiaccio E dei ghiacciai L'innalzamento Dei mari Lo sfasamento Delle stagioni Che sta disorientando Molti animali Soprattutto i grandi migratori Lo sbiancamento Delle barriere coralline Gli oceani Che si acidificano E così via Secondo alcuni dati Pubblicati di recente Da Science Che non è una rivista Di militanza ecologista Ma attesta Dati scientifici Molto attendibili Anche gruppi di organismi Che un tempo Consideravamo Molto resistenti Come gli insetti Per esempio Sono anche loro In grave crisi Con riduzioni Che arrivano Fino al 30% Un altro nuovo termine Abbastanza raggelante È stato quindi Coniato Dalle riviste scientifiche Ed è Defaunazione In particolare Defaunazione Dell'antropocene In pratica Stiamo spolpando Il pianeta Il che metterà a rischio Prima o poi Anche la nostra Sopravvivenza Questa esenzione di massa La sesta In ogni caso Potrà essere usata Come le cinque precedenti Come punto di rottura Tra le ere geologiche Diverse Un motivo in più Forse il più convincente Di tutti Per l'introduzione Del termine Antropocene Noi umani Quindi siamo Diventati Così importanti Mettiamola così Da meritarci Il nome Di un'era Geologica Nuova Per quanto Finora Brevissima Visto che È durata Non decine Di milioni di anni Come al solito Ma al massimo Qualche secolo Siamo noi però Ad autoattribuirci Questa importanza Il che È sospetto Ma soprattutto I segni dell'antropocene Non sembrano essere Finora Particolarmente positivi Nonostante Tutti i suoi Indiscutibili progressi Sociali Economici E di conoscenze Homo sapiens Deve ancora Meritarsi Il suo Participio Di specie Cioè Sapiens Non resta Che confidare Quindi Nella saggezza E nell'inventiva Degli abitanti Futuri Dell'antropocene Oliver Sacks Era nato a Londra Nel 1933 Da una famiglia ebrea Di medici La madre Una delle prime donne Chirurgo In Inghilterra Il padre Medico generico Molti parenti Illustri scienziati E un fratello Schizofrenico Trascorse l'infanzia Sotto la guerra E le bombe Mentre lo zio Dave Lo faceva appassionare Alla chimica Quando aveva 12 anni Un insegnante perspicace Scrisse Nel suo rapporto Di fine anno Oliver Sacks Andrà lontano Sempre Che non si spinga Troppo lontano Il requieto Lo era parecchio Ama le motociclette E la velocità Il nuoto E il sollevamento Pesi La psicosi Del fratello Lo inquieta E al contempo Lo incuriosisce Si laurea In medicina Al Queen's College Di Oxford Specializzazione In neuropatologie Ma lascia La famiglia In Inghilterra Non senza Un senso di colpa Che si porterà Dietro Tutta la vita E dopo alcuni viaggi In una fase Così di incertezza Sul suo futuro Prima in Israele E poi in Canada Svolge La sua prima Attività In corsia Vera e propria A San Francisco Al Mount Zion Hospital E alla University of California A Los Angeles Impegnandosi In particolare Nella lotta Alle tossicodipendenze Che diventano In quegli anni Lo sappiamo Un'emergenza Sociale Negli Stati Uniti E non solo Qui Oliver Sacks Inaugura Il suo interesse Che manterrà Tutta la vita Per gli allucinogeni E le sostanze Psichedeliche Sperimentate E peraltro Più volte Anche Su se stesso Nel 1965 Si trasferisce A New York Dove svolgerà Il resto Della sua attività Di neurologo E di scrittore Di scienza Rimarrà a New York Praticamente Per 50 anni esatti Per mezzo secolo Fino alla morte Nel 2015 Da allora Non smetterà mai Di studiare La cosa più incredibile Che esista Nell'universo Come la definì Una volta E cioè Il cervello umano Dal 2007 Al 2012 È professore Di neurologia E psichiatria Alla Columbia University Al Medical Center E viene insignito Del riconoscimento Come Primo artista Della Columbia Non solo scienziato Quindi Ma sempre un ibrido Fra le due culture Tra medicina Scienza Stor della scienza E letteratura E scrittura Dal 2012 Il dottor Sachsen È professore Di neurologia Alla New York University School of Medicine E lavora Al centro comprensivo Sull'epilessia È visiting professor A Warwick E in molte altre università Scrive Apprezzatissimi articoli Sul New York Times Sulla New York Review of Books Sul New Yorker E su molte altre riviste Incluse Non dimentichiamolo Le riviste scientifiche Per i suoi studi clinici Che aprono In molti casi Nuove interessanti Prospettive Di ricerca E anche di cura Nel 2002 Gli viene assegnato Il Lewis Thomas Prize Della Rockefeller University Che ancora una volta Riconosce Nello scienziato Anche un poeta È stato membro onorario Sia dell'American Academy Of Hearts and Letters Che dell'American Academy Of Hearts and Sciences E ha conseguito Lauree ad honorem In moltissime università Nel mondo Ben cinque film Furono ispirati Da lui Più Un certo numero Di documentari Di opere teatrali Tra cui una di Peter Brook Musical e balletti Addirittura E un'opera di Michael Nyman A cosa dobbiamo dunque Questo successo planetario E anche poliedrico Sia come medico Sia come scrittore Come aveva detto Il suo insegnante In 1966 Oliver Sacks A 33 anni Inizia a lavorare Come consulente neurologo Per il Beth Abraham Hospital Nel Bronx Un malandato ospedale Per cure croniche Dove incontra Un particolare gruppo Di pazienti Molti dei quali Avevano trascorso decenni Come in uno stato Di congelamento mentale Quasi fossero Delle statue umane Paralizzati Catatonici E naturalmente Dati perpersi Dai medici Che non sapevano Come trattarli Sacks formulò Un'ipotesi Interessante Che denota Tutta la sua capacità Di entrare in relazione Di immedesimarsi Nei suoi pazienti Riconobbe in quelle persone I sopravvissuti A una pandemia Di encefalite letargica Che coinvolse Anche gli Stati Uniti Dal 1916 Al 1925 I sintomi E l'età Corrispondevano Sulla base di questa idea E di analogia Che aveva notato Con i sintomi Della malattia Di Parkinson Sacks Trattò i pazienti Con un farmaco Anti Parkinson Allora sperimentale L'allevodopa Che permise loro Di tornare attivi Anche se per una breve Durata Per periodi Piuttosto Corti I pazienti Di encefalite letargica Del Bronx Divennero I soggetti Del suo libro Famosissimo Risvegli Del 1973 Poi aggiornato Nel 1990 Che in seguito Ispirò Un'opera teatrale Di Harold Pinter A Kind of Alaska Del 1982 E il film Omonimo Del 1990 Di Penny Marshall Candidato a più Oscar Con Robert De Niro E Robin Williams L'encefalite letargica È un'infiammazione Della sostanza grigia Del cervello Dovuta forse A un virus A RNA Non ancora Identificato Con certezza Oppure A un meccanismo Autoimmune E fu Una gravissima Pandemia Pressoché Dimenticata Anche perché Fu contemporanea E parallela Alla spagnola Tra il 1916 E il 1925 Descritta Per la prima volta Nel 1917 Ha tra i suoi sintomi Nella fase acuta iniziale Un sonno profondo E perdurante Chi sopravvive All'infiammazione iniziale Entra in una fase cronica Progressiva Con sintomi simili Alla malattia di Parkinson E in più Talvolta Con la paralisi Dei muscoli Degli occhi La pandemia Partì forse Dalla Romania O da Vienna Per estendersi poi A tutta l'Europa occidentale E quindi Nel mondo intero Negli anni 90 Dell'Ottocento Erano però Già state registrate Epidemie Con le stesse caratteristiche Nell'area mediterranea Quindi il virus Probabilmente Circolava già Da un pezzo Si stima Che abbia colpito Almeno un milione Di persone Portandone alla morte Nella fase acuta Quasi la metà Successivamente La malattia Sembra Sparita Con qualche caso isolato Che spunta ogni tanto Che però È difficile attribuire Alle stesse cause Nel libro Risvegli Di Sachs La malattia Smette Di essere tale E diventa persone In carne ed ossa Con un nome E un cognome Una vita precedente Alla malattia Una professione Passioni Gusti Idiosincrasie Amicizie Al di là Della reale efficacia Della terapia Limitata dal fatto Che purtroppo La levodopa Crea tolleranza E assuefazione Nei pazienti Per cui bisogna Aumentare Sempre di più Il dosaggio Come si racconta Peraltro Anche nel film Sachs Scrive Pagine bellissime Sul valore Straordinario Di un risveglio Alla vita Anche solo Momentaneo E fugace E soprattutto Sulla sofferenza Umana Facendo capire Come scrisse Doris Lessing Commentando il libro Che tra salute E malattia mentale Tutti noi viviamo Come sul filo Di una lama Quando arrivai Il paziente Era sdraiato Sul pavimento Vicino al letto E si fissava Una gamba Sul suo viso Si leggevano Insieme rabbia Paura Perplessità E voglia di ridere Ma soprattutto Perplessità Con un fondo Di sgomento Gli chiesi Se voleva Tornare a letto Se gli serviva aiuto Ma sembrò Turbato Da queste proposte E scosse la testa Mi accovacciai Vicino a lui E lì sul pavimento Ascoltai la sua storia Era stato ricoverato La mattina stessa Per alcuni esami Non lamentava nulla Ma i neurologi Trovandogli La gamba sinistra Pigra Disse proprio così Avevano prescritto Il ricovero La giornata Era trascorsa Normalmente Si sentiva benissimo E verso sera Si addormentò Si svegliò Sentendosi sempre bene Finché non accennò Un movimento E fu allora Che nel letto Trovò Sono parole sue Una gamba sconosciuta Una gamba umana Recisa Una cosa orribile I pazienti neurologici I pazienti neurologici Sono viaggiatori In terre Inimmaginabili Amava ripetere Oliver Sacks Ognuno di loro Racconta una storia Unica Sacks divenne Famosissimo In tutto il mondo Per le sue raccolte Di casi clinici Che sembrano Venire direttamente Dai più remoti Confini Dell'esperienza Mentale E neurologica Nascono così Capolavori Come L'uomo che scambiò Sua moglie Per un cappello Del 1985 20 ritratti Memorabili Di pazienti Neurologici Ciascuno Con le sue unicità E poi Un antropologo Su Marte Del 1995 In cui Sacks Si mette nei panni Di un neuro Antropologo Come dice lui E descrive Pazienti Che lottano Per vivere In condizioni Che vanno Dalla sindrome Di Tourette All'autismo A parkinsonismi Allucinazioni musicali Epilessia Sindrome dell'arto Fantasma Schizofrenia Ritardi mentali Alzheimer E così via Ciascun caso Per lui È la descrizione Di un modo diverso Con cui il cervello Cerca di costruire E di ricostruire Un suo mondo Individuale Sacks Allo stesso modo Ha studiato Il mondo Delle persone sorde Le loro battaglie Per i diritti Contro ogni discriminazione Nonché La complessità La bellezza L'espressività Della lingua Dei segni In un altro suo libro Vedere voci Del 1989 Una rara comunità Di persone cieche Ai colori Sull'isola Di Pingelab Diventa La protagonista Invece Dell'isola Dei senza colore Del 1997 Sicuramente Uno dei suoi libri Più riusciti Anche perché Si parte Da quella storia Ma poi Si viaggia A Guam Un'altra isola Del pacifico Per studiare Una strana Paralisi Neurodegenerativa Endemica E si finisce Per parlare Di quanto Siano importanti Le isole Per capire La diversità Umana E più in generale La nascita Di nuove specie La biodiversità L'evoluzione Darwiniana Davvero Un bellissimo Esempio Di divulgazione Scientifica E di racconto Di scienza Le esperienze Personali Sono sempre Centrali Nei lavori Di Oliver Sachs Ha scritto Delle sue Vicissitudini Come medico In Emicrania Del 1970 Dove Connette Gli attacchi Di emicrania Addirittura Alla teoria Del caos Applicata Al cervello E poi Come paziente In Su una gamba Sola Che è Del 1984 Dove racconta Di un grave incidente Che lui ha avuto A una gamba Mentre era in Norvegia Ad arrampicare E che gli procurò La stranissima sensazione Di non avere più La gamba E poi racconta Di come È guarito Ha scritto Di musica Moltissimo Di musicoterapia Soprattutto In un altro Dei suoi best seller Che si intitola Musicofilia Nel 2007 Sì La musica È molto importante Per me adesso Un mio amico Qualche volta Parla della musica Come del succo D'arancia Per l'orecchio Per me ogni giorno Comincio con la musica Della radiosveglia Mi piace un sottofondo Di musica classic Quando lavoro Mi piace andare ai concerti Possego un pianoforte Un vecchio Bechstein Il male verticale Che mi faceva da bambino Spesso mi sedo al pianoforte Con un taccuino Suono un po' E scrivo qualcosa Sono appassionato di opera E ci vado quando posso Vado a sentire musica religiosa Spedalmente Bach Le passioni di Bach La musica Mi influenza molto profondamente Mi sento oppresso Quando non ho la musica Ma detto ciò Non so poi cosa succede Benché uno dei progetti Di ricerca Che noi abbiamo Sia un speciale istituto Per la musica E per le funzioni neuronali All'ospedale In cui lavoro Per me è un grande mistero Capire Perché gli esseri umani In generale Ed in particolare Reagiscono alla musica Così intensamente Oliver Sacks È stato anche autore Di diari di viaggio Per esempio Nella provincia di Oaxaca In Messico A caccia di felci Antichissime E di due autobiografie Una si intitola Zio Tungsteno Del 2001 E l'altra In movimento Del 2015 La cui funzione Lui confessava Era quella Catartica Cioè di Di mettere a posto I conti con il suo passato E con il paesaggio Della sua vita Come lo chiamava lui Gli fu rivolta L'accusa Di sicuro In generosa Di avere sfruttato I suoi pazienti Per diventare Uno scrittore di successo In realtà Lui di pazienti Ne accettava pochissimi In cura Privatamente Quanto al fatto Che i suoi Sono quasi sempre Casi individuali E quindi Idiosincratici Non è vero Tutto sommato Che gli aneddoti Non fanno scienza Certo Non è una scienza Quantitativa È statistica Però offre comunque Molti suggerimenti Interessanti Sul funzionamento Del cervello Come tante piccole porte Che si aprono Su un sistema Estremamente complesso Per lui Quei casi Erano innanzitutto Espressioni Della diversità Umana Individuale Il tema centrale In Oliver Sacks Era proprio questo In fin dei conti L'unicità Individuale In un libro Scrive È destino Di ogni essere Umano Un destino Genetico E neurale Essere qualcosa Di unico Ed irripetibile Quando moriamo Aggiunge Noi lasciamo Un vuoto Incolmabile Ma l'avventura Ma l'avventura Dell'umanità Va avanti Grazie alle diversità Imprevedibili Di altri esseri umani Che verranno Ecco questo era Molto tipico Del suo modo Di vedere le cose Il cervello Rende ognuno di noi Umano A modo suo Sacks Era quindi Un clinico Un clinico Autentico Un poeta Della scienza Dell'individuale Potremmo dire E non Delle generalizzazioni Era sempre In compagnia Di ciò Che gli altri Chiamano Anormale Inusuale Disabile Malato Ma lui Lì ci vedeva Espressioni Della variegata Natura Umana Soprattutto Entrava in contatto Con i suoi pazienti Alla vecchia maniera Potremmo dire Faccia a faccia Toccando Si Abbracciando Si Sorridendo Alludendo Scherzando Ammiccando Dedicando tempo Senza un computer O un telefonino In mano Quindi mettendo in gioco La sua stessa timidezza E fragilità Per esempio In un altro libro L'occhio della mente Del 2010 Sachs racconta Storie di persone Che sono in grado Di navigare nel mondo E di comunicare Con gli altri Nonostante abbiano perso A causa di Problemi Di ictus O altre ragioni Ciò che molti di noi Considerano Sensi E abilità Indispensabili Per esempio Il potere della parola La capacità Di riconoscere i volti Il senso Delle tre dimensioni Dello spazio La capacità di leggere Il senso della vista Eccetera Sono tutte storie Di persone La cui sfida È adattarsi A un modo Diciamo Radicalmente nuovo Di stare al mondo E così Ne nasce Una descrizione Molto efficace Della plasticità cerebrale Umana Delle potenzialità Delle potenzialità Del nostro encefalo E come lui diceva sempre Delle quasi Illimitate risorse Che noi abbiamo Quando siamo davanti A una situazione nuova E magari difficile E dolorosa Compreso ovviamente Sachs stesso Che in quel libro Racconta Del cancro Che ha avuto A un occhio E della perdita Della visione Dal lato destro Alla fine Dopo aver letto Quel libro Noi non ne usciamo Con una teoria Della visione Ma ne usciamo Pieni di domande Intelligenti Per esempio Come fa il nostro cervello A leggere E scrivere Anche se evidentemente Non si è evoluto Per fare questo Visto che lettura E scrittura Sono comportamenti Culturali Recenti Sviluppatesi Intorno a 5.000 anni fa Nel 2012 Oliver Sachs Pubblica Allucinazioni Dove spiega Che vedere qualcosa Che non esiste davvero Non è necessariamente Pazzia Non è una cosa Da streghe O da indemoniati Ma può derivare Da una deprivazione sensoriale Della vista Soprattutto Oppure Da intossicazioni Malattie Da forti emicranie Incidenti Lutti Molto gravi E eccetera Quindi Lui indaga sempre Le cause molteplici Del fenomeno In cui Elementi fisici Biologici Interagiscono Con le nostre Interpretazioni Mentali E culturali E così Per esempio Le allucinazioni Portano a Epifanie religiose O alla sensazione Di lasciare Il corpo Ovviamente Le allucinazioni Precisa Sachs Si possono anche Generare Attraverso sostanze Psichedeliche Insomma Per lui Le allucinazioni Aprono spiragli Per capire Come funziona Il cervello E allo stesso tempo Per comprendere Aspetti importanti Delle culture Umane Essendo una parte Di noi Un potenziale Espresso O inespresso E non una patologia Che automaticamente Ci rende Abnormi Questo è il tipico Approccio Di Sachs Ed è anche La sua essenza In un certo modo Come divulgatore E come narratore Sul web Per esempio È possibile Rivedere Una Una sua conferenza Una teleconference Di Sachs Sulle allucinazioni Che presenta Come delle anarchiche Stimolazioni Di parti del cervello Connesse alla visione E poi ne dà Una spiegazione Neurologica Ma sempre connessa Alla descrizione Delle particolarità Della persona Che gli racconta Le sue esperienze E che lui Descrive sempre Con rispetto Con curiosità Con l'affetto Per il caso singolo Come espressione Di uno specifico Teatro della mente Come ripete Aggiunge poi Commenti Su quanto ancora Sappiamo poco Del meraviglioso Macchinario del cervello E su come dobbiamo Proprio per questo Ridurre Lo stigma Della malattia mentale E neurologica Ecco Questo era lo stile Divulgativo di Sachs Il suo approccio umano Alla neurologia E alla psichiatria Lui confidava fortemente Nel potere Della narrazione I suoi testi Traboccano Di umorismo Di capacità Di connettere Saperi diversi Spazzano dalla psicologia Alla letteratura All'arte Alla storia Della scienza Sono testi Tutti molto Eleganti Sinceri Pieni di compassione Pieni di grazia Potremmo dire Oliver Sachs Teneva Nel portafogli Una piccola Tavola periodica Degli elementi Alla quale Ha dedicato Sappiamo Pagine splendide In Zio Tungsteno A volte ci sono stati Nomi diversi Per uno stesso elemento Derivati da nomi di stelle Come quelli dati Dal grande chimico Austriaco Auer von Welchbach Che trovò Il cassiopeio L'aldebaranio Che nomi magnifici Sono molto più belli Di quelli correnti Il terbio E l'utezio Lo stesso Mendeleev Che ha inventato O forse possiamo dire Che ha scoperto Il sistema periodico Pensava di aver trovato Elementi mancanti Uno di questi Era l'eterio Che riempiva l'etere Ed era un milione di volte Più leggero Dell'idrogeno Ma poi lo ha ritrattato Molti elementi presunti Sono stati ritrattati Perché poi si è capito Che erano composti O inesistenti Tutti gli elementi naturali Tutti gli elementi naturali Sono stati trovati L'ultimo è stato Probabilmente Quello che si chiama Regno Scoperto nel 1925 Ma dal 1937 in poi Abbiamo creato Nuovi elementi E l'ultimo di questi Che trovavo Molto seducente Sembrava proprio Il 118 Lo cito nel mio libro Come una creazione O una scoperta Recente E mi ha rattresato Molto apprendere Che quell'elemento Non esisteva Sarebbe stato bellissimo Un gas molto Molto denso E a me i gas densi Piacciano tantissimo E questo gas inerte Avrebbe in qualche modo Completato una parte Del sistema periodico Desideravano tutti Che ci fosse L'elemento 118 Ora ci dicono Che non c'è Che non è stato creato Diciamo che sicuramente Apprezzava Sachs Il fatto che Mendeleev L'autore della tavola Nella sua prima versione Proprio a partire Dall'ordine scoperto Negli elementi Esistenti In natura Riuscì a predire L'esistenza Di altri elementi Che nessuno Aveva Fino ad allora Mai osservato Questa è la magia Della scienza Che piaceva A Sachs L'unione di Immaginazione E di ordine Come vede Il rapporto Tra caso E necessità La vita È sempre Un grosso sforzo Di tenersi In equilibrio Tra fato E libertà E in un certo senso La malattia È una specie Di fato Imposto Sulla persona Però Nelle risposte Che ciascuno Dà alla malattia Possono venire fuori Concetti nuovi Di autonomia E di libertà Le mie storie Sono in fondo Studi Su come costruire Una nuova necessità E un nuovo caso Dopo aver distrutto Il vecchio mondo Quanto aiuto Può dare La psicoanalisi Certo che mi ha aiutato La psicoanalisi Non sarei qui adesso Senza il suo aiuto Probabilmente sarei morto Suicida O alcolista 25 anni fa Mi ritengo fortunato Di avere uno psicoterapeuta Che mi conosce meglio Di quanto io conosca Me stesso Per me è una guida E credo che mi aiuti Anche a studiare gli altri Oliver Sacks Nutriva una pressoché Totale indifferenza Verso la cultura popolare Per quasi tutta la sua vita Nuotava per ore e ore Ogni giorno Era molto appassionato Di giardini botanici E soprattutto Di antichissime felci E cicadofite Queste piante Con origine evolutiva Antichissima E poi di collezioni Mineralogiche Confessava di essere Una persona molto timida Nelle sue relazioni personali E questo traspare anche Nel suo modo di scrivere E di tenere conferenze Oliver Sacks Ha condiviso Gli ultimi anni Della sua vita Con il compagno Bill Hayes Scrittore e fotografo Conosciuto Tramite una corrispondenza A proposito Di un altro male Comune L'insonnia All'inizio del 2015 A Oliver Sacks È stato diagnosticato Un cancro Metastatico Al fegato Una recidiva Una recidiva di un raro Melanoma oculare Che lo aveva colpito Nove anni prima Rendendolo cieco Da un occhio Fu lui stesso A leggere la propria Tac E a fare la diagnosi Da solo Diagnosi Che poco dopo Decise di Rendere nota Il mondo In un celebre articolo Pubblicato Su New York Times Il 19 di febbraio Del 2015 Un testo Splendido Sintetico Illuminante Pieno di libertà Di dignità E anche di gioia E di gratitudine Verso la vita Qui Oliver Sacks Dichiara il suo desiderio Di evitare misure Eroiche E inutili Di prolungamento Della vita Preferendo concentrarsi Sul vivere E lavorare E scrivere Nel maggior comfort Possibile Nel tempo Che aveva Sacks è morto Il 30 di agosto Del 2015 All'età di 82 anni Nella sua casa Di Manhattan Con Ayes E i migliori amici Al suo fianco Stava lavorando Ad altri due libri Usciti poi postumi Nel 2017 E 2019 In una delle sue ultime lettere Scrive La scrittura È più importante Del dolore I temi di attualità Non sono più I miei Aggiunge Quelli riguardano Il futuro Riguardano i giovani Nei quali ripongo Grande fiducia E conclude Sono un uomo Di violenti entusiasmi E di smodate passioni Voglio vivere A pieno Ogni momento Che mi resta E ancora scrive Non posso fingere Di non avere paura Ma il mio sentimento Predominante È di gratitudine Ho avuto Un rapporto Con il mondo Il rapporto Speciale Che hanno Scrittori E lettori Soprattutto Sono stato Un essere senziente Un animale pensante Su questo Bellissimo pianeta E questo Di per sé È stato Un enorme Privilegio E un'avventura Questa È una storia Tipicamente Vittoriana Ricca di Vezzi E anche Di qualche Bizzarria L'eccentrico Francis Galton O Galton Che dir si voglia Nasce a Birmingham Il 16 di febbraio Del 1822 Da una ricca Famiglia Quacchera Di banchieri È un bambino Prodigio Diventa addirittura Famoso Già in quegli anni Uno studente Precocissimo Impara a leggere E scrivere Molto presto E in diverse lingue I genitori Come capitava Spesso a quel tempo Decidono di fargli Studiare medicina Che però lui Non piace tanto A Birmingham E preferisce La matematica Che studia Con gran profitto A Cambridge Ma i suoi interessi Vanno Soprattutto E come possiamo Dargli torto Ai viaggi E alle invenzioni Grazie ai denari Della famiglia Può permettersi Infatti Dei lunghi E avventurosi Viaggi Da solo Un giovinetto A spasso Attraverso l'Europa Fino a Costantinopoli Poi in Egitto In Sudan Rientrando poi Dal Medio Oriente E così via E qui comincia Ad appassionarsi Alle diversità umane Al plurale E soprattutto Alle mappe E alle misure Poco più che ventenne Capisce proprio Che la sua missione È la geografia Viene eletto Nella Royal Geographical Society Inglese E organizza Una spedizione Abbastanza pericolosa Innovativa A quel tempo In Namibia E in tutta L'Africa Sud-Occidentale Che gli fa vincere Peraltro La medaglia d'oro Della Royal Society Poco dopo E tra l'altro Anche quella d'argento Dell'omologa Società francese Il che per un inglese Non era facile Galton disegna Le migliori mappe Dell'Africa I suoi racconti Di esplorazione Hanno un successo enorme Soprattutto Un best seller Celeberrimo L'arte di viaggiare Una specie di manuale Per vittoriani Che forniva Tutte le istruzioni Per visitare il mondo E anticipava Praticamente La moda Delle guide Turistiche Anche di oggi Ben presto Galton diventa Un quasi Un tuttologo Uno studioso Onnivoro È un autore Prolifico Quasi un grafomene Scrisse più di 400 Tra libri E articoli Spaziando Dall'antropologia Alla meteorologia Proponendo Per esempio Le prime mappe europee Delle condizioni Meteorologiche E formulando La teoria Dell'anticiclone La prima mappa In assoluto Del tempo Del giorno prima Venne pubblicata Sul Times Il primo di aprile Del 1875 E non era Un pesce d'aprile Ma era proprio esatta Ed era stata disegnata Da Galton Tutti cominciano A conoscerlo anche Per le sue bizzarrie In Africa Si era divertito A misurare La peculiare geometria Diceva lui Delle forme Delle donne Locali A volte proponeva Anche delle tesi Veramente assurde Come quella Secondo cui I cinesi Di cui apprezzava Molto l'antica civiltà Avrebbero dovuto Migrare in massa In Africa Per soppiantare I meno evoluti Indigeni neri E qua si vede Che era un uomo Dell'ottocento Inclusa anche La visione Razzista Galton è noto Ai più Oggi Come il cugino Di Darwin Il che Obiettivamente Non gli fa molto onore Perché non visse Certo all'ombra Del più famoso Naturalista inglese Anzi Tra i due Vi furono rapporti Intensi Di grande amicizia Anche qualche volta Burrascosi Che riletti oggi Riservano Non poche sorprese Francis Galton Era davvero Cugino Di Charles Darwin Perché condivideva Con lui Che era più vecchio Di 13 anni Darwin Un vulcanico E libertino Nonno Il nonno Erasmus Darwin Famosissimo anche lui Nel 700 Entrambi quindi Discendevano dai membri Della Lunar Society Un elitario club Illuminista Di geniali Buontemponi Inglesi Amanti Della scienza Delle sperimentazioni Della letteratura E anche del buon cibo Che si chiamavano così Lunatici Perché erano soliti Riunirsi Nelle notti Di luna piena Il rapporto con Darwin Fu sempre molto stretto E amicale Darwin aveva bisogno Di qualcuno Che lo aiutasse Nella materia Dove lui era più debole Cioè la matematica E Galton Invece da par suo Era invece molto interessato Al tema biologico Delle ereditarietà In generale Dagli studi Di suo cugino A lui interessava Capire attraverso Quali meccanismi Si trasmettono Di generazione In generazione Le varietà E le peculiarità Delle persone Perché a quel tempo L'ereditarietà Era un fatto Noto a tutti Perché lo si osservava Però non se ne Comprendevano I processi E proprio in quegli anni Tra l'altro 50 Dell'800 Gregor Mendel Da tutt'altra parte D'Europa Ci stava lavorando Facendo i suoi famosi Esperimenti Sui piselli A Berno In Moravia Però Mendel Non ebbe modo Di incontrare Né di farsi leggere Da Darwin E da suo cugino Galton Darwin pure Si stava rovellando Sullo stesso problema Proprio negli stessi mesi E negli stessi anni E nel 1865 Era giunto Formulare Un'ipotesi Piuttosto Speculativa Chiamata Pangenesi In pratica Per farla breve Secondo Darwin L'ereditarietà Avveniva Perché nel sangue Scorrono Alcune Gemmule Come le chiamava lui Che rappresentano Come in miniatura Le diverse parti Del corpo E che nel corso Della fecondazione Si mescolano Fondendo I tratti Del padre E della madre In pratica Darwin Si era fatto Un'idea Di un'ereditarietà Così Per fusione Per mescolamento Noi sappiamo Che era Sbagliatissima Però a quel tempo Chissà Allora Galton Cosa fa Eccitato Dall'idea Del cugino E infervorato Dalla pubblicazione Della teoria Dell'evoluzione Si mise subito Al lavoro E con tutto Il suo piglio Da sperimentatore Da statistico Tra 1869 E 1871 Sviluppò Una serie Di stranissimi Esperimenti Di trasfusione Di sangue Tra razze Diverse Di conigli Poveracci Per verificare Se davvero Esistevano Queste gemmule Ma non ne ricavò Praticamente nulla L'ipotesi Non funzionava Lo disse A Darwin Che ci rimase male Nel 1871 E' stato ritrovato Un documento Abbastanza eccezionale Ci fu proprio Uno scontro A colpi di fioretto Vittoriano Potremmo dire Sulle pagine Della rivista Nature Tra due cugini Con Galton Che criticava La pangenesi E i residui Così Un po' Lamarchiani Che c'erano Ancora in Darwin E Darwin Che criticava Questi esperimenti Di Galton Sui conigli Ritenendoli Non risolutivi Ipotizzando Che non fosse Necessariamente Il sangue Il veicolo Di trasporto Di queste Benedette gemmule Che poi nessuno Ha mai trovato Brancolavano 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 Tutte e due Nel buio Mettiamola così Galton poi Però continuò A studiare Negli anni 70 Le leggi Di trasmissione Dei tratti Fisici Nella popolazione In un'ottica Sempre molto Statistica E matematica Però non riuscì A cogliere Le proporzioni Delle leggi Di Mendel Benché Nel 1875 Si fosse messo Anche lui Una coincidenza Incredibile A studiare I tratti Ereditari Proprio Nei piselli Galton Osservò Che la progenie Per esempio Di individui Ritenuti Eccezionali Tendono A mostrare Delle caratteristiche Che Come dire Scemano Si fondono Nelle generazioni Successive E praticamente Che cosa Abbiamo capito A posteriore Che Galton Si stava concentrando Su dei caratteri Diversi da quelli Di Mendel Che vengono chiamati Quantitativi Oggi In pratica Sono quei caratteri Che presentano Una gamma Continua Di variazione Come per esempio La nostra statura Noi non siamo alti O 1,60 O 1,70 Ma abbiamo Tutte le gradazioni Una cosa Molto diversa Per esempio Dai caratteri Mendeliani Tipo avere I semi Di pisello Con il colore Giallo O il colore verde Mendel Si concentrò Su questi caratteri Discreti E arrivò Alle sue leggi Galton Però non aveva Tutti i torti Perché il mondo È pieno anche Di quel tipo Di variazione Lì Continuativa E diede contributi Fondamentali Allo studio Di queste variazioni Che oggi sappiamo Sono dovute A tanti geni diversi E soprattutto Ai fattori Ambientali Contributi Che poi Funno ripresi Dai grandi Genetisti E soprattutto Dai biometristi Del novecento In pratica Galton Senza saperlo Fu il complementare Di Gregor Mendel Francis Galton Era letteralmente Ossessionato Dalle statistiche Studiò Come le variazioni Si distribuiscono Su un certo campione Di soggetti Che lui analizzava Notando per esempio Che di solito C'è una tendenza centrale O una media E poi Una distribuzione Ai lati Di questo valore Centrale Che si chiama Varianza In pratica Capì l'idea Della deviazione Standard Poi intuì Anche come Più le misurazioni Aumentano Più il campione Si sposta Verso la media Che si chiama Principio di regressione Un'altra idea Statistica Importante La reversione Verso La mediocrità La normalità Come diceva lui Lui definì anche Il concetto statistico Di correlazione Cioè quel fenomeno Per cui La variazione Di una variabile È accompagnata In media A quella Di un'altra variabile Che quindi Sembra correlata In realtà Noi sappiamo Che questa correlazione Identifica non sempre Un rapporto di causa Effetto Quindi bisogna essere Molto cauti Perché con le statistiche Si può apparentemente Dimostrare tutto E il contrario di tutto A volte I dati statistici Accostati Sembrano suggerire Una relazione Di causa-effetto Che invece Non esiste Galton intuì anche Un'altra cosa Molto interessante Che oggi Viene chiamata La saggezza Delle folle Cioè In pratica Il fatto che Una somma Di molti giudizi Individuali Per esempio Stimare il peso Di un oggetto Solo a occhio Chiedendola Una platea Molto vasta Il risultato È sempre molto più Vicino alla verità Rispetto al giudizio Di un singolo Oppure di una giuria Ristretta Quindi più si è Più il giudizio Di media Complessiva È preciso L'uscita Dell'origine Delle specie Di Darwin Di suo cugino Fu per Galton Ovviamente Una rivelazione Lui disse Lo squarcio di sole Nelle nubi Dell'oscurantismo Religioso Scrisse così Leggendo il capolavoro Del cugino Galton si appassionò Al tema Della variazione Umana In particolare Che per lui Era variazione Proprio in tutti i sensi Fisica L'altezza Il girovita La stazza Tutti i tratti anatomici Di qualsiasi tipo Biologica Le abitudini Le diete Le malattie E anche mentale Fu il primo Per esempio Ad applicare La statistica Allo studio Delle differenze Tra gli esseri umani Da tutti i punti di vista Definì le scale di udito Per esempio E i test Per misurarle Provò a quantificare Anche le facoltà mentali I poteri della mente Come si chiamavano A quel tempo Somministrando Dei test cognitivi E anche ottici Molto all'avanguardia Usava delle immagini Particolari Che poi tra l'altro Sono state usate Anche dopo Dagli psicologi E volle anche verificare Tra l'altro Tra questi poteri Della mente Anche se la preghiera Aveva davvero Effetto Ma non ne trovò nessuno Né sul pregante Né su chi è oggetto Della preghiera Trovò un metodo Per classificare Le impronte digitali E' famosissimo Anche per questo Francis Galton Che poi è stato usato Nei tribunali inglesi Dagli anni 80 Dell'ottocento E dalle polizie Di tutto il mondo Praticamente Dalla fine dell'ottocento In poi E cercò anche Di calcolare La probabilità Che sappiamo essere zero Noi oggi Ma a quel tempo Non lo si sapeva Che due persone diverse Abbiano le impronte digitali Uguali Il disegno delle impronte digitali E' il più caratteristico Dei tratti umani Nel sistema sorrentino Adottato in Italia I disegni delle impronte Sono ricondotti A quattro tipi Ciascuno dei quali Si suddivide in dieci specie Numerate con le cifre Dallo zero Al nove Le cifre dell'indice Pollice Mignolo della sinistra Formano la serie Quelle corrispondenti Della destra Formano la sezione Le altre quattro Il numero individuale Nasce così La formula Dattiloscopica Che permette Una rapida ricerca Tra le schede Di questo immenso Archivio di dita Che hanno toccata O sfuggita la colpa L'uomo E' il disegno Dei suoi polpastrelli Tra i nostri connotati Le impronte Sono il più fedele Ci accompagnano Immutabili Dalla nascita Alla morte Sono anche il più individuale Magalton fu innovativo Anche nei primissimi utilizzi Della fotografia Per esempio Per scoppi scientifici Lui fotografava i volti Per misurarli E un giorno Gli venne in mente Di fare Il cosiddetto Ritratto composito Cioè in pratica Di sovrapporre Molti ritratti Uno sull'altro Per ottenere La faccia media Come diceva lui Di un dato gruppo Umano E ne vennero fuori Degli strani volti Molto affascinanti Anche conturbanti Che poi furono Per esempio citati E interpretati Da Sigmund Freud E da altri Come i tipi ideali O tipi naturali Del volto Di determinati gruppi Di persone Galton addirittura Volle interessarsi Per dire quanto era Un uomo strano Al metodo ottimale Per fare il tè Delle cinque E per tagliare a fette Una torta circolare Da buon salottiero Quindi se volete sapere Come si taglia perfettamente Una torta Dovete leggere Gli scritti Di Francis Galton Ne inventò Di tutti i tipi Che poi furono usati Per le ricerche Sulle comunità umane Per i studi di sociologia E anche per studi storici Nei questionari Chiedeva di pensare A immagini mentali Faceva dei test A forza di fare A forza di fare indagini Stori e familiari In particolare Si interessò Praticamente Da subito Da giovane Alle origini Del genio E della creatività E come si trasmettono Convinto Tra l'altro lo dice lui stesso Non era molto modesto Di essere lui stesso Un genio E che tale dono Potesse essere ereditario Noi oggi sappiamo Che tutte le evidenze Ci dicono Che non è così Però a quel tempo Era un'idea Abbastanza diffusa Quindi per provare Che l'intelligenza Si eredita Inventa La storiometria Che poi non ha avuto Un grande successo In pratica Una vasta raccolta Di dati Tratti dalle biografie Di uomini Di donne Particolarmente famosi E notevoli Al fine di verificare Se le loro qualità Mentali Eminenti Fossero poi condivise O meno Dai parenti Più o meno stretti Figli Cugini E così via Torturò Con i suoi questionari Anche 200 autorevoli membri Della Royal Society Inglese Non ne ricavò molto E comunque Non poteva verificarlo In famiglia Perché non ebbe mai Figli Secondo lui Il genio Tra l'altro È per forza Ossessivo E tra genio e follia Il confine È labile Lui pensava Tra l'altro Era una teoria Questa anche di Lombroso Negli stessi anni In Italia Galton era convinto Che la personalità geniale Emergesse anche dal linguaggio Che usava In particolare Dal lessico E cercò di inventare Anche qui Delle tecniche Per identificare Il genio Da come parla Nel 1869 Pubblica Un libro Che divenne molto famoso Intitolato proprio Genio ereditario Dove si interrogava Anche sui rapporti Tra innato e acquisito Cioè tra ciò che è ereditario E ciò che è frutto Dell'esperienza In inglese si dice Tra nature E nurture Che è un'espressione famosissima Che venne proprio Cognata e inventata Da lui Oggi diremmo La questione E capire se le nostre Differenze individuali Sono dovute più All'ereditarietà familiare O più all'esperienza All'educazione O che ne so Alla famiglia Le nostre esperienze sociali Ebbe un'altra idea Abbastanza geniale E molto anticipatrice E si mise a studiare I gemelli Cioè in pratica Cercò di capire Se prendendo due gemelli Identici Alla nascita Questi poi divergono Diventano diversi A causa delle esperienze Dell'ambiente O viceversa Prendeva gemelli Che alla nascita Erano abbastanza diversi E vedeva Se finivano poi Per assomigliarsi Crescendo Nello stesso contesto Familiare e sociale Nel 75 Pubblica proprio Un articolo pionieristico Dal titolo La storia Dei gemelli Che prelude Agli studi attuali Di genetica Del comportamento Che ancora oggi Ricorrono estesamente Proprio a indagini Sui gemelli omozigoti In particolare Per capire Quanto di genetico Ci sia Nelle nostre attitudini E nelle nostre propensioni Galton aveva un'idea Molto chiara Secondo lui Contava molto di più L'eredità Rispetto all'ambiente Noi oggi invece Sappiamo che è un intreccio Inestricabile E molto difficile Da quantificare Quindi bisogna diffidare Quando ci dicono Questa caratteristica È al 40% ambientale Al 60% genetica Galton Insieme al suo fidato Aiutante Si chiama James Cattle Quando ormai Era abbastanza anziano Nel 1884 Approfittando Dell'esposizione mondiale Di Londra Sulla salute Fondò un laboratorio Di antropometria In pratica La scienza Che studia Che misura Le caratteristiche umane Che venne ospitato Dentro il Science Museum Di Londra A South Kensington Anche questa è una novità Un laboratorio Di ricerca Dentro un museo Per misurare Letteralmente I visitatori In lungo e largo Altezza Peso Vista Erano visitatori Consenzienti Un pochino retribuiti Anche Che facevano le cavie A questo insaziabile Scienziato Che misurava Letteralmente tutto Al termine del giro Di misurazioni Ai visitatori Veniva rilasciato Un documento Riassuntivo Con tutti i loro dati Antropometrici Raccolse quasi 10.000 soggetti In pratica Inaugurando Le ricerche statistiche Ah ma hai sentito Parlare di eugenetica Quel programma Che prevedeva Anche la sterilizzazione Sì Certo Sì E mi dica Lei che cosa sa Al riguardo Ah non glielo so No Allora non lo sa Di preciso No Eugenetica E che cos'è E' questa la domanda Su Francis Galton Pesa la fama sinistra Di essere stato L'inventore Dell'eugenetica O eugenica Come si diceva Nell'ottocento In effetti Lui coniò Proprio il termine Eugenica Nel 1883 E ne fondò Le basi concettuali In pratica Provare a migliorare Biologicamente L'umanità Nelle sue Investigazioni Sulla facoltà umana E sul suo sviluppo Questo è il titolo Del suo lavoro Lui propose Un programma sociale Di marcatura familiare Un po' come I certificati Prematrimoniali Che si useranno Poi nel novecento Un sistema Che potesse Favorire matrimoni Innanzitutto Precoci Cioè tra coppie Giovani Lui diceva E poi se possibile Tra individui Ben dotati Fisicamente E mentalmente Anche attraverso Incentivi Economici E tutto Per favorire La diffusione Di buone Varianti umane E la salute Media Della società L'obiettivo Era chiaro Nei suoi testi Era quello Di correggere Le imperfezioni umane Sia nel corso Dello sviluppo Per esempio Lui lavorò molto Sulla vista Nei bambini E come curare I difetti Di vista Nel corso Della crescita Sia però Anche preventivamente Cioè attraverso Un orientamento Della riproduzione Della maternità Era l'idea Che si potesse In qualche modo Ridirigere L'evoluzione Umana Attraverso Degli incentivi E dei disincentivi A fare Figli Una sorta Di selezione Artificiale Applicata Alle società Umane Era un'idea Noi lo sappiamo Pericolosissima Da qui però A dire Come è stato fatto Più volte Che Francis Galton Fu un precursore Addirittura Del nazismo Ne passa Secondo gli storici E questo perché L'eugenica Ebbe tantissime varianti Nei decenni successivi Ci furono Eugeniche di stato Fortemente coercitive Che fecero ricorso Per esempio Alle sterilizzazioni Oppure non coercitive Ci furono delle eugeniche Razziste Che furono doppiamente Orribili Ovviamente Ma anche Di stampo comunista Socialista Liberale Eugeniche protestanti E cattoliche Un po' di tutti i tipi L'eugenica Fu praticata In molte nazioni Con orientamenti Politici diversissimi Non soltanto La Germania nazista Ma anche gli Stati Uniti La Svezia E anche dopo La fine Della seconda guerra mondiale Quella ottocentesca Di Galton Era precisa Era un'eugenica Ottimista Modernizzatrice Nei suoi intenti Molto tecnocratica Naturalmente Di tipo non coercitivo E ad effetto lento Anche se ovviamente Era intrisa Di tutti i pregiudizi Di classe Vittoriani Secondo lui Bisognava Sostanzialmente Accrescere Piano piano Progressivamente L'apporto riproduttivo Dei più meritevoli Ingenua E per noi Discutibile Visione Naturalmente Sulla quale Peraltro Anche il cugino Darwin aveva dei dubbi Perché Darwin per esempio Riteneva difficile In ogni caso Dirigere l'evoluzione E poi Secondo Darwin Sfavorire La riproduzione Dei più deboli Era contrario Alla parte più nobile Della natura umana Che era la solidarietà Darwin ammetteva Al massimo I controlli sanitari Prematrimoniali Per alcuni Soggetti E il disincentivo Ai matrimoni Tra consanguinei E soprattutto Secondo Darwin L'educazione Familiare Le idee di Galton E a maggior ragione Quelle di Darwin Sono obiettivamente Quindi poco imparentate Con gli orrori Dell'eugenica Del Terzo Reich Solo chi è forte E si adatta Ha diritto Di sopravvivere Il Führer In persona Ordinò che il filmato Venisse proiettato Nelle 5300 sale Cinematografiche Della Germania nazista Così la propaganda Cominciava ad arrivare Anche all'uomo Della strada Ecco il testo originale Del documentario Tutto ciò Che è troppo debole Per sopravvivere Verrà inevitabilmente Distrutto Dalla natura Negli ultimi decenni L'umanità Ha peccato Orribilmente Contro la legge Della selezione naturale Non solo Abbiamo risparmiato Vite Indegne Della vita Ma abbiamo Anche permesso Loro di moltiplicarsi Ecco i discendenti Di questa generazione Tarata Grazie ai farmaci Nei manicomi Sopravvivono Intere famiglie I costi necessari Per curare I figli malati Di questo solo gruppo Sono stati Finora 154 mila marchi Quante case Per gente sana Ci sarebbero potute Costruire Con questa somma La Eugenic Education Society Inglese Venne fondata Nel 1909 E Galton Ne fu Il primo presidente Anzi Presidente onorario Scrisse L'editoriale Il primo numero Della rivista Della rivista Di Eugenica Internazionale Il primo congresso mondiale Si tenne Proprio a Londra Nel 1912 E in platea C'era un signore Di nome Winston Churchill Ma Galton Era morto L'anno prima Negli ultimi mesi di vita Stava lavorando A una novella Piuttosto licenziosa A dir la verità In cui immaginava Una società utopica Ma per la nostra sensibilità Di oggi Direi abbastanza Distopica In cui una religione Eugenitica Selezionava Gli incroci Tra gli esseri Umani Galton Fu un massone Fin dal 1844 Di orientamento liberale Progressista In politica E la sua casa Poi alla fine Fu sempre La Royal Geographical Society La sua prima Passione Con quella sua faccia Austera E al contempo Molto ironica Incorniciata Tra due lunghi Basettoni E due foltissime Sopracciglia Galton fu per 40 anni Anche l'anima E l'ispiratore Della British Association For the Advancement Of Science Cioè l'associazione Per lo sviluppo Della scienza Britannica Disse per 43 anni Con la stessa donna Luisa Jane Butter Senza avere figli Nel 1908 Vince meritatamente La prestigiosa Medaglia Darwin Wallace Medaglia Data al nome Di suo cugino Nel 1909 Il re Edoardo VII Lo fece Baronetto Ma lo chiameranno Sir Francis Galton Soltanto per due anni Il 17 gennaio Del 1911 Infatti Muore Questo campione Dell'aristocrazia Vittoriana Colui che fu Ben più Che il cugino Di Darwin Nelle elezioni Presidenziali Statunitensi Capita quasi sempre Che vi sia Qualche candidato Creazionista Cioè che non accetta La realtà Dell'evoluzione E ritiene Che la specie umana Si è stata creata In tempi Diciamo Recenti Come è scritto Nei testi sacri Ovviamente Lo dice Noi lo sappiamo Perché sa Che una fetta Consistente Dell'elettorato In quel paese È di questo Orientamento Il movimento Creazionista Negli Stati Uniti Viene da una storia Secolare Nel senso Che sta per compiere Un secolo Avendo avuto Un suo momento Di fondazione Almeno simbolica Nel 1925 In Tennessee Nel luglio Di quell'anno Si celebrò Un processo Spettacolare E diciamo pure Anche Spettacolarizzato Da una parte Lo Stato Del Tennessee E dall'altra Un giovane Insegnante Di liceo Aveva solo 24 anni In realtà Era un supplente Si chiamava John Thomas Scopes Reo di avere Insegnato La teoria Dell'evoluzione A scuola Nelle ore Di scienze Così facendo Aveva violato Una legge Dello Stato Che era stata Appena promulgata Nel marzo Di quello stesso anno Il Tennessee Butler Act Che proibiva L'insegnamento Dell'evoluzione Umana In particolare Nelle scuole pubbliche Dello Stato Sottolineo pubbliche Perché in quelle private Invece per tradizione Da sempre Negli Stati Uniti Vige Un'autonomia Sostanziale Di insegnamento Quindi Non si poteva Spiegare agli studenti Delle scuole pubbliche Che gli esseri umani Si erano evoluti Per mutazione E selezione Come tutti gli altri animali E che erano in effetti Cugini Di tutti gli altri animali In particolare Cugini stretti Delle grandi scimmie Tipo scimpanzè E gorilla E questo appunto Era L'oggetto Dello scandalo Nel 1925 Tuttavia Sotto la pressione Dei fondamentalisti cristiani Il Tennessee Diviene il primo Stato americano A mettere fuori legge L'insegnamento Della teoria Dell'evoluzione Secondo la nuova normativa Un insegnante Della scuola pubblica Commette un reato Propaga qualsiasi teoria In contraddizione Con la creazione divina Dell'uomo Così come tramandata Dalla Bibbia E se al contrario Insegna che l'uomo È disceso Da un ordine inferiore Di animali Palcoscenico del processo Divenuto poi noto Come processo Delle scimmie O monkey trial Fu la piccola cittadina Di Dayton Che mai più Va detto In seguito Avrebbe avuto Così tanto clamore Di stampa E di attenzione Con cronisti Che arrivarono Dalle maggiori testate Nazionali Non si sa bene Che cosa Il professor Scopes Avesse raccontato In classe Ma fu lui stesso Ad autodenunciarsi Su suggerimento Dell'Unione Americana Per le libertà civili Per sfidare Questa nuova legge Che riteneva Ingiusta E lesiva Della libertà Di insegnamento Della scienza Scopes Scopes Chiese A tre studenti Di testimoniare Contro di lui E di confermare Che aveva spiegato In classe Il capitolo Del manuale Di biologia Dove si parlava Di evoluzione Quindi Si trattò Di una Messa in scena Evidente Tant'è che Il giudice Abboccò Benché perplesso Poi lo incriminò E formalmente Lo dichiarò In arresto Anche se Scopes Non fu mai detenuto Per un reato Diciamo così Lieve La cauzione Gli fu pagata All'inizio Dal proprietario Di un importante giornale Il Baltimore Sun Il processo Fece notizia Per il contenuto In sé Cioè Il conflitto Tra scienza E fede Ma soprattutto Perché All'accusa E alla difesa Accorsero Due giganti Delle battaglie Legali Dell'epoca Da una parte All'accusa Un politico Di lungo corso Si chiamava William Jennings Bryan Per tre volte Candidato Alla presidenza Degli Stati Uniti Alla difesa Invece Il principe Del foro Clarence Darrow Si preannunciarono Così scontri Memorabili E in effetti Così avvenne Tra arringhe E contrarringhe Per diversi giorni Seguite In diretta Radiofonica Nazionale Dopo una settimana C'era così caldo E una tale calca Di pubblico Che il presidente Della seduta Spostò il processo All'esterno Insomma Fu un evento Ben preparato In ogni dettaglio Oggi diremmo Un circo Mediatico Situazione Che lo stesso Derrow Peralto temeva Ma che alla fine Accettò Il tema Era chiaro Possiamo rendere Illegale L'atto Di insegnare A scuola Che la specie Umana Discende Da forme Animali A quel tempo Definite Inferiori Eravamo Eravamo Nell'America Puritana Alle soglie Della grande Depressione Del 29 Il processo Scopes Ebbe un'eco Mediatica Sproporzionata Rispetto O quantomeno Alla sostanza Legale Della questione Il New York Times Lo raccontò In prima pagina Per giorni Tutti i giornali Pubblicavano Cronache E vignette Satiriche Sull'evento Ancora oggi Nell'edificio storico Restaurato Dove si tende Il processo C'è un piccolo museo Con i memorabilia Potremmo dire Di quell'evento Fetici Come i microfoni Usati E così via E ogni anno Dal 10 Al 21 Luglio Viene fatta Una rievocazione Del processo No signore Il processo Fu raccontato Anche in un celebre Film Che si intitola Inery the Wind Del 1960 Con la regia Di Stanley Kramer E con lo splendido Va detto Spencer Tracy Nei panni Dell'agnostico E caustico Avvocato Della difesa Clarence Darrow E poi c'è Friedrich March Invece In quelli Nei panni Di William Janice Bryan Dell'accusa Gli sceneggiatori Qualche anno prima Concepirono il film In chiave Antimaccartista E in difesa Della libertà Di espressione E di insegnamento Prendendosi Peraltro Molte libertà Interpretative Che poi Che poi in parte Furono corrette Dal regista Kramer Con il risultato Però Paradossale Che molti In seguito Presero Quel film Come una ricostruzione Storica Fedele Di quanto Accaduto E non Invece Come un'interpretazione Abbastanza Romanzata Ci furono Poi anche Versioni Televisive Con attori Di grande calibro Come Kirk Douglas Jack Lemmon Ci furono Pies teatrali Altri film Un po' più aderenti Alla realtà storica Brani musicali Persino Bruce Springsteen Ne parla In un brano Poi ci furono Musical Insomma Il processo Divenne un archetipo Culturale In un paese Gli Stati Uniti Che vive da sempre Questa sorta Di schizofrenia È la nazione In cui Si conduce Nei laboratori Nei musei La migliore Ricerca scientifica In campo evoluzionistico Ed è allo stesso tempo Il paese In cui ancora oggi Una maggioranza Relativa Importante Dei cittadini Non crede Alla realtà Dell'evoluzione Il creazionismo Che è alla base Del dibattito Che ci fu Nel processo Scopes Del 25 Adesso è un movimento Globale Internazionale È molto forte Nelle sette fondamentaliste Protestanti In America Latina Per esempio Ma anche in Turchia In alcuni paesi Islamici Esiste anche in paesi Di religione ortodossa Ma è un fenomeno Culturale E religioso Tipicamente Nordamericano Quando Charles Darwin Pubblicò L'origine delle specie Nel 1859 E poi L'origine dell'uomo Nel 1871 Ebbe naturalmente Reazioni negative Anche molto forti Da parte di esponenti Della chiesa anglicana Oltre che Dell'establishment Scientifico britannico Dell'epoca Che aderiva Alla cosiddetta Teologia naturale Quindi alla visione Secondo cui La diversità E gli adattamenti Delle piante Degli animali Erano la prova Diretta Di un disegno Divino E di una creazione In realtà Di evoluzione Si parlava già Ai tempi di Darwin Anche prima Della pubblicazione Di quelle opere E ben presto L'idea Dell'albero della vita E della parentela Di tutti gli esseri viventi Fu accettata Nella cultura inglese Basti pensare Che Darwin Alla sua morte Nel 1882 Viene sepolto Senza alcun dubbio E senza nemmeno Troppe contestazioni Nel tempio sommo Della chiesa anglicana Cioè la cattedrale Di Westminster A pochi passi Da Isaac Newton Negli Stati Uniti La storia invece È diversa Perché in quegli stati Soprattutto del sud Fortemente legati Alla religiosità sociale Comunitaria Dei padri fondatori Proprio tra la fine Dell'ottocento E i primi decenni Del novecento Le sette protestanti Battiste In particolare Presero Una deriva Cosiddetta Fondamentalista Cioè Di interpretazione Letterale E dogmatica Del testo biblico Quelli Ricordiamolo Erano anche Gli anni In cui Il Ku Klux Klan Imperversava Soprattutto Negli stati Del sud La scienza Ai primi del novecento Aveva ormai Smesso di essere Come in passato Una cultura Di elite Nella nuova Società Dei consumi Di quegli anni Stava diventando Una cultura Di massa E lo scienziato Ricopriva Una posizione Di prestigio In grado Di insidiare Anche il primato Dei sacerdoti Della religione Avvertendo Anche forse Questa minaccia Incombente Le schiere Più fondamentaliste Della chiesa protestante Avevano quindi Iniziato A prendere di mira In particolare La teoria Dell'evoluzione Perché parlava Proprio Del posto Dell'uomo Il nostro Posto Nella natura E nel cosmo Ho sottolineato Due volte La parola Fondamentalista Perché Questa cosa Non la si ricorda mai Ma Nacque proprio Questo termine Nel contesto Del creazionismo americano Oggi È un termine Tristemente noto A tutti Per via delle tragedie Dovute Agli estremismi E ai fondamentalismi Appunto religiosi Di varia matrice Ma la sua origine Letterale Storica È proprio legata Al processo Scopes Del 1925 E alla temperie Culturale Di quegli anni Quel John Butler Che aveva dato il nome Alla legge Del Tennessee Contro cui Scopes Si era ribellato Era un allevatore Conservatore Del Tennessee A capo di un'associazione Che si chiama In quel processo Si affrontarono Proprio da una parte La posizione fondamentalista All'accusa Cioè l'idea Che in caso di conflitto Tra la scienza E il testo sacro Debba prevalere E imporsi Sempre il secondo Cioè il testo sacro E dall'altra invece La posizione Che si definisce Compatibilista O potremmo dire Modernista Cioè l'idea Che sia possibile Invece trovare Un compromesso Tra gli avanzamenti Della scienza E le credenze religiose Una tesi teistica Sostenuta Anche da autorità religiose A quel tempo E da molti scienziati E dallo stesso avvocato Difensore di Scopes Clarence Darrow La Bibbia insomma Non è da intendersi Secondo questi ultimi Come una fonte storica E scientifica Da prendere alla lettera Un'altra linea Della difesa Di Scopes Fu la cosiddetta Teoria del doppio magistero Che poi verrà sostenuta Anche da illustri evoluzionisti Come per esempio Stephen Jay Gould E cioè l'idea Che la Bibbia E la scienza Sono due magisteri Non sovrapponibili Fanno due mestieri diversi Visto che la prima Si occupa di teologia E di morale Mentre la seconda La scienza Dei fenomeni naturali Si noti Un dettaglio interessante Del processo Scopes Il Tennessee Butler Act Vietava l'insegnamento Nelle scuole pubbliche Non dell'evoluzione In generale Ma delle evoluzioni Un'evoluzione umana Cioè delle origini Della specie umana All'interno Della discendenza Dei primati Ritenuta Diforme Dal racconto biblico Legge peraltro Ricordiamolo Che fu abrogata In quello stato Soltanto nel 1967 Cioè più di 40 anni dopo Agli effetti di legge Vietava l'insegnamento Dell'evoluzione Comunque ovviamente Però offriva Diciamo una scappatoia E la distinzione Comunque rilevante Perché già al tempo Di Darwin Il problema Era proprio quello Nel senso che Molti accettavano L'evoluzione Interamente naturale Delle piante Degli animali Ma con l'eccezione Dell'uomo Guarda caso Si definisce appunto Questo approccio Eccezionalismo Come se Homo sapiens Fosse un caso a parte In natura E non pensiamo Che fosse una posizione Strana O minoritaria Perché Ha pensato questo A lungo Il maestro stesso Di Darwin Quel Charles Lyle Che fu Uno dei padri fondatori Della geologia moderna Ma lo pensava anche Il co-scopritore Della selezione naturale Alfred Russell Wallace Che pensava che L'evoluzione Avesse riguardato Tutte le forme di vita E anche l'uomo Ma non L'intelligenza E la coscienza Umana Quindi un'eccezione L'aula era gremita Non c'erano posti A sufficienza E la gente Era assiepata Alla meno peggio Davanti al banco Dei testimoni Erano state sistemate Delle panche Per cui Noi trovamo posto Proprio davanti A Darrow e Brian E così Io potei seguire Tutto da molto vicino Darrow Comincia con Una semplice domanda Lei ha dedicato Molto tempo Allo studio Della Bibbia Non è vero Signor Brian? Sì signore O almeno Ci ho provato Lei pensa Che tutto quanto È scritto Nella Bibbia Debba essere Interpretato Alla lettera? Alcune parti Devono essere Prese alla lettera Altre In forma simbolica William Jennings Brian Stava seduto E teneva in mano Un piccolo Ventaglio E un fazzoletto Darrow Era invece In maniche Di camicia E indossava Le sue bretelle Rosse Gli si parò davanti Tirò le bretelle E le lasciò E poi disse Ma lei pensa Davvero Che una balena Possa aver ingoiato Il profeta Jonah E Brian Sì ci credo Così come credo In Dio Che può creare Una balena E un uomo E che è in grado Di fare Tutto ciò che vuole Un secondo dettaglio Un secondo dettaglio Molto interessante Del processo Scopes E che l'accusatore Brian Era stato Come abbiamo detto Tre volte candidato Alla presidenza Degli Stati Uniti Era stato anche Segretario di Stato Insomma Era un pezzo grosso Ma non Per i repubblicani E i conservatori Come ci aspetteremmo Bensì Per i democratici Com'è possibile Questa Questa situazione Beh si spiega Perché a quel tempo I progressisti Anche statunitensi Temevano molto La diffusione Di idee ispirate Al cosiddetto Darwinismo sociale Herbert Spencer Che era stato Il propugnatore Di questa Presunta E molto discutibile Applicazione Della teoria Dell'evoluzione Alle società umane Per cui si sarebbe Dovuto lasciare Lui diceva Libero spazio Alla spietata Competizione Senza lacce E lacciuoli Perché così facendo Il mercato La società Si rafforza Sopravvivono I più forti I più deboli Vengono eliminati Naturalmente Insomma Ecco Spencer Nel 1882 Aveva fatto Una tournée Trionfale Negli Stati Uniti Erano andati A sentirlo In tantissimi Tra quali Estasiati Anche i grandi magnati Dell'industria americana I Carnegie Per intenderci Che ne avevano fatto Il loro idolo Culturale Quindi andavano Per la maggiore A quel tempo Queste idee Oggi diremmo Neoliberiste Estreme Che si pensava Fossero ispirate A Darwin In realtà Il darwinismo sociale Di Darwin Era molto più moderato Filantropico Antischiavista Quindi bisognerebbe Fare molte differenze Ci sono state poi Molte forme Di darwinismo sociale E quasi nessuna Era davvero Un'applicazione Delle idee Di darwin Quasi tutte Lo strumentalizzavano Per finalità Che erano del tutto Estranee Alla teoria Dell'evoluzione Che ricordiamolo Deve spiegare Una cosa precisa Cioè come gli organismi Si adattano All'ambiente Come le specie Nascono e cambiano Nel corso del tempo Essendo tutte Imparentate E bisogna essere Molto cauti Nell'estendere poi Queste idee Biologiche Al di fuori Della biologia Al contesto sociale Morale Culturale Umano Comunque sia Brian Che era presbiteriano Molto devoto Odiava Il darwinismo sociale E l'eugenitica Lo combatteva E lo faceva Da democratico Da progressista E pensava Erroneamente Che si dovesse Respingere quindi La teoria Dell'evoluzione In quanto tale Perché avrebbe Dato la La stura Il via A queste idee Brutali Di discriminazione Nella società Lui accusava La scienza Di essere Una forza Sì potente Ma al servizio Anche o prevalentemente Della guerra E della devastazione Ricordiamo Che la prima guerra mondiale Era finita Pochi anni prima E che i razzisti Nazionalisti Riprendevano proprio Le idee Del darwinismo sociale Più grezzo Così Brian si era fatto L'idea Che la teoria darwiniana Che lui definiva Un'ipotesi Senza prove Avrebbe avuto Un'influenza Nefasta E velenosa Sulla buona società Sui valori americani E sulla morale Della famiglia Tradizionale Noi oggi sappiamo Che aveva torto Ovviamente Nel merito Però possiamo Quanto meno Capire le sue posizioni E dire che Tutto sommato Aveva delle buone Intenzioni Almeno sul piano Della giustizia sociale E della lotta Contro le interpretazioni Sociologiche Improprie Del darwinismo Tom Stewart Prova disperatamente A interrompere L'interrogatorio Ma Darrow Non molla Signor Brian Pensa che la terra Sia stata creata In sei giorni? No signore Non in sei giorni Da 24 ore Quindi La creazione Potrebbe essere continuata Per un tempo Molto lungo? Sì signor Darrow Potrebbe essere andata avanti Per milioni di anni E alla fine Brian disse Non fa alcuna differenza Per noi Se Dio ha creato Il mondo In sei giorni Sei anni Sei milioni di anni O perfino 600 milioni di anni Ma in questo modo Brian fece il gioco Della difesa Perché Darrow Disse subito Ok E allora Se lei può interpretare Questa parte della Bibbia Perché noi non dovremmo Poter interpretare La storia Della creazione Dell'uomo In senso evoluzionistico A questo punto L'imputato È una figura Del tutto marginale Quasi dimenticata John Scopes Siede al suo posto Intento a scrivere Un articolo Per un giornalista Che ha lasciato la città Scopes è convinto Che Darrow Si stia prendendo Gioco di Brian E intanto Il pubblico Si fa sempre più impaziente Darrow Continuava A incalzare Brian Io avrei voluto Alzarmi Dal mio posto E andare a prenderlo A calci E credo Ci fosse un mucchio Di altra gente Che avrebbe voluto Tappargli la bocca Il fatto è che Darrow Attaccava la Bibbia Alla fine Alla fine Il giudice Gli disse Avvocato Cosa vuole dimostrare Sta tormentando Il suo testimone Ma quello che gli sta chiedendo Non ha niente a che fare Con l'argomento Di questo processo Ma come andò a finire Poi Il processo Scopes Alla fine Nemmeno un avvocato Di grido Come Clarence Darrow Riuscì a smuovere Un giudice Presidente Una giuria Che fin dall'inizio Di la verità Si erano mostrati Abbastanza a favore Della colpevolezza Perché pensavano Insomma C'è una legge Per quanto discutibile Scopes L'ha infranta E punto Così John Thomas Scopes Dopo soli Otto giorni Di infuocato Di battimento Senza peraltro Aver mai preso La parola Fu riconosciuto colpevole E si prese una multa Di 100 dollari Dell'epoca Che Presso a poco Sono 1000 euro Di oggi Anche se poi Il verdetto Fu peraltro Contestato Per vizi di forma E la multa Fu sospesa L'accusatore Brian Morì Cinque giorni dopo La fine del processo Chissà se per lo stress Del dibattimento O per il dispiacere Di vedere Tutte quelle vignette Satiriche Che lo svillaneggiavano Su molti giornali Dell'epoca Dipingendolo Come un bigotto Abbastanza ridicolo Dopo il processo Altri stati Nordamericani Come il Mississippi E l'Arkansas Introdussero leggi Contro l'insegnamento Dell'evoluzione Quindi fu Una sconfitta Poi anche Potremmo dire Di lungo periodo Culturale Ma i progressi Della scienza Chiaro Sono difficili Da arginare E nei decenni successivi Le prove Fossili Ma soprattutto Direi Quelle genetiche Molecolari Dell'evoluzione Divennero Sempre più schiaccianti Il creazionismo Il creazionismo Ebbe un'evoluzione Dividendosi Tra i letteralisti Fondamentalisti Tipo Brian Da una parte Che peraltro Sono ancora esistenti Ancora oggi Basti pensare Che oggi Esistono persino I terrapiattisti E dall'altra I sostenitori Invece Di un'altra Versione Del creazionismo La dottrina Religiosa Del cosiddetto Disegno Intelligente Che è un po' Più raffinata Perché loro Accettano il fatto Dell'evoluzione L'albero della vita Ma negano Che la causa Di tutto questo La causa Dell'evoluzione Sia il processo Di variazione E selezione Cioè un processo Naturale Statistico Meccanico E ritengono invece Che vi sia all'opera Un progettista Intelligente Non ben definito Ma chiaramente Sovrannaturale Che avrebbe creato E architettato Il mondo E l'evoluzione La loro richiesta Dagli anni Ottanta Del novecento Quindi ci avviciniamo Molto all'oggi E che nelle ore di scienze Si insegnano Le due scuole Di pensiero L'evoluzione Darwiniana Da una parte E il disegno Intelligenze Dall'altra Il che ovviamente È improponibile Visto che la prima È un programma Di ricerca scientifico Corroborato Oltre ogni ragionevole Dubbio Mentre l'intelligent design È una dottrina Religiosa O filosofica E come tale Va insegnata Se vogliamo Non a scienze Ma semmai Nell'ora Di religione O di filosofia Questa distinzione Fu operata Anche in molti stati Americani Distinguere bene I magisteri Ma le controversie Non finirono mai In realtà E sfociarono In altri processi Quindi Il processo Scopes Fu in realtà Il primo Di una lunga serie Per esempio Nel 1999 La commissione Che nel Kansas Definisce Le linee guida Dell'educazione Scolastica Decise Di censurare Darwin Dai libri Di testo Come succederà Peraltro Anche in Italia Sei anni dopo Nel 2005 Proprio alla fine Di quell'anno Il 2005 Dopo che il presidente George W. Bush Aveva speso parole In favore Dell'insegnamento Della teoria Del disegno intelligente Al termine Di un lungo processo Che era durato Settimane A Dover Un'altra piccola cittadina Questa volta In Pennsylvania Il giudice Un certo John Jones III Tra l'altro Un repubblicano Conservatore Sancì Definitivamente Il carattere Non scientifico Dell'intelligent design Quindi Una sentenza Di segno Opposto A quella Del 1925 A Dayton In Tennessee In quel caso I creazionisti Del disegno intelligente Chiedevano Che le loro idee Fossero insegnate Nelle ore di scienze Accanto alla teoria Dell'evoluzione Per Si diceva Pari opportunità Tra scuole di pensiero Altrettanto scientifiche Il giudice In risposta Bocciando questa richiesta Scrisse Una sentenza memorabile Ispirata Al primo emendamento Della costituzione americana Che nell'incipit Recita così Il congresso Non potrà fare Alcuna legge Per il riconoscimento Di qualsiasi religione O per proibirne Il libero culto Poiché Quindi L'intelligent design È una particolare Forma di cristianesimo Scrisse Il giudice Non lo si può imporre A scuola Nelle ore di scienze Perché sarebbe Incostituzionale E così Si è conclusa Per ora Diciamo Con un segno opposto La lunga storia Dei processi A Darwin Iniziati proprio In quel caldo E soffocante Luglio Del 1925 A Dayton Processi Che negli Stati Uniti Hanno visto L'una contro l'altra Armati Il fondamentalismo Religioso Da una parte E la libertà Della ricerca scientifica E del suo insegnamento Dall'altra La picora Dolly Cominciò la sua esistenza In una provetta Quando il suo sviluppo Normale Fu confermato Dopo circa Sei giorni Il suo embrione Fu trasferito Nell'utero Di una madre surrogata Dopo 45 giorni Di gestazione La gravidanza Fu confermata Dall'ecografia Stava andando tutto bene Fu controllata Giorno per giorno Per altri Cento giorni Circa E la nascita Avvenne ufficialmente Il 5 di luglio Del 1996 Un evento Per la scienza Storico I ricercatori Al Roslyn Institute Di Edimburgo In Scozia Erano naturalmente Emozionati Un po' perché Capivano Che cominciava Una nuova era Della biologia E un po' perché Ci avevano provato Altre centinaia di volte Prima Senza riuscirci Ma che cosa era nato Era nato Un agnellino Senza problemi Neonatali Particolari Un agnellino femmina Che si alzò in piedi E si mise a succhiare Il latte Dalla mamma Normalmente La mamma Non era proprio normale Perché era una mamma Affittata E questo perché L'agnellino Che fu battezzato Dolly In onore Dell'attrice Dolly Parton In particolare Secondo lo scopritore In onore Del seno prosperoso Di questa attrice Perché La cellula Da cui era nata Dolly Era una cellula Mammaria Questo agnellino Era stato clonato Era cioè La coppia genetica Perfetta O quasi perfetta Di un'altra pecora Dalla quale Era stata prelevata La cellula Di partenza Appunto Dal seno La nascita di Dolly Fu tenuta nascosta Però fino alla pubblicazione Dei risultati Su La più importante Rivista scientifica Al mondo In modo da controllare E ricontrollare Bene Tutti I passaggi Quando non ci furono Più dubbi Fu dato l'annuncio Il 22 febbraio Del 1997 E lì cominciò Tutta un'altra storia Per Dolly Cioè L'assalto della stampa Questa piccola Pecora Che in pochi giorni Fece il giro del mondo Divenne una star Un fenomeno Globale Senza precedenti Per la scienza Venne Definita La scoperta dell'anno Ma addirittura Del decennio Del secolo Si sprecarono Le iperboli Un grande scienziato Come Stephen Jay Gould Disse che Dolly In quegli anni Fu il mammifero Più famoso del mondo Insieme a Michael Jordan E a Madonna Ma che cosa era successo Realmente Nella sostanza Si disse Che era il primo mammifero Clonato Ma in realtà Non era così Perché esistevano già Dei roditori clonati Anche dei bovini Oltre che le rane E altri anfibi Questa volta però Era cambiata la tecnica Perché si era partiti Per la prima volta Da una cellula Adulta E non da una cellula Embrionale Il procedimento È abbastanza semplice Anche se in realtà Comporta tantissime Difficoltà tecniche Si prende il nucleo Di una cellula Da una donatrice Nel caso di Dolly Una cellula Della mammella Della sua mamma Da cui è stata clonata E poi lo si impianta Nella cellula uovo Non ancora fecondata Di un'altra pecora Che viene privata Del suo nucleo originale Quest'altra pecora Deve appartenere Possibilmente A un altro ceppo Un'altra razza Così si capisce bene La differenza Il fatto interessante E rivoluzionario È che la cellula Impiantata Una cellula adulta Fu in grado Di attivare Da sola La cellula uovo In cui era stata messa Che iniziò A differenziarsi E a produrre Il processo di sviluppo Praticamente normale Così l'individuo Che ne derivò Aveva lo stesso Corredo genetico Della cellula Di partenza Era un clone La tecnica Si chiama Trasferimento nucleare Di una cellula Somatica Ed è stata poi Perfezionata Negli anni successivi E dimostra Che il differenziamento Delle cellule Non è irreversibile Come si era pensato Fino a quel momento In pratica Si scoprì Che l'orologio Delle cellule Poteva essere portato Indietro Per Dolly Furono necessari Molti tentativi falliti Per la precisione 277 E oggi Dopo un po' di anni La tecnica È molto più efficiente Anche se Resta sostanzialmente La stessa Però non funziona Altrettanto bene Con altri animali E non sappiamo ancora Esattamente perché Quando la clonazione Della pecora Dolly Fu annunciata La stampa mondiale Affluì Al Roslyn Istituto di Edimburgo Per intervistare I capi del progetto Cioè Ian Wilmot E Kate Campbell Tutti pensarono Che l'interesse giornalistico Sarebbe Scemato Di lì a poco Ma non fu Assolutamente così Dolly rimase Una star Per tutta la sua vita Tenuta d'occhio Giorno per giorno Dai paparazzi In ogni sua Mossa Per dimostrare Che poteva avere Una vita Completamente normale Dolly venne anche Fatta riprodurre E diede alla luce A sua volta Sei agnellini Il primo dei quali Bonnie nacque Nella primavera del 98 Seguito poi da due gemelli E da tre gemelli L'anno dopo Ancora Era la prima Discendenza ufficiale Di una pecora Clonata Naturalmente La notizia Scatenò Reazioni Di ogni tipo Dolly Aveva Sostanzialmente Tre mamme Una vera stranezza Aveva una mamma Che gli aveva dato Il DNA Una mamma Che gli aveva dato In affitto La cellula uovo E una mamma Che gli aveva dato L'utero E quindi poi La possibilità Di sviluppare La gravidanza Un individuo Con tre mamme Una vera stranezza Molti Posero dei dubbi Tecnici Sul procedimento Che poi però Furono superati Nei mesi E negli anni Successivi Si usarono Cellule adulte Anche di altro tipo E si vide Che il processo Funzionava Anche non soltanto Con cellule Mammarie Dolly È uno di quei casi In cui Una scoperta Scientifica Entra Immediatamente In risonanza Con l'immaginario Collettivo Perché Nella fantascienza Nei racconti Di tantissimi scrittori L'idea Della clonazione Aveva già fatto Il suo ingresso Da molto tempo Solo che Questa volta Veniva Vista Direttamente In laboratorio Con una coppia Pressoché identica A partire Da una cellula Adulta Di una mamma Questo scatenò Molte paure Di vario tipo La più diffusa È la paura Del cosiddetto Del piano inclinato Del vaso di Pandora Molti si chiesero Ma cominciamo Con Dolly E poi Dove finiremo A che cosa ci porteranno Queste nuove tecniche Un'altra paura È quella Ancora adesso Presente Dell'omogeneità Produrre schiere Di animali Tutti uguali È un po' inquietante Ma poi Noi sappiamo Soprattutto gli evoluzionisti Sanno Che non è una buona idea Come gli allevatori Sanno benissimo Avere una popolazione Biologica Troppo omogenea Vuol dire Avere individui Vulnerabili Perché un batterio Un virus Un qualsiasi agente patogeno Che colpisce uno Colpisce tutti Cioè si sviluppano Delle pandemie E questo perché La diversità Nella vita E nell'evoluzione È un'assicurazione Sul futuro Non bisogna essere Troppo omogenei Troppo uguali Gli uni agli altri Poi c'era la paura Che durante il processo Di clonaggio Come venne chiamato Si potesse alterare Il codice genetico E produrre animali Che erano sì clonati Ma anche geneticamente Modificati A nostro piacimento Il che era uno E rimane uno Degli obiettivi Di questa tecnica Avere degli animali Per esempio Che abbiano delle caratteristiche Utili per noi E naturalmente Molti dissero Beh qui gli scienziati Stanno giocando Con la vita Stanno giocando A fare Dio Anche se in realtà Se ci pensiamo bene Nella scienza Se non manipoliamo I sistemi viventi È molto difficile Conoscerli E lo facciamo Da tanto tempo Un'altra paura Un'altra paura Forse quella più nascosta Di tutti È che la clonazione Minacci le basi Della nostra individualità Se possiamo clonarci Che cosa siamo noi Che cos'è l'individuo E soprattutto La paura È che la clonazione Si possa prima o poi Applicare Non soltanto A una pecora Che già sono tutte Molto simili L'una all'altra Nel nostro immaginario Ma anche all'uomo Ora noi sappiamo Che la clonazione umana È bandita Totalmente Nel mondo In tutti i laboratori Perché pone problemi etici Insormontabili Ci vorrebbero tanti Tentativi falliti Pensiamo All'assurdità Del ruolo Delle madri surregate Nel caso umano E quindi Un freno morale E legislativo Ci fa capire Che il rapporto Costo-beneficio Nel caso Della clonazione umana Ci dice chiaramente Che sarebbe Un grande pasticcio Oltre che molto sbagliato E una vera follia Proseguire In quella direzione La pecora dolli Apparteneva A una razza Particolare Che si chiama Finn Dorsett I biologi Sanno Che questo tipo Di pecora Vive mediamente Undici Dodici anni Dolly Invece morì Dopo sei anni E mezzo Questo suscitò Molte perplessità Molti dubbi Come mai era vissuta Soltanto la metà Della vita normale Delle sue Colleghe Delle sue Sorelle Ci fu sempre Una grande attenzione Sulla salute Di Dolly Già a un anno Di vita Si diffuse Una notizia Inquietante Che in realtà Piacque molto A coloro Che erano stati scettici Fin da subito Sull'esperimento Si scoprì Che i telomeri Di Dolly Cioè le parti Terminali Dei cromosomi Che si accorciano Di un pochino Ad ogni divisione Delle cellule Erano più corti Di quanto lo sono Normalmente Nelle pecore Della stessa età Allora sorse il dubbio Forse Dolly Stava invecchiando Più rapidamente O forse addirittura Era già nata Più vecchia Delle altre Qualcuno pensò Che Dolly Fosse nata Con un'età biologica Di sei anni Che era L'età biologica Della pecora Che aveva donato La cellula iniziale In pratica Il suo orologio Era partito già A sei anni Un'idea molto suggestiva Eppure Dolly Non presentava Alcun segno fisiologico Di vecchiaia precoce Sembrava proprio Una pecora Come tutte le altre La supposizione Infatti Si rivelerà poi Errata Perché la lunghezza Dei telomeri Si ripristina Durante il processo Di clonazione Però i dubbi Continuarono Le voci Sulla cattiva salute Di Dolly Tornarono Alla ribalta Quando per esempio Nel 2001 Quando Dolly Aveva cinque anni Qualcuno la vide Camminare Con un po' Di difficoltà Le analisi Confermarono Che Dolly Soffriva di artrite E così Ripartirono Le teorie Sul suo Invecchiamento Precoce In realtà Poi La causa Specifica Dell'artrite Non venne Trovata E con dei normali Antinfiammatori Si risolse Il problema In realtà Le difficoltà Più gravi Subentrarono Dopo Quando Due altre Pecore Clonate Morirono In poco Tempo Per un Tumore Polmonare Di origine Virale Non curabile Purtroppo E si cominciò A temere Che anche Dolly Potesse essere Stata Infettata Allora In tutta Corsa Fu messa In isolamento Ma ormai Era già entrata In contatto Con gli altri Poi anche Suo figlio Uno dei figli Di Dolly Si ammalò Proprio Della stessa Malattia E a quel punto Fu certo Che anche lei Era stata esposta A questo Retrovirus Molto Cattivo I sospetti Si avverarono Però il 14 Febbraio Del 2003 Quando Dolly Manifestò Le prime Difficoltà Di respirazione Gli esami Confermarono La presenza Del tumore E i veterinari Decisero Di sopprimerla Con una dose Di anestetico Per evitarle Le sicure Sofferenze successive Per una malattia Che non aveva Cura Possibile In tutto questo tempo Continuarono Quindi a proliferare Le ipotesi Sulla clonazione Come vera Causa Di queste Malattie E qui Il dibattito Scientifico Ancora Permane Dolly Muore il 14 Febbraio 2003 Ma ancora oggi Non sappiamo Veramente Se la sua morte Sia legata o meno Al fatto che sia stata Clonata Non ci sono prove scientifiche Anche se la morte Di altri animali Clonati Negli anni successivi Ha portato Altri scienziati A pensare Che possano davvero Eserci dei difetti Nella crescita Forse dovuti Alle manipolazioni In vitro Oppure A dei difetti Nella riprogrammazione Cellulare Che è quel momento In cui il nucleo Messo dentro La cellula uovo Fa ripartire Il processo Di differenziazione Però Tutta questa attenzione Sulla morte di Dolly Le sue malattie È abbastanza significativa Perché è sintomatica Della paura Molto forte Che noi abbiamo Che il processo Di clonazione Porti con sé Dei difetti Nel trasferimento Dell'informazione Genetica E questo Si espande Diciamo All'idea Che queste tecniche Possano Andare fuori controllo Cioè che possano avere Degli effetti Collaterali Imprevisti Il che Non è del tutto escluso Perché Stiamo mettendo mano Una materia Quella del modo Con cui si differenziano Le cellule Sulla quale ancora Non sappiamo tutto E quindi È normale Che noi Si possa I licenziati Possano non conoscere Degli effetti Collaterali Di queste tecniche Nel 1996 Ci sono stati Molti dibattiti Attorno A questa Tecnica A questa Scoperta In realtà Poche volte Ci si è posti Forse la domanda Più importante Cioè Perché clonare Perché investire Così tanto denaro Per una tecnica Che porta a produrre Un individuo Uguale ad un altro Visto che ce l'abbiamo già Ora È bene ricordare Che la spinta economica Iniziale Alla clonazione È venuta Da esigenze Di produzione E di miglioramento Di animali Selezionati E geneticamente Modificati Per esempio Può essere molto Vantaggioso Avere un clone Di un campione Di cavallo Per esempio Come è già stato fatto Poi nei primi anni Del nuovo millennio Oppure Avere una clonazione Di un individuo Che poi però Viene modificato Geneticamente Ora Le conoscenze scientifiche Attuali Ci dicono Che i prodotti Che derivano Da questi animali Clonati Da quanto sappiamo Oggi Sono identici A quelli Degli animali Normali Non hanno Grandi differenze In compenso Questi animali Modificati Possono avere Caratteristiche Utili Perfini Medici Per esempio Arrosini Institut Edimburgo L'obiettivo L'obiettivo Era quello Di creare Mucche E ovini Capace di produrre Dei medicinali Nel loro latte Questa era Questa era la motivazione Economica Anche iniziale Tant'è che Il finanziamento Venne anche Da una società Privata E' però Importante ricordare Che la cronazione Di dolly Prima che essere Una tecnica Di successo E' stata una scoperta Scientifica Una scoperta Proprio di Ricerca pura Perché ha dimostrato Che le cellule Possono essere Riprogrammate Per funzionare Come un tipo Diverso di cellula Quindi che Le cellule sono Molto più plastiche Di quanto non ci si Aspettasse prima Questa scoperta Di dolly Ricordiamolo Ha dato quindi Un grande Slancio Un grande impulso Allo studio Delle cellule staminali Per esempio Che oggi E' una delle frontiere Fondamentali Della ricerca Biomedica Oggi gli scienziati Sono in grado Addirittura Di riprogrammare In laboratorio Le cellule Inducendo La staminalità Cioè la pluripotenza Cioè in pratica La capacità Di tornare A uno stadio Indifferenziato Tale da poter Essere poi Reindirizzato Per produrre I tipi di cellule Più diversi Di cui abbiamo Bisogno Anche per delle terapie Quindi Anche se dobbiamo Applicare tutte le Cautele del caso E ricordare Che la ricerca Scientifica In questi casi Ha bisogno Di tempi lunghi Purtroppo E' però sperabile Che queste tecniche Sulla base Di staminali Possano portarci Nei prossimi anni Alla scoperta Di nuove terapie Al momento Non disponibili C'è però C'è però un'altra Storia importante Legata a Dolly Forse Dolly È un paradosso Perché quando Dolly Venne clonata Erano gli anni Pieni di fervore Del progetto Genoma umano Per esempio C'era una grande Attenzione al genoma Come codice della vita Come alfabeto Della vita Un po' come se Il DNA fosse Un destino Già scritto O peggio Una condanna Nel caso di malattie Il DNA con Dolly Praticamente entrò Nelle case Di tutti In realtà Però proprio Il dibattito Che circondò Il caso di Dolly Ha mostrato Che il DNA Non è tutto E che l'ambiente Conta Per esempio Le manipolazioni Durante la procedura Di clonaggio O altri effetti Su come i geni Vengono espressi E regolati Sono molto importanti Oggi si parla Di sistemi di sviluppo E si è capito Che l'ambiente Cellulare Di sviluppo È almeno Altrettanto importante Del DNA E poi Ricordiamolo I cloni Esistevano già In natura Quando noi facciamo L'innesto di una pianta Oppure quando vediamo Il funzionamento Della riproduzione Di molte piante Quelli sono dei cloni A tutti gli effetti Però noi siamo animali E ci interessa di più Il mondo della vita Che abbiamo più vicino a noi Allora È bene ricordare Che i gemelli identici I gemelli omozigoti Sono più cloni Addirittura Di Dolly Perché sono dei cloni Vede e propri Con la stessa mamma Con lo stesso ambiente Di sviluppo Quindi la natura Con i gemelli omozigoti Ci fa già vedere Che esiste La clonazione Eppure Se ci fermiamo un momento E pensiamo Per esempio A dei gemelli omozigoti Che abbiamo conosciuto Nella nostra vita Se ci è capitato Tutti noi Non abbiamo dubbi Sul fatto Che quelle due persone Benché abbiano Lo stesso genoma Non sono Lo stesso individuo Non sono davvero Identici Perché hanno avuto Due storie diverse Perché la loro mente È stata plasmata Da esperienze Diverse Inevitabilmente E quindi Ciascuno di loro Ha una propria individualità Ha una propria storia Da questo punto di vista È bello sapere Che anche Dolly A guardar bene Non era Proprio identica Alla sua mamma La mamma Che aveva donato La cellula Perché i mitocondri Che sono una parte Importante della cellula Venivano Dall'altra mamma Quella che aveva dato La cellula Uovo Di partenza Quindi anche Dolly Benché a noi umani Le pecore Sembrino tutte uguali Anche Dolly Tutto sommato Aveva la sua identità E la sua personalità Un aspetto curioso Della storia Della pecora Dolly Riguarda il presente E forse Addirittura il futuro Perché Molti si sono chiesti Anche i scienziati Ricercatori Ma noi Potremmo clonare Non degli animali Viventi oggi Ma degli animali estinti Questa storia Ha riconquistato La ribalta Dei giornali Della stampa Perché nell'agosto Del 2013 Proprio Il padre Umano Ricercatore Di Dolly Cioè Ian Wilmot Ha annunciato Che nei prossimi anni Tenterà di clonare Un mammut Siberiano Estinto E questo è un grande Tema del futuro Ian Wilmot Però ha subito Messo le mani avanti Dicendo che lui Era sempre stato scettico Sulla possibilità Di realizzare Questa nuova impresa Di clonazione Che pure Fa parte Se ci pensiamo bene Del nostro immaginario Fantascientifico Pensiamo a quei film Dove vengono Riportati in vita I dinosauri Però è bene Precisare Che davvero Questa è un'impresa Ai limiti Dell'impossibile Perché il mammut È vero che è molto Ben conservato Ci sono dei cuccioli Che sono morti Seppelliti E poi congelati Molto rapidamente Quindi c'è la speranza Che si possano trovare Delle cellule Del midollo Per esempio Ancora in buone condizioni Però i problemi tecnici Sono tantissimi Bisogna trovare Una madre surrogata In questo caso Per esempio Nel caso del mammut Potrebbe essere Una elefantessa Oppure nel caso Della tigre Della Tasmania Che si è estinta Negli anni 30 Del secolo scorso Quindi da pochi decenni Trovare un altro Marsupiale Imparentato Però non è facile E in ogni caso Sarebbe comunque Una cellula Fatta nascere In una madre Di una specie Diversa Poi Probabilmente Il DNA contenuto In queste cellule Di questi animali estinti È molto rovinato È molto frammentato Quindi è molto discutibile Che possa partire La riprogrammazione Usando il genoma Contenuto In queste cellule E poi bisogna sempre Ricordarsi che il genoma Non basta Ma bisogna assemblarlo Nei cromosomi Bisogna metterlo Nel nucleo Di una cellula E questa cellula Poi in una cellula Uovo Sono tantissimi Passaggi E non è detto Che tecnicamente Sarà possibile E in ogni caso Sarà un ibrido Cioè non sarà davvero Un clone A tutti gli effetti Di un mammut Qualcuno però Si è posto La domanda più generale Ma perché Fare questa clonazione C'è una domanda Etica Generale È giusto Prendere un mammut E riportarlo Qui nel presente In un ambiente Molto diverso Da quello in cui è vissuto In cui si è estinto Oggi magari potrebbero esserci Degli agenti patogeni Che potrebbero ucciderlo subito Oppure diventerebbe Un fenomeno di baraccone Un business Per gli zoo Del futuro E poi non sarebbe E poi non sarebbe meglio Investire quei soldi Per prevenire L'estinzione Delle specie Piuttosto che ricorrere A queste tecniche Così costose Per riportare in vita Una specie Quando ormai È troppo tardi Ma queste saranno Le domande Che riguarderanno I prossimi anni Le prossime generazioni Oggi Dolly Giace in Balsamata Al Royal Museum Di Edimburgo Però non rappresenta Il passato Come un qualsiasi Altro animale estinto Perché Dolly È un mammifero Che ha cambiato La nostra storia Di specie E ci parla Del nostro presente E del nostro futuro